Un'astronave aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente, diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di Normalman. Normalman in La Scala del Vicino. Roma, ore 16 e 36. Il signor Ficini è nel suo giardino e sta salendo sulla scala per potare il suo limone. Quando a un certo punto la scala affonda nel terreno bagnato, il signor Ficini si aggrappa a un ramo e rimane in bilico tra l'albero e la scala. Pier Maria Carletti alias Normalman vede la scena dal suo appartamento che affaccia a pochi metri dal giardino del signor Ficini. La mia normal vista mi dice che al signor Ficini serve aiuto. Questo è un lavoro per Normalman. In meno di dieci minuti Pier Maria si cambia e diventa Normalman. Resista, signor Ficini. Ora le tengo la scala così potrà scendere. Non credo ai miei occhi, ma lei è Normalman. Sono io e sono qui per aiutarla. Ma mi raccomando, tenga bene la scala, ho una paura del diavolo. Stia tranquillo. Con la mia normal forza posso tenere ferma la scala senza problemi. Allora scendo. Scendo. Scenda pure. Mentre Normalman tiene la scala, il signor Ficini scende lentamente fino a toccare terra. Ce l'ho fatta. E mi raccomando, non usi mai la scala sul terreno bagnato. Grazie, te l'ho accorto del suo consiglio. Mi dia pure del tu. Addio. Addio Normalman. Eh, ma così non si capisce se è matato del tu. È vero. Addio a te Normalman. Addio. Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è Normalman. Greg e Lillo, Radio 2 e 610. Siamo qui con un ospite d'eccezione, anche se ormai è un abitueo dei nostri studi, Miss Italia. Eh, grazie. Siamo sempre contenti di averti qui con noi. Complimenti per tutte le cose che stai facendo. Eh, grazie, dai, diciamolo. Complimenti. Complimenti, complimenti. E grazie. Ecco. Allora, parliamo del tuo libro. Tu hai recentemente scritto un libro. Ecco, questa è una bella notizia. Un libro, lo sappiamo perché già sei venuta a parlarne tempo fa, un libro comico. Perché adesso va di moda, sai, con Zeli, con tutti questi programmi di comici, appunto, che vanno forti. Questi comici fanno dei libri e vendono tanto. Quindi anche tu hai scritto un libro di comica. Anche se tu non sei comica. Sì, invece. Cioè, no, dicevano sei comica di professione. No, ma sono simpatica. No, per carità, quello è molto, però strano che hai scritto un libro comico, insomma. Beh, se me l'hanno chiesto, evidentemente. È benissimo la mia capacità. No, quello sì, quello sì, figura di figura. E volevo chiederti, ma fai anche della satira sociale in questo libro? A voglia. Eh, sì, immaginavo. Risposta a voglia. Sì. Per esempio, una cosa che è simpatissima. Alcuni tempi fa mi trovavo dentro a un supermercato e scaffali, 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 non c'hanno i piatti di carta. Eh, e allora, scusa. Capito, devi ridere. A te ti è successo mai? No, beh, no. Ma poi queste cose tutte a me mi capitano, mi vede proprio che devo scrivere il libro di litere. Infatti. Senti, ma quindi te magari farai il processo inverso adesso, il tuo libro l'ha successo e ti chiameranno a fare la comica a Zelig o in programmi tipo Zelig, potrebbe succedere questo magari, no? Però sai, io ho anche questo problema forte della bellezza. Perché non ti vede buffa magari, ovviamente ti vede bella. Sempre solo bella, bella. E infatti è molto coraggioso la parte tua. Sono stufidata. Ti sei? Stufidata di... Stufata, stufata di... Che c'è? No. Non è che io non si metta la parola, eh? No, no, scusami, non ti volevo riprendere. Ho sauto. No, non ti volevo riprendere, scusami. Non lo so, io sono sentito male, ma io non l'ho detto. No, avevi detto stufi... Non si era capito? Volevi dire stufata? Ma capita anche a me, eh? Capita anche a me quando conduco, che mi sbaglio soltanto. Guarda che io sono simpatica. No, ma tu sei simpaticissima. Anche nel libro di litere. Hai scritto il libro di ridere, infatti, e noi siamo tutti contenti e ti facciamo in bocca al lupo per il tuo libro, dai. Ecco, crepa il lupo. E su, Miss Italia, è tanto simpatica, Miss Italia, è tanto simpatica. Dai, datti una risatina, su. Ecco, brava, va, così ci piace. Complimenti a Miss Italia al suo libro... Dei risate. Scusa, risate, si intitola? Vabbè, non te lo ricordi, vabbè, non fa niente, dai, non fa niente. Comunque, l'importante è... Tanto è firmato Miss Italia il libro, vero? Sì, appunto. Ecco, quindi comprate... Non è che te ne vai a comprare un altro? No. Eh no, compri quello. Quindi comprate tutti i libri di Miss Italia, che si intitola... C'è un titolo, una cosa corrisata dentro. Calcolate che è un libro di ridere. È un libro di ridere, ecco. È un libro di ridere che è firmato Miss Italia. Quindi, in bocca al lupo, allora, per il tuo libro e a presto. Complimenti. Cos'hai detto? E cos'è? Una cosa mia. Ah, una risatina hai fatto. Sono contenta. Una cosa che sei contenta, sì. Complimenti. Andiamo avanti, Greg Lillo, Radio 2 610. Pronto, qui Stefano Frosi, eccomi. Stefano, ciao. Eccovi per cosa. Per cosa, eh. Sono a Caponord, al nord della Norvegia. Ah, e che fai già lì? Che fai? Come che faccio? E che c'era? E faccio il collegamento. E mica era oggi. Non era oggi. Tra tre sei. A luglio. A luglio. A luglio. Avevamo detto a luglio, sì. A Caponord era a luglio, sì. Era a luglio, dovevi andare a Caponord, a luglio. La scaletta non l'hai vista qua in redazione. Eh no. Eh. E mo' che faccio io qua a Caponord? E che ne so? Non conosco nessuno. Eh. Beh, fino a luglio voglia conoscere gente. Ma come fino a che sto qua, fino a luglio? E allora torna. Torna a Roma. Vabbè. Vedi un po', pensaci su, fai quello che ti pare. Vabbè, vabbè, vabbè. Ciao, ciao Stefano, ciao. Greg Lillo 610, eccoci qui per la rubrica Ascoltiamo tutte le campane. Cioè noi prendiamo in esame un argomento e andiamo a intervistare le donne, le ragazze di Avellino, di Benevento, di Caserta, di Napoli, di Massa Robrense, di Capri. No, ma crede che noi ascoltiamo tutte le campane, cioè le donne campane della Campania. Cioè ascoltiamo tutte le campane è un modo per dire, per dire sentiamo le motivazioni di tutti, capisci il senso? Se ascoltiamo tutte le campane, per esempio l'argomento di oggi è scippare. Cioè è giusto o no scippare? Devo dire la maggioranza dice di no, cioè la maggior parte delle persone è per non scippare, cioè scippare è male. Ma sentiamo cosa ne pensa Astolfo Merichetti che fa lo scippatore. Ecco, secondo lei Astolfo, scippare è giusto o sbagliato? Ma guardi, a me scippare, cioè la professione mia, io dico che è una cosa giusta, è una cosa che a un certo punto dipende, ti può cambiare, ti cambia la vita, non è che ti cambia la vita, però può essere se quello che chiappi a vecchia è bella carica, per esempio, magari ti addrizzano pure quei dieci giorni, può essere che non ti addrizzano se ti chiappa, ti chiappa nei guardi e uno va in galera perché fa parte del messiere proprio, se fai in galera cerca è un fatto e beccato, quindi per me è scippare una cosa giusta. Certo, è una cosa giusta, quindi ecco, ascoltiamo tutte le campane, ma andiamo avanti con 610, Greg e Lillo. Radio 2, Greg e Lillo, 610, siamo qui in compagnia di Alessandra Canale, la grande annuncettrice Rai che tutti conosciamo poco tempo fa, qualche tempo fa, diciamo, silurata dalla Rai. Come silurata? Ma no, silurata è un modo per dire buttata fuori, licenziata, licenziata, vabbè un ex annuncettrice Rai che però lavora ancora e fa ancora l'annuncettrice, dico bene? Sì, sì, grazie. Prego, prego. A parte l'oroscopo anche, però fai anche altre cose. Sì, di cosa si occupa Alessandra Canale in questo momento? Innanzitutto grazie per la domanda. Prego. Faccio molti annunci in questo momento. Bene, complimenti, andiamo avanti. Come complimenti? Non li faccio? Non li faccio sentire? No, non c'è problema. No, come la prima? No, vabbè, sì, sì, va bene, va bene, va bene, sentiamo gli annunci, sentiamo gli annunci, sì. Il suo peso è di 180 kg, la sua altezza di 240 cm. Ah, ma è l'annuncio della bilancia, quello? Sì, 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 quando uno si pesa, si lascia il tronico. Sì, esatto. Ah, è la tua voce quella? Sì. Ma l'unica cosa, come hai detto, ve lo riprovi e ripetere un attimo? Sì. Il suo peso è di 180 kg, la sua altezza di 240 cm. 180 kg? Le misure sono proporzionate. Tu le rotta sta bilancia. Eh, questo è l'annuncio che faccio sempre. Eh, ma è l'annuncio sbagliato. È l'annuncio standard. Eh, vabbè, è standard, ognuno pesa così e è alto così. Sì. Grazie a Alessandra Canale e la salutiamo da complimenti. Andiamo avanti, Greg e Lillo, Radio 2 610. Greg e Lillo, Radio 2 610. Eccoci qui con un ospite particolarmente gradito. Abbiamo qui un topino. Un topino, buongiorno. Buongiorno. Come posso chiamarti il tuo nome? Io sono un topino. Abbiamo un nome di battesimo? Non abbiamo un nome di battesimo noi topini. Eh, si chiama topino se è maschio, uno si chiama topino. Se è femmina si chiama topina. Eh, quindi, e poi ci riconosciamo dall'odore noi. Allora, topino, vorremmo sapere qual è la vostra corrente di pensiero su un problema, un problema di scontante attualità che è quello dell'aumento del costo della vita. A voi tocca questo problema? A noi topini? Sì. Sì, sì, tocca particolarmente perché il rincaro della vita ha fatto sì che la gente non compra più tanta roba, ovviamente la compra contata e quindi non la sprega, non la butta. Quindi noi quando andiamo a cercare qualcosa da mangiare nei secchi dell'immundizia troviamo poco e niente, quindi per noi è un po' un problema. Va bene, grazie al topino. Grazie. Quindi quando, diciamo, a chi ci governa di mettersi una mano sulla coscienza, non solo per noi cittadini, ma anche per tutta la comunità dei topini che è consistente a Roma. Vuoi fare un saluto a qualcuno? Sì, grazie. Volevo salutare Topino, 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 Topina, Topina, Topino, Topino, Topina, Topino, 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 Topino. E anche oggi siamo giunti al momento di Extreme Collegaments, ovvero i collegamenti estremi con Valentina Paoletti. Eh sì, che lei in questa maniera molto esasperata, molto parossistica, si butta a capofitto nelle situazioni più impensate, a volte anche rischiose. Certo. Ci portano nei posti più pericolosi, assurdi e legati a leggende, a storie anche pericolose. Sì, per farci scoprire miti, segreti, leggende del nostro fantastico globo tattacqueo. Esatto. Sentiamo se è in collegamento. Pronto Valentina? Pronto Lillo? Ciao. Buongiorno, vi sento benissimo, buongiorno a Greg e buongiorno a Lillo. Ciao, ciao. Allora, dove stai adesso? Oggi sono in Germania, più precisamente alla periferia di Dresda, a due ore da Berlino all'incirca. Quale mistero si è andato a scovare stavolta? Bene, qui si narra la leggenda di una casa, una casa maledetta, dove si dice che all'interno di questa casa viva ancora lo spirito di una strega chiamata la strega del basket. Ah, cazzarola. Sì, e voi vi chiederete perché strega del basket? Eh, infatti, perché? No, no, no. No, vabbè, me lo chiedo sì, perché? Allora. Strano, la strega del basket non l'avevo mai sentito. Sì, infatti, perché appunto... Perché probabilmente è una strega. Sì, perché... Perché del basket. Ah, del basket, sì. Perché, dici Valentina? Perché appunto la leggenda dice che questa strega si materializza, becapita con un macete la vittima che trova e inizia a palleggiare con la testa fino a fare canestro. Cazzarola. Sì, e infatti è una cosa... E ci riesce? Sì, 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 dice che fa canestro benissimo, proprio molto bravo. Tra l'altro, una curiosità, il canestro è proprio sopra la mia testa, verde, molto simpatico. Ah, aspetta, ha il canestro sopra la testa, quindi può essere pericoloso, magari è vero, che ne sai? No, Lillo, è una leggenda, poi conosco il mio lavoro, so quello che faccio. Allora, dici... Comunque, mi sto spiegando questa casa, io adesso mi trovo nel salone principale e sto per attraversare la stanza per andare nella... Per andare nel... Valentina? Pronto, Valentina? 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 Valentina, Valentina? E' caduto all'alienzo. Mannaggia la miseria. E' una cosa che forse non prende, da lì non c'è campo, sicuramente. Ho capito, vabbè, ma non può lasciarci così quello che ha sospeso. Lo so, infatti, dobbiamo risolvere questo problema nel telefonino. Dove stanno andando? Beh, nell'altra stanza, nell'androne, nella cucina, nel... Aspetta, 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 sento qualcosa? Ma niente, è solo un disturbo, niente. Eh, vabbè. Valentina, ti prego, ripara il cellulare, telefonoci al più presto, dobbiamo scoprire questo arcano. Vedrà che magari prima della fine della puntata ci chiamerà e ci deluciderà meglio su questa casa maledetta. Non vorrei davvero che fosse tipo rotto il cellulare. No, vabbè, magari è solo un disturbo, va bene. Andiamo avanti, Greg e Lillo, andiamo avanti con 610. Ancora Greg e Lillo, siamo arrivati anche oggi al momento forse più atteso di tutta la nostra trasmissione, che è il momento del trailer cinematografico. Noi ormai, d'abitudine, parliamo di cinema con qualche ospite e l'ospite di oggi è un ospite che già un po' ci viene a trovare, la grandissima artista Patti Pravo. Ciao Patti. Cosa ha detto Patti, scusa? No, grazie, 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 grazie. Ha ringraziato anche Patti Pravo, era un grazie anche il suo. Bene, a questo punto vorremmo sapere, visto che Patti Pravo oltre ad essere un'esperta di cinema, perché ama molto il cinema, è anche una grande musicista. Molto tirata. Eh, è molto tirata. Comunque, volevamo sapere da Patti Pravo qual è il suo compositore cinematografico preferito. Ci sono tanti, c'è Morricone, Harry Mancini, John Williams, Rota, Badalamenti. Ma l'esterno del passato o poi l'esterno recente? No, uno recente, uno recente, recente, sì. Paul Leclerc. Paul Leclerc. No, del passato. No, meglio del passato. Settiamo del passato. Steven Ola. Steven Ola del passato. In generale, uno, diciamo, passato, presente, uno... S. Franco. S. Franco. Ma che film ha fatto? Non lo so. S. Franco. Le Rondini. Ah, Le Rondini ha fatto. La conosci te, Greg, Le Rondini? Non l'hai sentito io. No, Le Rondini, non l'ho passato. Scusa, Patti, ma Le Rondini intendi gli uccelli, Le Rondini? No. Ah, no. E quindi cos'era? No, è stato un ritiro interessante. Patti, scusami, una cosa, secca, proprio secca. Però dillo, scandiscilo lentamente il nome del tuo. Sì, ma italiano è stato l'estero. E' uguale, italiano è stato quello che ti pare. Il nome del tuo musicista cinematografico preferito, compositore, vai. Claudio Vissiato. Claudio Vissiato. Vabbè, salutiamo e andiamo avanti con il nostro trailer. A volte succedono cose che la mente umana non può comprendere. Averell, fammi il favore, sorreggi questa palanca. Eccomi, Brad, dai qua, cosa devi farci? Devo metterla come sostegno dell'architrave. Buona idea, Brad. A volte le parole non riescono a descrivere quello che il cervello non vuole capire. Che ne dici, Averell? Così dovrebbe reggere. Forse la puntellerei al tramezzo, Brad. Hai ragione, Averell. Passami allora la... Che cosa? La... la... quella... la... 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 come si chiama? La... 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 la cosa. La... la cosa... nei cinema. Un'astronave aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio a un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido e rinetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di... Normalman! Normalman in... il cane. Roma, ore 19 e 30. Pier Maria Carletti passeggia tranquillamente per le strade vicino a casa sua, quando si imbatte in una scena inquietante. Signora, è in contravvenzione. Il suo cane ha sporcato il marciapiede e lei non è provvista dell'apposita attrezzatura. Sia buono, signor vigilante. Ho finito i sacchetti e i negozi sono già chiusi. Domani mattina pulisco. Non se ne parla. A parte i problemi igienici, qualcuno potrebbe scivolare e provocarsi seri danni. Concilia... La mia normal vista mi dice che quell'anziana donna ha un problema. E ora che entro in scena... Normalman! Pier Maria si nasconde dietro l'edicola chiusa. In meno di sette minuti si cambia e vola sul luogo del misfatto. Oh, normalman! Che succede qui? Il suo cane ha sporcato il marciapiede. La signora non è in grado di ripristinare la situazione e la sto multando. Niente multe, ho qui con me il normal sacchetto e raccoglierò io gli escrementi di questo simpatico cagnolino. Ecco signora, adesso basta che lei trovi un cassonetto e ce lo butti dentro. Grazie, normalman! Non mi ringrazio per un super eroe e un dovere aiutare gli altri. Avvio! Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è... Normalman! Greg e Lillo Radio 2 610, eccoci di nuovo qui per il nostro spazio dedicato all'astrologia. E quando si dice astrologia, ovvio, si dice Saturnus. Buongiorno Saturnus, ben arrivato! Buongiorno a tutti e che Saturnus sia con tutti voi! Allora, buongiorno. Saturnus, tante sono le mail, le telefonate che arrivano alla nostra redazione indirizzata a te e tutte viene di interrogativi riguardanti questo mondo misterioso ed affascinante dell'astrologia. Eh, l'astrologia, questa sconosciuta. Chi può dire di conoscere veramente l'astrologia? Beh, ovviamente Saturnus la conosce. Ma quando mai? Nessuno la può conoscere, io meno che mai. Scherza sempre il nostro Saturnus. Ma ora non è il momento di scherzare, bensì di passare le lettere dei nostri radioascoltatori che sono numerose ed interessanti. E passiamo, passiamo. Queste cofanate di lettere che la gente ci piace di scrivere invece di fare altre cose, no? Che scrivono a fare. Infatti. Allora, ci scrive Donata Quattrocchi da Campo Nogaro e dice Caro Saturnus, vivo da otto anni con una riete e da circa un anno non andiamo più d'accordo. Un mese fa un astrologo mi ha detto che la riete quest'anno entra nell'acquario e questo dovrebbe risolvere un po' di problemi di coppia. È vero? Che puoi rispondere, Saturnus? E che ci devo rispondere? Beh, l'ha sentita? Donata dice che vive con una riete e da un anno non vanno più d'accordo. E grazie cavolo che non vanno d'accordo. Ma mi roviglio che è solo da un anno. E mica è un cristiano quello che uno ci può andare d'accordo così come niente fosse. Una riete. Un animale. Quelli sono animali burberi, indolcinati, con le corna. Deve arrivare aperto in campagna, anzi in montagna. Cioè, una riete. Manco dentro di una stalla le puoi mettere, in teoria. Si straniscono, si maniano, sono animali. Ma no, Saturnus. Donata chiede se è vero che se la riete entra nell'acquario qualcosa si risolve. Ma come fai, dico io, a mettere quel porno animale dentro di un acquario? L'acquario è solo piccolo. Giusto se ne trovi uno un po' grosso, se no... Ma poi con l'acqua come fai? La devi da togliere. Quello si affoga. Mica s'annotà la riete. Ma poi chi te lo dice che risolve? Quello magari si stranisce pure di più a stare dentro l'acquario. La riete deve vivere all'aperto. Vabbè, ringraziamo Saturnus. Ma poi non si è mai visto una riete dentro l'acquario? Sì, sì, ma non si è mai visto. Quei desci che ce nuotano attorno. Eh, no, infatti. Vabbè, grazie Saturnus, andiamo avanti. Greg e Lillo, Radio 2, 610. Ci sono strane le agente proprio di cose strane. Ciao Saturnus. Greg e Lillo, Radio 2, 610. Continuiamo a gemellarci con tante radio che mandiamo in onda nel nostro stesso programma, come nel caso di questa nuova radio che si chiama Radio Breve... Internesh. Radio Breve Internesh. Sentiamo cosa sta trasmettendo in questo momento Radio Breve Internesh. Eccoci ancora ai microfoni di Radio Breve. Ascoltiamo Pupo. Gelato al cioccolato, gelato al cioccolato. L'ospite di oggi è Tanzia Lauretti. Tanzia, come stai? Bene. Grazie. Sentiamo se c'è una telefonata in linea. Ciao. Chi sei? Luisa. Da dove chiami? Da Roma. Ed ora il radio sceneggiato di Radio Breve. Aldo, ti amo. Anche io, tesoro. Oh, sposami. Sì. Passiamo alle notizie sportive. Ed è gol. Greg e Lillo, Radio 2, 610. 610, siamo qui con Massimo Bagnato, un artista che rappresentiamo da un po' di tempo qui nella nostra agenzia di spettacolo 610, artista multimediale, il più multimediale del mondo, così definito da molti tra l'altro, non Massimo? Sì, 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 c'è stata una definizione che mi ha colpito anni fa, insomma, questa qua data chiaramente prima da voi e poi anche da personaggi eminenti come Ginorra, Burrani hanno definito Massimo Bagnato multimediale. Esatto. Sarà un onore per me. No, Ginorra specialmente, insomma, in quanto a multimedialità è un'autorità. Rimane il maestro, rimane il maestro incontrastato, il più grande di tutti. Bene, complimenti a Massimo Bagnato che oggi, da multimediale, qual è in veste però di cantautore perché scrive delle canzoni tra l'altro bellissime. Sì, questa è una canzone che mi riguarda moltissimo, una canzone che riguarda anche i miei affetti, si chiama Sei stata a Foggia perché io ho zia che sta a Catania, quindi ho pensato di dedicare questa canzone agli affetti familiari, si chiama Sei stata a Foggia e ripercorre un po' tutta la mia infanzia. Sentiamo Sei stata a Foggia. Sei stata a Foggia. A Napoledillo e Sandole Regione Carabrese dovrebbe prestarvi molta attenzione. Sì, sì, infatti presterò molta attenzione. Le canzoni che riguardano l'estero piacciono poi. Sì, sì, prendono sempre. Dunque, complimenti a Massimo Bagnato in Sei stata a Foggia. Sei stata a Foggia, ti avevo detto. Che qui a Viterbo i napoletani sono come noi, di siciliani, di sua Verona, sono marchigiani perché anche a Trieste sono torinesi. Sei stata a Foggia. Ti avevo detto che qui in Trentino, in Basilicata, si sta in Toscana. Ma voi dell'Umbria, da bravi piemontesi, se state a Ancona, napoletani, siete pugliesi. Sei stata a Foggia, qui giù in Liguria, i sitriestini sono romani, sono come voi, i marchigiani che calabresi, i siciliani della Sardegna sono piemontesi. Grazie a Massimo Bagnato, è una canzone, un omaggio a Foggia praticamente, una dichiarazione d'amore a questa città. Un omaggio a Foggia e a tutta l'Umbria, che racchiude persone che la pensano in un certo modo. Noi ti salutiamo Massimo, però prima volevo chiederti una cosa, vedo qua in una maglietta nera con una strana scritta, si è scritto io c'ero 13485. Sì, sì, 13485, ecco, ricorda i miei 23 anni, ossia significa che c'ero. Ah, perché... Sì, ogni anno... Ah, è una data in cui c'eri comunque. È una data in cui c'ero, 85, sono il 72 io, sì, quindi siamo 13 anni. 13 anni. Come passa il tempo. È come passa. Grazie, complimenti a Massimo Bagnato, andiamo avanti, Greg e Lillo, Radio 2, 610. Ciao, Vecci e a tutti i Foggiani. 610, Greg e Lillo a Radio 2, eccoci nuovamente giunti al momento della nostra durata rubrica Conosci mia cucina, zza, zza, zza. Lo spazio del poco, sì, lo spazio del poco è da ognuno dei più seguiti in televisione, qualunque programma tv degno di questo nome, ha un momento, il suo momento della cucina e quindi anche noi in radio abbiamo ospite niente meno che Salviero Salvieri, dico bene? Sì, sì, Salviero Salvieri. Salviero Salvieri, il grande chef, danni insignito del Cordon Bleu per i suoi innumerevoli meriti e per le sue ricette di raffinata fantasia. Raffinatissima, sì. Buongiorno, Salvieri. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Salvieri sta già preparando un piatto, probabilmente sentirete in sottofondo tutto questo allegro spignattio di tegami e padelle, no? Bene, che piatto ci starà preparando? Lasciamolo che sia lui a dircelo. Esattamente, io sto preparando una caprese vicentina. Caprese vicentina? Cioè il classico piatto freddo parteneopeo rivisitato alla vicentina? Esattamente. Io in qualità di chef mi sono permesso di rilaborare levemente la ricetta originale per creare un piatto che fosse allo stesso momento tradizionale e innovativo. Eh sì, la cucina è anche un modo per avvicinare i popoli. Infatti, pensate amici radioascoltatori, ma come si prepara questo fantastico piatto, Salvieri? Salvieri, scusi. Non importa. Allora, si prende una mozzarella di brufala, dei pomodori e del basilico. Si taglia la mozzarella, si affettano i pomodori, si staccano a mano alcune foglie di basilico, si versa dell'olio, un po' di sale, un pizzico di pepe e la mia salsa a base di spezie che ho precedentemente preparato. Et voilà. Che profumino, amici radioascoltatori, veramente invitante, veramente da far venire l'acquolina in bocca. E ora non resta che mangiarla. Davvero posso? È fantastico. Eh certo. Non me lo faccio ripetere due volte, eh. Saggiamo. Mmm, squisita, buonissima. In effetti è una caprese, ma qualcosa di straordinariamente unico. Esattamente. Salvieri, ci dica, che cosa ha aggiunto? Che c'era in quelle spezie? Ogni chef ha le sue risorse nascoste, cose che non si possono svelare. Salvieri, lo faccia per noi, solo per noi di 610, la preghiamo, su. Che cosa? Cosa devo fare? Ci dica un suo segreto, la preghiamo, un suo segreto. Un mio segreto? Eh, va bene. Allora, sarà stato più di dieci anni fa, mi trovavo a Stoccolma per un convegno di cuochi. La sera stessa stavo gironzolando per la città quando ecco che vedo una vendita di beneficenza in un capannone vicino a una chiesa. Entro a curiosare, anche se ormai era la chiusura, vedevano di tutto, dai vestiti ai mobili antichi ai libri ai motorini. Ad un tratto stavo cercando la toilette, vedo una stanzetta con dentro una scrivania e sopra la scrivania una scatola con mucchi di banconote. Probabilmente era l'incasso della vendita di beneficenza. Beh, non c'era nessuno in quel momento. Ho chiuso la scatola, ho messo sulle braccia e via, sono scappato. Da te l'ho sentito qualcuno che gridava, ma non possono avermi visto in faccia. Beh, ma che c'entra? Mi ha arrivato e chiesto un mio segreto. Sì, ma intendevamo culinari, un segreto suo di cuscina, qualche ingrediente particolare. Ah no, 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 sono cose troppo personali, mi dispiace. Grazie comunque a Salviero Salvieri, speriamo di rieverlo qui con noi la prossima volta. E tutto per questa puntata di Conoscimi a Cuscina, Greg Lillo, 610 Radio 2. Arrivederci. La Roulette Russa E ancora qui ai microfoni di Radio 2 per Greg, 1, 6, 0 e Lillo qui. E siamo arrivati al nostro spazio dedicato alla Roulette Russa. Ve la ricordate, la Roulette Russa, insomma, è stata portata in auge dal film Il Cacciatore, in cui Robert De Niro con la bandana si puntava questa pistola alla tempia. E noi vogliamo rinverdire questi fasti, però giocando anche, perché giocare è bello, bisogna giocare sempre, bisogna giocare, e noi vogliamo giocare con i nostri radioascoltatori. Quindi giochiamo alla Roulette Russa con... sentiamo, pronto? Pronto! Pronto, ciao! Ciao, sono Pasquale! Ciao, da Roma! Ciao! Da Roma! Sì, ma giochiamo in casa anche oggi! Sì, aspetta, c'è anche mia moglie qua! Ciao, ciao, ciao! Ciao, Sabrina! Sabrina, ciao! Sì, la moglie di Pasquale, sì! Ah, Pasquale e Sabrina, benissimo! Siete sposati da molto? Eh, siamo sposati da dieci anni quasi ormai! Dieci anni! Dieci anni, vero? Ha un bel record in questi tempi! È un bel record! Sì, devo dire sì, andiamo molto d'accordo e ci vogliamo bene, insomma, sì, andiamo bene, è bello, una bella coppia siamo, sì! Va bene, allora, vogliamo giocare insieme? Magari! Sì, ma con Sabrina dicevamo che ci piaceva giocare tutte e due, come si può fare? Già abbiamo operato una digressione di questo genere qualche volta scorsa, quindi possiamo fare come abbiamo già usato, ovvero che invece di sparare alla radio vi puntate la pistola alla Tempia prima tu e poi la punti a Sabrina. Va bene, facciamo io e Sabrina, ottimo, va bene, contenta! Sì, 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 dai, carichi di entusiasmo, carichi di entusiasmo noi e carica deve essere anche la pistola che avete davanti. Sì, abbiamo una pistola qui al tamburo, c'è dentro, abbiamo tolto tutti i proiettili tranne uno che è dentro e quindi possiamo cominciare. Esatto! Sì! Allora facciamo subito testa e croce per vedere chi inizia. Allora, tu Sabrina che scegli? Io, io scelgo testa, testa, testa. Testa Sabrina e io croce. Allora fate voi due? Sì, sì, allora, testa, comincia Sabrina! Sabrina, anche per cavalleria, insomma, avremo. Infatti l'hai fatta iniziare lei comunque io. Va bene. Va bene. Passa la pistola a Sabrina. Ecco, vai, Sabrina. Ecco, adesso punta l'attenzione. Cilecca! Cilecca! Adesso sta a me. La scampata, Sabrina. La scampata. Allora, tocca a me adesso. Sì, vai. Clic! Clic, clic, benissimo. Tocca a Sabrina ancora. Vai, Sabrina, vai. Il vostro matrimonio è ancora dura, hai visto? Vai, Sabrina, tocca a te. Allora, vado, eh. Punto, punto. È morto! Ho vinto! Ho vinto! È incredibile! E pensare che normalmente in una coppia è quasi sempre l'uomo a morire per prima, invece questa volta... No, mi dispiace un po' per lei perché, come aveva detto, andavo molto d'accordo. Però, vabbè, il gioco è gioco. Il gioco è gioco, hai ragione, Pasquale. È molto bello. Insomma, sono felice di aver preso la nida e aver partecipato. Grazie. Bene, bene. Se mai ti dovessi risposare e vuoi giocare di nuovo, puoi sempre telefonarci. Va bene, Pasquale? Va bene, grazie. Senz'altro. Va bene. Ma anche da solo, al limite. Anche da solo. Magari rimango single, che ne sai. Complimenti con la trasmissione. Ciao, grazie. Saludiamo Pasquale. Anche un estremo saluto lo diamo a Sabina e alla prossima puntata è Rulette Russa. Greg Lilo 610, via Siaco 10, secondo piano. Siamo arrivati alla nostra rubrica preferita, preferita da qualcuno. Specialmente da Stefano Frosi, perché è la sua rubrica. È proprio la sua preferita, poi per il resto credo che non sia la preferita di nessun altro. Però lui ormai è diventato un archeologo. Un archeologo, sì. Si è appassionato di archei, se li studia bene. No, non è per gli archei, ma semplicemente per trovare dei reperti in giro per il mondo, reperti importanti, reperti storici, che lui ci può descrivere e raccontare cose quasi sempre esclusive e rarissime. Sentiamo dove si trova Stefano Frosi quest'oggi. Pronto Stefano? Eccomi qua, un simpaticissimo se beccamo capocce a tutti. Anche da parte nostra. Grazie. E il sito archeologico di oggi è, a parer mio, una chiesa cristiana molto antica. Addirittura? Assolutamente. Bene. Io mi trovo già all'interno ed è tutto molto buio. Sappiate che uso luci molto tenue per non rovinare i reperti. Sì. La sala è a reda, è una grande sala, con grandi tavoli in quercia. Ah. E intorno vi sono come dei seggi lignei e pancali. Ah beh, sono dei panche con due seggi di legno? Grosso modo, diciamo volgarmente. Ma sono antiche? Sono antiche? Sì, sì, sì. Antiche. Questo è il periodo ligneo. Ecco. Ora mi avvicino a quello. Il periodo ligneo è sempre. Pure adesso c'è il periodo ligneo. Sì, sì. Beh, però lì, diciamo, vecchio. Questo, davanti a me, è l'altare. Ah. E com'è fatto? È una lunga pietra, sarà larga un metro di profondità, diciamo, è lunga 7-8 metri. E al di sopra vedo alcune grosse ampolle vitre. Sono delle brocche, Stefano. Come brocche. E siamo in periodo vitreo, evidentemente. Eh, ma periodo vitreo, ma sono antiche? Credo di sì. All'interno c'è un liquido giallastro. Scusa, periodo vitreo antico questo è. Vitreo antico. Vitreo antico. Sì, c'è un liquido giallastro all'interno. Ma forse birra, come la birra. No, con la muffa, è antico. Forse periodo birreo, comunque. Vabbè, dietro l'altare v'è una parete. V'è una parete? V'è una parete con ampolle molto più grandi e con all'interno dei liquidi colorati. Brocconi? Eh, eh. Ma sono bottiglie, come sono? No, 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 sono ampolle. Ecco, sono antiche. Ecco, all'interno vedo delle scritte, mi avvicino, ci sono delle scritte su queste ampollone. Eh, che c'è scritto? Diciamo, ampollose più che altro. Ecco, su uno leggo, questo è il nome di una santa. Questi saranno reliquie. Ecco, una santa, questa è Tal San Buca. Qui ce n'è una più piccola, questa è un francese. Perché leggo San Bitter. Sarà stato un prelato francese. Ecco, e no. Beh, signori, questa è un'ampolla vitrea con scritto lacrima, Cristi. Questa è una reliquia assolutamente importantissima. La porto fuori perché questa... No, ma quella è una bottiglia di rigore. È una reliquia del... È vino, è vino, è vino. È fatta, abbiamo trovato quella del Roberto. È la santa che è da Cristi che fa il vino. È vino quello, Stefano. Chiappalo, porcaccione, chiappalo, si è fregato l'ovino. Stefano, pronto, Stefano, Stefano. Stefano. Eh, vabbè, niente, mi sa che è scappato. Non ho capito bene cosa è successo. Mi è entrato in un bar, per sbaglio. Eh, si è fregato una bottiglia di lacrima, Cristi. Vabbè, andiamo avanti. Greg e Lillo, Radio 2, 610. Greg e Lillo, Radio 2, 610. Siamo qui con una grande artista. Siamo arrivati al momento del trailer e siamo onorati di avere come ospiter parlare un po' di cinema con noi prima di ascoltare appunto il trailer. Siamo qui con Patti Bravo. Patti Bravo. Ciao, Patti. Ciao, Patti. E basti, siamo d'accordo. Siamo bassi e bassi, infatti vediamola qui. Patti, senti una cosa. Noi volevamo sapere qual è il tuo film western preferito. Ci sono tanti. Ci sono i magnifici sette. Ombre rosse. Ombre rosse, i figli spietati. Sì, i loro di McKenna. Pieno. Uomini e cobra. La ballata di Cabal Hoag, che è un film tipo di Sam Peckin, paghiamo molto, non molto famoso. Cat Ballou. Esatto. Allora, qual è invece il tuo film preferito western? Vanno ben anche gli spaghetti western, proprio gli italiani, insomma, in generale. Sì, il finto pacco. Il finto pacco. Il finto pacco. Il finto pacco non mai... Ma è il finto... Gira da Caglianello. Intendi di dire il finto pacco? No, no, no. No, no, no. Non era il finto pacco. Ma gli attori, gli attori... No. Il sistema è del cavallo. Il pacco. La cavallo. Patti, scusa, non ti capiamo, Patti. C'è un cavallo zoppo, però non capiamo bene. Patti, scusa, andiamo un po' al sotto, perché sennò non capiamo. Allora, il titolo è in tuo pacco, non abbiamo capito bene il titolo, però se ci dici il protagonista noi capiamo. Il protagonista chi era? Sennò. Sennò. Grazie a Patti Pravola, salutiamo, sentiamo il nostro trailer. Mi fa gazzabove, mi fa... Sì, sì, infatti abbiamo capito, basta. Fa un disegno, però. Sennò. 610 trailer 610 prima. Il mondo del lavoro può essere spietato per una donna. Il mobbing miete ancora troppe vittime. Che essere schifoso! Che ce l'hai, Luisei? Con chi? Con François Diamelie, il nuovo direttore. Con chi, se no? Perchè? Io lo trovo così affascinante. Mi ha messo le mani addosso. Ci ha provato quel maiale, è disgustoso. Ma no, Diamelie è così attraente. È ributtante. È favoloso. È immondo. Il favoloso e immondo Diamelie, nei cinema. Un'astronave aliena a terra su un orto, lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido e di netto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori, che lo rendono cento volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di Normalman. Normalman in Il Fuoco. Roma, ore 13.30. Pier Maria Carletti, durante la pausa mensa, sta mangiando il suo panino al sole quando... Ma dove ho messo l'accendino? Accidenti, mi sembra di averlo preso. La mia normal intelligenza dice che quell'uomo è uscito dal ristorante per fumare. Ma non ha l'accendino. Questo è un lavoro per Normalman. Poco lontano c'è un cantiere abbandonato. Pier Maria lo raggiunge, si insinua abilmente in un'ampia apertura del recinto di Bandone, scavalca un muretto alto 30 centimetri, vola dietro una pila di tavelloni, si cambia, poi toglie i calcinacci dalla tuta e in meno di 10 minuti è vicino all'uomo, fuori dal ristorante. Oh, Normalman, fra pochissimo devo tornare in ufficio e non posso neanche fumare la sigaretta nel dopo pranzo. Niente paura, ho con me i normal fiammiferi. Normalman, come facevi a sapere che non avevo da accendere? Beh, sono un supereroe, ecco il suo fuoco. Grazie, Normalman, come posso ricambiare? Un supereroe deve sempre dare senza ricevere. Addio! Addio, Normalman! Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è Normalman! Sempre Greg e Lillo in vostra compagnia, qui per 610 Radio 2, siamo qui con Miss Italia che è venuto a presentare il suo libro, un libro che ha scritto da un po' ormai, è vero? Ciao Miss Italia innanzitutto, ciao! Eh, ciao, esagerati, grazie! Miss Italia che sappiamo tutti che ha fatto una carriera particolare, è stata modella, ha fatto un po' di cinema, un po' di televisione, supermercati... Esatto, ha fatto anche la sceneggiatrice per questo, e infatti adesso addirittura è arrivata un libro, un libro... Sai com'è? Io praticamente tutto quello che tocco è oro! Eh, infatti, questo mi sa che fin... Mi hanno detto fai il libro, vabbè! So che ti hanno proposto un libro comico però, perché adesso vanno molto di moda con Zelic e tutti questi comici che vendono tantissimo, quindi... Un libro dei comici! Dei comici, sì! Un libro da ridere? Invece però l'ho fatto io! L'hai fatto tu, ecco, che non sei comica! Sono simpatica! Ecco, sei simpatica! Sì, molto simpatica! Ecco, sì! E quindi... Il libro è il paese, tutti gli sono simpatica, quindi... Il paese quale? Ah, il tuo paese! Sacrofano! Sacrofano, sì! Perché tu... È vero, perché lei è di Sacrofano! Sì! Vuoi fare un saluto intanto? A tutti i Sacrofani! A tutti i Sacrofani, sì! È vero o no che sono molto simpatica? Tutti i quanti che vanno sì adesso! Ciao! Che matta che sei! Bene, Miss Italia, allora, parliamo di questo libro, un libro che prende spunto dalla vita, so! Sì! Da quello che ti capita tutti i giorni! Sì, è un libro che ti sganasci! Fai qualche anticipazione, così, per i nostri radioascoltatori che magari corrono poi subito in libreria a comprarlo, no? Se si divertono, fai... Eh, che... Che ne so... Praticamente un giorno io... Stavo in strada... Stavo in strada... E ci stava uno... Con praticamente un cappotto... E niente, davanti a me... Proprio davanti a me... A Pia e fa un volo! Da solo! Cioè, è caduto! È caduto! Ma non sai che botto! È caduto proprio di brutto! E io... E io... Ho chiappato subito un pezzo di carta! Segnare presto! Questo è... Che di libro! E cadete che non ci ho fatto un filmino! Ah, perché? Però comunque anche raccontato sul libro fa riderissimo! Sì, perché è un po' difficile... Perché quelle sono cose belle da vedere più che da raccontare! È un po' difficile metterle su! No, però io l'ho raccontato proprio preciso, nei dettagli! Ah, nei dettagli! Proprio lui col cappotto! Che piecate! Va bene, grazie a Miss Italia! E in bocca al lupo e complimenti per il tuo libro che si intitola? Un libro di risate! Il libro di risate l'ho capito, ma come si intitola? Te l'ho detto l'altra volta comunque, eh! Te lo sei segnato! Non ce l'avete una scheda degli ospiti? No, vabbè, ma... Io quando vado a un locale, a una trasmissione, sempre c'hanno la scheda con tutti i dettagli! No, ma non è... Scusa, non ti lo dico, non piangere! Tu hai su Miss Italia, su! No, ma io te lo chiedevo, sai perché? Che se lo dici tu, fai promozione al tuo libro, è un conto che lo senti... È quello tuo! È il programma tuo! Ho capito, ma io non mi ricordo... Ma manco io! Ho capito, sì, non te lo ricordi, vabbè, dillo, non è nemmeno un problema... Vabbè, facciamo una cosa, diciamo che è uscito un libro di Miss Italia, tutti quanti in libreria lo possono riconoscere perché è firmato Miss Italia... Con le pagine! E quindi non ti puoi sbagliare, ecco... Se lo vuoi trovare, lo trovi! Ecco, infatti, infatti, dai! Se poi cerchi una scusa... No, no, no! Non sapevo il titolo, vabbè, vabbè... Allora dicono, non lo vuoi comprare, fai prima, non c'è andare dentro la libreria... Hai ragione Miss Italia... Vai al mare! Esatto, se volete il libro di Miss Italia lo trovate, uno entra in libreria e chiede Voglio il libro di Miss Italia... Complimenti, bocca al lupo, andiamo avanti, Greg e Lillo, Radio 2, 610... Da oggi puoi simulare il tuo cantante preferito con Virtual Singer Mega Web, il nuovo programma PC dell'offerta Interactivity Fast School... Scegli il tuo cantante, seleziona la tua canzone preferita, imposta il software, clicca e... In soli due giorni hai una song interamente simulata di Chi vuoi tu... E con soli due euro al minuto puoi aggiungere un biff ad ogni nota... Da oggi simula anche tu... Io non ascolto l'originale... Io ascolto Virtual Singer Mega Web! Greg... Di Springsteen, che ne so, Born in USA, che ne so, adesso ne dico una casaccia... Clicchi e solamente in due giorni hai Born in USA fatta simile a come la fa Bruce Springsteen... Ma se ce l'ho come la fa Bruce Springsteen, perché la devo avere simile? Perché ce l'hai... È molto più virtuale... In più, hai sentito che puoi aggiungere un biff ad ogni nota con soli due euro al minuto... Un biff ad ogni nota... Quanto durerà? Quattro minuti? Con otto euro in più... Ogni nota che viene suonata da Springsteen si sente bip, bip, bip... Ma perché devo mettere i bip sulla canzone Springsteen? Ma perché è virtuale, è più interattivo... Ciao, andiamo avanti, va, 610... Stai indietro, stai indietro... Eccomi qua, eccomi qua... Chi è? Chi è? Sono Stefano Frosi, scusate... C'è il fiatone che... Non gliela faccio più a Stefano... Eh, perché c'è il fiatone Stefano? Eh, come perché il fiatone? E sono appena arrivato... Aspetta... Sì? In cima all'Everest... All'Everest? Sì! E perché? Come perché? Non fate gli spiritosi per fare il collegamento, no? All'Everest... All'Everest lo fate... Sulla Everest, mi sono pure morti di uscerpa qua... Io non so mai come torna giù... Comunque, mi sono morti di uscerpa... Ma non era l'Everest, Stefano... Come non era l'Everest? No, era... A Trastevere... Trastevere... Ma come a Trastevere? Alla festa di Novantri... Ma io... Ma sono arrivato all'Everest... Eh, ho capito, ma era a Trastevere... Ma come a Trastevere? Eh... Era a Trastevere... Hai capito male... Eh sì, è a Trastevere... Ma a Trastevere... Ma come scendo giù? Ma sono morti di uscerpa... Eh, non lo so, Stefano, vedi tu... Quando finisce la festa... Non la faccio più... Eh... Vabbè, me ce l'ho sbagliato... Vabbè... Ci dispiace... Comunque, vabbè... Riposati... Riposati... Ciao, Stefano... Ciao, sono un saluto... E anch'io ascolto 610... Per la rubrica Ascoltiamo Tutte le Campane... Oggi abbiamo un ospite... Marco Soldi... Con lui affronteremo un tema... Che è quello della serialità... Cioè, dei serial killer... Cioè, è giusto o no... Essere un serial killer... È giusto o no... Uccidere in serie... Ecco, è quello che pensa... La maggior parte delle persone... È che sia sbagliato... Se non sbaglio, no, Greg... Cioè, almeno la nostra indagine... Ci ha portato a questo... Sì, io mi tirerei fuori... Perché ho un pensiero abbastanza neutro... Però la maggior parte delle persone... Pensa che sia sbagliato... Essere un serial killer... O uccidere in serie... Qui abbiamo comunque un... Appunto, un serial killer... Marco Soldi... Ciao, Marco... Eh... Buongiorno... Buongiorno... Allora, Marco... È giusto o sbagliato... Essere un serial killer... Io, quello che credo... È che sia giusto... Ecco... Perché... A un certo punto... Io, per esempio... Rispetto... Tutte le persone... Che hanno... Che fanno delle collezioni... Che hanno delle passioni... Ecco... Non so... Chi colleziona il francobollo... Certo... Chi la bottiglia di birra... Ecco... Io colleziono... I piedi destri... Di donne sposate... Sopra i 65 chili... È una cosa che faccio da tanti anni... E io, con passione... Credo sia una cosa giusta... Da rispettare... Ecco... Lui crede che sia giusto... Bene... Grazie a Marco Soldi... Andiamo avanti con 610... Greg Lillo e vostra compagnia... Radio 2... 610... Siamo qui in compagnia... Di una grande annunciatrice... Ex annunciatrice Rai... Alessandra Canale... Ho detto scusi... Ex annunciatrice... Ah... Ho sentito bene... E vabbè... È così... Lei è ex... Ex... Ah... Non piangere Alessandra Canale... Stai tranquilla... Calma... Certo questo cognome... Canale... Canale... Guarda dove lavorava... Ah... Lo fate apposta... No... 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 È cattiveria... Comunque Alessandra fa ancora l'annunciatrice... Lo possiamo dire... È vero? Vero... Sì... Sì... Grazie... Ecco... Fai ancora l'annunciatrice... Quindi... Vabbè... Ti hanno licenziato... Ma chi se ne frega... No... Ma chi se ne frega... Sì... Infatti... Mi sono ripresa subito... Sì... Faccio svariati annunci... Complimenti... Sì... Complimenti... Tutti i tempi... Ringraziamo Alessandra Canale... Volevo farli sentire... Sono venuta apposta... Ma no... Non so... Perché siamo un po' di... Abbiamo fretta... Come avete fretta... No... Sentiamo... Sentiamo... Sentiamo gli annunci... Sentiamo... Sì... Serviamo il numero... Settantasei... Serviamo il numero... Settantasette... Serviamo il numero... Settantotto... Serviamo il numero... Settantanove... Non c'è bisogno... Serviamo il numero... Ottanta... Abbiamo capito... Posso andare avanti... Fino all'infinito... Fino a tutta la vita... Sì... Va bene... Questa è la voce che si sente in certi rivoluzzi... Sì... Nella macelleria da Peppe Lozzozzone... Ah... Da Peppe Lozzozzone... Praticamente... C'è la tua voce... C'è la mia voce... Sì... Che poi tra l'altro... Ah... Sì... So che è stata usata anche dal Ferramenta Gargiulo... Ah... Quindi questa è una chicca che ci si è... Sì... Una piccola chicca... Che prima o poi ti troviamo in qualche merceria... Può essere... Alessandra Canale... E la salutiamo... Da... Complimenti... E andiamo avanti... Greg e Lillo... Radio 2 610... Greg e Lillo Radio 2 610... Siamo qui con una doppiatrice... Noi siamo un'agenzia di spettacolo... Quindi ci occupiamo di spettacolo a tutto tondo... E quello dei doppiatori è un ruolo molto riconosciuto... E comunque importante... Cinzia Solaris... Che ha appena 18 anni... E malgrado la sua giovane età... La chiamano pare solamente per doppiare attori di età avanzata... Infatti ha doppiato recentemente... Gene Hackman... Morgan Freeman... E anche Clint Eastwood... E Anthony Hopkins... Ciao Cinzia... Ciao buongiorno Greg e buongiorno Lillo... Ecco Cinzia... Come mai... Nonostante tu sia una ragazza di 18 anni... Una giovane ragazza... Ti fanno doppiare questi personaggi così grandi... Insomma... Anche... Insomma... Quasi vecchi diciamo in certi casi... Beh non so esattamente... Non so soltanto che da un po' di anni a questa parte... Perché io iniziato dovevo 12 anni... Dovevo doppiare un settantenne di colore... Che aveva problemi di droga... E... Da allora credo sia nata una specie di cliché... Ormai mi affidano solo questi ruoli... Ecco... Ma tu Cinzia... Sei una ragazza di 18 anni... Non vorresti doppiare le attrici della tua età? Eh... Senz'altro... Sarebbe quella la mia massima aspirazione... Comunque il lavoro è sempre ben accetto... Soltanto che credo di essere ormai caduta in una specie di vortice... Se si pensa a me soltanto per doppiare... Appunto Freeman o Eastwood... Che ben vengano... Però... Ecco... Doppiare... Già una Bridget Jones... Mi... Mi affascinerebbe di più... Lo speriamo tanto... Complimenti... E... In bocca al lupo per il tuo lavoro... Grazie... Grazie... Crepillupro... Greg e lì l'agenzia 610... Siamo nuovamente in compagnia di Valentina Paoletti... Che in realtà non è qui con noi ovviamente... Infatti ancora non siamo in compagnia... Perché... Dov'è Valentina Paoletti? Chi può saperlo? Si spinge sempre nei posti più estremi... Proprio per soddisfare la nostra esigenza di estremo... Di extreme collegamento... Extreme collegamento... Ovvero i collegamenti estremi di Valentina Paoletti... Che gira il mondo... E ci fa conoscere sorprese... Misteri di questo nostro bel pianeta... Ma scopriamolo... Scopriamolo insieme... Sentiamo se è partito il collegamento... Non sono collegamenti facili... Perché lei si trova spessissimo... Nell'altro capo della terra... Del mondo... Quindi è difficile tenere la linea... Soprattutto è difficile parlare con lei in modo chiaro... Ma sentiamo ora... Pronto? Buonasera... Buonasera a tutti voi... Ciao Valentina... Eccola qui Valentina... Il fatto che tu dica buonasera... Significa che hai sbagliato... Che dalle tue parti è sera... No, significa che dalle mie parti appunto è sera... Ah, ecco... Mi trovo infatti a 500 chilometri a sud di Treleo... Nel Chubut... Nel Chubut... Nel Chubut... Sì, conoscete questa zona? Certo, si parla di Patagonia... Patagonia, benissimo... Ma soprattutto... Dove mi trovo... Questa è rinomata per essere una zona arida... Sì, lo sappiamo... Sì, e c'è soltanto... C'è soltanto sviluppato qui... Una rarissima pianta carnivora... Ah... Infatti sono qui per fare questo servizio... Per parlare di questa pianta... Ah, ho capito... Quindi diciamo in questa zona desertica... Sì... Invece vive... Sì, vive da un'unica pianta carnivora... Carnivora gigantesca... Dal nome di... Valsanilla... Vorex antropofaga... Cazzarola... Ecco, a questo nome particolare... Credo che si nutra di insetti... Insetti grandi... Forse di questi insetti antropofi saranno questi insetti... No, perché appunto l'antropofaga... L'antropofaga... Ci ricorda un'altra cosa... Insomma, il fatto che... Che ti ricorda? Beh, non è che... Gli uomini... C'è antropofaga... Ma fa che stanno dicendo... No, ma si nutra soltanto di questi insetti... Ah... Vabbè, lasciamo perdere... Ora vi spiego un po' come è fatta questa pianta... Cioè, tu dici che antropi sono degli insetti... Ma credo di sì, credo di sì... Quindi non vuol dire che mangia le persone... Assolutamente no... Quindi non è pericoloso... Conosco il mio lavoro... So quello che faccio... Certo, scusa Paolo... Scusa, scusa... Allora, vi stavo dicendo che questa pianta... Ha uno stelo lungo di un metro e cinquanta... Addirittura... Sì, è molto molto grande... E il diametro del fiore è di due metri e venti... Madonna, è gigantesco... Cazza roba... L'esterno della pianta è di un verde molto acceso... Invece all'interno è colorata di lilla... Lilla... Un lilla molto gioioso... E credo che abbia questo colore... Proprio per attirare gli insetti... Certo... E poi mangiarseli... Sì, quello è sicuro... Io so che le piante carnivore... Hanno dei colori sgaraggianti... Sì, proprio per attirare... Per attirare gli insetti... Sì, questo lilla... Credo che... Lilla è molto bello... Tra l'altro... Attiri questi insetti... Invece le foglie... Le foglie della pianta sono... Ma... È proprio bello sto lilla... Eh beh... Certo... Immagino... È un bel lilla... Perché poi... È un colore che... Che utilizza la pianta... Per attirare gli insetti... Quindi immagino... Sì, un po' di sicurezza... Di... Di allegria... Di felicità... Eh... Di sceviti le foglie... Le foglie invece... Ah sì... Ecco... Le foglie sono attaccate allo stelo... Ma... Questo lilla... È un lilla così gioioso... Sobrioso... Eh... È fantastico... Mi sta tirando a sé... Eh... Valentina non ti avvicinare... Che può essere pericoloso... Ma no Lillo... Non è pericoloso... Conosco il mio lavoro... So quello che faccio... È fantastico... Valentina... Valentina... Eh lo sapevo... Io lo sapevo... Lo sapevo... C'è il rischio che cada la comunicazione... Valentina... Si dilunga... Si dilunga troppo... E non sappiamo adesso come sono fatte le foglie... Eh infatti... Stanno parlando del Lilla... Che avevo capito... Lilla gioioso... Ah senti qualcosa? Aspetta... No niente... Niente... Rumore di fondo... Niente... Quindi... Vabbè noi speriamo di ristabilire il collegamento... Per Extreme Collegaments... Nel corso della nostra trasmissione... Però mi sa che... Per questo momento... È tutto... Quindi... Niente... Ci salutiamo così... Eh... Problemi tecnici... Ci salutiamo qui... E speriamo a dopo... Greg e Lillo ai microfoni di Radio 2 per 610... Siamo arrivati al momento del trailer... Ma siamo arrivati anche al momento di parlare di cinema... Con una grande artista... Una grandissima cantante... Che tutti conosciamo... Patti Bravo... Ciao Patti... Patti Bravo amicizia lunga... Eccola qui... Patti Bravo... Non sta... Non sempre... Non sempre... Non sempre bisogna salutare... Sì sì... Anche noi siamo d'accordo... Non d'accordo... Non salutiamo... E passiamo direttamente a parlare di cinema... Di cinema... Con Patti... E c'è... Nei vari generi... Per esempio c'è il genere di fantascienza... Che ultimamente ha preso di nuovo piede... Come succedeva già negli anni... Nel fine anni 50... Così... E c'è... Qual è il tuo film di fantascienza preferito... Del science fiction... Le sedie morte... Le sedie morte... Le sedie morte non mi pare... Come il film di fantascienza... Mi sembra il titolo in questo... Che lei disse... Vabbè comunque... Le sedie morte... No... Un film di fantascienza... È una base lunare... Cos'è il sedie morte... No... Mi cominciò le stelle... La macchina del tempo... Ah c'è la macchina del tempo... Un film con la macchina del tempo... Però il titolo... Qual è il titolo? Ma non è il titolo del futuro... No... È un ruoto... 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 A rotto... A rotto... No no no... La rotta... La rotta... La rotta... Ma non esiste un film che si era... Prima... Ah e adesso... Adesso esiste... Poi vi state... Diventerò un ghezzo... Diventerò un ghezzo... Diventerò un ghezzo... Vabbè ragazzi... Vabbè andiamo avanti... Sentiamo il trailer... Trailer... Presidente italo-australiano... Si amano... E Sydney è bella... Ma il ricordo di Clara... Torna sempre al suo paese... In Italia... Che cos'hai Clara? I tuoi occhi versano lacrime... Eh Gaetano mio... Tengo tanta nostalgia di minori... Il mio paesino sulla costiera amalfitana... Ma qui siamo dei signori... Abbiamo terre... Animali... Servitori... Lo saccio Gaetano... Lì ero povera... Ma stavo a casa... Ma perché Clara? Questa non è casa? No Gaetano... Chi sta non è casa? Clara è lontana dal suo paese... Da tanti anni... E Gaetano la ama troppo... Per restare insensibile... Clara domani partiamo... Ti porto da Amalfi... Oh Gaetano... Potrò rivedere minori... Non solo... Minori... Ravello... Amalfi... Positano... Maiori... Sono tutte belle Gaetano... Ma tu non mi capisci... Minori è speciale per me... Mi riporta all'infanzia... Mi riporta ai primi amori... Mi riporta ai miei nonni... A papà... Mamà... Mi riporta alle amichette... Insomma... Minori mi mi... Capito Clara... Minori ti riporta... Minori ti riporta... Nei cinema... Un'astronave aliena... Atterra su un orto... Lasciando tracce di texilonio... Un carburante appunto alieno... L'orto è di Pier Maria Carletti... Un uomo cento volte più debole... Stupido ed inetto... Di un uomo normale... Pier Maria mangia i pomodori... Che lo rendono cento volte più potente... Diventa quindi normale... E si cuce un costume da supereroe... Queste sono le origini di... Normalman... Normalman in... L'indicazione... Roma... Ore 12.35... Un uomo in automobile chiede un'indicazione a un passante... Mi scusi... Per viare delle abilizie... Allora guardi... Deve girare alla prima a sinistra... Arrivare alla diazetta... E poi sempre dritto... Anzi no no... Mi faccia pensare... Pier Maria Carletti... Alias... Normalman... E' a pochi metri... E ascolta tutto... Il mio normal udito... Mi dice che quelle indicazioni sono tutte sbagliate... Questo è un lavoro per... Normalman... Pier Maria cerca la toaletta di un bar per cambiarsi... La trova... Prende un caffè perché non è carino soffrire del bagno senza consumare niente... Si cambia... Esce dalla finestra della toaletta che dà sul cortile... Fai il giro largo e in meno di 15 minuti è sul posto... Il passante sta ancora tentando di spiegare la strada al malcapitato... Senta io ho abbastanza fretta... Se non sa dove si trova il gale delle milizie chiede un altro... No no aspetta aspetta... Adesso ricordo... Per il gale delle milizie deve tornare indietro e poi... Stia zitto... Lei non sa affatto dove si trova il gale delle milizie... Lei è solo un pensionato che cerca di passare il tempo ai danni di questo povero automobilista... Lasci fare a me... Oh... Normalman... Sono proprio io in carne ed ossa... Allora per il gale delle milizie deve arrivare all'incrocio... Girare subito a sinistra la seconda a destra... Grazie Normalman... Non mi ringrazio... Addio... Lì dove c'è un problema di tutti i giorni... Lì dove necessita un piccolo aiuto... Lì c'è... Normalman... Greg e Lillo Radio 2 610... Eccoci di nuovo qui per il nostro spazio dedicato all'astrologia... E quando si dice astrologia è ovvio dire Saturnus... Saturnus... Buongiorno Saturnus è ben arrivato... Buongiorno a tutti e che Saturnus... Sia... Con tutti voi... Ah se si è imbarato lo slogan mio... E sta cominciando a diventare una certa fama... E' uno slogan d'effetto... Buongiorno buongiorno... Allora Saturnus... Tante sono le mail e le lettere che arrivano... Ma veramente tante... Che sono tutte indirizzate a te... Tutte le interrogativi... Ma tante riguardanti questo mondo misterioso... D'affascinante dell'astrologia... Ma che c'è di misteriosi affascinante... Però comunque quanti interrogativi che non si possono rispondere sull'astrologia... Beh comunque tu comunque Saturnus puoi rispondere a tutte queste domande... Ma proprio no... Guarda proprio non manca io... Vabbè comunque scherza sempre il nostro Saturnus simpaticissimo... Ma ora non è il momento di scherzare... Pensi di passare alle lettere dei nostri radioascoltatori... Che sono numerose ed interessanti... Vabbè passiamo subito a sentirle queste lettere... Allora ci scrive Silvia Cogliandro da Massa Lubrense e dice... Caro Saturnus sono una vergine di 39 anni... Mio marito è un toro... Questo ci ha sempre creato problemi... Specialmente a livello di intesa sessuale... Forse devo smussare le mie qualità di vergine... O lui deve essere meno toro... Che puoi rispondere Saturnus? Che ci devo rispondere? Lo sei tu Saturnus... Sei tu l'astrologo... Che ci deve rispondere? L'hai sentita no? È vergine... Ha problemi col marito che è un toro... E te lo credo che ha dei problemi... A livello di intesa sessuale... Dove ci vuoi avere i problemi? De matematica scusa... Già una che è vergine a 39 anni... Qualche problema ce l'ha... Poi specie con un marito che è un toro... Quello sarà assadanato... Già c'è partito tutto arrazzato al matrimonio... Che sperava di sfortare la notte stessa... E invece niente... Ha stecchetto tutti stanni... Quello se ne trova un'altra per sfocarsi... Che no? Ma Saturnus... Silvia chiede se deve smussare le sue caratteristiche di vergine... O se deve smussare il marito... Ma lei le deve smussare... Chiaro... Ma poi che intende per smussare? Gliela deve dare... Non puoi tenere la stecchetta a vita... Silvia bella... Silvona che te vuoi smussare... Devi piantare da essere vergine... C'hai 39 anni fietta bella... Vabbè Saturnus... Se il marito è moglie... Lui è un toro... Cioè lo dice pure lei... Ho capito... Ci farà le poste quando lei entra a casa... L'ultimo immagini questa delle notte... Vabbè ma Saturnus... Lui sarà lì bella bella... Ho capito ma non intendeva quello... Non intendeva quello... No no sono vergine... Ma guarda io... Saturnus non intendeva quello... Comunque lasciamo perdere... Grazie lo stesso... Andiamo avanti Greg Elyllo Radio 2610... E anche oggi continuiamo a parlare di radio... Cioè delle altre radio... E una radio in particolare che ci sta a cuore... Che è Radio Maldana... Questa radio così innovativa... Un'intente giovane... Un'intente giovane che tratta un po' di tutto... Di spettacolo, di musica e di tant'altro... Abbiamo qui comunque l'esperta del settore cinema... Di Radio Maldana... Che Tansia la volete... Ciao Tansia... Che bello... Dai che ancora parliamo di cinema... È così importante parlarne... Allora Tansia... A cosa si attribuisce... Secondo te la crisi del cinema italiano? Eh... Ma è la domanda questa... Sai il cinema italiano principalmente... Non torpola ansifatto... Le trame sontano di giovani... Si gova... Si tende a pindare verso i sudti del cinema... Più facile viletto... Questo è il punto... Scusa... Si gova... Eh... Viletto? Sì... Si gova? Eh si gova e si tende a pindare... Versi i sudti del cinema... Più facile viletto... Capito Greg? È questo veramente il problema... È il problema... La crisi viene da lì... Da lì dal viletto... Certo... Ma sentiamo uno dei trailer scelti da... Tansia la voletti per Radio Maldana... Si... Una favola per tutti i pirani... Sul meraviglioso lonto di Parne... Fopi, Fopi... Vieni... Andiamo a potere dati? Non posso... Mamma vuole che Rol si va... Allora... Ghibbiamo assunto... Ma Fopi è testarlo... E un giorno... Tiralla nel putero... Io pilpo la pitana... La 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 la... Oh Fopi... Perché non carol ti ambano? Ma la mamma non birda... E tu rinzi... Solamente Lanco... Può ripare la notte... Fopi è stato ripato... Dobbiamo eronte... Cucciamolo... E il sole... Tornappare coi canti... Oh grazie Rufoli... Sensi il vostro pone... Sarai l'orbo... Fopi è la mrrana magica... Annamago nei cipeni... Bel trailer però... Bello eh... Non si è capito molto... Ma come? No ma scusa... Bisogna tenere sempre presente una cosa... Quando uno svede... Il cinema stato non ve resta... E si torna la svicca attorno... Alla svicca... Si torna... Attorno... Attorno... E si torna la svicca attorno... Perché il cinema stato non ve resta... Vabbè teniamolo presente questo... Teniamo presente tutti quanti... Questo... Comunque andiamo avanti... Greg Lillo Radio 2 610... A Stani... A Stani a tutti... Saluto di tanti laureati... Hai provato la nuova offerta Pago Tutto? La nuova carta prepagata Mastercam di InfoView? Con Pago Tutto da oggi paghi subito tutto senza sconti... E con Pago Tutto puoi pagare anche quello che fino a ieri era gratis... E con la nuova formula Pago Doppio... Puoi scegliere di pagare due volte la stessa cosa... Con solo un euro di costo in più per la prenotazione... Greg... Si... Mi sembra vantaggiosa come offerta... Ad occhio mi sembra vantaggiosa... Ma non ho capito bene i vantaggi... E' una forma innovativa di Mastercam di InfoView... Che è il Pago Tutto... E' una carta che tu scarichi a 10 euro settimanali... Paghi 10 euro a settimana... Pago io 10 euro a settimana... E hai diritto a questa carta... Con questa carta ti viene adebitato sulla banca quello che paghi... Senza sconti... Anche se ci sono degli sconti... Te invece puoi... Media a zero... Te puoi pagare tutto quanto così... E puoi pagare anche quello che fino a ieri era gratis... Cioè delle cose che arrivavano gratis... Che comunque mi sarebbero arrivate gratis... Con questa testa... Con questa invece... Ti viene riconosciuto un pagamento... Un pagamento... Si... Che poi adesso non so quant'è... Puoi anche sceglierlo tu... Comunque mi assicura che io pago tutto... Si... Te puoi scegliere... Magari ecco... Le cose gratis io le voglio pagare 100 euro... Ah... Poi magari te posso consigliare anche loro 200-300 euro... Dipende... Comunque... E hai questa cosa... In più adesso c'è la nuova formula... Pago doppio... Che puoi scegliere di pagare due volte la stessa cosa... Con solo un euro di costo in più per la prenotazione... Ah ho capito... Quindi questa mi ha la possibilità di pagare doppio... Una cosa che mi ha la possibilità di pagare doppio... Una cosa che mi ha la possibilità di pagare doppio... Una cosa che mi ha la possibilità di pagare doppio... 20 euro... Io la pago 40... 40 più 1... Un euro di prenotazione... Vabbè ho capito... Andiamo avanti... 610... Greg e Lillo ai microfoni di Radio 2... 610... Siamo qui con Massimo Bagnato... L'artista che rappresentiamo da un po' di tempo... L'artista che ci sta dando moltissime soddisfazioni... Dal punto di vista proprio dell'interesse di tanti esercenti della tv... Dello spettacolo... In generale che è qui con il maestro in prota... Che salutiamo... Che è il suo accompagnatore... Buongiorno... Buongiorno a lei maestro in prota... E Massimo Bagnato appunto che è in veste oggi di cantautore... Lui è un artista multimediale... Ma oggi è in veste di cantautore... Sì... Sì... Grazie Greg... Grazie Lillo... Io... Io non ho detto ancora nulla... Però va bene... No però ti ringrazio sulla fiducia... Bene bene... Che bello che è Massimo Bagnato... Eh sì... Adesso... Senti con doveri... Un po' di mattina io sono particolarmente limpante... Insomma... Sì sì... La mattina all'oro in bocca... Allora... Io sì... Sono in veste di cantautore... Racchiudo tutto questo in un album... Che forse vi rappresentavo tra una diecina d'anni... Insomma... Un lavoro che ho preparato... Ma che ha tempi di realizzo abbastanza lenti... Oggi presento un pezzo che si chiama La mia giornata... Racchiude le azioni che faccio durante il giorno... Insomma... Comunque è da scoprire... Il pezzo si chiama La mia giornata... E lo volevo proporre qui a 610... Bene... Massimo Bagnato in La mia giornata... Mi sveglio la mattina... E vado a lavorare... Poi a pranzo... Io pranzo... Poi ricorno a casa... A casa... E da cena... Io ceno... È finita... Sì... Quella giornata ho fatto soltanto queste cose... Ah va bene... Grazie a Massimo Bagnato... Lo salutiamo insieme al maestro in prota... Greg Lillo Radio 2 610... Grazie... Ah scusate... Sì... Conosci mia cucina... Conosci mia cucina... Sì... E comunque lo spazio del cuoco... Si sa che da anni è uno di quelli più seguiti in televisione... Qualunque programma degno di questo nome... Ha il suo momento della cucina... Quindi anche noi abbiamo un ospite... Che possa onorare questo spazio... E abbiamo niente meno che Salviero Salvieri... Il grande chef che da anni ha insegnito... Dal Cordon Bleu... Per i suoi innumerevoli meriti... E per le sue ricette di fantasia raffinata... Buongiorno Salvieri... Buongiorno a voi... E grazie dell'invito... Oh Salvieri sta già preparando un piatto... Probabilmente sentirete in sottofondo... Tutto questo allegro sfrigolì di tecami e padelle... No beh... Che piatto ci sta preparando? Lasciamo sia lui a dircelo... Esattamente... Io sto preparando delle uova al tegamino... Uova al tegamino? Cioè il classico piatto di uova soffritte nel tegamino? Esattamente... Io in qualità di chef... Mi sono permesso di rilaborare levemente la ricetta originale... Per creare un piatto che fosse lo stesso momento tradizionale e innovativo... E su questo non avevamo dubbi Salvieri... Più che altro abbiamo domande... Mille domande... E come si prepara questa sua specialità? Allora... Si prendono due uova a testa... Si rompe il guscio... E le si versa in una padellina o in un tegamino... In cui si è precedentemente fatto soffriggere un po' di olio... E... La gusto personale dell'aglio... Chi vuole può anche aggiungere della salsa di pomodoro... Alla fine si versano alcune gocce di questa salsa di mia preparazione... A base di spezie... Et voilà! Che profumino amici radioascoltatori... Veramente da far venire l'acquolina in bocca... Ma che salsa è quella? È una salsa di mia creazione a base di spezie... Dicevo... Ma sono squisite... Squisite... In effetti sono uova al tegamino ma con qualcosa di straordinariamente unico... Esattamente... Salvieri ci dica che cosa ha aggiunto che c'erano quelle spezie... Su ce lo dica... Eh no... Ogni chef ha le sue risorse nascoste... Cose che non si possono svelare... Salvieri lo faccia per noi... Solo per noi di 610... La preghiamo... Che cosa? Cosa dovrei fare? Ci dica un suo segreto... La preghiamo... Un suo segreto... Un mio segreto... Va bene sì... Allora... Sarà stato più di dieci anni fa... Mi trovavo a Barcellona in viaggio di nozze con Elga... Che è appunto mia moglie... La sera stessa del nostro arrivo prendiamo l'aperitivo... E poi andiamo a cena in un ristorante di gran lusso al vario gotico... Durante la cena la cameriera non fa altro che guardarmi e sorridermi... A un certo punto allora mi alzo con la scusa di andare al bagno e le parlo... Mi dice che è sola... Che quella sera non le va di dormire senza qualcuno accanto... Insomma fa tutte un po' di moine... Allora io le do l'indirizzo del mio albergo... E le chiedo dove è la farmacia più vicina... Corro a comprare un potente sonnifero... Ritorno... Lo verso nel bicchiere di Elga... Senza farmi accorgere... E le propongo un brindisi al nostro matrimonio... Dopo neanche dieci minuti Elga comincia ad appisolarsi... Allora chiamo il taxi... Arriviamo in albergo... Butto Elga nel bagno e aspetto la cameriera... Quella arriva... Ci spogliamo... Cominciamo un po' a toccarci... Poi sento Elga che mugugna in bagno e si stava svegliando... Allora Ento le do una botta in testa con la porta... Quella risviene di nuovo... E da quel momento non ci sono stati più ostacoli... Io mi sono fatto una scorpacciata di sesso... Quella notte alla faccia di mia moglie proprio... Ma che c'entro? Non mi avevate chiesto un mio segreto? Sì ma intendevamo culinario... Un segreto suo di cucina... Qualche ingrediente particolare... Ah no 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 no... Sono cose troppo personali... Mi dispiace... Grazie comunque a Salviero Salviere... Speriamo di riaverlo qui con noi la prossima volta... E tutto per questa puntata di Conosci Mia Cucina... Gregg e Lilo 610 Radio 2... Vuoi una nuova auto? Acquistala da Chianciani Auto... Più di 10 rate a settimana al prezzo del tuo concessionario... Immediatamente visualizzabile sul tuo computer di fiducia... Collegati immediatamente con www.motoline.com... Puoi vincere una crociera di un anno nell'isola che ti arriverà sul tuo telefonino... Con un MMS al costo fisso più 3 ore di telefonate a vuoto... E se non vinci puoi pagare interamente senza sconti direttamente dal tuo decoder... Gregg... Sì? Non ho capito assolutamente nulla di questo spot... Ma te devi si seguirli perché sono delle offerte che ti sfugono... Perché tutti quanti poi se le aggiudicano... Qual è l'offerta qua? C'è questo concessionario a Chianciani Auto che ha messo su questa cosa 10... Paghi più di 10 rate a settimana... A quello che ti mette presso il tuo concessionario... E immediatamente... Pago in più per fare cose? Sì... E ce l'hai e lo puoi visualizzare subito sul tuo computer... Quello che pago? Sì, quello che pago... Ma che metriamo? Lo segno su un taccuino? Non ho capito perché... Ma che c'è un taccuino? Sei mai un taccuino nel mariale cartaceo? Ma perché devo pagare di più soprattutto poi? Ma è un incentivo! Poi se ti colleghi immediatamente... È un incentivo per loro, per la concessionaria... Scusa... Ma lascia a perdere, però è un incentivo... Se ti colleghi con questo sito www.motonai.com Puoi vincere una crociera di un anno... Capito? Un anno di crociera ininterrotta... Nell'isola che ti arriverà sul tuo telefonino... Mariva, l'isola sul telefonino, Mariva... Sì, il tipo di isola, l'immagine, tutta la mappa, tutto fatto bene... Con un MMS, quindi appunto con l'immagine visualizzata, così... A costo fisso, più tre ore di telefonate a vuoto... A vuoto? Certo! A vuoto, cioè praticamente... Quelle telefonate, quelle che avresti perso... Non risponde nessuno così... Quelle a vuoto normalmente... Qua invece, c'è nei tre ore che puoi pagare... Ah, cioè io pago le telefonate a vuoto... Vabbè... Sì, con tre ore... E poi, questo se vinci... Se non vinci, puoi pagare interamente e senza sconti... Direttamente dal tuo decoder... Ah, ah beh... Cioè tu hai il decoder, no? Per vedere... E pago... Lo imposti e paghi... E paghi quello che ti pare, insomma... Vabbè, andiamo avanti... 610, buono sconto... La roulette russa! Ed eccoci di nuovo ai microfoni di Radio 2... Siamo qui al secondo piano di Via Asiago... Sempre per 6 Greg Zero, Lillo e Uno... Qui e siamo arrivati al nostro spazio dedicato alla roulette russa... La roulette russa è un gioco che ormai credo che tutti quanti conoscano... Un gioco che consiste nel prendere una pistola e scaricarla... Tranne un colpo... E nel tamburo, su sei colpi, insomma, c'era uno solo... Si fa a rullare il tamburo e poi ce lo si punta alla tempia... Prima uno, poi l'altro e vince, insomma, chi rimane in vita... E' questo quello che noi vogliamo fare con i nostri radioascoltatori... Per interagire con loro e per giocare... Perché per rimanere giovani bisogna sempre giocare... Rimanere giovani fino a che, appunto, magari il colpo invece ti arriva alla tempia... Ma oggi vogliamo rimanere giovani giocando con... Pronto... Pronto, sì, ciao, sono Alfio... 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 Sì, dalla Dispoli, chiamo dalla Dispoli... Dalla Dispoli, benissimo... Complimenti per la trasmissione... E ho già provato in passato a mettervi in contatto con voi... Ma era sempre la linea occupata... Proprio quando facevate la rulletta... Arrivano molte telefonate... Comunque, perché lo capisco, perché è un gioco elettrizzante... È molto bello, molto bello... Una bella idea, una bella idea... Sì, grazie, grazie davvero... Allora, vogliamo giocare insieme subito? Senz'altro, va bene... Ok, siamo carichi... E' carica anche la tua pistola? Sì, sì, ho qui tutto pronto... Ho la pistola tamburo... Già che tolto tutti i colpi... Tranne uno, ovviamente, che è rimasto nel tamburo... Quindi possiamo anche cominciare... Tra l'altro, è una bella pistola tamburo... Sono appassionato... Mi piacciono proprio più quelle a tamburo... Che quelle automatiche... E' un po' un pistolero batterista, ecco... E niente, è una pistola... Posso parlarne un po' prima di cominciare il gioco... Perché ci tengo particolarmente... Perché è una pistola che io comprai... In un mercatino... Mannaggia... Mi è partito il colpo... Ho sentito un grido... Sì, sì, era la tata di mio figlio... Che è morta... Mannaggia, ho preso lei... Però no, dico... Mi dispiace perché non posso più giocare... E' un colpo solo... Un proiettile solo avevo... Come un colpo? E' un proiettile solo... Ma come faccio a giocare? Bisogna sempre avere tutto l'occorrente a disposizione... Quando si gioca... E lo so, ma ne è uno solo... E' un colpo solo... Che mi basta... Perché serve un proiettile solo... Magari si inceppa la pistola... Oppure i proiettili vecchi... E' sempre meglio avere le altre disposizioni... Comunque... Devo riprovare a prendere la lina... Le prossime volte... Certo, sì... Però devi stare anche più attento... Quando si maneggiano le pistole... Sai, insomma... Eh, lo so... No, poi tra l'altro... Ho pure messo il problema... Della tata di mio figlio... Che insomma era di fiducia... Vabbè, comunque dai... Poi vediamo un po' di risolvere... Va bene, grazie comunque... Grazie di cuore... Grazie a te... Mannaggia, mi dispiace... Salutiamo Alfio... E purtroppo, cari radioascoltatori... Oggi è un po' andata così... Però ci rifaremo la prossima volta... La prossima puntata di Roulette Russa... Sempre Greg e Lillo... I microfoni di Radio 2 per 610... Stiamo per collegarci con Stefano Frosi... Che in veste di archeologo... Sta girando il mondo... Ultimamente per trovare delle reliquie... Per trovare dei reperti interessanti... Storici, esclusivi, particolari... Sentiamo dove si trova Stefano in questo momento... Pronto? Eccomi qua, simpaticamente... Tanta salute a tutti... Anche da parte nostra... Grazie... Ecco, oggi sono in una radura... Una radura... Molto... Molto ricca di possibilità... Archeologiche... È molto buio... Eh? Beh, non è... È incredibile... Sono davanti a una tomba egizia... No! Egizia, è sicuro perché la forma... Ma sei in Egitto? No! Dove stai? Appena sotto Viterbo... Eh, ma scusa... No, perché c'ho casa mia... No, vabbè, ma... È chiaro che è Egizia... La forma è piramidale... Ho capito, è piramidale... Ma questa è a Viterbo... No, 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 no... Ma che c'entra? Beh, perché gli Egizi giravano... Era gente che girava... Ma che scherzi... Ma non veniva la Viterbo... Vedrai, vedrai... Guarda... È molto piccola... Ecco... È molto piccola... In tela... In tela... Una piramide in tela... Beh, è la prima che viene ritrovata... Una piramide in tela... Ecco... Ora prova a entrare... Scusa, com'è la piramide in tela? È buio... È molto buio... Attenzione... Non vorrei rovinare... Ma non è una tenda quella per caso... No, no, no... È piramidale... Eccola... Intravedo... La sagoma di una mummia... Probabilmente una regina... Ma la stai toccando? Visto... No, no, ancora no... Ma visto che la piramide è piccola... Sarà una reginetta... Una reginella... La reginella, forse... Reginella... Beh, è assurdo... Io... Intravedo il volto... È conservata perfettamente... Ah, sì? Sembra dorma... È dormesì... Russa anche, Stefano... No, no, no... Ora sposto i sacri tessuti... Che ne ricoprono il... Beh... Ma è pazzesco... È stata mummificata senza veste... Ah, è nuda? Mummificata nuda... Ah... Il primo ritrovamento del genere... È come dire... È perfetta... Ah... Se mi permettete... Senza malizia... Possiede delle grandi puppe... Direi un'ottava da capogiro... Ma ho capito, Stefano... È pazzesca... Ecco... La sposto delicatamente verso l'uscita... Sì... La tiro fuori dalla... Dalla... Dalla piramide... Dalla piccola piramide... Ma... Ma chi è? Ma chi... Ah... Ah... Che scherza chi è? Ma che porco... Ma chi è? Diopolo, diopolo... Quello zottone... Che molesta la bugiera mia... Diopolo... Stefano pronto... Ste... Eh... Vabbè... Ma come sono fatte le tende egizie? Quella era la tenda... Eh... Scusa... Di tela... Andiamo avanti... Va... Greg e Lillo Radio 2 610... Ancora Greg e Lillo... Ancora 610... Ancora Radio 2... Ancora Patti Bravo... Che ospite anche oggi... Con noi per parlare un po' di cinema... Per scambiare qualche battuta... Su questo bene amato mondo... Di celluloide... Infatti... Vorremmo sapere da te... Se hai un film preferito... Del mondo Disney... Di tanti film... Fatti dalla Disney... La Fantasia... Pinocchio... Insomma... Carica di 101... Libro della Giungla... Arrivando alla Sirenetta... All'ultima produzione Disney... Qual è quello che preferisci? Il suo bianco... Il suo bianco... Il suo bianco... Il suo bianco... Il sole bianco... No... Il sole... No... No... Il suo bianco... Il suo bianco... Ma il tono bianco... Di alla Disney... No... No... Il suo bianco... Scusa... Patti... Non ti capiamo bene... Scusa Patti... Facci una cortesia... Dicci un po'... Forse... Come riconosciamo bene... I film Disney... E Greg... Dicci un po' di drama... Un po' di drama... La storia... Ecco... Vuoi dire... Entrò... Entrò... Onde si tirò... Ma... Dopo il super... Tutto il suo incontro... E si ritrovo... E si sta... I top... Ci sono i top... Ci sono i top... Ah... Ci stanno i gatti... Gli aristogatti... Il cortile... No... C'è un vestidino... No... C'è un cortile... Biancanere... C'è una dentola... Un miero... Si spegne... Salto... E salto... I gatti... E saltano i gatti... E quindi... I aristogatti... E' degli aristogatti... Il sito del toro bianco... Il sito del toro bianco... Il sito... C'è un sito... VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV zero prima. Anche il lavoro del veterinario in un giardino zoologico ha i suoi colpi di scena. Dottore, dottore venga presto, è successa una cosa tremenda. Calmati, calmati Simon, dimmi qual è il problema. La rivelazione di una spaventosa realtà. Questa notte i topi hanno invaso la gabbia di Shiba. La pantera? Sì. E Shiba li ha uccisi tutti? No, è lei che ha avuto la peggio. Un horror che non vi farà più dormire. Ecco dottore, guardi lei stesso. Ma è terribile Simon, i topi, i topi hanno ucciso la pantera. Sì e l'hanno rosicchiata tutta. La pantera rosa nei cinema. Grazie a tutti. Un astronave aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di... normal man. Normal man in... la corrente. Roma. Ore 19.45. Pier Maria Carletti è nel suo bar preferito e sta sorseggiando una camomilla prima di cena. È proprio una serata tranquilla, non trovi Aristodemo? È vero ragionare Carletti, una serata tranquilla. Ma che succede? È andata via la corrente. Purtroppo c'è troppo assorbimento. Ora spengo la piastra, ma poi bisogna riattivare il salvavita. Questo è un lavoro per normal man. Pier Maria approfitta delle tenebre per raggiungere il bagno. In meno di sette minuti si cambia, prende la normal torcia e si precipita nella sala. Oh, normal man. Niente paura. Ditemi dove si trova il salvavita e farò in modo che in questo bar torni la luce. L'interruttore è fuori della porta che dà nel cortile, subito sulla sinistra. Oh, normal man. Normal man. Grazie alla normal torcia va a colpo sicuro. Ehi, men che non si dica, riattiva il salvavita. Ecco, ora mi cambio. Torno di nuovo Pier Maria Carletti e faccio il giro da fuori. Non vorrei che il barman si insospettisse. Ah, è tornata la corrente. Sì, è stato normal man. Peccato che se ne sia andato. L'avrà ringraziato davvero volentieri. E che ci vuoi fare, Ristodemo? Questi supereroi a volte sono strani. Però normal man è proprio forte. Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è normal man. Greg e Lillo, Radio 2 Seno Zero. Siamo qui con Miss Italia che è venuta a trovarci per promozionare il suo libro, un libro comico che ha scritto recentemente. Adesso i libri comici vanno alla grande, vanno benissimo. Vanno più che bene. L'unica cosa è che lei non è una comica, non lo è di professione, però è divertente come persona simpatica, no vero Miss Italia? Simpaticissima. No, me lo dicono in continuazione. Ammazza non sei simpatica. Pensavo che eri bella, sai quelle cose che eri bella solo, solo bella, invece no, bella e simpatica. Sì, infatti. E infatti. Tanto è vero che se faccio il libro di comici, è ovvio che... Sennò hai fatto il libro di belli e basta. Beh, becca di questo. Sì, invece parliamo del... raccontaci qualche... Ecco, parliamo un po' del libro. Siamo qui per questo. Eh, infatti, parliamo del libro, allora raccontaci. Parlaci dei contenuti, dai. Ah, di contenuti sono... Deve far ridere la gente che poi se legge. Eh, è vero. Quindi tutte cose veramente di ammazzarsi delle risate, che magari io ho visto in giro e... Te osservi, sei una spugna, vero? Che osserva e ti segni le cose. Perché bevo di... No, no, la spugna, pure spugna è una cosa positiva. No, io guardo. Guarda, guarda, è simile, poi scrive subito sul brucchetto. Pure ascolto. Ascolto, sì, esatto. Tutto ciò che vedi. Ma possiamo avere un... così, un'anteprima, qualche cosa... Per incogliare i nostri... Allora, vabbè, mi dico... Questa cosa mi è capitata un giorno... Che praticamente... Pio è entrato dentro un palazzo, no? Allora, mi chiamavo dall'ascensore... Aspetta un minuto, due minuti, dopo praticamente arriva l'ascensore. Eh, eh. Allora, entro dentro, vedete, questo ascensore... Che piano va? Non mi ricordo se era tre o qua. Vabbè, insomma, sei salita. Che poi una cosa è capitata scassissima. Però, però, quando ho sul libro l'ho scritto preciso. Ah, è scritto preciso. diciamo, di peto si può dire. Ecco, allora, poi che è successo? Ah, ma l'ho scritto subito. Eh, no, ma dico, eh, poi... Ho messo dentro il libro. Ah, hai raccontato questa cosa, cioè, di questo che ha fatto il peto, l'aria. Guarda che fa ridere. No, no, fa ridere, ammazza. Guarda, vedete, è complicissima. Pure un altro c'era dentro l'ascensore e rideva. Eh, ah, quindi fa ridere. Non è che mi ho sumentato. Troppo forte. Veramente divertente, veramente. Va bene, complimenti a Miss Italia e andiamo avanti. Greg e Lido, Radio 2, 610. Eccomi qua. Ecco di qua chi sei? Stefano Frosi. Ah, Stefano. Sì. Dove ci chiami? Dopo lungo, lungo viaggio sono arrivato alla meta, cioè Capo Horn. Ah, Capo Horn. È lì, vicino a Venezia, vicino a Mestre. Sì, sì, dove c'è questo posto. Ma come vicino? Ma che vicino a Mestre? Io sto a Capo Horn, sotto la punta più bassa dell'Argentina. Ma che stai a dire? Capo Horn, lo stai. Capo Horn, quello dove passano tutte le navi. E ci sono stati gli affondamenti, i naufragi. Ho capito, che stai facendo? C'è sempre brutto tempo. Ma che fai? Chi sei laggiù? Ma come che faccio laggiù? Ma avete lasciato... Ma non mi avete mandato qua voi, oh? Ma per cosa? Ma per il collegamento? Ma non era lì, era... Era vicino a Mestre. Capo Horn, Capo Horn, la casa del porno, il locale per scambisti. No, ma come la casa del... È il locale per scambisti. Ma forse... Io la devo cambiare, sta segreteria, ho capito Capo Horn. Ma ci ho messo una settimana per arrivare qui. Ma fai un collegamentino, no? Ma di che parliamo? Ma ho mangiato quale tornito ricco per una settimana, non gliela fò più, ma mi tocca tornare indietro, fatemi dire due cose su Capo Horn, no? E che vuoi dire? E che ne so? Perché per me domanda se c'è qualche scambista, qualcuno... Ma che scambista Capo Horn, ma qua ma figura... E mannaggia la zozza! Vabbè, e che... Vabbè, fa niente, fa niente, fa niente. E dai Stefano, te ne torni, te ne torni in piano piano. Vabbè, 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 vabbè. Dai, ciao. Sempre Greg e Lillo in vostra compagnia, qui su 610, qui a Radio 2. Abbiamo inaugurato qualche tempo fa una rubrica che dedica il proprio spazio agli inventori. Agli inventori, che ce ne sono ancora molti, eh, c'è molta gente che proprio a casa, nei suoi piccoli laboratori, inventa cose che poi possono diventare di grande utilità. E' un paese di eroi, di navigatori e di inventori. E' vero, è vero. Quindi la nostra rubrica si chiama Inventopoli, in attesa di fare Santopoli, però, in effetti, non abbiamo trovato ancora nessuno disposto a venire a farsi intervistare. Sì, infatti, però, per Inventopoli, invece, abbiamo trovato parecchi inventori disposti a raccontare le proprie invenzioni, come il caso del professor... Albino Torrioni. Facciamolo entrare, buongiorno. 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 Buongiorno a voi. Ah, lei è un inventore proprio, cioè di mestiere. Esatto. La sua professione è questa, eh. Invento cose, invento... Che poi vende alle aziende, al... Cerco di farle brevettare, poi di piazzarle nelle varie aziende e... Certo. Allora, ci puoi illustrare la sua ultima invenzione? Certamente, certamente... Di cosa si tratta? E' questa qui. Ora gliela scarto. Sì. Ah, è una pillola. E' una pastiglia, esatto. Una pastiglia. Una pastiglia di colore bianco. Eh, infatti. Diciamo che è simile a un... Sembra un'aspirina, quasi. Esatto. Esatto. Forse leggermente più, così, più sferica. Ed è una pastiglia di cianuro. Una pastiglia? Di cianuro. Di cianuro? Sì. Che è un potente veleno. Eh, non, non conosco il cianuro, ma cosa ci deve fare col cianuro? Noi sappiamo tutti quanti che qualora uno ingerisse una pastiglia di cianuro... Sì, muore. ...morrebbe all'istante. È certo. Per avvelenamento. È ovvio, il cianuro è terribile, sì. Questa pastiglia, invece, grazie alla mia invenzione, che ho inventato questa soluzione... Sì. ...che va spenellata sopra la superficie della pasticca stessa. Il risultato ottenuto è che la riveste completamente di questa sostanza, che veste la pasticca nella sua intierezza e quando uno la ingoia al contatto della saliva, questa sostanza torna insomma ad essere liquida e riveste completamente la zona palatale esofaringea della persona che la ingerisce. E quindi? E questo rivestimento protegge dall'effetto del cianuro. Quindi con questa soluzione che lei usa sulla pastiglia uno non si avvelena col cianuro? Esatto, perché la pasticca scivola dentro il palato esofaringea e poi viene espulsa. No, ho capito. Perde di effetto. E' questo, è bello, però scusi, ma se uno non vuole avvelenarsi col cianuro non ingerisce una pasticca di cianuro, che serve la sua invenzione? Scusi. E serve nel caso uno la ingerisse per sbaglio. Perché uno la deve ingerire per sbaglio, come si fa a ingerire una pasticca di cianuro? Però è la testimonianza dei passi da gigante che sta facendo la scienza al giorno di oggi. Bah. Perché se si arriva al punto che è possibile inventare una pasticca di cianuro che è un potente veleno che però non avvelena. Vabbè, però... Cioè, uno ingerisce una caramella e non succede niente. Pastiglia di veleno e uno muore. Questo succedeva fino a poco tempo fa. Ma perché uno... Adesso che siamo nel futuro uno può ingerire caramella o pasticca di cianuro alla stessa identica maniera e non succede niente. Ma perché uno dovrebbe ingerire una pasticca? Lei è scettico come sempre succede di fronte alle invenzioni. Ma ora io le do dimostrazione ampia di quello che sto dicendo. Va bene. Ecco, la metto in bocca e si può prendere senza acqua. Sì. Perché si mastica e si soglie completamente all'istante. Ho capito. Scusi, ma ha passato la soluzione sulla pasticca? Cosa? Dico, la spennelata con la sua soluzione, la pasticca? No. Ah. Radio 2, 610, Greg e Lillo. Eccoci qui con Alessandra Canale, l'annunciatrice Rai che tutti conosciamo, licenziata qualche tempo fa dalla Rai stessa. Ma allora me lo fate apposta, eh? Che cosa? A dire sempre licenziata, licenziata, basta! Ah no, è vero. Ognuno di noi è stato licenziato una volta nella vita. Io almeno dieci volte sono licenziato. Quindi può capitare, eh? Rai faceva l'annunciatore? No, lo facevo l'annunciatore. Io facevo altri mestieri. Io ho fatto... Allora non sa fare... Dan, 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 dan! No, io... Fli! Provi a farlo! No, non mi riesce, non mi riesce. Non lo so fare. Non lo so fare. Comunque, Alessandra Canale, complimenti perché sappiamo che la tua carriera va avanti. Sì. Va avanti anche alla grande, se non sbaglio. Beh, devo dire, devo dire... Beh, vogliamo dare un'anticipazione al nostro pubblico, eh? Dai, dai, diamo... Sì, sì, c'è un annuncio molto importante che sto facendo proprio da pochi mesi. Possiamo parlarne? Sì. Dai, grazie. Anzi, già che ci sono, vorrei proprio farlo sentire a tutti i radioascoltatori. Slupe, slupe, in anteprima. Sì. Grazie, sentiamo. Sentiamo quale annuncio sta lavorando Alessandra Canale. Arrotino, ombrellaio, se la vostra cucina a gasse fa fumo, noi leviamo il fumo dalla vostra cucina a gasse. Forbici, forbicette, forbici da seta, sciavole, mannaie, crismalesi. La nuova voce degli arrotini è la tua adesso. Esatto, sì. Beh, complimenti. Grazie. È una bella iniziativa. A questo punto veramente complimenti. Sì, sì, è una bella soddisfazione. Dopo anni di carriera. Anche perché è itinerante come... Sì, vado in giro in tutta Italia. Questa è una vera e propria tournée. La sua voce che gira tutta l'Italia. Sì, sì. Grazie Alessandra Canale e la saldiamo da complimenti. Andiamo avanti, Greg e Lillo, 22610. Scrivete a 610. L'indirizzo di posta elettronica è 610-rai.it. 610, scritto in cifre. Parliamo sempre di teatro qua, 610, in nostra compagnia, sempre Greg e Lillo. E niente, abbiamo un ospite veramente straordinario, eccezionale, una grandissima attrice di teatro, nostra amica, tra l'altro Cinzia Mascoli. Ciao Cinzia. Ciao a tutti. Ciao Greg. Eccoci qua. Allora, tu stai facendo... Sei passata diciamo al teatro serio, perché tu hai fatto anche tanto teatro brillante, tanto cinema comico addirittura con Verdone, hai fatto tante cose. E sei passata adesso invece al teatro un po' più impegnato. Sì, anche se comunque siamo sempre nell'onirio, nell'assurdo. Certo, perché... Perché infatti Cinzia è in scena a Quartella delle Ninfe con il processo di... Casca. 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 Ma che casca! Ma che casca! Ma che casca! Ma che casca! C'è proprio casca! Casca! Ma che casca! Andiamo avanti, va, andiamo avanti. Greg è lì, lo ha di due. Spoccato tutto, però non fa niente. Andiamo avanti. Ed eccoci qui pronti per collegarci con Valentina Paoletti, la nostra collegofila di fiducia che gira il mondo, no Greg? Eh sì, questo è lo spazio appunto chiamato Extreme Collegaments, non a caso, perché sono dei collegamenti estremi, portati al paradosso, all'esasperazione. Infatti, infatti, dalla nostra coraggiosissima Valentina Paoletti che va a cercare negli anfratti del mondo, situazioni più o meno pericolose, comunque situazioni originali, esclusive ed eccentriche anche. Sentiamo dove si trova adesso Valentina. Valentina, pronto? Pronto, buongiorno Greg, buongiorno Lillo. Ciao Valentina, ciao, come stai? Tutto bene. Dove ti trovi? Sono in Inghilterra, nella contea di Sheperfield, nel laboratorio di un dottore, di Hector Elizondo. Sì, uno scienziato che conduce degli esperimenti segreti. Cioè? Lui sta cercando di tramutare uomini in animali. Dai. Cazzarola. Sì, è importantissimo e io sono davanti ad una pozione verde. Sì. L'aquilegenda dice che bevendo questa pozione ci si trasforma immediatamente in cornacchia. Dai. Il problema però è che questa trasformazione rimane solo per pochi secondi, dopodiché l'animale muore esplodendo. Ah, esplode l'animale. Sì, esplode. Quindi non è messo a punto. Non è messo a punto. No, 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 ed è per questo che il dottore Hector Elizondo... Scusa, scusa, Valentina, scusa, ma il dottore Elizondo non è lì con te, eh? No, no, è uscito, io mi sono apposta nella sua casa. No, scusa, ma se magari torno all'improvviso può essere pericoloso. Assolutamente no, Lillo, conosco il mio lavoro, so quello che faccio. Dicevo, io sto qui per bere appunto questa pozione, per dimostrare a tutti quanti che è una leggenda, che non è assolutamente vero nulla. No, no, la vuoi ingurgitare? Sì, sì, voglio berla. Eh, Valentina, davvero questa può essere pericolosa. No, 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 Greg, conosco il mio lavoro, so quello che faccio. Anzi, fatemi bere questa pozione in silenzio. Vado, eh? Vai, sì. Che schifo. Passiamo a beve. Valentina? Sì, la pozione era buonissima, aveva un retro gusto di arachide. Di? Valentina? 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 Niente, è soltato il collegamento. Ma, addio. Sempre sto cellulare che c'ha, che non funziona, che c'ha problemi. Di arachide? Gli ho detto? Di arachide. Non ho capito cosa vuol dire. Ha detto arachide? Arachide, forse, boh. Di arachide? Ma che sarà? Vabbè, comunque, in ogni caso, dai. Arachide. Speriamo che si riattivi il collegamento. Senta qualcosa? Aspetta, aspetta. No, è solo un disturbo. È un disturbo. Niente. Va bene. Di arachide. Di arachide. Di arachide. Ecco, si prendeva l'aranciata. Vabbè, speriamo di ricollegarci con Valentina più tardi. Più tardi, quando riusciremo a ristabilire il collegamento, comunque vi faremo sapere. Vabbè, intanto andiamo avanti con 610, Greg Green. E siamo arrivati al momento del cinema, il momento che precede il nostro trailer. A questo punto, ospite di oggi, chi ha 610, è il dottor Galvano Bellacuaglia, critico di cinema. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, professor Bellacuaglia, è uscito in questi giorni questo film La Caduta. L'ha visto lei? Sì. Cosa ci vuol dire? Qual è la sua critica? Beh, mi faccia pensare che, devo dire, non mi ha convinto molto. L'ho trovato piuttosto scomodo, piuttosto... Beh, scomodo politicamente, ti intende? No, no, scomodo proprio, perché l'ho visto Alcassandra, ancora non è stato ristaurato come il cinema, e i sedili sono molto scomodi, hanno una seduta che va in discesa, forse perché ha rotta la molla, e quindi si sta in equilibrio precario. A questo ha inficiato la sua concentrazione al film, immagino. È quella di tutti, credo, di qualsiasi film, si sente proprio odore di umido, di muffa, la mochette, la mochette è l'isa, l'ogora, e anche presenta delle chiazze antiestetiche, insomma, o si cambia quella mochette o si toglie. Mi scusi, no, mi scusi, ma parliamo del film, però. Che le devo dire del film? Beh, un critico di cinema, no? Sì, le sale cinematografiche. Ah, lei critica... Io critico le sale, sì. Ah, le sale. Sì. Ah, quindi lei va in giro per il cinema d'Italia. E quindi io sconsiglierei il Cassandra, finché non si decidano a restaurarlo. Va bene, sì, grazie, ma sentiamo il nostro trailer, sì. Critico le sale. 610 trailer 610 prima. In un ristorante esotico si possono nascondere molti segreti. Fred, sei sicuro che in questo posto si mangi bene? Ha un'aria così strana. Sì, è un po' lunare, James, ma hanno delle specialità fantastiche. Guarda il menu. Gouache di grancho in salsa sagramole. Julien Danatra con uvette e cuore di palma. Ma ci sono anche piatti più semplici. Li trovi subito sotto, vedi? Entrecotte di manzo argentino. Filetti di pollo tailandese. Mentre i due amici studiano la carta, il cameriere è scivolato silenziosamente alle loro spalle. I signori hanno già certo? Ah, sì, io, io ora è la Julien Danatra. Mi può dire il numero? È scritto vicino. Ecco, il numero quattro. È per contorno delle verdure della Malaisia grigliate, sì. Il numero? Sì, è il ventuno. E per lei? Io vorrei un piatto semplice, per contorno delle patatine saltate. È il numero? È il diciotto. E poi del pollo. Mi dice il numero? Non lo vedo. È lì vicino. Non si capisce quale numero corrisponde a pollo. Ecco, qui vede 13, Apollo 13. Apollo 13, nei cinema. Un'astronave aliena atterra su un orto, lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido e di netto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori, che lo rendono cento volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di... Normalman! Normalman in... L'orologio! Roma, ore 8 e 30. Pier Maria Carletti, come al solito, sta andando in ufficio senza fretta. Mi fa proprio piacere una bella passeggiata prima di iniziare una dura giornata di lavoro. Povera me, il mio orologio si è rotto. Scusi signora, mi sa dire che ora è? Mi spiace, non uso l'orologio. Devo prendere il treno alle 9 e non so se ce la faccio o no, chi di sditta. Il mio normaludito mi dice che quell'uomo ha bisogno di Normalman. La passeggiata può aspettare. Pier Maria si addentra nel parco limitrofo. In soli tre minuti riesce a trovare un cesfuglio adatto. In meno di sette minuti si cambia e si precipita vicino all'uomo senza tempo. Oh, Normalman, forse tu mi puoi aiutare. Il mio orologio si è rotto e devo prendere il treno alle 9. Niente paura, ho qui il mio normal orologio. Ecco, sono le 8 e 43 minuti. La stazione è a 5 minuti da qui, per cui fa tranquillamente in tempo a salire sul suo treno, dopo aver bevuto un buon caffè. Grazie, Normalman. Non mi ringrazi, un supereroe ha sempre tempo per gli altri. Addio. Addio, Normalman. Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è Normalman. Ancora Greg e Lillo, il microfono di Radio 2 610. Siamo qui con Saturnus, il nostro astrologo. Saturnus. Grande Saturnus. Buongiorno Saturnus. Buongiorno a voi che Saturnus sia condito con voi. Saturnus, che è molto apprezzato, arriveranno moltissime email, lettere di appassionate e appassionati. A pacchi. A pacchi, sì, sì. A pacchi di astrologia che chiedono appunto... Che non hanno niente di mail da fare. No, vabbè. Che mandare questi pacchi di... No, ma non è che non hanno niente meglio da fare. Hanno da fare, solo che... E sono curiosi. Sono curiosi, ti stimano, ti stimano, ti apprezzano come astrologo e quindi arrivano queste email. E a questo punto, caro Saturnus, te ne leggerei qualcuna? Questa per esempio. Leggiamo. Allora, caro Saturnus, mi chiamo Sabrina e sono vergine, mentre invece mio marito e mio figlio sono gemelli e non vanno d'accordo. Sarà un problema d'ascendente? Che è una lettera di scherzo questa. Perché di scherzo? Ehm, come si chiama? Sabrina? Sabrina, sì. Mi sta raccontando un po' delle fesserie. E perché? E inizia, sono vergine, poi subito dice mio marito e mio figlio. Cioè, se è vergine come fa a averci un figlio? Che ce l'ha avuto, l'ha concepito come la beata vergine appunto. No, ma... Eh, se è vergine non ci può avere un figlio. Poi i figli e il marito sono gemelli. Eh sì, mentre invece mio marito e mio figlio sono gemelli. Ma come fanno a essere gemelli? Se uno è padre e uno è figlio, come fanno a essere gemelli? I gemelli sono nati tutte e due assieme dalla stessa panza di una donna. Ma forse lei intende solo gemelli. Il marito è gemella a un altro e il figlio è gemella a un altro. Ma no, ma intende... Come fa? Che se dice le fesserie? Ma no. Se vuole uno scherza ah 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 e si diverte. Però, cioè, io vorrei che arrivino delle lettere serie. Ma questa è seria. Ma non è seria. Una non è vergine e c'ha il figlio che poi è gemella del padre e del marito. Ma andiamo su. Sabrina, siamo seri. Cerchiamo di essere professionali, no? In queste cose. Vabbè, Saturnus. Lei intendeva un altro... Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Grazie Saturnus. Andiamo avanti con Seno Zero. Paga anche le cose gratis con PagoTutto, la nuova offerta card di Mastercam di InfoView. Automobili, computer, tv, jeans. Puoi pagare tutto da ora e ricevere i tuoi acquisti solo dal primo gennaio del 2007. E con la nuova formula NonSoPay puoi pagare da subito con un semplice SMMS, anche al buio, senza sapere che cosa hai acquistato. E Greg? Sì? Mi spieghi meglio questa offerta che non mi è chiarissima. Come? Lo dice chiaramente. Paga anche le cose gratis con PagoTutto. Cioè che... La nuova offerta card... Paga le cose gratis che vuol dire? Che qualsiasi cosa gratis... Automobili, computer, tv, jeans e molte altre cose. Cioè tutto ciò che prima era gratis adesso lo posso pagare. Adesso lo puoi pagare. E puoi pagare tutto da ora e ricevere i tuoi acquisti solo dal primo gennaio del 2007. Ah, io comunque questa roba la pago adesso ma non la ricevo subito. No, no. Ah, certo. Quindi hai due anni di tempo per ricevere. Ah, due anni di tempo per ricevere. Però la pago, intanto quello anticipato. E poi c'è la nuova formula NonSoPay. Eh. Puoi pagare da subito con un semplice SMMS. Che sarebbe... Che è un misto di SMS e MMS. Con sovrascritto delle cose. Con sovrascritto, ho capito un'impressione, insomma, sì. Eh, ma secondo sempre è anche al buio, senza sapere che cosa hai acquistato. Ah. Cioè paghi e non sai che cosa hai acquistato. Ah. Quindi non sai neanche quanto paghi perché c'è subito addebitato in banca. Ah, una cittura qualsiasi che decidono loro. Esatto. Eh, la paghi e poi nel 2007 sai... Nel 2007 ti vedi arrivare una cosa e all'inizio diceva che è, che sa cosa, chi l'ha morto. Ah. E poi beh, ti ricordi che hai attivato questa cosa. Ah, quindi... E poi arrivare una macchina, una villa... C'è una cosa qualsiasi. Non decidi tu. Ah, comunque io sono libero di non decidere comunque. Sì, sì. Ah, quello sì. Mi sembra vantaggioso. Andiamo avanti. 610, Greg e Lille, Radio 2. Ancora una volta noi, Greg e Lille, ancora una volta 610, ancora una volta Radio 2. Siamo qui con Massimo Bagnato, ospite già da un po' di tempo, che è qui in veste oggi di cantautore, insieme al suo accompagnatore di fiducia, il maestro Improta, che salutiamo. Buongiorno, maestro. Buongiorno a voi. Buongiorno. Maestro Improta è una brava persona. Una gran brava persona, si vedeva dall'aspetto. No, è vero, è vero. Io adesso non vorrei dire una bestemmia, quindi... Non la dire, è meglio che stai zitto, perché una bestemmia non è caso in radio. Bene. E quindi, allora, che ci fa ascoltare oggi, Massimo? Guardate, intanto io vorrei ringraziare, non so, non si può fare lo spot radiofonico, però uno dei miei sponsor, che è la Caramella Semplice. Sì. Caramella Semplice, quindi la porto sempre con me, non so, un messaggio promozionale, vabbè. Ma Semplice è la marca? È lei, sì. Ah, Caramella. Caramella Semplice. Bene. Oggi volevo proporre un pezzo che si chiama Lufinno Curunno, che non è soltanto un pezzo musicale, ma come ben sanno Greg e Lillo è anche un rito propiziatorio, sia porta fortuna, quindi si fa Lufinno Curunno. È apotropaico. Sì, un pochino. Un pochino apotropaico, soprattutto anche per gli antropomorfi e anche per i filantropi. Certo, certo. Praticamente tutte le persone che amano persone brave con il maestro in proda dovrebbero farlo, perché porta veramente grande fortuna. Bene. Lufinno Curunno viene fatto con il corpo disteso in avanti, perché è leggermente più interiorizzata, quindi bisogna racchiudersi un pochino in una situazione introspettiva. Mentre il Sazenna è sdraiato, ci si rilassa sulla sedia e si svolge il Sazenna, che è veramente il rito purificatore della canzone. Quindi Sazenna significa relax, ci si può sdraiare, mentre su Lufinno Curunno la situazione è più contratta. È contratta. Da casa potete chiaramente seguire insieme a noi, lo faremo anche qui in studio, Lufinno Curunno. Lufinno Curunno, Massimo Bagnano. Bene. Lufinno Curunno Cunno Renno Cofullo cugnno Cufugno curunno Cufunno Cugnno Cugnno curunno curà ancora un pochino più contratte. Lufinno Curunno Cunno Renno Cufullo cugnno Cufugnno corunno Cufugno Cugnno curunno curà Sazenna Sazenna Cugnno Renno Filonienno Cugnno ranno Cugnno fanno Cugnno curuanno Cugnno finto Cugnno curunno coro ratto cunho capo cornu cofunu lo f n everyone no cofelogliano cofuno lo f i no the mushroomss have all the business mira Grazie Massimo Bagnato, complimenti per Lufinno Curunno e chi vuole sapere di più ovviamente collegarsi con www.lufinnocurunno.org Sì, è nato da poco ma comunque ha raccolto utenti un pochino da tutta Italia. Grazie Massimo Bagnato, andiamo avanti, Greg Lillo Radio 2 610. 610 Greg Lillo Radio 2 eccoci nuovamente giunti al momento della nostra adorata rubrica Conosci mia cucina, la cucina è bella, è una cosa che ti fa stare bene quando mangi quando stai con gli amici e poi è una cosa che ha preso molto piede in televisione ma anche qui in radio e noi per far prendere ancora più piede abbiamo invitato niente meno che Salviero Salvieri il grande chef da anni insegnato del Cordon Bleu per i suoi innumerevoli meriti e per le sue ricette di raffinata fantasia. Buongiorno Salvieri. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Salvieri sta già preparando un piatto, probabilmente si intrede in sottofondo tutto questo allegro spignattio di tecami, padelle, no? Bene, che piatto sta preparando? Lasciamo che sia lui stesso a dircelo. Esattamente, sto preparando una bistecca alla fiorentina. Bistecca alla fiorentina, cioè la classica bistecca di Firenze. Esattamente. Io, in qualità di chef, mi sono permesso di elaborare lievemente la ricetta originale per creare un piatto che fosse allo stesso momento innovativo e tradizionale. Eh sì, ma la cucina è anche un modo per avvicinare presente e futuro. Pensate, amici radioascoltatori, ma come si prepara questo fantastico piatto, Salvieri? Allora si prende una bistecca dal taglio alto, tagliata nel classico appunto modo stile fiorentino, la si mette sulla griglia a fuoco basso e si aggiunge questa mia salsa a base di spezie e voilà. Che profumino, amici radioascoltatori, è veramente da far venire l'acquolina in bocca? L'assaggio allora. Beh, lo faccio ripetere due volte, eh. Io vado, eh. Sì, certo, certo. Grazie, grazie. No, ma la squisita, no. In effetti è una fiorentina, ma ha qualcosa di straordinariamente unico, buonissima. Grazie, esattamente. Ecco, allora, scusate. Salvieri, ci dica, che cosa ha aggiunto? Che c'era in quelle spezie? Eh, ogni chef ha le sue risorse nascoste, cose che non si possono svelare. Salvieri, lo faccio per noi, per noi di 610, la preghiamo. Cosa devo fare? Ci dica un suo segreto, la preghiamo, un suo segreto. Un mio segreto? Eh, 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 va bene, va. Allora, sarà stato più di dieci anni fa, mi trovavo a Praga per un convegno di cuochi. La mattina vado a visitare una chiesa che tutti mi avevano detto di vedere. Bella davvero, eh, anche se un po' spettrale. Non c'era nessuno, tutte quelle candele accese e quell'odore forte d'incenso. Ma, gironzolando così, non mi accorgo di essere entrato in quella che doveva essere la sagrestia. Sul tavolo c'erano tutti i soldi delle offerte. Mi guarda attorno nessuno. Non sapevo dove metterli, però. Allora, prendo una tonaca da prete che era sull'attaccapani, faccio un paio di noti e ci butto dentro i soldi. Torno nella chiesa e sto per scappare quando davanti a me vedo una vecchina che mi guarda con gli occhi sbarrati. Dice qualcosa nella sua lingua e poi inizia a gridare. Che potevo fare? Lasciare tutti quei soldi? Non credo. Allora ho afferrato uno stensorio che stava sopra un altarino e glielo ho sbattuto in testa tre, quattro, cinque volte finché non è stramazzata. Poi mi sono accorto che quello stensorio era d'oro. Eppure quello vicino. Allora ho buttato anche quelli nella tonaca e me la sono andata a gambe elevate. Eh, sì, ma che c'entra? Mi avevate chiesto un mio segreto. Sì, ma culinario, intendevamo un segreto culinario, un segreto suo di cucina, qualche ingrediente particolare. No, 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 eh, quelli sono cose troppo personali, mi dispiace. Vabbè, grazie comunque a Salviero Salvieri e speriamo di rieverlo qui con noi la prossima volta. È tutto per questa puntata di Conoscimi a Cucina, Greg e Lillo, 610 Radio 2. Sei nel pallone? Esci e fai zap su Calcio in Action, l'unica rete di calcio interattiva completamente rimasterizzata dal vivo, con le suonerie dei tuoi gruppi preferiti, direttamente sul tuo decoder virtuale. Tutti gli optional di un vero satellite webcam a tasso zero, su tutta la gamma, a soli 15 euro prepagati. Attiva la ora. Mi sembra un'offerta vantaggiosissima, per carità, non ho capito cosa devo attivare come... Calcio in Action. E cos'è? È l'unica rete di calcio interattiva, cioè che puoi interagire completamente rimasterizzata dal vivo. E cioè, rimasterizzata cosa? Sì, cioè non è solamente in studio, è anche dal vivo è completamente rimasterizzata, quindi la senti meglio, la vedi meglio. È rimasterizzata con i suoneri dei tuoi gruppi preferiti, direttamente sul tuo decoder virtuale. Che cos'è il decoder? Hai il decoder a casa per vedere il... Vabbè, te lo devi comprare uno. Poi se hai quello virtuale per simulare, riprendere... Cioè, col decoder tu prendi i segnali della TV satellitare, con quello virtuale simuli di prendere i segnali. E che ci faccio? Per simulare di vedere qualche trasmissione. Ma io se la devo vedere la vedo qualche trasmissione. Con quello virtuale simuli di vedere la trasmissione. E direttamente sul tuo virtuale puoi scaricarti i suoneri dei due gruppi preferiti. Quello virtuale? Ah, e dove... Cioè, che ne so... Hai un gruppo preferito? Eh, vabbè, sì, non vari. Che tipo, metti uno. Vabbè, GZ Top. GZ Top, GZ Top probabilmente avranno un cellulare e avranno delle suonerie sul cellulare. Ah, io mi scarico le suonerie preferite da... Sì, le suonerie del tuo gruppo preferito, sì. Bello. E poi c'è tutti gli optional di un vero satellite webcam a tasto zero su tutta la gamma, solo i 15 euro prepagati. Che sarebbero 15 euro che io pago in anticipo? Sì, prepagati, così. E poi? Sono tutti gli optional di un vero satellite webcam. E se io questi optional non li voglio più, intanto vabbè, intanto ho pagato. Allora, intanto ho pagato. Perché così hai la sicurezza che quei soldi sono... Che tanto l'ho pagato. Io li ho spesi intanto, li ho pagati. E poi quello che viene, viene anche. Buono, mi sembra un buon affetto. Andiamo avanti. Greg Lilo, GZ 610, Radio 2. Greg Lilo 610, Radio 2. Ormai abbiamo cominciato a imparare a conoscere Inimar Bjorn e a apprezzarne le doti di DJ. E chi è Inimar Bjorn? È uno pseudonimo, un pseudonimo di un DJ italiano che però è innamorato di una canzone degli Abba, che è Mamma Mia. Ma lui è diventato DJ proprio solo per Mamma Mia. Sì, ha messo questa emittente, che si chiama appunto Radio Mamma Mia, e trasmette 24 ore su 24 questa canzone degli Abba. Mamma Mia degli Abba. Lui ha un solo disco, quindi anche c'è molto spazzo. Sì, sì, infatti io so che non è nemmeno un metro quadrato. Infatti su internet c'è la pagina, la schermata, si vede appunto la fotografia di questo Inimar Bjorn nel suo studiolo piccolissimo dove trasmette... Mamma Mia degli Abba, 24 ore su 24, ma sentiamo. Mamma Mia, here I go again, how can I resist you? Come faccio a resisterti, come faccio a resisterti, Mamma Mia, quando sento le voci favolose di Anne Frida Diagnetta, che sono anche due bellissime figliole, due femmine che assieme a due maschietti compongono il gruppo favoloso degli Abba. E questo era il loro successo, Mamma Mia. Ma sentiamo subito, c'è una telefonata in linea, sentiamo i nostri radioascoltatori. Pronto? Pronto? Pronto, ciao, chi sei? Sì, ciao, sono Franco. Ciao Franco, benvenuto qui su Radio Mamma Mia. Grazie, senta, io... Diamoci del tu, Franco. Sì, va bene, ok, grazie. Senti, io volevo ascoltare una canzone che mi è capitato di sentire nella vostra radio. Sì, quale? Eh, non mi ricordo il titolo. Ah, eh... Non mi ricordo il titolo. Te la ricordi? Prova a canticchiarla, magari. Eh sì, fa, grosso modo fa così. Mamma Mia, è Mamma Mia degli Abba. Mamma Mia, infatti, quella che fa Mamma Mia, sì. D'accordo, la vuoi ascoltare? Sì, grazie. E allora rimani in ascolto di Radio Mamma Mia perché dedicata a te Franco e a tutti i nostri radioascoltatori trasmettiamo Mamma Mia degli Abba. Radio Mamma Mia 24 ore su 24 solo Mamma Mia degli Abba. Mamma Mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? My, my, just how much I miss you. Cari radioascoltatori, continuiamo a essere in vostra compagnia. Greg Elidio Radio 2610, stiamo per collegarci con Stefano Frosi che è un po' di tempo che gira per l'Italia per trovare questi monumenti da salvare, queste opere d'arte che rischiano di essere soppresse dalla tecnologia che avanza. Ma sentiamo dove si trova Stefano e cosa sta cercando di salvare quest'oggi. Pronto Stefano, ciao. Eccomi, eccomi qua, un simpaticamente ciao bella capoccina a tutti. Ciao bella capoccina anche a te, ciao anche a te bella capoccina. Guardate, oggi io sono in una strada provinciale, una ventina di chilometri da Mantua. Ah, ecco, cosa c'è lì che hai trovato? Sono nel Mantovano. Sì, nel Mantovano. Ecco, e sono precisamente ad un crocevia, intorno, ecco diciamo il chilometro sarà il ventiduesimo di questa strada provinciale, e qui davanti a me c'è un piccolo altarino, ecco, con un dipinto della Madonnina e Bambino. Ah beh, quindi è una cosa preziosa, antica. Sì, una cosetta, un piccolo altarino. Dietro questo c'è un piccolo, tipo un tratturo, un violtolino, ecco, che raggiunge una casina di roccata. Ah, ecco. Sì, abbastanza antica, diciamo, forse intorno all'Ottocento o qualcosa del genere. Ecco, voglio dire, sembra che qua vogliano costruire un bullying. Addirittura, c'è un bullying, è assurdo. Ma dove si gioca a bullying proprio? Proprio a bullying, sì. Mamma mia, ma è una cosa, ma è una vergogna. Ecco, io quello che se posso dire, ma viva il bullying. Ma per carità, ma guarda, la casetta è un mezzo schifo, è piena di monnezza, ci sono certi topi che sembrano sedi a dondolo. La Madonnina, ma l'avranno fatta negli anni settanta, un pittore imbecille, è tutta sproporzionata. Non si può guardare. Ma poi ha fatto la muffa, una cosa, ma poi viva il bullying, ma qua a Manto i giovani sanno che fanno, ma venissero qui a giocare. A giocare a bullying. Ma per carità, ma sì, ma ciao. Grazie, grazie, stiamo a voi, andiamo avanti, Greg e Lillo, Radio 2 610. Sempre Greg e Lillo, qui a 610, Radio 2, siamo arrivati al momento in cui ci gemelliamo con le radio. Con le altre radio, e direi di ascoltare adesso una radio che abbiamo scoperto da poco, che ci piace molto e ci interessa, che si chiama Radio Breve International. Sì, che risponde alle esigenze di andare sempre più veloce nel mondo, sempre più sintetici e più brevi. Molto attuale questa radio, ma ascoltiamo cosa sta trasmettendo Radio Breve International in questo istante. Bene, ma passiamo alla canzone. Ascoltiamo tutti i frutti di Lillo Richard. Qui è sempre Jim e Mike di Radio Breve International. Passiamo all'intervista di oggi con Susan Sarandon. Susan, è la prima volta che vieni alla radio? Yes. Bene, passiamo alla ricetta del giorno. Salve Darita, oggi riso e funghi. Ingredienti riso, funghi, sale, pepe e brodo. Cuoci il riso, aggiungi funghi e il brodo. Cuoci ancora, pronto. E ora il gioco, chi è? Pronto? Ciao! Chi è? È Cavour? No. Greg e Lillo, i microfoni di Radio 2, 610, stiamo per ascoltare uno dei nostri trailer, quindi è uno spazio dedicato al cinema, questo qui, per questo che abbiamo invitato un noto critico, Galvano Bellacuaglia, un critico di cinema. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, dottor Bellacuaglia, volevamo parlare con lei di questo ritorno del cinema trash, infatti volevamo sentire cosa ne pensa lei del ritorno del monnezza. Beh, anzi, non credo, insomma, le dico avendolo visto io, l'ho visto all'Odisei, tutt'altro che il cinema trash. Io lo considero un cinema molto elegante, un cinema molto sobrio. Beh, non direi, però scusi, interrompo, non so adesso la sua visione del film, però, insomma, sobrio, elegante, no, magari elegante in quanto con eleganza è stato ricostruito proprio il mito trash del monnezza, ma, insomma, dire sobrio mi sembra un po' esagerato, scusi, eh, non è per... No, l'invito ad andarlo a vedere perché è molto, molto elegante con queste strutture in marmo che ben si ligano, con questi paramenti in legno che hanno innalzato, con questi freggi moderni, le piante disposte con una certa cura, e la sala, quella sala grande è con il belluto, il belluto... Sì, torniamo a parlare del film, il ritrodo del monnezza. Devo dire, la verità, non l'ho visto con molta attenzione, ero più concentrato appunto perché è stato restaurato da poco l'Odisei e quindi sono stato veramente piacevolmente interessato, un cinema elegante. Scusi, ma l'ha visto, non era molto interessato, scusa, come va, un critico ad andare a vedere un film e non essere interessato? Scusi, che critico è lei? Critico di cinema. Eh, un critico di cinema, appunto, dovrebbe... Chi c'è tra i film? Sono un critico di cinema, di sale cinematografiche. Ah, lei critica le... Sì, sì. Le sale. E l'Odisei è stato ristrutturato molto bene. Quindi consigliamo tutti i nostri radioascoltatori di andare all'Odisei perché... Sì, finalmente è un cinema intelligente. Intelligente, sì, grazie, sentiamo il trailer. 610 trailer 610 prima. Ci sono momenti nella vita in cui un uomo può toccare il fondo. Robin, devi reagire, è vero, hai perso il lavoro, tua moglie ti ha lasciato, i ladri ti hanno svaliggiato la casa, ma... ma nella vita ci sono tante altre cose che contano. Hai ragione, Joe. In questo periodo non mi sento più io. È come... come se niente avesse importanza. Quando un amico può essere la sola possibilità di rimettersi in gioco. Guarda fuori dalla finestra, Robin. I germogli sugli alberi, gli uccelli che cinguettano felici, e tu... Sì, Joe, li vedo, però... Sta ingrassando a vista d'occhio, Robin. Sembra che per te esista solo il cibo. Ma che ci posso fare, Joe? Alimentarmi è l'unica cosa che mi dia un po' di serenità. Ma insomma, Robin, renditi conto. Non puoi andare avanti così. Hai un dispiacere e ti metti a mangiare. Trovi del traffico in strada e non fai che mangiare. Ricevi una brutta notizia e giù mangi. Giù mangi, nei cinema. Un'astronave aliena atterra su un orto, lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori, che lo rendono cento volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di... Normalman! Normalman in La Rissa Roma, ore 10 e 30. In seguito a un tamponamento due tipi cominciano a litigare. Ma che sei scemo? Ma hai distrutto la macchina? Sei tu che hai fornato di botto. Ah, tu mi hai tamponato ed è pure colpa mia. Imbecille! Imbecille a me, ma io ti gonfio! Buono con le mani! Ho detto bo... bo... sta in buona con le... bo... Ah, prendi qui! Questa! Pier Maria Carletti alias Normalman è a pochi metri dalla rissa. La mia normal vista mi dice che quei due si stanno menando. Devo dividerli. Questo è un lavoro per Normalman. Pier Maria Carletti parcheggia la sua automobile in doppia fila. Prende la borsa contenente il costume da Normalman. Cerca la toilette di un bar dove cambiarsi. Prende un caffè perché non è carino soffrire della toilette senza consumare niente. La toilette è occupata e aspetta che si liberi. Entra nella toilette, si cambia da Normalman. Rimette i suoi vestiti nella borsa, qualche problema con la lampo. Poi esce dalla toilette in meno di mezz'ora e sul luogo della rissa. Ma non c'è più nessuno! Ma tu sei Normalman! In carne ed ossa! Dove sono i due che si stavano menando? È arrivata la municipale, li ha calmati. Accidenti! La mia normal velocità non è bastata per arrivare in tempo. Scusi, Normalman, sa l'ora? Certo, sono le undici e dieci. Grazie! Non mi ringrazi, è il mio dovere. Addio! Addio, Normalman! Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è Normalman! 610, Greg e Lillo Radio 2 o Lillo e Greg Radio 2, 610, 610, 610. Vabbè, comunque... Vabbè, l'importante è andare avanti e farci un po' di risate. Sì, finalmente con chi? Con Miss Italia. Miss Italia che qua è in veste di... O Italia e Miss, che dir si voglia. Ah, che simpatia! È sempre entrata nella lunghezza d'onda giusta. Bene, bene. Ed è la lunghezza veramente giusta perché Miss Italia questa volta ha scritto un libro, è un libro comico ha scritto. Sì, proprio preciso dei comici. Un libro dei comici. Che adesso i libri dei comici vanno moltissimo, vanno a Iosa, vendono tanto. E infatti tutti i comici, per esempio, di Zelica hanno scritto un libro, ma non solo quelli di Zelica, però i comici in generale scrivono molti libri. Ma sì, ma è anche giusto perché per quale ragione dovrebbe confrarsi Umberto Eco? Quando c'è un bel libro di Zelica. Un bel libro di ridere. Di ridere, certo. Quindi cose comiche che tu hai captato, hai assimilato? Sì. Tipo? Per esempio, allora... Immaggia. Lo racconto, però questa è una cosa bellissima, ho scritto dentro il libro. Allora, che un giorno praticamente stavo sul sessanta. Sull'autobus. Sull'autobus, sì. Sì, una porta via. Di Punto in Bianco sento Paola, 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 dentro all'autobus, no? E poi sento tipo dei passi. Allora, Paola, Paola, sempre più Paola forte, finché praticamente una mano e io mi giro e... Ah, no, pensavo che eri Paola. Ma c'ero io. Mi ha sbagliato. Ah, questo aveva una sbagliata persona. Ero io. Mi chiamavo Paola. E poi? E poi che è successo? Poi. Basta. Ah, quindi comprate, comprate questo libro comico scritto da Miss Italia. Ah, a proposito, se il titolo la chiede... No, le dico, la libreria. La libreria, scusa, scusa, scusa. Chiede il libro mio. Ecco, tu, sì, ma ha un titolo il libro. È un libro praticamente di ridere per comici scritto da Miss Italia. Lo chiedi e te lo danno. Eh, ma com'è il titolo? Non te lo ricordi? Francamente... No, non te lo ricordi. No, non piange adesso. Oh, Miss Italia! Tutte le volte mi chiedi questo titolo. No, me lo ricordo! Vabbè, ma dai... Ma se tu portassi la copia... La copia ce l'hanno dentro... Vabbè, non è un problema. Le di fuori ce le ha. Vabbè, sai che... Allora, sai che faccio? La prossima volta me la vado a comprare, spendo dei soldi, così. Quando arrivo qui, mi so dire tutto, ma ci sta bene. Vabbè, adesso però non te la... E poi mi rimborsate. Vabbè, non c'è problema. Comunque, se volete comprare il libro di Miss Italia in tutte le librerie, chiedete un libro che fa ridere, di ridere, un libro di ridere, di comici. No, di me, di me. Un libro di Miss Italia che fa ridere, insomma, un libro di comici. Grazie. Andiamo avanti, Greg Lillo, Radio 261. Eccomi! Pronto, sì! Qui Stefano Frosi. Stefano Frosi. Raggiunta la meta K2, sono qui pronto per il collegamento. Ok, allora cominciamo subito. Sì. E intanto domanda, domanda al gelataio, se l'inverno c'è un uguale consumo di gelati oppure se l'estate, normalmente, è la stagione quella più... Ma che... Cioè la gente mangia gelato anche in inverno. No, la domanda ho capito, ma che c'entra al gelataio? Eh, non stai... C'è un K2. Sto sul K2. E il K2 che c'è sta al gelataio? Questa è la montagna. Come... Non stai sul K2, stai. Eh? La gelateria K2, dovevi fare il collegamento tra la gelateria K2. K2, il pietagliamento. La gelateria? A Roma, sì. La gelateria... Ma sulla segreteria mi ha detto il K2? La gel... K2! La gelateria K2. Non mi arriva qua, no? Eh, lo so, Stefano. Mamma mia, mozza, rifattela tutta dietro, stai a mangiare carne salata, carne di foca mi danno qua. Fa freddo, tutto pieno d'acciacchi, vabbè. Vabbè, dai, su, dai. Ti vedete, quando arrivo, io come non lo so quando arrivo. Dai, te ne torni piano piano, dai. Ciao, grazie Stefano, ciao. Ciao, andiamo. Su www.610.rai.it trovate la classifica delle freddure calde. Ascoltatele, votate le peggiori e fate crescere la febbre delle freddure. Se volete raccontarcene una, componentelo 06 320 2720. Ripeto, 06 320 2720. E registratela sulla nostra segreteria telefonica. Giunti siamo di nuovo all'angolo della freddura mista. Vi vogliamo ricordare che sabato 28 maggio premeremo la costanza dei peggiori fredduristi o migliori fredduristi caldi, che dir si voglia. Vi comunicheremo la situazione della classifica e forse chiameremo al telefono qualche campione. Noi ci raccomandiamo di continuare a registrare freddure e a votare le peggiori. Il 28 maggio è praticamente tra una settimana, quindi... È vicino, è vicino. Per chi non volesse mettersi immediatamente al corrente di cos'è una freddura calda, vi facciamo sentire quelle che ci pervengono alla redazione. Quindi iniziamo... Sì, con Andrea Tronchin da San Donato di Piave. Mamma, mamma, il nonno è cattivo. Eh, zitto, mangia. Vabbè, allora, Andrea Tronchin ha raccontato una freddura preistorica addirittura. Sì, io non facevo i cannibali però. Sì, facevo i cannibali. E poi c'è una pausa fra zitto e mangia terribile, perché dovrebbe essere il nonno è cattivo e il nonno è cattivo, zitto e mangia, invece lui fa zitto e mangia. Ci mette quella pausa che provina la freddura, già brutta di suo poi tra l'altro. Comunque... Quindi è un buon posto. È un buon posto. Secondo me entrerà in classifica Andrea Tronchin. Complimenti. Passiamo al nostro ormai abitué, Claudio Di Salvo, che continua a mandare freddure in quantità industriale. Parte la sigla, ovviamente. Claudio Di Salvo Da Roma Esatto, perché questo è vintage. È proprio anni 70 questa qua. Claudio Di Salvo, ma Claudio Di Salvo è sempre un fuori classe, ha perso un po' quella vena, secondo me, creativa che aveva. Così perché dopo 14.000 freddure inviateci, abbia esaurito la sua. Comunque complimenti a Claudio Di Salvo. Passiamo a Daniele De Luca. Paperino sulla luna. Qual è la prima cosa che dice? Non indefinibile. E l'avrei anche finita su Paperino sulla luna. Comunque Daniele De Luca ci fa piacere, insomma che sei un nuovo, sei un nuovo adepto, quindi benvenuto qui nella schiera di fredduristi caldi, o freddi che dir si voglia, ma sentiamo ora un'altra campionessa, un'altra grandissima fuoriclasse, un cavallo di razza, Michela Mozzati da Gallarate. Via con la sigla. Michela Mozzati da Gallarate. Vai Michela. Un'immagine. Il pomodoro. Schiacciato. Schiacciato sotto una macchina. Michela Mozzati è diventata metafisica. Ormai le freddure, lei è partita da un'immagine, un pomodoro schiacciato sotto dalla macchina. È come l'impressionismo, no? Cioè i primi impressionisti. È una metafreddurista. È una metafreddurista. Michela Mozzati ha raggiunto l'apice della sua arte, ma passiamo ora a Paolo Dal Forno. Sapete cosa canto il primo che polimerizzò la poliammide? All nylon. È come si è concluso, ho capito cosa ha detto prima. Eh, cioè? All nylon sarebbe. Ah, il primo che... Il gioco di parole è night long e nylon. È un prodotto chimico da cui si... Cioè è un procedimento chimico per cui si addiviene al nylon. All nylon, quindi l'inventore del nylon, la prima cosa che ha detto è stato Oh, il nylon... Sì, quindi... Orrenda, orrenda, veramente. Paolo Dal Forno è bruttissima, credo che tu entrerai giustamente, meritatamente in zona alta di fredduristi caldi. Quindi complimenti a Paolo Dal Forno. Andiamo avanti, Greg Lillo, la riduzione se non zio. Ma parliamo ancora di Radio Manalana. Questa radio che abbiamo scoperto via Greg, è una radio innovativa. Abbiamo qui ospite il direttore di Radio Manalana che si chiama Patrizio. Scusi, non leggo bene il cognome, Patrizio. Patrizio... 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 È il cognome un po' spazzano perché appunto mio padre, l'ho già detto, no? Che è D'Avrazia, quindi ho preso il nome da lui. Perché suo padre... Sì, D'Avrazia, quindi... No, la mia madre mi dice con l'accento. Sì, sì. Lei ci conferma il fatto che Radio Manalana è una radio che vuole diventare sempre più internazionale, quindi avete anche dei DJ, dei commentatori di lingua straniera, vero? Esatto, infatti come ospite alimentano oggi la signorina Miriam... Hi, Miriam, how are you? Ecco sì, praticamente questa che avete sentito è una collaboratrice appunto di Patrizio... Ben... Che si chiama Miriam... Miriam, how are you? How are you? Miriam, how are you? che è una commentatrice che lavora per voi di Radio Manalana. Da lampone. Sì, da lampone, sì. Allora, direttore, vuole chiedere a Miriam... L'influenza della radio in America? Sì. Miriam, how are you? 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 Oh, it's a very good question because I can't try to explain with your content in this period, maybe. Traduco? Sì, sì, traduca, traduca lei che non ho capito molto. Ha detto, credo che questa sia la prima seconda ditta con i beni della comunità europea. Ah, adesso è chiaro, sì. And I think that you are also incredible because it's a very good question because we don't, don't thank you. Eh, no, dice che in America per questa smunta trava dei presupposti specialmente sul valpo giovanile. Scusate, sul? Valpo giovanile. Ah, sul valpo giovanile, sì. Sir Kenroy, perché il posto non è così corretto perché il pubblico nel posto non è così buco. Ha già sembrato. Sì, noi abbiamo sviluppato Piano Insimuto Senta ancora non particolarmente indirizzato e c'è un'apposita redazione che smanta Liborani in notizia del giorno. Come? Cosa? No, dico, non ho capito alcune cose, mi è sfuggito. No, c'è un'apposita redazione che smanta Liborani in notizia del giorno. Ah, smanta Liborani. Sì, Piano Insimuto Senta ancora. Va bene, grazie e grazie. No, 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 no. Vuole aggiungere un'altra cosa? Sì, perché I have to say this is a scammy. Ah, there are splashes. C'è la terza incorpora le nevrosi suborbate a voi diventa il mezzo di parodazione più tipica la radio. That's correct. Cosa? No, dico, in questo momento le nevrosi suborbate a voi nella radio, sì. La radio intende la Miriam diventa il mezzo di parodazione più tipica. Di cosa? De la pantalola intero. Ah, sì, sì, ah, chiaro. Sì, adesso ho capito, grazie. E vabbè, mi chiamano Will Kessler. Ah, sì, I want to say how's Terry? Alberto Berlanti. Danti e tutti. Eccoci qui ancora ai microfoni di Radio 2 Greg e Lillo 610 in compagnia di Alessandra Canale. Bellissima la nostra ex annunciatrice. È bellissima. Ah, perché ha detto ex. Vabbè, comunque l'annunciatrice che tanta gioia che ha lavorato fino a un certo punto e poi non più. No, fai non più. E poi non più. L'hanno cacciato. T'hanno, vabbè, cacciato. Diciamo che ti hanno buttato fuori. Cacciato mi sembra una parola brutta. Sappiamo perfettamente che tu eri preso a lavorare, fai i tuoi annunci, ne fai tanti e lo sappiamo. L'avete sentito, eh? Sì, anche con un certo successo. Beh, sì, direi. Abbiamo scoperto che sei preparato una tournée estiva. È vero? Si può nascondere niente, eh? Eh, no, Alessandra. Beh, sì. Raccontaci della tua tournée estiva. La tournée estiva in posti prevalentemente di mare. Ah, bene, bene. Sì, posso far sentire un... Ah, addirittura ci anticipi... Un promo. Un promo, sì. Ma non c'è bisogno, basta che ci parli la tua tournée. Ma io ce l'ho, lo voglio fare. Vabbè, ok, lo fai, lo fai, lo fai, lo fai, lo fai. Sì, scusa, scusa, lo fai. Sì, ok, ok. Sentiamo, sentiamo. Cos'è un piccolo promo di quello che farai questa estate? Alessandra Canale, vai. Grazie. Cocco, bello, cocco. Cocco, fresco. Cocco, bello, cocco. I venditori di cocco, non più con la loro voce, ma con la tua registrata, venderanno il cocco per le spiagge italiane. Sì. Complimenti. Una bella iniziativa. Grazie a Alessandra Canale e la salutiamo. Complimenti. Andiamo avanti. Greg Lillo, Radio 2, 610. 610. 610. 610. Greg Lillo, 610. Qui a Radio 2 è arrivato lo spazio dedicato ai roditori, ovvero la rubrica che noi usiamo per ospitare un topino. Un topino, sì. E qua è l'intervista al topino di oggi e con... Un topino. Sì, però il nome proprio. Topino. Topino, non abbiamo nome noi topini, ci riconosciamo dall'odore fra di noi. Se è maschio topino, femmina topina al limite, però ogni tanto per qualche piccolo cucciolo, per qualche cucciolo diciamo topetto, ma è raro, di solito è topino anche il cucciolo, quindi vabbè, topetto ogni tanto può capitare. Bene. Allora, topino, la curiosità che ci è venuta di sapere qual è il vostro rapporto col mondo del cinema. Voi andate al cinema? Eh no, per noi i cinema sono importantissimi, perché molti di noi vivono proprio nei pressi dei cinema, perché a fine giornata si può trovare insomma tanto da mangiare, tutti i rimasugli di popcorn, briciole, popcorn interi addirittura che cadono con una facilità estrema, quindi abbiamo un buon rapporto col cinema, sì sì. Viviamo proprio, molti di noi vivono nei pressi di cinema, si diviva di cinema. Che tipo di film prediligete se siete più portati per, non so, per il cinema d'autore, il nuovo cinema italiano, oppure il film d'azione, film più di cassetta, i cartoni animati, quali? Di sicuro i film più di cassetta, quindi film americani, i film che fanno vendere tanti popcorn, no? Che dove magari vanno i bambini, film dove, anche i thriller, i thriller sono ottimi perché la gente proprio per contenere il nervosismo, la tensione, mangiucchia i popcorn, i popcorn e i nocciolati, insomma, tutte queste cose che poi fanno una grande quantità di bricele che noi andiamo a recuperare dopo. E non amiamo molto il cinema italiano proprio perché generalmente uno va a vedere un film italiano, una, sai, un po' triste, così difficile che mangi popcorn e sta più lì, insomma. E quindi ecco, questo è tutto. Grazie al Topino, speriamo di riaverti qui a 610, ospite nostro. Grazie, grazie di cuore. Ciao. Ciao. E siamo arrivati anche oggi a un momento di extreme collegamenti ovvero i collegamenti estremi con Valentina Paoletti. Siamo pronti a collegarci con la nostra colleghiana, con la nostra Valentina Paoletti, la nostra inviata speciale. Che si collega con noi appunto da un posto remoto del mondo per raccontarci qualche curiosità, qualche fatto esclusivo di quel posto. Pronto Valentina? Sei in linea? Pronto Greg e pronto Lillo? Sì, eccoci. Oggi mi trovo in Italia finalmente, nella nostra patria. Bene, dopo tanti viaggi intorno al mondo. Dopo tanti viaggi collegamenti estremi che trovi in Italia. E sono in Abruzzo, in un piccolo paese che si chiama Atessa. Atessa, sì. Praticamente qui c'è un piccolo pezzetto di terra che durante la seconda guerra mondiale divideva Atessa Nuova da Atessa Vecchia. E cosa si hanno fatto durante la seconda guerra mondiale? Lo hanno riempito di mine in modo che nessuno potesse passare. Certo, sì. C'erano ostacolato. Sì, hanno ostacolato. E io mi trovo qui appunto in questo pezzo di terreno. Poi è tra l'altro piccolissimo è tre metri per tre dove ci sono ancora queste 110.000. 110.000? Sì, una curiosità, una chicca. Il campo, questo paese si chiama L'Ucampo e le San Petricone. Ah, questo fazzoletto di terra. Sì, questo piccolo fazzolettino di terra. Sì. Ma sei da sola lì? Io qui sono da sola però in realtà questo pezzo di terra non si trova proprio Atessa Centro. È un po' fuori perché poi il paese si è evoluto e non sta più qua. Tra l'altro c'è una festa da Atessa e prima di venire qui ho incontrato Stefano Frosi che fa il collegamento per voi all'altra festa. Vi saluta, vi saluta. Se la festa arriva anche il santo padrono. Sì, di qualche padrono sicuramente. Perché ti trovi lì? Perché nessuno mi ha messo chiede in questo pezzettino di terreno ovviamente per paura delle mine e io sono venuta per farci un bel salto dentro. Cassarola ma non potrebbe essere pericoloso? Assolutamente no Greg, conosco il mio lavoro so quello che faccio. Escludi che possano esplodere? Escludere? No, Greg. Che vuoi fare tu adesso allora Valentina? Prendo la rincorsa salto di là e vediamo che succede. Cioè salti nel capo minato? Sì e poi vado giù alla festa insieme a Stefano vi faccio due saluti. Ci lo saluti? Va bene. Vai Valentina. Va bene? Vai. Allora uno due tre Pronto Valentina? Valentina? Pronto? Niente sai che c'è che col salto deve essere caduto il cellulare e sicuramente andato fuori uso. Vedi sempre perché non esistono i portacellulari secondo Valentina No no ma lei se lo mette in tasca se lo tenesse in mano già Ma no ma con l'auricolare lo tiene dentro lo zainetto No No Aspetta aspetta Ma che è così? No questa è la festa è la festa sono i pochi d'artificio Eh sì questa è la festa di Frolli Ma secondo me già sta andando alla festa Tu ci hai lasciato così in sospeso a me gli spiace quel cattro dei radioascoltatori perché non riusciamo mai a concludere un collegamento con Valentina Pauletti No ma che poi noi bene o male la sentiamo Valentina Pauletti magari la chiamiamo più tardi stasera però il fatto è il fatto che rimangono i radioascoltatori col dubbio in diretta adesso chissà che sto salto vabbè ma comunque a dopo ci dispiace comunque Extreme Collegaments per oggi si conclude qui a meno che non ripristiniamo il collegamento ciao E andiamo avanti tra un pochino sentiremo uno dei nostri trailer e nel frattempo abbiamo qui ospite negli studi di 610 e abbiamo il professor Galvano Bellacuaglia noto critico di cinema buongiorno professore buongiorno a lei buongiorno a Greg e a tutti quanti grazie grazie mille professore volevamo parlare un po' con lei di questo fenomeno del cinema horror che ultimamente si è rivalutato grazie a titoli come The Ring per esempio tant'è vero che è uscito da pochissimo anche il sequel The Ring 2 ecco qual è la sua critica? se una critica posso fare è questa io l'ho visto al Morpheus che prima si chiamava Antares adesso si chiama Morpheus e si è specializzato proprio in cinema horror e devo dirla tutta io l'ho trovato rilassante forse al limite del soporifero ah quindi invece tutt'altro pare perché comunque un film horror al limite del soporifero magari non le è piaciuto però addirittura rilassante un film come The Ring 2 io non l'ho visto ma veramente mi immagino che sia ma nella verità ne ho viste poche scene anch'io proprio per questo perché forse proprio per hanno scelto il nome azzeccato Morpheus perché in realtà mi sono ha delle sedute molto comode tutto in velluto imbottito e c'è anche una sorta di poggiapiedi e quindi mi sono addormentato qualcosa avrà visto anche un pezzo del film l'avrà visto ecco cosa le è sembrato qual è la critica che lei fa a questo film anche per quel poco che ha visto film non lo so non neanche mi interessano questi film ma scusi lei è un critico di cinema ma va a vedere un film che non le interessa lo deve vedere comunque anche se non le interessa scusi no io vedo il cinema come le sale cinematografiche sono un critico di sale cinematografica il cinema in quel senso ah lei critica le sale ah le sale proprio io ho capito che lei era un critico di film no no non mi interessa nel film la pellicola lei non gliene frega niente infatti lo schermo è la cosa che secondo me stona anche in una sala cinematografica ho capito va bene andiamo avanti e sentiamo il trailer 610 trailer 610 prima la vita di un uomo è spesso costellata di esami franco sta cercando di essere assunto alle poste e oggi è davanti alla commissione esaminatrice su signor bolli non è il caso di emozionarsi per mettere a suo agio le darò del tuo e la chiamerò franco va bene va bene signor esaminatore allora franco io ti enuncerò dei nomi di città e tu mi dovrai dire la sigla della provincia d'accordo d'accordo torino to ancona an crotone k r bravo rimini r n benissimo messina avanti messina non mi viene in mente va bene proseguiamo te la richiederò più avanti così avrai modo di ricordartela la tensione cresce anche se bolli franco ha sempre sognato di lavorare alle poste e si è preparato seriamente pesaro pu ottimo perché è pesaro urbino tivoli roma perfetto tivoli non è provincia messina e insomma franco cerca di ricordarti ci torneremo sopra milano mi caltanissetta cl messina non mi ricordo me franco è me ricordati di me ricordati di me nei cinema un astronave aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio un carburante appunto alieno l'orto è di pier maria carletti un uomo cento volte più debole stupido e di netto di un uomo normale pier maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe queste sono le origini di normal man normal man in il cellulare roma ore 16 e 34 pier maria carletti alias normal man sta tornando da una gita in campagna dopo un curvone avete un'automobile ferma è un uomo che fa l'autostop la mia normal vista mi dice che quell'uomo sta facendo l'autostop serve aiuto? grazie al cielo ed è il primo che passa da circa mezz'ora ho l'automobile in panne dovrei chiamare l'acima il mio cellulare scarico pier maria carletti alias normal man pensa tra sé e sé potrei prestargli il mio ma non posso rischiare di svelare la mia vera identità questo è un lavoro per normal man vi hai sentito? le ho chiesto se potrebbe gentilmente prestarmi il suo cellulare mi dispiace ma non posseggo cellulari arrivederci ma dove va? mi accompagna almeno in paese è andato via in realtà pier maria carletti alias normal man si ferma dietro la curva e non visto dal povero automobilista apre il bagagliaio prende la borsa che contiene il costume da normal man si cambia rimette la borsa nel bagagliaio chiude lo sportellone in circa otto minuti diventa normal man e raggiunge a piedi il malcapitato salve serve aiuto? ma tu sei normal man in carne ed ossa ho il cellulare scarico devo fare una telefonata tenga usi pure il mio normal cellulare grazie carino fa anche le foto assolutamente no è un normal cellulare telefono e basta grazie comunque normal man uomo compone il numero ma appare sul display la scritta che avverte dell'impossibilità di fare chiamate accidenti ho esaurito la scheda e ora come facciamo? la mia normal intelligenza mi dice che se mettiamo la sua scheda nel mio telefonino potrebbe effettuare la chiamata è vero sei un genio normal man sono un supereroe il mio compito è risolvere problemi lì dove c'è un problema di tutti i giorni lì dove necessita un piccolo aiuto lì c'è normal man ed è il momento dell'astrologia qui a 610 con Greg e Lillo sempre ai microfoni l'astrologia a questo punto è sinonimo di Saturnus questo grandissimo astrologo che fa parte dell'agenzia 610 e che riscuota un certo successo tant'è vero che arrivano tantissime mail Saturnus buongiorno Saturno buongiorno Saturnus si si sei Saturnus ma sono proprio soddisfatto di questo nome che mi sono trovato è bello Saturnus è bello devo dire complimenti si si che fa proprio c'è uno dice Saturnus e c'è subito in mente tutto il cielo con tutte le stelle è geniale i pianeti tutte queste pallette che illuminano complimenti veramente geniale io a questo punto leggerei una di queste mail tipo questa che ci manda Emma caro Saturnus mi chiamo Emma 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 sì sono del Sagittario e vado con l'M con l'M due M sì Emma e vado molto d'accordo con i pesci ma sono attratta sessualmente dagli scorpioni con cui però non vado molto d'accordo come mai amo i pesci ma sono attratta dagli scorpioni che significa queste strane cose che ne sa che va d'accordo con i pesci non è che uno si litiga con i pesci ma non lo so a parte che uno i pesci la maggior parte delle volte li vede già morti sul banco del mercato ma metti pure lei che ne so da dove scrive non c'è scritto no non c'è scritto metti che ci sta che ne so c'è un acquario come a Genova vede sti pesci cioè come fai a capire se vai d'accordo nel senso tu non disturbi loro loro non disturbano te ma dipende pure che pesci perché te voglio vedere se stai in mezzo al mare che un pesce cane se ci va d'accordo ma no ma lei astrologicamente d'accordo sono tranquilli i pesci ci puoi pure andare d'accordo che i scorpioni te li attraggono sessualmente è proprio una perversione perché insomma se io posso capire ci sono state un sacco delle cose in passato ma pure con le capre con le vecole ma gli scorpioni come fai questa cosa è una perversione proprio perché te possono ma intendeva astrologicamente capito ci scrivono delle cose ma poi come se fosse questa una cosa non è una rubrica sessuale se c'hai delle cose del genere perché è pericoloso perché io poi so dove vuoi arrivare con questo scorpione lo scorpione non te lo può far avvicinare al corpo specialmente in certe parti ma vabbè te pizzica poi te voglio vedere quanto ci va d'accordo con quegli scorpioni grazie grazie Saturno allora meglio un pesce andiamo avanti vabbè grazie Saturno andiamo avanti va tanto fa così se è bello vi piace lo spagnolo come suono però magari non avete avuto occasione di studiarlo oppure vi piacerebbe magari lavorare con lo spagnolo anche se non lo sapete è l'occasione per voi perché con questa radio che noi già abbiamo fatto ascoltare altre volte no Lillo sì radio olea sta la vista è questa radio che trasmette spagnolo maccheronico c'è uno spagnolo che può essere capito da tutti questo è fondamentale questo è uno zero noi la stiamo facendo sentire perché basta sapere un po' grossomodo quelle sono le tematiche spagnole cioè la paella la corrida sapere un po' parlare con la S e uno può lavorare in questo modo esatto poi diciamo che lo spagnolo sembra una lingua facile ma non lo è lo spagnolo vero diciamo che è abbastanza incomprensibile mentre invece con lo spagnolo maccheronico si capisce che è una bellezza quindi ascoltiamo Radio Olea sta la vista cosa trasmette in questo momento Radio Solea sta la vista 42 della modulazione della frequenza un saluto amico qui sta se magna mies al tráfico da Ramon e ora vamo subito a nostra rubrica di ricette con nostro cueco Manolito Caballero della Vega e Gutiérrez hola Manolito come vas? va buono va buono estoy un po' raffredato ma poi il resto si tira delante e sono malano di stagione Manolito se proprio vero Ramon allora hollo preparato una ricetta da le carce los mustachos bucatillos a la matricera se pion te gamero y se fa un sofredito de olio cebolla e quando estes puenta la pasta los versamos sobras a la fin una spruzatiña de pecorito y los bucatillos son fatos es un plato adatos a toda la ocasión porque cantando se alegra silito lindo los corazones gracias Manolito y a la próxima nosotros invece vamos a sentir el último compadiscos de totos cotuños soy un españolo lascate me cantar porque soy fiero soy un españolo un españolo verdadero Greg e Lillo Radio 2610 siamo qui con Massimo Bagnato l'artista multimediale che rappresentiamo da un po' di tempo è un artista in grado di fare veramente di tutto che ci deve dare una notizia se non sbaglio vero Massimo si grazie Lillo grazie Greg grazie Lillo non ho ancora detto nulla di una cosa mi porto avanti Massimo Bagnato è un tipo elegante grazie sono portato avanti e so che dispiacerà un pochino a tutto il mondo dello spettacolo io volevo ringraziare tutti quanti voi per quello che avete fatto per me in questi anni ma purtroppo la notizia che ha fatto il giro del mondo rimbalzata tra le maggiore agenzie di stampa è vera io ho deciso di lasciare il mondo dello spettacolo come sapete in quanti giorni ha fatto il giro del mondo ha fatto il giro del mondo in poche ore addirittura perché tutti sanno che io sono un artista che è riuscito a spaziare dal teatro al cinema alla fiction dalla pittura alla scultura dal fumetto all'editoria dal musical all'opera dalla fiction e poi facendo il percorso inverso tramite televisione teatro cinema fiction ma adesso ho deciso di lasciare i cronisti di tutto il mondo hanno narrato le mie gesta lo so è la fine di un'ecopea ma ho deciso di lasciare coerente con la mia concezione d'artista che prevede che l'artista debba avere un percorso del genere sia nascita maturazione gloria e poi a donare quando ha raggiunto la gloria ecco ora che ho raggiunto la gloria io voglio abbandonare quasi a voler cristallizzare la mia condizione di mito con voi pubblico che siete in ascolto c'è stato un rapporto di amore scambievole io penso di aver dato molto a voi e voi avete tanto tanto a me ma è arrivato il momento di lasciare c'è questa atmosfera vero Greg e Lillo così pregna nei vostri occhi vedo i fotogrammi dei miei film io respiro anche le canzoni che ho cantato in questi anni nei vostri occhi vedo i fotogrammi dei miei film ma se può consolare il pubblico anche in ascolto dico che rimangono le mie registrazioni radiofoniche i miei quadri rimangono i miei dipinti rimangono le mie architetture le mie sculture i miei palazzi le diapositive rimangono le diapositive rimangono i dvd rimangono i cd i lavori fatti sia su materiale analogico che digitale le installazioni l'arte moderna rimane l'arte contemporanea rimane soprattutto l'arte classica peccato Massimo perché c'era appena arrivato un'email che dice appunto che ti volevano per il programma nuovo di Rai 1 fatti matti e ti volevano come figurante speciale che peccato perché è una scelta coraggiosa appunto abbandonare il momento dell'ascesa a 32 anni cos'era questa proposta? era fatti matti un nuovo programma di Rai 1 ti volevano come figurante parlante insomma speciale in questo caso fate caso io non abbia detto nulla e quindi non ti ridiri più ma no io penso di non non ritirarmi più fatti matti grazie Massimo e andiamo avanti Greg e Lillo Radio 2 610 610 Greg e Lillo Radio 2 via Siago ovviamente eccoci nuovamente giunti al momento della nostra straordinastica rubrica straordinastica perché è un misto di straordinaria e fantastica conosci mia cucina infatti infatti lo spazio del cuoco è da anni uno dei più seguiti in televisione qualunque programma tv degno di questo nome ha il suo momento della cucina e quindi anche noi in radio abbiamo ospite niente meno che Salviero Salvieri il grande chef da anni insignito del Cordon Bleu per le sue innumerevoli merite e per le sue ricette di raffinata fantasia buongiorno Salvieri buongiorno a voi e grazie dell'invito oh Salvieri sta già preparando un piatto probabilmente se ti rete in sottofondo tutto questo allegro spignattio di tegami e padelle no bene che piatto ci sta preparando lasciamo che sia lui stesso a dircelo esattamente io sto preparando un semplice cappuccino un cappuccino cioè il classico cappuccino che si beve la mattina al bar esattamente io in qualità di chef mi sono permesso di rilaborare levemente la ricetta originale per creare un piatto che fosse allo stesso momento tradizionale e innovativo è fantastico amici radioascoltatori come la cucina sia veramente un'arte un'arte che si rinnova di giorno in giorno grazie a chef come Salvieri naturalmente ma come si prepara questo fantastico piatto Salvieri? allora si prende del latte lo si riscalda senza portarlo a debollizione vi si versa del caffè meglio sia appena uscito si aggiunge zucchero a descrizione del gusto personale e un pizzico di questa salsa di mia creazione a base di spezie e voilà che profumino amici radioascoltatori veramente da far venire l'acquolina in bocca beva allora beva vado eh vado bevo eh ma è squisito è squisito in effetti è un cappuccino ma qualcosa di straordinariamente unico rispetto a quello del bar grazie esattamente Salvieri ci dico che cosa ha aggiunto che c'era in quelle spezie ogni chef ha le sue risorse nascoste cose che non si possono svelare Salvieri lo faccia per noi solo per noi di 610 la preghiamo che cosa? cosa dovrei fare? no ci dico un suo segreto la preghiamo un suo segreto un mio segreto? eh eh non dovrei però va bene allora sarà stato più di dieci anni fa mi trovavo alla consegna del diploma della scuola di alta cucina di mio figlio Aurelio lui ci teneva tanto che ci andassi che assistessi a questa consegna del suo diploma ma mentre stavo per entrare nell'aula dove consegniamo gli diplomi vengo fermato da Adriana la fidanzata di mio figlio mi chiede mi chiede di accenderle la sigaretta e mi dice che le piace tanto come cucino poi mi dice che mi deve far vedere una ricetta che ha scritto lei e mi chiede di seguirla dentro una stanzetta io avevo capito benissimo che tipo di ricetta voleva farmi vedere però mio figlio stava lì che mi aspettava allora butto uno sguardo nell'aula vede Aurelio che si guarda intorno con la speranza di scorgermi così in giro allora poi mi giro dall'altra parte e vede Adriana già mezza nuda che mi fa segno di seguirla allora mi sono detto ma al diavolo il diploma di mio figlio mi sono fatto una sbatacchiata e sono anche riuscito comunque a sentire quando hanno nominato mio figlio per la consiglia del diploma dell'altra aula ma che c'entra? mi avevate chiesto un mio segreto un segreto si ma un segreto culinario intendevamo culinario un segreto suo di cucina qualche ingrediente particolare ah no 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 sono cose troppo personali mi dispiace grazie comunque a Salviero Saldieri speriamo di riaverlo qui con noi la prossima volta è tutto per questa puntata di Conoscimi a cucina Gregory Lillo 610 Radio 2 arrivederci vi ricordiamo che noi abbiamo scoperto questa radio che si chiama Radio Mamma Mia una radio che trasmette 24 ore su 24 Mamma Mia degli Abba eh sì abbiamo scoperto insomma un po' di tempo adesso che beh abbiamo scoperto noi diciamo che non era così famosa prima di abbiamo contribuito al suo successo comunque era già scontato che ci fosse proprio per il tema che tratta sì sì una radio geniale una radio che trasmette solo Mamma Mia degli Abba creata da questo fan degli Abba in realtà fan proprio di Mamma Mia perché lui è proprio appassionato solo di questa canzone sì Inimar Bjorn che è un nome d'arte perché lui è italiano in realtà sentiamo cosa sta trasmettendo in questo momento Radio Mamma Mia ecco questa era la sigla ma sempre per ragioni di tempo devo andare veloce quest'oggi mi dispiace amici radioascoltatori però vi prometto che prima della fine della trasmissione avrete una sorpresa una canzone che ho scopato e voglio farvi ascoltare vi dico va solo un assaggio un pezzo degli Abba vabbè ma ne parliamo dopo adesso invece facciamo la classifica Mamma Mia iniziamo con una new entry al quinto posto Mamma Mia Instrumental la versione strumentale del cereberrimo brano degli Abba Mamma Mia ascoltiamo magnifica questa versione strumentale al quarto posto si conferma Mamma Mia Unplugged la versione senza cavo in realtà è solamente una versione più acustica del famoso brano degli Abba Mamma Mia ascoltiamo anche questo brano ancora una new entry per il terzo posto vero una versione remix di Mamma Mia degli Abba ve la ricordate questa famosissima bellissima canzone ascoltiamola e siamo arrivati al secondo posto purtroppo perde una posizione da prima fino alla scorsa settimana ma succede così questa volta è al secondo posto Mamma Mia Live in Stoccolma è praticamente una versione live cioè dal vivo di Mamma Mia il brano degli Abba ascoltiamola e siamo arrivati al primo posto ha scalato le classifiche e adesso è in vetta e vuole restarci secondo me è una canzone fantastica una canzone meravigliosa ed è tratta dalla compilation di Radio Mamma Mia una compilation che ho stilato personalmente ma non vi dico il titolo voglio che la ascoltiate che la riconosciate e spero dalle prime note Allora l'avete riconosciuta era Mamma Mia degli Abba Mamma Mia degli Abba è prima in classifica speriamo che ci rimanga ancora per tanto tempo e con questo si conclude la Hit Parade Mamma Mia ancora un pezzetto di sigla ecco vi saluto e vi ricordo che la Hit Parade tornerà la prossima settimana quindi per adesso basta vogliamo ascoltare un disco sì allora facciamo partire un disco Mamma Mia degli Abba Nuova Arancia Sventra quattro categorie sterzo climatizzato ruota in Lego e airbag prepagato scaricabile sul tuo telefonino con immagini ad invio immediato e Nuova Arancia Sventra inizia a pagarla subito con rate personalizzate a partire da 300 euro settimanali senza possibilità di scelta rivolgiti immediatamente al tuo edicolante di fiducia e scegli tra le migliaia di offerte prepagate della gamma Sventra senza passare dal via metti in moto la tua estate con la voglia più huopi dell'anno eh Greg sì hai sentito che offerta? no ho sentito non ho capito quasi niente di quello che è questa nuova vettura l'Arancia Sventra questo ho capito tutti questi optional che sono vantaggiosissimi cioè le cose che uno appunto vorrebbe sempre nella sua macchina quattro categorie non è la macchina di categoria A o B cioè tutte e quattro c'è l'A cioè dalla A alla D quattro categorie lo sterzo climatizzato cioè hai visto che quando vai in macchina che fa caldo la lasci c'è lo sterzo che è bollente questo invece rimane sempre a temperatura che la scegli te poi a 12 gradi ed è quello lì le ruote in Lego cioè che le puoi tutte quante le smonti le monti come ti pare e l'airbag prepagato cioè lo paghi prima ah l'airbag sì l'airbag lo paghi prima ah cioè nel senso l'airbag è la prima cosa che paghi la paghi poi scegli poi anche non comprai la macchina però intanto l'airbag va pagato ed è scaricabile sul telefonino che è l'airbag l'airbag sì quando ci sta l'impatto si apre e lo visualizza immediatamente sul telefonino che è l'airbag sì ah lo vedi sia dal telefonino che dal vivo esatto e però lo puoi con l'immagine di invio immediato cioè lo puoi subito inviare ai tuoi amici e arriva subito no mi sembra vantaggioso eh in certi vista perché poi hai sentito il nuovo arancia sventa inizia a pagare subito guardate personalizzate ah non lo aspetti no 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 paghi subito guardate personalizzate a partire da 300 euro settimanali senza possibilità di scelta ah non puoi scegliere niente no 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 paghi cioè cercano loro insomma quello che paghi modalità di pagamento quanto poi anche loro possono anche scegliere di aumentare la rada c'è quanto loro te sei libero di non scegliere sì sì ah vabbè io ci andrei subito insomma sì sì mi sembra buono andiamo avanti adesso 610 610 610 610 610 610 Greg e Lillo siamo di nuovo qui alla radio ai microfoni in vostra compagnia per farvi accedere alle bellezze dell'Italia e in che modo con la nostra rubrica cose da salvare cose da salvare perché l'Italia è bella l'Italia è bella uno va sempre in vacanza all'est sono tanti quei bei posti in Italia ma è vero sono tante belle cose che purtroppo via via con il progresso spariscono vengono distrutte mentre invece sono cose importanti cose da salvare cose da salvare e Stefano Frosi appunto si collega con noi perché è andato a trovare qualcosa di queste bellezze che devono essere salvate pronto Stefano cosa hai trovato sì eccomi qua un simpatico era tanto che non se beccavamo a tutti era tanto che non se beccavamo anche a te grazie ecco oggi sono presso la città di San Benedetto del Tronto sono circa 20 km piene marche sì ecco praticamente sono nel San Benedetto del Trontonese esatto e cosa hai trovato per la precisione sono a limitare della strada comunale ah ecco ecco e sono presso un capanno in legno sì dove è stato rinvenuto diciamo davanti a questo capanno è stato rinvenuto un pezzo di colonnato pensate risalente probabilmente alla metà dell'Ottocento ah ecco ora sembra che qui vogliano costruire un parcheggio per camion no non ci posso credere cioè vogliono costruire un parcheggio per camion vabbè veramente è così ecco quello che io vorrei dire abbiamo capito Stefano abbiamo capito ecco ecco salviamo questo colonnato salviamo ma io quello che voglio dire è ma viva il parcheggio che qui in sedia riesce a mettere la macchina da nessuna parte ma anche perché ve lo voglio dire insomma sto capanno sarà pure vecchio ma fa schifo c'ha sto legno mezzo marcia è tutto frasico manco sa regge più poi dice il colonnato ma che colonnato ma so tre bozziconi e travertino che qualche imbecille nell'Ottocento si è fatto mettere nella villa per fare un splendido con la bici ma per carità ma viva il parcheggio ah quindi viva il parcheggio ma certamente certo grazie Stefano ma viva il parcheggio viva il parcheggio andiamo avanti Greg e Lido andiamo avanti Greg e Lido eccoci qui andiamo avanti con 610 andiamo avanti con il cinema infatti è il momento del trailer ovvero lo spazietto che abitualmente dedichiamo al cinema a questa arte che diventa sempre più arte e si perfeziona sempre di più nel tempo e anche se è un'arte giovane come tutti sappiamo a questo punto abbiamo qui un ospite un grande critico di cinema il professor Galvano Bellacuaglia buongiorno buongiorno a voi buongiorno ecco professore noi volevamo parlare con lei di questa commedia che io personalmente ho visto e devo dire insomma non sono un intenditore non sono un esperto però devo dire che è una commedia che ho trovato molto piacevole Itch il titolo con Will Smith ecco lei sicuramente l'ha visto il film ero curioso sì sì l'ho visto il Triniton multisala ecco e io ero veramente curioso io personalmente anche di sapere cosa ne pensa lei insomma qual è la sua critica io definisco tutto ciò drammatico inesorabilmente drammatico come drammatico scusi è un film comicissimo io ho riso tantissimo ho dei punti veramente esilaranti come drammatico ma al di là di questo aspetto il vecchio cinema Olympus che era era il banto del quartiere è stato reso questa multisala Triniton multisala in che senso sono delle 15 salette da 2 metri quadri si sta scomodissimi e non c'è l'accesso per i portatori di handicap c'è l'aria condizionata a tutto andare si esce raffreddati sì no mi scusi non c'è un servizio di pulizia rimane tutto sporco di popcorn di aranciate buttate drammatico sì ma dico al di là di questo fastidio che lei ha provato andiamo proprio diretti su quello che ci interessa cioè il film The Itch questo film con Will Smith appunto il film è un film vale l'alto delle cose delle immagini che si muovono come immagini che si muovono un film vale l'alto lei è un critico di cinema mi scusi che mi frega delle pellicole io ho un critico di cinema io sono esperto di sale cinematografiche e quindi questa non va bene questa multisala no 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 io proprio la diserterei cioè do questo consiglio disertate la Triniton multisala perché è solo stato un tentativo di arraffare soldi da parte del proprietario e di assoggettarsi a questa legge di multisala ma se non c'è lo spazio non si devono fare multisala certo certo sentiamo il trailer 610 trailer 610 prima Gualtiero Zina ma anche un tipo pignolo come Gualtiero Zina a volte commette degli errori oh povero mio ho dimenticato la stilografica dentro la giacca devo assolutamente recuperarla che succede signor Zina? ho lasciato la mia penna stilografica nella giacca ah mi sa che è un problema la mia collega ci sta già lavorando Lida guarda un po' se trovi una giacca grigia quale giacca grigia? ce ne sono tre quella sporca dozzina quella sporca dozzina né cinema grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti un'astronave aliena a terra su un orto lasciando tracce di texilonio un carburante appunto alieno l'orto è di Pier Maria Carletti un uomo cento volte più debole stupido ed inetto di un uomo normale Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe queste sono le origini di Normalman Normalman in il detersivo Roma ore 1536 Pier Maria Carletti alias Normalman sta facendo la spesa nel supermercato sotto casa una piccola vecchina deve comprare il detersivo Eccolo Eccolo Finalmente l'ha trovato sbianca il detersivo che lava più bianco più bianco solo che l'hanno messo nello scaffale più in alto non ci arrivo dovrei farmi aiutare da un commesso ma come in tutti i supermercati i commessi sono introvabili per fortuna che Pier Maria Carletti alias Normalman si trova a pochi metri dalla vecchina e vede tutto la mia normal vista mi dice che quella vecchina ha bisogno di aiuto questo è un lavoro per Normalman fortunatamente Pier Maria indossa già il costume sotto il vestito quindi corre in toilette si sfoglia si accorge di aver messo la maglia da Normalman al contrario se la toglie la mette dalla parte giusta ha qualche difficoltà con la lampo dello stivaletto visto che c'è ne approfitta per fare pipì e con la sua normal velocità e in meno di 4 minuti si trasforma in Normalman intanto la vecchina si sta rivolgendo alla cassiera mi scusi ma mi calmi un commesso per favore che lo so c'era Franco prima e mo no vedo Franco e non risponde non so che dire serve aiuto signora oh ma tu sei Normalman in carne ed ossa cosa posso fare per lei devo prendere un detersivo ma è su una scaffale troppo in alto non ci arrivo mi ci porti con la mia normal altezza dovrei arrivarci la vecchina conduce Normalman nel reparto detersivi ecco devo prendere quella confezione di spiancax ma vedi quanto è alto dannazione la mia normal altezza non basta non ci arrivo neanche io un momento potrei usare uno sgabbello Normalman si dirige dalla cassiera scusi ha uno sgabbello che lo so c'era Franco prima e mo no vedo Franco e non risponde non so che dire la mia normale intelligenza mi dice che se mi faccio aiutare da un uomo alto posso risolvere il problema proprio in quel momento passa il ragionier guidotti un uomo alto un metro e novantadue mi scusi potrebbe prendere quella confezione di sbiancax lassù che io non ci arrivo ma certamente a che ho fatto lo dia direttamente a questa signora grazie signore e grazie a te Normalman non mi ringrazio sono un supereroe e faccio solo il mio dovere addio addio Normalman lì dove c'è un problema di tutti i giorni lì dove necessita un piccolo aiuto lì c'è Normalman Lillio Greche 610 Radio 2 siamo qui per farci la nostra razione di risate settimanali Sì beh che mi siamo qui con Miss Italia innanzitutto presentiamola ciao Miss Italia ciao Buonasera Miss Italia che dopo essere stata Miss Italia dopo aver fatto un po' la donna immagine la ragazza immagine in vari programmi televisivi dopo aver fatto la modella ha deciso di scrivere un libro però te l'hanno commissionato stavolta sì me l'hanno chiesto proprio specificamente quelli che li fanno e io prontamente ho detto ok c'è l'editore ti ha cercato proprio l'editore ti ha cercato sì Luciano Luciano vabbè probabilmente sarà un editore no non proprio l'editore uno dei mi ha detto che fai libri e vabbè e tu e tu l'hai fatto e io l'ho fatto un libro comico perché adesso libri comici vanno molto di moda vero? mi ha detto Luciano vanno tantissimo eh infatti io non lo so perché non frequento però io credo che mi ha detto una mia amica che invece in libreria c'erano proprio libri tantissimi dei comici sì sì c'è proprio un reparto proprio sicurati va bene Miss Italia ok parliamo un po' del libro di questo libro comico tu prendi spunto dalla vita vero? sì che c'è di più comico dei fatti reali che cadono in persone è vero è quello che ho pensato anch'io parlaci di qualche momento del libro qualche capitolo qualche allora praticamente c'è questo capitolo di una persona che cammina non so che stava guardavo da un'altra parte ma cammina plaffede cosa plaffede? a pesta a pestato ma che ah la la cacca diciamo la cacca ecco di un cane credo ah ecco eh beh sì 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 allora aspetta non solo beffa proprio dell'eronia della sorte si pulisce si tira il piede con sto sto seppetto eh con il seppetto c'aveva le scarpe quelle con i cosi cararmato di scarponcini di scarponcini buonanotte infatti molto molto divertente ma come fai? certo una bella fortuna ci ha avuto a beccare proprio uno momento giusto no sì buonanotte che no no io perché sono ormai una scrittrice abbastanza afferrata mi sono informata bene dove poteva essere un posto di cacca di cani ah tipo un parchetto eh un parchetto un parco dovevano i cani sì niente mi sono messa lì zitta zitta che magari i cani non mi vedevano eh ho paura pure dei cani anzi è postata proprio su una strategia sì proprio con gli occhiali da sole pure perché c'era il sole eh beh quindi proprio allora comprate il libro di Miss Italia date il libreria sappiamo il titolo ma non fa niente ma non fa niente perché lo vedete subito perché c'è uno in copertina appena vede la copertina con uno che ride oppure un'altra copertina è quello di Miss Italia comunque è quello di Miss Italia quello è sicuro sì sì c'è scritto Miss Italia è sicuro se ci hanno scritto un altro nome me li magno c'è scritto io una fatica eh infatti va bene in bocca al lupo Miss Italia crema crema ed è giunto il momento del collegamento con Stefano Frosi che pensate è per noi a Sydney in questo momento pronto Stefano ciao Lillo ciao ciao che ci dici da Sydney da Sydney oh no mi sono scordato Lillo ecco che dovevo fare oggi scusa sto a Roma sto a Roma e mi sono scordato e sto cioè non sto a Roma stiamo andando a Dispoli con i nipoti e non ci porto mai abbia pazienza mi sono scordato mi è andato via de mente pronto va bene grazie allo stesso ciao Stefano ciao 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 dopo andiamo avanti Greg e Lillo Radio 2 6 1 0 siamo ancora qui per parlare di radio è un po' di tempo che io e Greg cerchiamo di scoprire le altre radio che ci circondano ne abbiamo trovate molte tra cui radio 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 no no radio va bene come si chiama radio 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 la r no no ma radio radio lo dico bene è Mazzana che mi chieda dei problemi c'è qui appunto il direttore musicale di radio Mazzana che è Eugenio non leggo bene il cognome Eugenio Eugenio della madre Eugenio della la madre della madre Eugenio della madre che è il direttore appunto musicale di radio Mazzana parliamo un po' della musica di radio Mazzana mi chiamano gli altri come chiamano anche lì alla radio come mi chiamano come vabbè perché è un soprannome nato tanto tempo fa mi chiamano tutti gli altri ah il soprannome questo quindi io la chiamo Eugenio va bene va bene va bene non riesco a pronunciarlo bene ok la chiamano Eugenio allora senta Eugenio scusi la confidenza ci parli un po' di questa programmazione musicale di radio Mazzana la programmazione musicale di radio Mazzana prevede un cante di di venti prevede noi nella nostra programmazione abbiamo una playlist che dobbiamo rispettare e quindi prevede delle mostri che noi cerchiamo di di appuntare mostri? si delle canzoni ah delle canzoni delle canzoni ho capito nelle stesse canzoni noi operiamo questa specie di edit di 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 a1 a7 e che le pontano le pontano si e le pontano e vabbè comunque a questo punto io ascolterei una canzone tratta appunto dalla programmazione della playlist di radio Mazzana che noi vogliamo sentiamo Giorgia Giorgia proprio da radio Mazzana che è un fotone come no voglio parlare a tumore leggeva tone valente farei Firenze o sai e all'ho pavolo ho le you ore i ruminanti inanima nel lu dei giovani tuoi più fraccini e oggi solo E questa era Giorgia per Radio Madana Asplatto Asplatto, sì No, perché Il testo, la canzone è quella La sua famosa, insomma Sì, Coltenio Ah, però è Coltenio Infatti mi sembrava c'era qualcosa di diverso Grazie, andiamo avanti Greg e Lido Radio 2 610 Posso salutare Pechini? Ah, sì, sì, sì Chi vuole salutare? Pechini Saluti, saluti Ciao E ci vediamo la quinconi Ecco Greg e Lido Radio 2 610 Siamo qui in compagnia con Alessandra Canale Questa grandissima annunciatrice Rai Buonasera Buongiorno, è giorno No, gli sono abituata a dire buonasera Buonasera ma anche noi Però è giorno però Vabbè, comunque buonasera 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 Alessandra Canale Che qualche tempo fa Purtroppo, poverina E' stata assilurata E' stata licenziata E' stata buttata fuori E' stata cacciata E' stata 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 Comunque diciamo Ti voglio bene a tutti Ma pure noi Pure noi Diamo bene a te Comunque il fatto sta che Non lavori più per la Rai Vero Però lavorerai Che brutta battuta Lavorerai per altre cose Per altre cose Sappiamo che stai preparando qualcosa Che stai facendo già qualcosa Sto già facendo Negli ultimi mesi Molti annunci importanti Grazie Bene Grazie Alessandra Volevo farvelo Farvi sentire qualche cosa No no Non fa niente Non abbiamo Non reaggio Si si fallo Faccelo sentire Faccelo sentire Scusa Scusa Bip Si prega di depositare Gli oggetti metallici Nell'apposita cassettiera Bip Si prega di depositare Gli oggetti metallici Nell'apposita cassettiera Va bene Grazie Alessandra Canale Bip Si prega di depositare Gli oggetti metallici Nell'apposita cassettiera Vabbè Abbiamo capito Adesso però Dobbiamo salutarti Bip Si prega di depositare Gli oggetti metallici Nell'apposita cassettiera Bip Si prega di depositare Gli oggetti metallici Nell'apposita cassettiera Mi devo Mi tolgo la cintura Dai Vediamo se dipende da questo Bip Si prega di depositare Gli oggetti metallici Nell'apposita cassettiera La carta Che li contiene Bip Si prega di depositare Gli oggetti metallici Nell'apposita cassettiera Ah le cuffie Vuoi vedere che sono le cuffie Non vi basta ascoltare 610? Vi siete persi qualche rubrica? Volete saperne di più? www.610.rai.it Il sito di 610 va oltre e vi offre gallerie di disegni, fotografie, filmati, webcam, notizie utili e inutili, la classifica delle vostre freddure calde, gli annunci enocomici e naturalmente il meglio delle ultime puntate. www.610.rai.it Per stare con 610 quando volete. Greg Lillo Radio 2 610. Siamo qui con una modella, ex modella, di soli 22 anni. Pensate che è stata top model per 4 anni e adesso è decisa di passare al cinema. Parliamo di Eva Gennari. Eva. Ciao Greg, ciao Lillo. Allora Eva, è stato difficile lasciare il mondo della moda per approcciare quello cinematografico? Beh, diciamo da una parte sì perché io sono sempre stata molto legata, ho sempre amato il lavoro di modella ovviamente, però adesso voglio fare il cinema, mi piace fare l'attrice, ho studiato per fare l'attrice e quindi mi piacerebbe fare il cinema, però ho riscontrato dei problemi ecco. Eh, sono facilmente ipotizzabili. Sì, no appunto. Non hai provato a fare qualche corso? No, io ho fatto corsi di recitazione e tutto, però ho dei problemi, quando faccio i provini vengo difficilmente scelta. Certo, sì, è un problema genetico, probabilmente anche... Genetico, sì, effettivamente pure mio padre era alto, perché mio padre era alto nel 95, mia madre pure era alta 1,80, pure una donna, io sono alta 1,84. E questo influisce sulle corde vocali? No, dicevo, questo influisce sul fatto che penso almeno che nei provini mi vedono così alta, dicono questa fa sfigurare gli attori, poi, e quindi non mi fanno lavorare nel cinema per questo motivo. A me mi dispiace, perché io voglio dire che c'entra uno, Nicole Kidman, per esempio, altissima, e non vedo perché lei sì e io non dovrei recitare solo perché sono alta. A me mi sembra esagerato, ecco. Non credo, infatti, sia per l'altezza. Per cosa, scusi? Per questo... Il seno, c'è il seno piccolo, vabbè, ma che problema è? Il seno piccolo oggi, dalle inquadrature, ti trucchi, ci sono questi... No, la voce. La voce che? Lei ha la... Dica, non capisco, la mia voce cosa ha? No, l'altezza, sì, l'altezza. Dicevamo, il problema è l'altezza, ovviamente. Il problema è l'altezza, ovviamente. Mi sono dei preconcetti. E infatti. Lanciamo un appello al... Cioè, voglio dire, ho fatto bei... Sono top model, sono stata. Qui, almeno una particina, non dico tanto, una particina. Magari in un film anche muto. Come muto? No, in senso, doppiato. Perché doppiato? Cioè, la presa diretta, perché dovrei recitare doppiato? Delle volte qua, chi è alto, ci sono problemi di microfono. Ah, dice. Ringraziamo Eva Gennari e andiamo avanti con 610. Grazie, grazie a Greg e Lino. Ciao. E anche oggi, pronti a collegarci con Valentina Paoletti per i collegamenti estremi di 610, Extreme Collegaments, Valentina Paoletti gira il mondo, il globo terracque, la ricerca di fatti e di posti strani da raccontarci. Sentiamo dove si trova oggi Valentina Paoletti. Pronto? Buongiorno Lillo, buongiorno Greg. Ciao Valentina. Oggi mi trovo nel Congo, ai piedi del Monte Mazzua, dove qui si dice che viva una tribù dei Zwa Zwai, che è pratica nel cannibalismo. Ah, il cannibalismo, penso. Però la particolarità di questa tribù non è che cuociono le vittime nei pentoloni come uno immagina. Come sì, la classica. No, no, no. Qui li cuociono allo spiedo. Scusa, come? Allo spiedo. Ah, li fanno allo spiedo. Sì, e la cosa strana e particolare, possiamo dire, è che la loro arma è appunto lo spiedo stesso. Ah, pensa te. Sì, infatti, infilzano la vittima per poi cucinarla sul posto. Vabbè, è molto funzionale, è una sorta di fast food. Certo. Sì, sì, fast food. Ma la cosa ancora, che comunque la leggenda narra, è che il momento della cultura della vittima diventa un momento di festa. Eh, ma è certo, come tutti. Tantano, ballano, canzoni tradizionali della loro tribù, insomma, si riunircono. Sì. Però la cosa strana è che questi cannibali non mandano mai, non vanno mai a caccia, tranne nei giorni di pioggia. Ah, che tempo fa oggi? Oggi piove quasi. Infatti il burrisimo, il trenzo per scoprirmi dalla piozza. Sì, ma scusa, però può essere pericoloso così. Ma no, Lillo, conosco il mio lavoro, so quello che faccio. So che sicuramente non mi prenderò un raffreddore perché mi sono coperta bene. No, a parte il raffreddore, dico per i cannibali. Vabbè, comunque dai. Andiamo avanti. No, i cannibali non, sono abituati alla pioggia, che scherzi. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo allora. Ecco, io mi sto quasi addentrando nella zona limitrofa alla tribù dei Zua Zua. Sì. Infatti da lontano, appunto, vedo di piccoli omezzi neri con dei bastoni lunghissimi e affilatissimi in mano che corrono. Cazza roba. Sì, e corrono, non so che capire, forse verso me, forse avranno visto... Come forse? Corrono verso di te o no? Eh, perché sennò vi sono le piante in mezzo e vi devo capire se stanno venendo verso di me o... Valentina? Verso di te o? Valentina, pronto? Valentina, non puoi troncare così sul momento più suggestivo. No, io sto cellulare, ma perché non lo cambia? Sempre sti problemi, fa via la linea all'improvviso. Noi siamo qua in radio, non è che possiamo lasciare i nostri radioascoltatori così... Eh, ma non sappiamo se stavano andando da un'altra parte questi Big May. Vabbè, comunque andiamo avanti e... Aspetta, aspetta, sento qualcosa. Un disturbo, un disturbo, un disturbo. Vabbè, andiamo avanti, Greg e Lillo, 610. Mannaggia. Greg e Lillo, i microfoni di Radio 2, 610, siamo giunti al momento del trailer, il momento del cinema, no Greg? Sì, stiamo per raggiungere comunque al finale, questo è il finale della nostra traduzione. Sì, siamo, giungiamo al desio, però nel frattempo abbiamo deciso di parlare un po' di cinema con i nostri radioascoltatori, approfittando del momento dedicato al cinema. Quindi sentiamo se c'è qualche telefonatellina, qualcuno che vuole parlare con noi di cinema. Sentiamo, pronto? Pronto? Pronto, sì, ciao, chi sei? Sono Giovanni da Procida. Ciao Giovanni, ciao. Giovanni, allora? Vuoi parlare con noi di cinema? No. Bene, grazie Giovanni, ti salutiamo, sentiamo il trailer. 610 trailer, 610 prima. La periferia di Brescia sa esser dura, ma Master Mix e Mr. Max sono due giovani DJ che pensano ancora di poter conquistare il mondo con la loro musica. Eh Master Mix, dimmi Mr. Max, cosa c'è, man? Perché non registriamo un CD, man? Un megadisco molto cool della nostra musica, man. Sarebbe sgarso assai, man. Ma chi ci ridà i bomboloni per registrarlo, man? Hai ragione, sta ragione, man. Non c'è posto in questa mappa palla per due a posto come noi, man. Ma si sa, chiunque può essere artefice del proprio destino. Così un giorno i due DJ decidono di provare la fortuna. Ehi Master Mix, danno l'occhiata a questa roba che ho nelle graffie, man. Ehi, man, e che roba è, man? Una mega schedina stra-cool e giusta che ci farà vincere i baiocconi d'oro, man. Storia, man, storia giusta di mega 13 da sballo, man. Dai, man, facciamola subito, sto. Milan, Juventus, man. Che mettiamo, man? Io tengo tutto un mega sistema planetario, man. Una roba che non vinci, ma stra-mega vinci tosto, man. E allora svanga di mega sistemone, man. Dai, storia di sistemone da coccolone, man. Allora, metti 2-3, 3-2-2-3, 3-2-2-3, man. Ne manca uno, man. Uno stra-mega risultatone manca, man. Sono 12, man. Ci manca proprio più tosto quello che ci farà fare storia di tredicione, man. E quello è il giga colpo segretone, man. Sai che devi mettere, man? No, man. Che ci metto? Un bel due, man. No, man. Un bell'uno, man. No, man. E allora che ci metto, man? Un X-Man. X-Man, nei cinema. Un'astronave aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di Normalman. Normalman in la fotografia. Roma, ore 3.40. Una coppia di turisti si trova a Piazza Trilussa. È una notte fredda e piovosa e la piazza è vuota. I due malcapitati vorrebbero farsi una foto ricordo, ma l'unico a passare in quel momento è un ubriaco. Excuse me, puoi fare una foto a me e a mia moglie? Certo, non c'è problema. Mi dia la macchinetta. Ma l'ubriaco inizia a barcollare. Excuse me, non ti muove così. Devastare fermo. Actimente non ci prende. Lasciate fare a me. Io le do fare le foto. Intanto Pier Maria Carletti alias Normalman passa di lì e vede la scena. Il mio normal istinto mi dice che quell'uomo non è in grado di fare la foto. Questo è un lavoro per Normalman. Fortunatamente Normalman indossava già il costume sotto i vestiti e con la sua normal velocità si cambia in meno di un minuto. Ci avrebbe messo anche meno se non si fosse impigliata per qualche secondo lo lampo dei pantaloni. Ecco fatta l'avvolto. Veramente quando ha scattato lei si trovava le spalle a noi. Sicuramente non ci ha preso. Allora ci riprovo. Guardi, lasci stare. Le ringraziamo lo stesso. Come vuole. Ecco la macchinetta. Credo che dobbiamo rinunciare, tesoro. Non passa nessuno. Peccato. Era così bella questa piaccia. Mettetevi in posa. Farò io la foto. Ma lei è Superman? No, sono Normalman, un supereroe italiano. Mi dia la macchinetta. Ecco, tengai. Bravi, sorridete. Ecco ora con la chiesa dietro. Abbracciatevi adesso. Uno un po' dal basso. Primi piani. Ecco fatto. Che gentile. Ci ha fatto un bel servizio. Grazie, Normalman. Non mi ringrazio. Addio. Lì dove c'è un problema di tutti i giorni. Lì dove necessita un piccolo aiuto. Lì c'è Normalman. Anche oggi parleremo d'astrologia. Sempre qui da 610 Radio 2 Greg e Lillo parleremo di astrologia con il nostro astrologo di fiducia, il grande Saturnus. Buongiorno Saturnus. Su Saturnus. Buongiorno. Buongiorno. Bello Saturnus. Effettivamente c'è una risonanza come il nome Saturnus. Saturnus. Un nome importante proprio. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Della dica Roma, Saturnus. Saturnus. Bello, bello. E Saturnus, che dire, arrivano veramente centinaia di mail di persone che vogliono sapere i tuoi consigli astrologici. A questo punto leggeteai una di queste mail. Ce n'è una da Genova, una certa Francesca. dice, caro Saturnus, mi chiamo Francesca, sono acquario e vivo a Genova. È molto tempo che non riesco a comunicare con i miei figli che sono tutte e due arieti. Quindi come mai Saturnus, questa donna, non riesce a parlare più, a comunicare, a trasmettere sensazioni, motivazioni ai figli? Dipende da quant'è che se ne sono andati. Che ne so, se ne sono già in telefono, una cosa, perché tocca andarle a trovare. Da Genova ci sta Andreno che vorrebbe arrivare a Roma e da Roma a rieti non ci vuole molto. Dovrebbe mettereci... Non riesce a comunicare con i figli che sono tutte e due arieti. O si spostano ogni tanto i figli che arrivano a trovare la madre, perché insomma è sempre la madre che ci vuole a rieti con la macchina pure, ce l'avranno una macchina tutti cristiani, no? Se no, ogni tanto possono andare una volta al mese uno dei due figli da rieti per il piede alla macchina e va a Genova, poi dopo dieci giorni magari ci va quell'altro e poi invece dopo altri dieci giorni è la madre che si va a rieti e li va a trovare. Non intendeva quello. Se lo scambiate per numero di telefono mettetevelo quanto costa la linea telefonica e ve chiamate ogni tanto. Saturnus era in senso astrologico. I cellulari può lasciare un messaggio, non è difficile, cioè ci sono certi che vanno all'America, vanno in Australia e se comunicano. Questo è Sarnarieti e quello è Stageno ma non è difficile. Vabbè, andiamo avanti l'Anton Smash. Greg Lilo Radio 2 610 ormai ci stiamo gemellando da un po' di tempo con altre radio e abbiamo scoperto una radio nuova che si chiama Radio Timidezza Station. Esatto. Quindi colleghiamoci con Radio Timidezza Station per sentire cosa sta trasmettendo in questo istante. Amore del sole Abbiamo ascoltato una canzone di chi era? La dillo te, dai. Abbiamo trasmesso La questione di Martin Di Martin, infatti. L'Ess Amore. L'Ess Amore di Martin. D'Ess Amore. D'Ess Amore. Abbiamo adesso qui un si può definire un ospite un ospite sì, insomma un ospite si può dire abbiamo qui un ospite che è un cantautore diciamo la dilla dai Luigi io non ci riesco vieni qua mi lascia solo mi lascia solo mi presento io un cantatore che si chiama Pelmo Pelmo si chiama vabbè allora Pelmo Pelmo ciao ciao allora Pelmo ci parli del tuo scusa se te lo chiedo magari non so se posso posso chiederti sì se mi ci parli del tuo ultimo disco anche scusa oso un po' anche come si intitola insomma un po' non è tanto facile insomma com'è il titolo il titolo è ti amo ti amo ti amo amore mio ti amo amore mio beh sì cioè quindi è una canzone che parla di un rapporto tra un uomo e una donna posso dire ma vieni qui ma guarda sei andato a finire sotto la scrivania vieni qui mannaggia me lascia sempre solo io non so che di poi capito vieni è un rapporto sentimentale no d'amore d'amore insomma sì vuoi dire qualche altra cosa su questa canzone no no allora fatto no vieni sì ha fatto vieni qui adesso fatto sì fatto vieni vabbè e a sto punto dovremmo io e Luigi dovremmo parlare un po' di 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 alcune cose però io andrei in disco sai che dici andiamo dai andiamo in disco ouch Greg Lillo 610 Radio 2 e Via Siago secondo piano sala F per chi insomma volesse sapere maggiori dettagli sul nostro conto siamo qui arrivati allo spazio che noi dedichiamo al nostro artista forse preferito che è quello più multimediale di tutti che è Massimo Bagnato grazie grazie Greg benvenuto benvenuto qui da noi e appunto tra le varie sfaccettature che ha questa multimedialità di Massimo Bagnato c'è quella di Principe del Foro di Leguleio sì io ho una passione che ho coltivato tra l'altro concludo i miei studi con un approfondimento un esame mercoledì non so particolarmente come superare comunque è facile un esame della vista quindi ce la dovrei fare poi ormai quello che è fatto è fatto quindi avvocato Massimo Bagnato quello che noi pensiamo di fare è di mettere a disposizione ovviamente a pagamento per chiunque voglia telefonarci e chiedere delle dire guarda Greg visto il bene che voglio la trasmissione le mie consulenze sono completamente gratuiti è una notizia che do in questo momento a te e a tutti gli ascoltatori quindi se volete approfittare per quanto riguarda la nostra rubrica fatelo ora e telefonateci altrimenti qualora poi vediate Massimo Bagnato qualche emittente televisiva sappiate che in quel momento sarà a pagamento sì è una notizia che do anche in questo momento anche quando mi vedranno in qualche emittente televisiva sarò a pagamento sì ok benissimo vediamo subito se è liberata una linea pronto? pronto? sì buongiorno buongiorno chi sei? sono Franco Compassi da Roma Franco Compassi sì volevo parlare con l'avvocato Bagnato per una faccenda così insomma abbastanza credo comune comunque che mi riguarda che io mi sto separando da mia moglie e ho problemi ovviamente per quello che riguarda l'affidamento delle bambine noi abbiamo due figlie una delle tue che ha 17 anni quindi ancora minorenne comunque vuole proprio vorrebbe venire con me cioè lei dichiara questo quindi volevo sapere se effettivamente posso scusi quanti anni ha la bambina quella che vuole venire con lei 17 anni scusi è minorenne? è minorenne sì sì 17 quindi è minorenne e bene poi mi dica che cosa vuole sapere volevo sapere se ho possibilità visto la volontà di mia figlia di averla poi e tenere lei con me guardi guardi adesso mi trova un pochino impreparato comunque posso dirle che insomma questa è una questione che risolvono facilmente basta rivolgersi non so uno studio legale porta questo problema e sicuramente troveranno la soluzione grazie grazie avvocato ok grazie franco ti salutiamo e ringraziamo concludendo questo spazio l'avvocato Massimo Bagnato figuriamoci per voi ciao galberto ciao filerico dimmi una cosa galberto c'è qualcosa che proprio non ti interessa ma non so ah sì l'astrologia non ti interessa l'astrologia no per niente anzi la trovo proprio noiosa allora corri in edicola perché è in edicola per te che non te ne frega niente dell'astrologia niente astrologia niente astrologia sì il primo settimanale che parla di tutto fuorché di astrologia su niente astrologia puoi trovare ricette moda fumetti sport fotoromanzi porno informatica archeologia letteratura russa mosaici bizantini numismatica musica enigmistica classica e mai mai niente di astrologia allora corro e con il primo numero di niente astrologia in regalo una gomma per cancellare che non ha niente a che vedere con l'astrologia buongiorno mi dà niente astrologia? con l'incerto sui segni zodiacali? che cosa? no sto scherzando niente astrologia eccoci Greg e Lillo qua ai microfoni di Radio 2 abbiamo anche oggi un ospite un ospite particolare noi piace invitare personaggi eccentrici perché siamo un'agenzia di spettacolo e in quanto agenzia di spettacolo ci piace scovare dei personaggi da poter poi piazzare nei vari talk show televisivi personaggi eccentrici originali e kitsch che hanno delle peculiarità che si siccome non è questo il caso che hanno delle peculiarità che possono interessare il mezzo sia televisivo che radiofonico e soprattutto il pubblico insomma i media bene abbiamo qui la presidentessa dell'associazione ciccione per malose italiane Caterina Ficola ma come ne ti permetti scusa? cosa? a di ciccione per malosa ma che ti ho detto qualcosa io? ma scusi non è presidentessa è l'intestazione che ha ma non è col fax no ho capito però magari la legge a bassa voce non lo dici in radio così non ho capito è la presidentessa dell'associazione ciccione per malose oh ma come te permetti ma te sei visto te ah Lillo va bene va bene andiamo avanti va bene andiamo avanti un corno no va bene facciamo l'intervista ok allora dunque lei ha deciso di diventare la presidentessa di questo circolo dopo che è ingrassata così ma come te permetti a di ingrassata oh ma uno viene qua a fare intervista ma come te permetti no 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 l'intende Lillo intendeva no intendeva ha sbagliato a formularla non era così lei ha deciso di diventare presidentessa sì per esempio dopo essersi scoperta per malosa per malosa io a mo io so per malosa no vabbè no ma guarda che qua veramente mannaccia però è ciccio che cosa che so io no vabbè adesso aspetta ok beh che sto venuto a fare non mi fate domande qualsiasi domanda facciamo non sappiamo mai eh no fatemi una domanda almeno che sto venuto a fare fino a qua allora vabbè la faccio io allora lei io che ma se ne va non basta ma vai rotta cicciona vattene via questa è stata la tensione ma vattene via sta cicciona vattene cicciona sempre per amore della radio io e Greg continuiamo a divulgare le altre radio le radio che trasmettono in questo ridente paese che è l'Italia una di queste è Radio Mamma Mia una radio che è molto particolare perché pensate trasmette 24 ore su 24 Mamma Mia degli Abba eh sì quando la passione diventa realtà quindi questo Inimar Bjorn che è il conduttore il direttore è un italiano è un italiano si 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 e che ha sfruttato questa sua passione proprio per fondare questa radio per avere sempre a portata di mano questo disco che lui che lui ama e mette continuamente e per farlo apprezzare e lo fa apprezzare e lo manda 24 ore su 24 ma sentiamo cosa sta trasmettendo in questo momento Radio Mamma Mia ecco ecco sta scemando sta scemando piano piano ma gustiamocela fino in fondo perché questa canzone è meravigliosa è un hit del 75 di un gruppo svedese gli abba era mamma mia ma prima di passare alla prossima canzone sentiamo se c'è qualcuno in ascolto qualche radioascoltatore che è pronto a vincere i 200 euro del nostro favoloso quiz che si chiama Anagramma Mia è il quiz del titolo anagrammato pronto? pronto? pronto ciao chi sei? dove ci chiami? ciao sono Alfio da Grottaferrata da Grottaferrata Alfio allora Alfio sei pronto a vincere i 200 euro? eh proviamoci magari allora dietro questo anagramma quindi queste lettere alla rifusa tra loro si cela il titolo di un famoso brano un brano un capolavoro del panorama della musica pop sei pronto? si l'anagramma è mam mi ama mam mi ama mam mi ama mam mi ama m a m m i a m a mam mi ama mam mi ama andi un aiutino eh ti posso dire come aiuto che è una canzone che abbiamo trasmesso oggi mamma mia ma non ho sentito oggi la radio allora è un gruppo che ha un nome palindromo quattro lettere lo puoi leggere da una parte e dall'altra è sempre uguale le prime due lettere dell'alfabeto e non è bab gli abba gli abba esatto e qual è la canzone degli abba? mamma mia mamma mia mamma mia è vero hai indovinato grazie e allora 200 euro sono già in viaggio per grotta ferrata e però per tutti i nostri radioascoltatori c'è un premio che non saranno 200 euro ma forse molto di più ovvero l'ascolto del grande successo degli abba mamma mia in ascolto mamma mia here I go again my my how can I resist you mamma mia does your show again my my just how much I missed you yes I've been brokenhearted loose since the day we parted why why did I ever let you go mamma mia now I really know my my I could never let you go radio mamma mia 24 ore su 24 solo mamma mia degli abba scatta l'operazione Ovels de Roma vinci mille automobili al giorno per un anno senza rata e la prima rata è già scaduta dal 2003 nuova Ovels de Roma 4 valvole 8 frizioni 16 porte 32 canali di accensione preautorizzati tutti gli optional della versione maxi in 3D con Kaiway di serie nuova Ovels de Roma un mondo di cartone Greg non ho capito nulla di questa offerta cos'è l'ovels de Roma cos'è? è la nuova Ovel il nuovo automobile è un automobile ecco già questo è un passo avanti è un automobile ok poi ne vinci mille al giorno per un anno senza rate cioè da pagare subito ne vinco mille al giorno mille macchie al giorno vincono mille sì ma dove le metto scusa mille sono 365 mila automobili che ricevo io che ricevi in un anno e che ci devo fare invece questa opportunità e sono senza rate cioè devi pagare senza rate senza rate da pagare appunto i contanti così e la prima rate è già scaduta dal 2003 è il nuovo Ovels de Roma poi c'ha 4 valvole 8 frizioni 16 porte 16 porte normalmente ce ne hanno 5 al massimo 6 che ne sono e che ci faccio con le altre è che se si incastrano tu puoi entrare e uscire da qualsiasi posto da qualsiasi posto sì ah cioè ai 16 32 canali di accensione preautorizzati cioè autorizzati prima da rimeditore probabilmente no cioè per accendere la macchina sì non è che c'è solamente un punto cioè infili la chiave puoi infilarla puoi infilarla magari sono 32 toppe immagino ma perché c'è io mi basta la toppe che la vicino al volante ma metti che si rompono le perdi che ne sai un sacco di cose e poi c'hanno tutti gli optional della versione maxi in 3D con Kaiway di serie ok tutti gli optional della versione maxi che sarebbe l'ammiraglia dell'Ovels de Roma in 3D in 3D in 3D sì che ne so l'airbag per esempio no è meglio che in 3D se è vero è in 3D ma che ti ma è in 3D è in tre dimensioni io puoi vedere proprio in tre dimensioni è normale come tutte le cose che con il Kaiway di serie è che? l'impermeabilino quello per la pioggia è di serie? di serie ah te lo danno con la macchina? sì sì te lo danno con la macchina questo mi sembra proprio un mondo di cartone no no è interessante è interessante andiamo avanti 610 Greg Lillo Radio 2 Greg Lillo Radio 2 610 siamo giunti al momento delle cose da salvare la nostra rubrica appunto che si titola cose da salvare condotta dal nostro collegofilo di fiducia Stefano Frosi che si collega con noi da parti dell'Italia dove appunto ci sono cose da salvare sì perché se ne stanno perdendo tante proprio andando avanti negli anni perdiamo sempre più cose belle che poi sono quelle che attirano i turisti hai ragione Greg hai ragione ma sentiamo dove si trova Stefano quest'oggi e cosa vuole salvare pronto? sì eccomi un simpatico ma che fine hai fatto a tutti che fine hai fatto anche a te grazie ecco oggi sono presso la città di Caltanissetta diciamo che sono a circa 20 chilometri da Caltanissetta sì ecco quindi sono nel Caltanissettese sì è un provinciale di Sena uno dei due modi si può dire sì giusto ecco e sono a limitare della strada provinciale ecco e vicino a me ve un fontanile in pietra risalente risalente sembra alla metà dell'ottocento ah beh preziosissimo ecco ora per la verità siamo venuti qui perché sembra che qui la Proloco voglia edificare proprio in questa zona un bar tabacchi vabbè c'è un bar tabacchi sì ma quanti ce ne stanno di bar tabacchi io non ho capito abbiamo capito Stefano vogliamo lanciare un appello salviamo il fontanile in pietra ecco devo dire veramente ragazzi ma benvenga al bar tabacchi ah sì ma ci facessero pure un bel Mcdonald dico ma qui il fontanile in pietra ma è un pezzo di travertino tutto sbrecciolato una schifezza una specie una forma una specie di conchiglione tutto sproporzionato fatto realizzare da un astronave aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio un carburante appunto alieno l'orto è di Pier Maria Carletti un uomo cento volte più debole stupido e di netto di un uomo normale Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe queste sono le origini di Normalman Normalman in il computer Pier Maria Carletti alias Normalman si trova in ufficio un suo collega ha qualche problema con il computer accidenti devo scrivere un documento ma non mi corrispondono i tasti della tastiera come posso fare Pier Maria può aiutarmi Pier Maria sa come risolvere il problema ma intervenendo potrebbe mettere a repentaglio il segreto della propria doppia identità mi spiace Alfio ma non saprei dove mettere le mani ora scusami vado un attimo in bagno in realtà Pier Maria entra in toilette per cambiarsi e diventare Normalman cosa ti crucia amico? ma tu sei Normalman in carne ed ossa qual è il tuo problema? ma tu sei aspetto di computer? un supereroe può fare tutto ecco allora i tasti della tastiera non corrispondono vedi piglio il punto esclamativo e mi esce la chiocciola probabilmente è la tastiera americana il settaggio italiano fai quello che ti dico sono pronto Normalman allora clicca su impostazioni fatto ora clicca su pannello di controllo fatto ora guardiamo le icone il mio Normal istinto mi dice che il disegno della tastiera corrisponde alla tastiera che faccio? clicco vai fantastico mi dice che posso scegliere fra tastiera italiana e tastiera americana ottimo clicca su quella americana fatto ora prova a scrivere e vedi se ti corrispondono i tasti funziona sei un genio Normalman ma ma ti vedo stramato non è niente sono solo un po' stanco non è stato facile era tanto che non facevo questa operazione ma non pensare a me ora puoi svolgere il tuo lavoro addio addio Normalman lì dove c'è un problema di tutti i giorni lì dove necessita un piccolo aiuto lì c'è Normalman Greg 061 Lillo Radio 2 siamo qui con Miss Italia ospite anche oggi per parlare del suo libro un libro comico ed è stato commissionato un libro comico perché i libri comici adesso vanno forti vendono tantissimo tantissimo ha detto Luciano Luciano è l'editore l'editore di Miss Italia a proposito come si chiama la casa editrice? Sganasciate Sganasciate è una nuova casa editrice che immagino pubblichi solo libri comici non lo so non che me li posso leggere tutti per piacere Luciano mi fido allora un libro comico 80 pagine 80 pagine questo me lo ricordo tutte le sere a scrivere allora il titolo il titolo del libro allora fate una cosa non vi invitate più perché lo sapete che non me lo ricordo vabbè se non te lo ricordo se mi volete per forza questo particolare allora mi telefonate prima che vengo qui e te lo ricordiamo il telefono annunciato e me lo ricorda ok no infatti scusa se ti chiediamo del libro ma lo facciamo per te perché per reklamizzarlo per reklamizzarlo per sponsorizzarlo capito no non ci credo io credo che voi siete impuntati su sta cosa che non è indispensabile no ma facciamo una cosa parliamo di questo libro comico ma si parliamo di che è suddiviso in capitoli si in capitoli vero? si quanti capitoli ha questo libro? no niente non se lo ricorda non se lo ricorda non fa niente non fa niente Miss Italia dai Miss Italia su su non fa niente parliamo dei contenuti raccontaci un po' parliamo di arte di arte allora del libro noi sappiamo che ti ho preso lo spunto dalla vita da cose che ti sono capitate per poi tramutarle in racconti comici vero? si ecco facci un esempio allora io praticamente un giorno stavo dentro a una casa no? e niente di improvviso paffede si fulmina la lampadina dai allora ci stavano due carabinieri in casa tua in questa casa sempre a questa casa ah in questa casa ci sono due carabinieri ferro si allora uno sale sul tavolo e regge questa lampadina no? sale sul tavolo per sistemare la lampadina si per svitarla per svitarla perché era fulminata ah ecco era fulminata si e allora quell'altro che fa ti aiuto e invece si mette a girare il tavolo dove quell'altro c'era salito sopra ah questa è la vecchia barzelletta appunto come fanno due carabinieri a cambiare la lampadina uno legge la lampadina l'altro gira il tavolo è una barzelletta vecchissima no perché io l'ho visto e ho preso appunti si se erano dentro a questa casa dove c'ero anch'io evidentemente ho preso appunti vabbè vissi Italia però non è per puoi dirlo guarda che va bene neanche copiare copiare lo dice a qualcun altro io c'ero io l'ho visto con questi occhi che ero dentro una casa sono due carabinieri ti pare che i carabinieri non possono stare dentro una casa si ma e che la cambiavo io la lampadina vabbè vabbè complimenti a Miss Italia e al suo libro dal titolo che si intitola vabbè lasciamo perdere grazie grazie andiamo avanti Greg Lilo Radio 2 610 Greg Lilo 610 dal secondo piano del numero civico 10 di Via Siaco in Roma esatto che è lo studio dove stiamo trasmettendo abbiamo qui due ospiti eccezionali veramente molto molto bravi le abbiamo viste e applaudite questa notte tutta la notte perché si tratta delle gemelle gemini che questa notte si sono esibite durante un rave in una discoteca in una maratona una maratona canora si 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 rippata hip hop r&b insomma esatto pensate da giovani pensate dal 1 di notte alle 6 di mattina noi siamo stati lì ad applaudirle e ad assistere a questa fantastica performance a questo punto io le farei accomodare eccole ciao ciao a tutti ciao Lilo ciao Greg Pam Pam e Cindy siete uno splendore anche voi come noi siete state tutta la notte sveglie certo tutta la notte a cantare a cantare esatto allora ecco parlateci un po' di questa esperienza insomma come è stata fantastica fantastica veramente un'esperienza indimenticabile perché vedere tutte queste persone davanti a noi vero Pam cioè incredibile è incredibile come hanno resistito tutte quelle ore a sentirci e applaudirsi e cantavano e no Lillo 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 siamo in onda eh Lillo no scusate scusate rompiamo si si no scusate rifacciamo Fabrizio Fabrizio scusa no scusate no capiamo magari si è franco la rifacciamo tutta la notte sveglia è meno rifacciamo scusate ripartiamo da capo no può capitare può capitare scusate no non figure Fabrizio ok attenzione attenzione partito allora ecco ci parla di questa esperienza di questa notte che avete passato a cantare guarda Lillo un'esperienza bellissima fantastica veramente che ci rimarrà sempre nel cuore perché vedere è vero Pam un'immersione nella musica bellissima è stata un'esperienza aspetta Lillo Lillo Greg Lillo eh addio mio eh addio mio non lo so non lo so non lo so non lo so scusate no scusate ragazze cercate di capire perché pure te Fabrizio scusa ho capito ma insomma cercate di capire no il problema è stavolente c'è tutta la notte in piedi quindi no scusate stavolta è buono stavolta è buono scusate ragazze scusate eh no no mi partiamo da capo ok sempre da quel punto lì vai va bene ok Fabrizio attenzione partito parlo io? si fa sempre la domanda si faccio la domanda Greg Greg si scusate parto io che faccio la domanda ah si si va bene Lillo si vabbè Pam andiamo dai andiamo dai è buono sì una pizza no ci sono veramente molti tra cui tra cui Radio Mnana Radio Mnana dico bene Radio Mnana si Radio no Radio ho capito dico Mnana Radio Mnana si abbiamo qui il direttore dal nome della Unca della Unca sì questa voce che hai sentito appunto è il direttore della radio direttore musicale di Radio Mnana che si chiama Eugenio della Mnana Eugenio della Mnana della Mnana Eugenio della Mnana un saluto a tutti i venti a tutti i venti salutiamo saluto anche io e le porto le porto le conti di Robante mi porta scusi che la saluto molto anche ma chi non ho capito chi Robante ah Robante ah Robante ah Robante lo saluti anche da parte mia quando lo vede va bene a questo punto direi di parlare un po' della vostra programmazione musicale voi mettete della musica comunque debussi come scusi debussi una musica debussi c'è la musica che mettete no ah no che intendeva scusi no 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 generalmente ah in generale nelle varie musiche debussi paradò o paradò quindi non è solo mussi anche anche paradò comunque beh noi abbiamo molti radioascoltatori ah ma sentiamo la canzone in questione una canzone tratta dalla dalla vostra programmazione musicale appunto Mina la grandissima Mina sempre verde Mina la Manussia chi Mina ah Mina si detta anche Manussia detta Manussia non so come sapevo Tigre di Cremona sapevo eh va che al vuote la definita così ah va che al vuote va bene ascoltiamo la canzone di Mina e poi torneremo a parlare con il direttore di Radio Madama Eugenio del Madama del Madama e ronzo per te quello che vi toglio più ho vestito vento una panzona ronzo un sei alghe se rascoverai o l'este naso vanto quattro fracci che o l'usione se le parole fossero una musica vorrei nuotare o leone ancone o le birti puttoni con il purevole ballare se se preoccuparli se se tu hai la sensazione che mi fa niente che mi piaci per te appena anche se pur bene per te quasi Mina è sempre Mina eh eh beh Anuncia sempre Anuncia no perché poi questa è una canzone famosissima di Mina anche se non ho che non mi ricordo bene il testo di questa canzone il testo perché non è che l'ho capito molto bene cioè di che parla credo sia tratto da Olipantro ah ah ecco vedi vorrei sbagliare no no o Bardumio o Bardumio uno dei due insomma sì va bene grazie salutiamo il direttore di Radio Madonna e andiamo avanti con Semmo Zero ascolta Radio Madonna la radio che ti fa Mestini Greg e Lilo Radio 2 610 siamo qui con Alessandra Canale la grandissima annunciatrice Rai che non è più Rai è così no non piangere su Alessandra Alessandra senti una cosa è stata una grande annuncia viscerai grazie ti hanno sedurato ma chissà scusa non è che ti hanno sedurato non sei più Rai però ma cosa ci importa fai tante altre cose ma che c'è solo Rai l'avete saputo ma certo che abbiamo saputo cosa stai preparando dillo anche i nostri agli ascoltatori cosa stai facendo beh ultimamente sto facendo annunci di tutti i tipi mi richiedono veramente ovunque ah bene 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 grazie andiamo avanti adesso no 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 volevo fare un esempio un massaggio non è il caso perché è veramente lo volete sentire lo sentiamo lo sentiamo dai sì grazie si è smarrito il bambino i genitori lo aspettano all'ufficio informazioni ah questo è l'annuncio quando si vede un bambino si ma una cosa perché hai fatto quella pausa non hai detto il nome del bambino sì perché poi vanno inseriti tutti i nomi possibili immaginabili perché hai registrato anche i nomi tu certo a parte Luca Francesco Andrea Marco Alvaro Alvaro va bene Anton Giulio Spartaco va bene non c'è bisogno adesso Ugo Ugo Giulio sì Leonardo Alessandra va bene però ho fatto anche la parte femminile ovviamente i nomi di bambine sì mi faccio ascoltare no grazie no povera sì sì faccio ascoltare faccio ascoltare Francesca Michela Andreina facciamo qua Giulia Rosanna aspettiamo che finisse Rossana non so qua la vedo Federica eh sono miliardi Paola sono miliardi Alessandra sfumi per favore Fabrizio grazie andiamo a fumare intanto intanto facciamo sfumare Fabrizio Marianna sfumiamo noi Vincenza Caterina Assunta Elettra Ludovica Clementina Scrivete a 610 l'indirizzo di posta elettronica è 610 chiocciola rai.it 610 scritto in cifre sempre Greg e Lidl in vostra compagnia qui a 610 Radio 2 siamo con un ospite che abbiamo già avuto in altre puntate che è un topino buongiorno buongiorno innanzitutto grazie di essere tornato a trovarci beh no è la prima volta che vengo io la settimana scorsa la settimana scorsa aveva intervistato un mio cugino un altro topino vabbè noi topini siamo tutti uguali quindi è ovvio che comunque sono un altro io sono la prima volta che vengo allora benvenuto e il tuo nome? no 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 non abbiamo nome noi topini sono topino e noi ci riconosciamo dall'odore non è che abbiamo bisogno di chiamarci quindi topino sei femmina topina bene allora topino questa volta vogliamo analizzare con te un aspetto che ci colpisce molto da vicino in questi ultimi tempi sicuramente a me e a Lillo che fumiamo quindi questo divieto che è uscito da poco di fumare nei locali pubblici e quindi in molti risonanti non si fuma e si esce quindi sul marciapiede a fumare e voi vi trovate coinvolti in questo? sì per noi è un'ottima cosa infatti siamo felicissimi ultimamente perché ovviamente se un cliente va fuori a fumare lascia il tavolo vuoto e quindi con tutto il briciolame a terra briciole così nei pezzettini di pane cose da mangiucchiare possiamo uscire allo scoperto senza che il cliente ci veda perché se ci vedono è un po' un problema magari avvertono il gestore il gestore poi organizzano la deratizzazione insomma non è bello che succeda questo dobbiamo sempre essere molto attenti a non farci vedere lì dove siamo e quindi invece con questa ultimamente devo dire che a una certa ora i tavoli rimangono quasi vuoti vanno tutti fuori a fumare noi andiamo lì e ci facciamo le nostre belle mangiate bene, allora ti ringraziamo tanto Topino e alla prossima volta grazie Topino, grazie grazie a voi, posso fare un saluto? certo volevo salutare Topino, 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 Topina Topino, 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 Topina Topina, 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 Topino, 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 Topino ed ecco insomma gioia che ci avviciniamo all'aumento di Extreme Collegaments ovvero i collegamenti estremi con Valentina Paoletti che ci chiama dalle parti più recondite del mondo dove si c'erano i misteri più bizzarri in cui ci si possa imbattere certo, certo e lei molto coraggiosamente, Valentina Paoletti per noi si reca in questi posti per offrirci dei collegamenti veramente interessanti per farci riscoprire, per farci rassaporare ma sentiamo dove sta adesso, dove si colloca fisicamente Valentina Paoletti pronto? buongiorno Lillo e buongiorno Greg ciao Valentina buongiorno, che partiamo piano partiamo piano perché allora prima vi spiego sono in Malaesia esattamente a Caymanayak qui c'è una tribù dei Gazzayaki parlo piano perché appunto sono vicino a questa tribù tra l'erba non mi voglio far vedere nella macchia nella macchia, sì attenta a non sporcarti assolutamente no questa tribù, ovvero chiamata la tribù dei tagliatori di mano e di testa perché Pong Yai Por, che è il loro dio, è infiggiato con una mano sull'orecchio per cui la tribù, quando si accorge che qualcuno mette la mano vicino all'orecchio la considera un sacrilegio avete capito? e quindi che succede? ecco, tagliano innanzitutto prima la mano che sta vicino all'orecchio dopodiché la testa cazzarola io adesso mi alzerò allo scoperto per farmi vedere da loro scusa Valentina, scusa attenzione, può essere pericoloso però ma io conosco il mio lavoro lì, lo so quello che faccio ma tu adesso hai l'auricolare? no, no Greg, perché l'ho dimenticato in albergo e per cui, lo so, sarà più difficile perché magari non oserò tutte e due le mani per fare anche con loro i saluti no, ma non pensavo a questo pensavo al fatto, quindi tu tieni il cellulare con la mano? certo Greg, come lo devo tenere? ho capito, ma hai la mano vicino alla testa? la mano vicino all'orecchio all'orecchio eh, e allora? e quindi potrebbero interpretare questo qui come un sacrileggio? ma no, io sto parlando al telefono eh, va bene, ma loro vedono la mano vicino all'orecchio ma io conosco il mio lavoro, so quello che faccio va bene ecco, ora mi sono alciata loro mi stanno, ecco mi hanno visto io faccio il tipico saluto di pace che si fa da queste parti e si stanno avvicinando ma hanno in mano qualche macede o qualcosa? sì, hanno una cimitarra credo che sia proprio ah, e che fanno? e si avvicinano e si stanno correndo verso di me tipo, fanno diversi strani con la bocca e... Valentina? Valentina? Valentina, scusa e niente, è cagliuta la linea è cagliuta, mannaggia ma no, c'è il cellulario porca miseria va bene, capire, nella macchia della Malesia infatti, sai che è il campo zero lì proprio va bene, ok, ma speriamo che... aspetta, aspetta, sotto il rumore, aspetta la mano, la mano, la mano no, niente, era solo un disturbo era solo un disturbo vabbè, dai, andiamo avanti, Greg, che dobbiamo fare? eh, siamo rimasti un curiosito anche i nostri dati ascoltatori vabbè, cercheremo di ripristinare al più presto se Valentina riesce a trovare il campo va bene? ok, a dopo allora a dopo per Extreme Collegaments Greg Lillo Radio 2 610 cinema, cinema, cinema in direttura d'arrivo in direttura d'arrivo siamo quasi finito il programma però c'è adesso la nostra chicca del trailer del trailer cinematografico che sta per essere trasmesso e ne approfittiamo per parlare un po' di cinema con i nostri dati ascoltatori ci dovrebbe essere una telefonata in linea pronto? pronto? ciao, chi sei? sono Giovanni da Procida Giovanni da Procida, già hai chiamato tu? sì, ti ho già chiamato sì, sì, sì però stavolta avete chiamato voi? abbiamo chiamato noi? eh sì allora hai chiamato tu? no, avete chiamato voi pensavo che... vuoi parlare di cinema con noi? no, no di cosa vuoi parlare? eh, niente di niente, va bene grazie Giovanni posso attaccare? sì, sì, sì puoi attaccare sentiamo il trailer 610 trailer 610 prima Quintino Romano è uomo di parola e stimato professionista non ama molto la vita mondana ma cede a volte alle lusinghe di una serata a teatro professor Stellari la prego di accettare l'invito per questa sera al teatro dell'architrave lo ringrazio professor De Marzio ma preferirei restarmene a casa tranquillo la prego ci tengo davvero e poi è Pirandello uno dei suoi autori preferiti d'accordo, d'accordo ci vengo allora le lascio un biglietto al botteghino a stasera ma non sempre le cose vanno come si vorrebbe buonasera dovrebbe esserci un biglietto a nome Stellari vediamo, vediamo ah sì, ecco Emanuela Stellari ma non credo sia lei no, ma controlli ci deve essere anche un Quintino Romano Stellari no, non mi risulta ma com'è possibile? ma no, un momento eccolo qui è che era scritto solo con le iniziali vede, non Quintino Romano ma Quere Quere Stellari Quere Stellari nei cinema un'astronave aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio un carburante appunto alieno l'orto è di Pier Maria Carletti un uomo cento volte più debole stupido ed inetto di un uomo normale Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe queste sono le origini di Normalman Normalman in la batteria scarica Roma ore 17.39 il ragionare di Carlo sta per recarsi in ufficio entra nella sua automobile ma ha dimenticato i fari accesi tutta la notte ed ora la batteria è scarica occidenti l'auto non parte ed ora come faccio? stamattina ho un appuntamento importante sono già in ritardo Pier Maria Carletti alias Normalman esce di casa e si trova subito a pochi metri da ragioniere la mia normal vista mi dice che quell'uomo non riesce a far partire l'auto questo è un lavoro per Normalman Pier Maria torna in casa militaria dovrei avere dovrei avere dei normal cadetti aspetti qui Normalman corre verso il luogo dove si trova la sua automobile parcheggiata ma non può uscire perché è bloccato da un forgone in doppia fila accidenti questa non ci voleva userò il mio normal clacson momento e ora arrivo calma ma che tesoni ma 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 tu sei Normalman in carne ed ossa ed ora fammi uscire subito scusami Normalman Normalman esce dal parcheggio in pochi minuti e con la sua normal utilitaria di fronte all'auto dal ragioniere di Carlo perfetto ora mi apre il cofano bene positivo negativo metta in moto grazie dormo non mi ringrazio addio lì dove c'è un problema di tutti i giorni lì dove necessita un piccolo aiuto lì c'è Normalman che Saturnus sia con voi eh sì questo è il tuo slogan no Saturnus è proprio uno slogan che ti caratterizza che che dà tutta questa luna di mistero di mistero quanto è misterioso Saturnus fa anche il nome Saturnus devo dire che ti dà proprio l'idea del mistero dell'astrologia ma infatti è l'astrologia che è misteriosa perché nessuno ci ha mai capito niente eh infatti infatti e tu invece ma nemmeno io meno che mai addirittura quindi pensa quanto può essere misteriosa questa questa astrologia bene io leggerei qualche lettera che ci è arrivata indirizzata a te ovviamente te la leggo questa di Marina da Padova dice provo una forte attrazione sessuale per un acquario ma ogni volta che cerco di portarmelo a casa fa resistenza ecco cosa rispondi Saturnus rispondo io in realtà dovrebbe rispondere una psicologa qua un psicanalista perché perché insomma si va a parlare come si dice quella cosa il fedicismo perché fedicismo scusa si parla di amore contro natura cioè gli piace questa sessualmente ci piace un acquario quando invece cioè non si deve invece un uomo invece gli piace una cosa si ci stanno cioè sia un oggetto sia che ci stanno si muovono dentro di pesci cioè ma non si sa che cosa è che che lattizza questa se i pesci o se tutto quanto proprio l'armamentario di vetro con l'acqua dentro no ma scusa suora Saturnus le dice ogni volta che cerco di portarmelo a casa fa resistenza quindi non si tratta di è probabilmente perché è troppo grande per la porta cioè bisogna vedere uno come lo trasporta se si svuota l'acqua perché comunque dipende da quanto è grande questo acquario perché con l'acqua dentro questi pesci hanno pure delle tonnellate quindi magari se c'è qualcuno ma intendeva vabbè poi il consiglio che gli posso dare è quello di carattere pratico è di aprire le chiavi stelle della porta cioè la porta in genere si apre un'anta poi ci stanno delle cose che fanno il buco di pettera sopra e sotto che servono come una cosa un chiavi stelle ferma a porta poi una volta che se l'è portato dentro io ci dico che l'altro consiglio invece quello proprio spassionato è di andare da farsi vedere da uno specialista perché non è normale che ci piace un oggetto un oggetto va bene grazie a Saturnus andiamo avanti Greg Lillo Radio 2 610 ciao Greg Lillo 610 Radio 2 è il momento della radio nella radio si la radio impara la radio la radio si impara la radio ed è per questo che ci siamo gemellati con altre emittenti radiofoniche e adesso andremo ad ascoltare Radio Cialtrone 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 ha scritto Cialtrone siamo gemellati con Radio Madana Radio Cialtrone Radio Mamma Mia tantissime radio intanto sentiamo Radio Cialtrone con i simpaticissimi Pasquale, Teresa e Antimo e questo è una tuta di Vilma Goch ma passiamo al GR di Cialtrone News va ora in onda lo sceneggiato radiofonico Cuore di Pietra quarantanovesima puntata cinquantesima puntata riassunto delle puntate precedenti Victoria ama Pedro ma Pedro la tradisce Sandra non può allora Victoria si con amore vero c'è con Sandra quando si incontrano secondo me manca una riga successe qualcosa Victoria ama Pedro ma Pedro la tradisce Sandra non può ma si perché qua ma Pedro la tradisce con Sandra ah Victoria ama Pedro ma Pedro la tradisce con Sandra quando si incontrano Sandra non può non può cosa allora Victoria si con amore vero no questa manca proprio no quella manca vabbè è stato vabbè stavo stampando vabbè comunque si si comunque il riassunto Victoria ama Pedro ma Pedro la tradisce con Sandra quando si incontrano Sandra non può allora Victoria si 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 cosa con amore si innamora si innamora si innamora con amore vero si innamora si innamora si innamora Pedro mio ti amo Vittoria anch'io ti amo ma io non posso continuare eh vabbè si interrotto il radio sceneggiato questa era Milva Zanitti con dammi una mano zingara e un momento c'è una telefonata in linea adesso si sta arrivando una telefonata sentiamo chi è in linea pronto pronto chi sei da dove ci chiami pubblicità allora pubblicità pubblicità sentiamo non parte vabbè mandiamola Edoardo Edoardo Bennato con con volare volare Edoardo Bennato che esista scusate la rima è Massimo Bagnato grazie lo dico proprio onestamente perché è vero la multimedialità che ti ha portato oltretutto oltre a essere un grandissimo e valido imitatore rumorista fantasista animatore scultore insomma chi più ne ha più ne metta anche un valido principe del foro un valido avvocato una passione che mi accompagna da sempre e poi insomma nel tempo libero ho coltivato anche la laurea diciamo appunto ma non è uno scherzo una laurea in giurisprudenza quindi oltretutto farla ladere di una carriera che non credo ti lasci molti spazi ma nel tempo libero penso di prestare un'opera diciamo così di beneficenza anche secondo me perché più si sa più si sta meglio è vero e noi questa beneficenza la vogliamo elargire ai nostri radioascoltatori che ci seguono sempre con tanta stima e grande simpatia quindi se c'è qualche radioascoltatore che ha un problema da comunicare da sottoporre al nostro avvocato Bagnato può telefonarci spero che già ci sia una telefonata in linea pronto? si pronto buongiorno buongiorno chi sei e dove ci chiami? sono Luigi Pennino da Napoli Luigi allora l'avvocato Bagnato è tutto per te puoi sottoporgli qualsiasi caso tu abbia si infatti volevo chiedere all'avvocato Bagnato delucidazioni su un problema che mi riguarda molto da vicino io ho un posto macchina riservato nel cortile condominiale della mia casa e praticamente ci trovo quasi sempre molto spesso se non altro lo scooter di un mio vicino di casa ecco che occupa il mio posto macchina quindi io volevo sapere innanzitutto naturalmente farò denuncia e ho intenzione di denunciarlo a questo punto perché glielo ho anche detto tre o quattro volte ma non mi ascolta continuo a mettere lo scooter nel mio posto macchina quindi io vorrei denunciarlo e sapere che tipo di scooter mi scusi è cilindrata superiore ai 50 cm è un 250 ah è un 250 colore mi scusi verde colore verde bene bene e niente volevo sapere come agire come muovermi però Luigi prima di prendere delle decisioni per denunciare sentiamo appunto cosa ha da dirti l'avvocato Bagnato ma ha detto che chiama da Napoli io l'anno scorso ho avuto un caso analogo a quello che mi sta proponendo lei ed anche lì si è risolta in questa maniera ossia io ho detto a questa persona di rivolgersi ad una persona che possa risolvere questo diciamo una persona che possa risolvere questa problematica grazie avvocato grazie mille grazie a lei grazie a lei per così poco e davvero ringraziamo noi ci associamo al ringraziamento all'avvocato Bagnato e alla prossima nostra rubrica con lui ma è giunto il momento di metterci in collegamento con Stefano Frosi dall'Alaska pronto Stefano? si ci senti? si perfettamente grazie Stefano ok ciao 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 bene andiamo avanti con la nostra puntata scrivete a 610 l'indirizzo di posta elettronica è 610 chiocciola rai.it 610 scritto in cifre Greg Lili agenzia 610 siamo un'agenzia di spettacolo e quindi continua la nostra ricerca di personaggi da affibbiare i vari talk show che imperversano nella tv italiana ed è all'uovo che noi abbiamo invitato anche oggi due insigni esponenti delle varie associazioni che esistono in Italia diciamo ricerchiamo delle associazioni particolari diciamo bizzarre eccentriche io penso bizzarre alcune alcune anche però più sono eccentriche più vendi bene i personaggi nei talk show ecco sì però abbiamo invitato già di tutti avanti del fumetto avanti del fumo della piva certo certo allora qui abbiamo appunto la dottoressa Filomena Guerniari presidentessa del club dei narcolettici che sono appunto le persone che soffrono di crisi di sonno sì sì ogni tanto si addormentano e il professor Eugenio Combolari presidente dell'associazione culturale distratti italiani bene io inizierei sì con la dottoressa Filomena Guerniari ok va bene sì allora dottoressa come nasce questa associazione da quando nasce e perché allora noi esistiamo già da molto tempo però abbiamo scoperto che siamo tanti ecco avete scoperto che siete tanti sì passiamo al passiamo alla professore Eugenio Combolari che presidente dell'associazione distratti italiani allora come si riesce già da scuola si è distratti si comincia già dai banchi di scuola a fare il però scusi se mi può cioè si comincia a fare anche scuola a fare cosa lei che ci vuole fare cosa abbiamo fatto la domanda ah e qual è la domanda la domanda abbiamo scoperto che praticamente siamo ecco si è risvegliata sì la signora siamo un certo numero di persone e allora ci riuniamo in alcuni luoghi che niente ripassiamo a questo punto la parola al professore Eugenio Combolari Combolari che se ci dice una buona dove è? questo Combolari dove è? stava qui adesso dove è andato? scusate regia Fabrizio hai visto Combolari? è uscito dove? come è uscito? sta facendo un intervino è uscito in uso vabbè finiamo con la professoressa Filomena Guerniari allora vabbè vi salutiamo Greg e Lillo ci sentiamo più tardi e niente noi abbiamo scoperto che eravamo stavamo salutando stavamo salutando vuole dire qualche cosa a salutare? ecco ha salutato anche lei e salutiamo anche il professore Eugenio Combolari che è andato via grazie è un po' di puntate che io e Greg mandiamo in onda questa nuova radio che abbiamo scoperto una radio che ci piace molto che apprezziamo che si chiama Radio Mamma Mia che è una radio che pensate trasmette 24 ore su 24 Mamma Mia degli Abba ci siamo già gemellati con lei le abbiamo già mandate in onda tant'è che una ascoltatrice di 610 Michela Mozzati ha apprezzato questa iniziativa di divulgare Radio Mamma Mia e ci ha mandato questa sua registrazione ciao sono Michela Mozzati anch'io ascolto Radio Mamma Mia c'è da dire che Michela Mozzati adesso pare che ascolti per 12 ore Radio Mamma Mia e poi per 10 ore sì praticamente per 2 ore a settimana ascolta noi il sabato e la domenica e tutto il resto del tempo ascolta solo Radio Mamma Mia ma sentiamo cosa sta trasmettendo in questo istante Radio Mamma Mia Mamma Mia Mamma Mia che bellezza avete sentito queste note suggestive favolose di Mamma Mia degli Abba ma adesso passiamo a un momento veramente particolare della nostra emittente ovvero quella in cui noi possiamo far vincere ai nostri radioascoltatori un milione di euro come? facendo una domanda facciamo un numero a caso dal nostro elenco telefonico e vediamo di trovare il nostro vincitore eccoci ecco squilla il telefono pronto? pronto sì chi è? pronto io sono Vior Inimara da Radio Mamma Mia ascolti mai la nostra radio? no no mi spiace posso chiederti il nome? sì come ti chiami? Ernesto Ernesto sì guarda facciamo subito una domanda una domanda e c'è in palio un milione di euro se dovessi indovinare ti va di giocare con noi? ci provo un milione di euro fanno sempre l'uola allora ci vorresti dire esiste un musical favoloso che è andato in scena nel 1999 e da 5 anni sta raggiungendo i più grandi successi del musical in tutti i teatri del mondo prende il nome dal titolo della canzone degli Abba infatti è un musical proprio sugli Abba e prende il titolo da una loro canzone come si intitola? gli Abba dunque gli Abba si riconoscono un po' gli Abba ah Waterloo cosa? Waterloo e che cos'è? una canzone degli Abba Waterloo 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 quella che fa Waterloo ha capito? è famosissima no Waterloo no non la conosco comunque e che canzone è? no non è la risposta giusta la risposta è mamma mia il titolo del musico degli Abba è mamma mia perché mamma mia è anche il titolo della canzone più clamorosa del mondo pop music della canzone degli Abba la puoi ascoltare intanto come premio di consolazione qui a radio mamma mia ascoltiamo mamma mia degli Abba e questa era mamma mia degli Abba qui su radio mamma mia 24 ore su 24 solo mamma mia degli Abba ma mettiamoci in collegamento ora con Stefano Frosi che è andato per noi per l'agenzia 610 in Bangladesh pronto Stefano? si si ci sei? si si ci senti? tutto perfetto perfetto grazie Stefano alla prossima ciao 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 bene andiamo avanti www.610.rai.it per entrare nel mondo di 610 potete ascoltare il meglio delle ultime puntate votare le freddure calde pubblicare un annuncio enocomico visitare le gallerie leggere le ultime notizie www.610.rai.it 610 anche nel tuo computer nuova mustang bougainville 8 ruote 2 sterzi 16 marce lunotto in mogano airbag stereo e tergi cristalli in lana di vetro smaltato richiedi dal tuo concessionario chiapponi auto per un giro di prova costa solo un euro al minuto più incentivi di base nuova mustang bougainville 1000 km di garanzia freno sicuro conta chilometri scaricabile sul tuo computer e più di 150 suonere di claxon diverse con i motivi più ballati nel 2002 dai fatti un giro Greg si Lillo no deve essere veramente una gran bella macchina questa la mustang bougainville si non ho capito bene però quello che offre cioè le particolarità che ha già un'automobile normale quante ruote ha 4 e questa ne ha 8 già 8 ruote e che servono 8 ruote in una macchina beh scusa 8 ruote al posto di 4 se non bucheranno 4 ruote ce ne hai 4 ah ce ne hai 4 non devi cambiare la ruota 2 sterzi 2 sterzi si per chi uno per me uno per il vicino non so metti se buca uno sterzo c'era un altro si rompe si rompe in qualche modo come mai si rompe uno sterzo cioè se può rompe però ma lo so ma qui si prevede tutto qui 16 marce 16 marce si tu quelle intermedie puoi andare in prima e mezza così prima e mezza marcia indietro va bene un po' in marcia indietro e un po' in seconda un po' in seconda puoi anche mischiarle le marce si puoi mischiarle metti la undicesima un otto in Mocano così non si è elegante non si rompe non si infuoga perché insomma il legno Mocano è è abbastanza delicato come il legno è delicato ma è proprio elegante più elegante più elegante poi hai mille chilometri di garanzia freno sicuro per mille chilometri freni freni che è una bellezza e gli altri? eh dopo gli altri non c'è più la garanzia ma che vuol dire non c'è più la garanzia la macchina deve frenare sempre ma capito ma no c'hai mille cioè se ti dovessi andare a schiantare da qualche parte entro i mille chilometri c'è la garanzia ah vabbè questo sembra buono e poi c'è il contachilometri scaricabile dal tuo computer che vuol dire? come che vuol dire? cioè il contachilometri te per esempio dici ah ho fatto mille chilometri guarda che io ogni tanto guardi che scatti che scatti il contachilometri che sei a 999 poi scatta mille se ti piace lo scarichi talmente sul computer a casa c'è il contachilometri ho scritto mille ma che ci faccio a casa il contachilometri? scusa ma per ricordo oppure che ne so dici quanti chilometri ho fatto per andare da Lugano a Berna lo scarica all'inizio scarica alla fine e sul computer poi c'è visualizzato all'inizio e alla fine del contachilometri vabbè cioè è fantastico e poi non è finito qui perché c'è più di 150 suonerie di claxon diverse con i motivi più ballati nel 2002 cioè invece suonare il claxon ah si sente un pezzo di canzone un pezzo di canzone più ballata nel 2002 è il 2002 solo il 2002 però sì sì ah bello andiamo avanti 610 Greg e Lillo Radio 2 anche oggi indirittura d'arrivo qui a 610 con Lillo e Greg e siamo arrivati al momento del trailer del trailer cinematografico parliamo di cinema ma ci piacerebbe parlarne con i nostri radioascoltatori infatti sentiamo del cinema la telefonata in linea pronto pronto ciao ciao sono Giovanni da Procita ah Giovanni da Procita già hai chiamato si hai già chiamato di conoscenza sì sì allora Giovanni dobbiamo parlare di cinema? no no che ne so di cosa vuoi parlare? non so di noi voi darei un'idea non so possiamo parlare di vacanze no 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 non mi va no no attacco 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 attacchi proprio? sì 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 attacco ciao grazie ciao Giovanni sentiamo il trailer 610 trailer 610 prima Sonia Dawson è una delle più famose estetiste di tutta Beverly Hills i suoi preparati hanno quasi del miracoloso le sue clienti la adorano Sonia voglio un appuntamento per domani tesoro certo cara Sonia Darling quella crema che mi hai dato è favolosa lo so cara Sonia amore sono venuta per il trattamento viso oggi hai la maschera di bellezza Virginia Rudy su vai a prendere la maschera D ma quando il destino ci si mette Miss Sonia la maschera D non c'è ma come non c'è guarda bene ho guardato Miss Sonia non c'è ma deve esserci è vicino alla C le altre ci sono ancora la A la B la C ma poi si passa direttamente alla E la maschera D non c'è ma c'era la maschera D c'era la maschera di c'era nei cinema allora noi come se uno zero esistiamo già dal dal cinquantatré mi pare Greg no? quando è stato il primo anno che abbiamo si vabbè sono a KDAV in Lubbock Texas e poi da lì siamo passati a Burbank in California si che noi abbiamo cominciato in America a fare se uno zero si si ed erano gli anni cinquanta erano insomma dopo dieci anni di trasmissioni di sei uno zero un gruppo di fan decise ti ricordi Greg di fondare una band una band proprio su sei uno zero perché erano talmente appassionati del programma che hanno creato questo complesso che appunto si chiamavano mi pare sei uno zero boys si sei uno zero boys sei uno zero boys sei uno zero boys sì sei uno ah sì sei uno e facevano questo questo genere lo chiamavano zerf appunto preso dal da zero da zero e hanno pubblicato un album dedicato tutto a sei uno zero noi l'abbiamo trovato e vi facciamo ascoltare uno dei brani che fanno parte di questo album ascoltiamo mi testo molto presto e poi mi vesto e resto qui ho lavorato sotto ed oggi mi riposo mentre aspetto il lunedì il sabato che bello sono tranquillo qui con me che tributio vieca audio quando c'è tua audio radio tu e sai perché perché c'è sei uno zero con l'ino e tre perché c'è sei uno zero con l'ino perché c'è sei uno zero con l'ino e tre grande pezzo eh Greg grande bello poi indipendentemente dal testo però che meraviglioso poi tra l'altro e calcoliamo pure che loro non conoscevano l'italiano proprio in onore di sei uno zero hanno scritto i testi di recensione italiano sì sì beh infatti bei pezzi proprio grandi un'astronave aliena a terra su un orto lasciando tracce di texilonio un carburante appunto alieno l'orto è di Pier Maria Carletti un uomo cento volte più debole stupido ed inetto di un uomo normale Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe queste sono le origini di Normalman Normalman in il calo di zuccheri Roma 8 agosto ore 15 e 41 il signor Gervasi soffre di pressione bassa e il caldo asfissiante gli procura un malore in mezzo alla strada signore che succede? ma si sente male? qui ci vuole un dottore non è niente è solo un calo di zuccheri fa troppo caldo Pier Maria Carletti alias Normalman è a pochi metri dall'accaduto la mia Normal vista il mio Normal intuito mi dice che quell'uomo non si sente bene questo è un lavoro per Normalman mentre Pier Maria cerca un posto dove indossare il suo costume il povero Gervasi viene soccorso dai passanti non stategli tutti intorno fatelo respirare si è un po' sdraiato come va? si sente meglio? mi sento debole ma ecco che appare Normalman nel suo sgargiante costume Normalman sono proprio io quest'uomo ha bisogno di un bicchiere di acqua e zucchero la mia Normal vista mi dice che questo di fronte è un bar vado con la sua Normal velocità Normalman entra nel bar chiede un bicchiere d'acqua ci mette dentro una bustina di zucchero e in meno di due minuti è sul posto vicino al signor Gervasi ecco beva grazie già mi sento meglio bravo Normalman grazie ma ho solo fatto il mio dovere sono un supereroe ecco ora posso camminare tanto abito qui vicino ma venga con me l'accompagno fino a casa grazie Normalman non mi ringrazio andiamo lì dove c'è un problema di tutti i giorni lì dove necessita un piccolo aiuto lì c'è Normalman Gregg e Lillo lì dove sei uno zero e siamo qui con Caterina Guzzanti ciao Caterina ciao ciao Caterina la Guzzantina la Guzzantina la Guzzantina la Guzzantina la piccola di Guzzanti Caterina Guzzanti che ha fatto per noi Miss Italia per tante puntate quindi insomma che è la sorella più piccola appunto di Corrado e di Sabina e questo l'abbiamo già detto l'unica cosa che abbiamo detto l'unica cosa che abbiamo detto di Sabina e Corrado a proposito come stanno Sabina e Corrado? bene bene grazie stanno bene stanno facendo adesso Corrado sta sempre facendo lavorando al suo film al film sì Fast e Season Marte sì e Sabina credo che sia ancora in tournée ah in tournée con questo spettacolo e come sta andando la tournée molto bene molto bene molto orgogliosi però anche tu orgogliosi hai per i tuoi fratelli così bravi così ah c'è c'è anche illustri diciamo certo illustri famosi insomma è apprezzati è stimati tantissimo anche noi li stimiamo tantissimo noi piacciono moltissimo sì sì Caterina che rapporto hai te con Corrado? segui quello che fa? ti ispiri a lui? certo sono la sua più grande fan sicuramente eh di Sabina anche di Sabina anche di Sabina anche di Sabina anche di Sabina Corrado e Sabina magari uno può anche pensare che vivere una carriera nel mondo dello spettacolo dopo che l'hanno gente appresa a pieno successo due fratelli come Corrado può essere difficile può essere difficile sì sì infatti è difficile perché c'è un continuo paragone no? certo con i fratelli magari gente che parla soltanto dei miei fratelli non di me che mi chiede solo di loro e non del mio lavoro ecco che poi è assurdo perché effettivamente lei fa l'attrice è anche brava però se uno pensa che Corrado che ne so che ha iniziato per esempio era giovanissimo Corrado ha 90 anni 22 anni credo uno si ricorda tutti i suoi qualcuno di più parliamo anche di Sabina però di Sabina che scusa la tv delle ragazze Moana Pozzi Berlusconi vogliamo dire cioè ragazzi Scamarini Scamarini è un confronto che in effetti può spaventare può spaventare ragazzi ma Caterina Guzzanti la parliamo un po' di te dite i miei amici Caterina tu cosa ne pensi di Corrado e Sabina? Lillo che ne pensi? no diciamo in generale ti piacciono questi stimi anche tu sì certo scusa bene volemo parlare di qualcos'altro? sì allora possiamo parlare vabbè andiamo anche nel privato possiamo parlare di lavoro Sabina e Corrado nella loro vita privata come sono? Lillo ma avete fatto venire qua per parlare di soltanto io faccio anche un po' ma tu sei ma stiamo scherzando ma sì cioè ma no ma infatti scusa parliamo della tua carriera parliamo della tua carriera sì ditemi lavorerai te probabilmente con pensi che insomma ci sia nel futuro con Corrado e Sabina? ecco no 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 non ti vogliono? no non mi vogliono perché sono una pippa sono più bravi di loro ecco ma anche tu sei brava no ma tornino qua per parlare di Corrado e Sabina no no se ma pure tu sei brava ma pure tu sei brava voi due amici no vieni in radio parliamo di te no perché viene spontaneo viene spontaneo invece per l'educazione visto che sono una persona carina sono no? sì sì ma per carità vabbè ok allora senti ok basta parlare di Corrado e Sabina basta ok basta basta quindi ma non parliamo più di niente ah no no sì che volevi dire? tuo padre ma basta ah basta sembra proprio Sabina sembrava Sabina adesso sembrava Sabina quando fa la scena ma troppo fuori ma Sabina c'è pure Corrado ma è giunto il momento di mettersi in collegamento con Stefano Frosi dalla Cambogia Stefano sì pronto ciao Stefano allora come va in Cambogia? no io sto a casa ah non sei andato in Cambogia? eh no mannava va bene grazie Stefano ciao ciao andiamo avanti grazie a 610 Radio 2 continua a prendere lezioni di radio dalle altre emittenti e adesso è la volta di Radio Manana una radio che già conosciamo una stazione che ha un grande interesse per il cinema abbiamo il piacere di avere con noi uno dei responsabili cinematografici di Radio Manana il professor Fabrizio Fabrizio non leggo bene Fabrizio Fabrizio di Sassi Fabrizio di Sassi ecco sì lei è anche un noto critico cinematografico vero? non posso negarlo per me il cinema costituisce la plastica e la simante e da sempre la posterico la posteri la posteri la posterico come dove sembra l'olestica ah certo sì l'olestica sì lei sembra abbastanza estremante sì ma molto estremante lei per Radio Manana sceglie dei film da consigliare agli ascoltatori con quale criterio? ma quello che sembra la dinastica la dinastica è una stessa parola prota bene sì a questo punto farei ascoltare il trailer di uno dei film scelti da lei l'altro con l'ascolto sì l'altro l'altro ah con l'ascolto sì sentiamo il trailer quando il mondo non è più quello che Rilda ha nuovo quando il male raggiunge la plure c'è un solo uomo in grado di vostro stiamo cercando un mostro non sarà vento ma è tutto quel che stiva lo ampiate io sì io nerdo io anche io no io lo son però all'impiata Jack non puoi è disonte una lotta senza coni fino all'ultima rola in un mondo popolato da poti vinassi Goldo l'ho infestito l'ho infestito battalo battalo l'antaconda no non posso non posso il fitte munato eccolo è lui è Abacuo a palco mecivisa beh professor Fabrizio Fabrizio di Tassi mi sembra un film di difficile comprensione anche se molto accattivante beh non direi la storia è piena di una epoca di ventala si avvicina alle percogliette noi non trovano beh forse ha ragione ma salutiamo il responsabile cinematografico di Radio Manerana il critico professor Fabrizio di Tassi siamo qui in compagnia con Alessandra Canale l'ex annunciatrice Rai l'ho fatta apposta di ex vabbè ex cioè nel senso non lavora più per la rama è ancora annunciatrice eh sì vero che è il punto di trovarci per raccontarci quello che si sta facendo in questo momento in questo periodo di cosa ti occupi adesso Alessandra? beh faccio parecchi annunci importanti ecco sì volete sentire un assaggio? no beh allora io vi no no sentiamo 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 ora cosa stai facendo adesso? momento il supermercato sta chiudendo i signori clienti sono pregate di avvicinarsi alle casse ah ecco l'ho sentita qualche volta sì è proprio la voce tua questa sì 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 complimenti tutti i supermercati di Roma e Lazio e Lazio sì ancora devo andare in tournée in tournée sì speriamo auguri per la tua tournée insomma speriamo bene facciamo le dita wow sì grazie Alessandra Canale e la salutiamo da complimenti e andiamo avanti Greg e Lidola di 2610 Greg e Lidola in vostra compagnia Radio 2610 anche oggi abbiamo qui un ospite particolarmente gradito così da intervistare un topino buongiorno buongiorno benvenuto o bentornato non c'è la prima volta io sono già venuto perché l'altra volta avete intervistato un altro topino l'altra volta però la volta prima ero io poi dove è venuto un altro e ora sono vabbè tanto noi topini siamo tutti uguali quindi è ovvio che lei che insomma cambiate problemi a riconoscerci però io sono già venuto è la seconda volta che vengo io quindi sei stato anche tu a dirmelo che voi vi riconoscerete all'odore però a me sembra sempre lo stesso sempre lo stesso cosa l'odore? sì eh vabbè grazie perché noi topini ci riconosciamo con l'odore tra di noi ma per gli altri abbiamo sempre lo stesso odore è ovvio quindi anche tu non hai il nome di battesimo sei topino sono topino 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 perché sono maschio se no topina però topino topina ma siamo lì se vedete due topini cioè noi siamo uguali perfettamente uguali topino topina sono identici però noi invece abbiamo degli odori nostri per cui ci eccitiamo anche in certe situazioni l'argomento da analizzare oggi con te è la crisi dei matrimoni c'è molta crisi i giovani non si sposano più voi come vivete questo aspetto della società? è un problema per noi è diventato un problema perché a parte siamo molto ghiotti di chicchi di riso crudi ovviamente quando ci sono i matrimoni lì tutti che gettano il riso noi lì facciamo delle grandi scorpacciate senza parlare poi dei ricevimenti lei lo sa quanta roba avanza i ricevimenti e quanta ne va per terra che per noi poi è facile recuperare tra l'altro poi era partiva tutto dalla chiesa dal riso in chiesa noi si arriviamo i chicchi di riso fino ad arrivare addirittura al ricevimento e lì poi insomma grandi feste grandi feste e ce ne stanno un po' di meno adesso quindi ovviamente per noi è un po' un problema ma non proprio grave perché comunque la gente continua a sposarsi una volta era proprio una pacchia devo dire che era proprio una pacchia grazie Topino è la prossima grazie Topino grazie è stato veramente un piacere posso salutare un amico? sì ciao Topino ecco come fa a riconoscere che il saluto è diretto a lui? ma ci riconosciamo dall'odore noi da per radio? ma sì pure per radio e per l'Italia che telefona qui su 610 abbiamo lo spazio dedicato ai radioascoltatori per seguire consigli per avere informazioni per interagire con noi insomma sì sentiamo subito che è in linea pronto? 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 oh Dio santo sono Megan Gayle lo so e come fate a saperelo? è bella che vuoi forse vediamo se ho fatto il numero giusto pronto Casa Oronzo? no ammazza quanto sei strato è Megan 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 no io faccio più a ride intorno a me sì sì dai a ride intorno a te dai a ride intorno a te basta che ridi solo te con queste cose per favore andiamo avanti sono di pessimo gusto lo so pensa perfino per Lillo sono di pessimo gusto perfino per Lillo Greg scusa o gli fanno un contratto per fare qualche film o qualcosa che non sia legata per forza alla telefonia se no questa ce la giochiamo completamente andiamo avanti Greg e Lillo 610 Greg e Lillo ai microfoni di Radio 2 610 eccoci qui per collegarci con Valentina Paoletti collegamenti estremi il momento degli extreme collegaments Valentina Paoletti che si trova in Egitto no Greg questa volta mi pare questa volta sì si è spinta non tanto distante insomma dall'Italia però credo che ci stia per rivelare qualche recondito segreto che ammanta comunque la civiltà egizia è infatti perché pare si è stata scoperta una nuova piramide quindi con un nuovo faraone sepolto ma sentiamo dalla viva voce di Valentina Paoletti cosa sta succedendo lì in Egitto Valentina sei in linea? sì buongiorno Lillo buongiorno Greg ciao oggi appunto mi trovo come avete appena detto voi in Egitto sì e precisamente a El Karafel sì e sono diciamo all'interno della piramide del faraone Ketumkaren III che è questa piramide scoperta da pochissimo da pochissimo da pochissimo io ho bloccato tutti quanti ho detto no prima di diventare io con quindi tu sei la prima persona la prima in assoluto vabbè Valentina cede beh complimenti bravissimo ma è uno scoop per se è uno zero questo veramente ora sono praticamente arrivata all'interno della sala dove è conservato il sarcofago cosa vedi cosa vedi dici sono al cospetto del sarcofago sopra c'è una scritta in geroglifici è un'escrizione è un'escrizione egizia sì ma sì e ora cercherò insomma di tradurla ah perché tu conosci l'antico egizio sì ho studiato l'egittologia ah beh complimenti bene allora c'è scritto chiunque aprirà questo sarcofago sarà investito dalla mia maledizione ah e quale sarebbe la maledizione? eh un attimo che traduco sarà colpito da un turbine di vento questo credo dovrebbe essere facendolo vorticare sì sì fino a farlo esplodere cazzarola ah quindi ah quindi c'è un un vortice di vento che gira che cattura il malcapitato lo fa turbinare fino a farlo esplodere è scritto qua sopra non conviene aprirla quindi perché no per me può essere pericoloso ma assolutamente no conosco il mio lavoro so quello che faccio va bene allora vado sto spingendo la pietra l'hai aperta? perché poi ecco ah cosa vedi? cosa vedi Valentina? vedi esattamente la mummia che è perfettamente conservata e se lo fai non so più anche Valentina? Valentina? e niente non c'è più lì ma mi sa che c'è mezzo alla pirale che non c'è campo come fai? certo lì non c'è campo sta proprio sotto sta malnato però peccato era un grande scoop per 610 vabbè oh e niente ci voleva descrivere come era questa aspetta senti qualche cosa? no niente era un disturbo era solo un disturbo vabbè speriamo che Valentina possa ripristinare il collegamento con le realtà e descriverci com'è questo Ketun Karen ci ha lasciato parecchio con l'acqua va bene Valentina se dovessi riprendere la linea comunque contattaci subito a 610 così facciamo sapere ai nostri radioascoltatori la nuova scoperta sempre che ci sente in questo momento speriamo di sì ma andiamo avanti ciao Greg e Lillo i microfoni di Radio 2 610 va avanti la nostra trasmissione anche se volge al desì ormai siamo arrivati alla fine però è ancora il momento del trailer cinematografico quindi l'argomento è il cinema insomma affrontiamo questo argomento anche con i nostri radioascoltatori no Greg? qualcuno vuole dire la sua pronto? pronto? si ecco sono Giovanni da Procida ciao Giovanni ormai una vecchia conoscenza allora vogliamo parlare di cinema oggi? no 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 che ne so di che parliamo? beh però vogliamo parlare di automobili oggi di automobili vuoi parlare di automobili? vabbè non è necessario parlare di cinema a tutti i costi no no si intendo di mobili un po' vecchi dico gli anni 50 però insomma beh parliamo dai cosa vuoi dirci sulle automobili? cagano vogliamo parlare di oppure modelli coupé si oppure di cabriolet di cabriolet diciamo però no 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 ci ho ripensato non mi va non ti va nemmeno non mi va attacco scusate ciao ciao vabbè ciao Giovanni ciao va bene va bene ciao sentiamo il trailer 610 trailer 610 prima un film crudo sulla spietata legge del mercato discografico il making of di una canzone di Lucio Dalla l'uccita del disco è prevista per il mese prossimo non possiamo più aspettare lo so lo so ma non è ancora pronto Lucio Lucio sto aspettando l'ispirazione me ne frego dell'ispirazione il pubblico non vuole ispirazioni vuole il disco rischiamo di rimetterci un sacco di soldi questo disco deve uscire la storia dello scontro tra la sete di soldi delle case discografiche e l'estro di un cantante ormai affermato Lucio devi registrare il brano devi cosa aspetti non possiamo aspettare oltre abbiamo avuto un ultimatum dalla casa discografica ma non sono ancora pronto attenti a Lu può stare al mio capolavoro non posso buttarla via devo capire ancora delle cose che sono sepolte a me devo capisci ma cosa Lucio cosa serve dammi ancora una settimana Gasparè una settimana per capire meglio l'essenza di questo animale selvaggio ok Lucio ok cosa ti serve dimmi lasciami portare un branco di lupi in studio ti prego lasciami respirare la loro essenza va bene Lucio va bene se è quello che ti serve ok ma la pressione è massima tutti stanno alle costole di Dalla allora è pronto questo dannato disco quasi Olindo quasi aspetta solo un giorno ti prego no né un giorno né un minuto non si può più aspettare ma che cos'è questo casino o niente nulla è Dalla coi lupi Dalla coi lupi nei cinema ripetiamo che 610 è una trasmissione che lì abbiamo iniziato nei primi degli anni 50 in America a Lubbock in Texas poi siamo trasferiti a Burbank California appunto nel 52 53 non ci ricordiamo bene e comunque poi negli anni 60 10 anni dopo più o meno dalla nascita di 610 un gruppo di fan ha tirato su questa band che si chiamava 610 Boys proprio dedicata a 610 sì perché erano totalmente appassionati che hanno deciso di fondare questa band che è basata su 610 tutte le canzoni di quest'album che uscì specialmente sono dedicate alla nostra trasmissione sentiamo uno di questi brani ai hai sentito cosa c'è la mattina le 11 e il 30 del weekend un programma di Lillo e Greg con rubriche divertenti e tante gag lillo e Greg in 610 belli come i semi dei greci lillo e Greg in 610 belli come i semi dei greci lillo e Greg in 610 belli come i semi dei greci lillo e Greg in 610 belli come i semi dei greci Hai già provato la nuova fantastica nuova promozione SMS WAP Cablofon Squid Summer? 1600 MMS Virtual Graphics Stereo più Optional Free Vantage Extra a 16 centesimi meno o più un'ora gratis con edito centro assistenza Chiama subito, l'offerta è gratuita Questo è il ballo dell'estate Scusa Greg Sì? Non ho capito molto bene che spot è, cosa offre La nuova telefonia Cablofon Squid Sì, non ho capito quali sono le offerte Le offerte dell'estate Eh, ma cosa offre? 1600 MMS Virtual Graphics E che so? I messaggi quindi video Però Graphics Stereo E li dicevi Stereo Cioè poi se hai due telefonini Li dicevi sia su uno che con l'altro Solamente a 15 centesimi meno più un'ora gratis con l'edito Ma continuo a non capire Cioè, quanti telefonini hai? Uno Eh, ma vedi, c'hai tre di comprare due Se uno Stereo non... Basta che poi puoi parlare un'ora gratis con il tuo editor del centro servizio E chi è l'edito? Quando... Vabbè, andiamo avanti Sei indietro te però Eh, andiamo avanti Sei uno zero Un'astronave aliena atterra su un orto Lasciando tracce di texilonio Un carburante appunto alieno L'orto è di Pier Maria Carletti Un uomo cento volte più debole Stupido ed inetto di un uomo normale Pier Maria mangia i pomodori Che lo rendono cento volte più potente Diventa quindi normale E si cuce un costume da supereroe Queste sono le origini di Normalman Normalman in lo scarafaggio Pier Maria Carletti alias Normalman Si trova a casa della sora Alfia Alla sua dirimpettaia a prendere un tè Vuole ancora un po' di biscottini signor Pier Maria? La ringrazio ma basta così Ultimamente ho preso qualche chiletto Quando un evento terrificante Sconvolge la tranquillità di quel pomeriggio solatio Cosa succede sora Alfia? Guardi, lì a terra uno scarafaggio Si calmi, basta raccoglierlo e metterlo fuori Io non lo faccio Mi fa schifo, mi fa schifo, mi fa schifo Lo faccio lei Pier Maria sa per prendere lo scarafaggio Usando una salviettina Ma poi ci ripensa Potrebbe compromettere il segreto Della propria doppia identità Scusi, sora Alfia Ma ora che ci penso fa schifo anche a me Io me ne vado, sora Alfia Come se ne va? E mi lascia qui con questo insetto schifoso Si è fatto tardi, devo andare Grazie per il tè Ma non se ne vada Aspetti In realtà Pier Maria raggiunge il proprio appartamento Entra in camera da letto Apre l'armadio Prende il costume da Normalman Si accorge che non è stirato Monta la tavola da stiro Accende il ferro Stira velocemente Richiude la tavola da stiro La ripone nello sgabuzzino Infila il costume Esce dal proprio appartamento Raggiunge l'appartamento della sora Alfia E con la sua norma velocità Mai meno di quattro minuti è pronta ad intervenire Ma lei Lei è normalman In carne d'ossa Poc'anzi ho sentito un urlo provenire dal suo appartamento Si, ero io Ho uno scarabaggio in casa Lasci fare a me Mi dia una salvietta Tenda Dov'è? Eccolo Ma è immobile E infatti è morto Lo tolgo di lì A me fa schifo Ecco Dov'è il bagno? La prima porta a sinistra Grazie 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 Normalman Non mi ringrazio Sono un supereroe Addio Lì dove c'è un problema di tutti i giorni Lì dove necessita un piccolo aiuto Lì c'è Normalman Siamo qui con Saturnus Il nostro astrologo Il nostro astrologo Che è molto amato I nostri radioascoltatori Tant'è vero che arrivano valanghe di e-mail Proprio per lui Innanzitutto ti salutiamo Ciao Saturnus Buongiorno Che Saturnus sia con tutti voi Eh sì Che Saturnus sia con tutti noi Fa pure l'effetto con la bocca Molto misterioso Saturnus Sì Molto Molto È veramente avvolto Da una luna di mistero Posso leggerti un'e-mail Saturnus Così puoi rispondere Ma che ci mancherebbe proprio Eh certo Vabbè Sei qui a posto ovviamente Allora leggiamo questa di Annetta Da Frascati Dice Sono tre anni che mi piace una bilancia Che devo fare? E' comune Che ti fa? Cioè Dipende Ma poi Cioè Deve essere un po' più dettagliata E Dovrebbe di Se questa bilancia Ce l'ha De proprietà di qualcuno Se sta in un negozio Cioè Che ne so Perché se sta in un negozio Basta che si Entra e se la compra Sì però Credo che lei Entendeva Assolutamente Se ce l'ha qualcuno Dell'amico suo Che ne sa Una cosa E un po' Non ti dico Te ruballa Perché Insomma sarebbe Magari ci può chiedere Oh mi piace Sta bilancia Vendimela Sì ma Saturnus Terza soluzione Potrebbe essere Che invece E' un negoziante Che c'ha sta bilancia Allora Ci può pure Dì lì Che ne so Io te ne compro una nuova A te me da questa Ci sono varie soluzioni L'importante E' muoversi Perché Poi stai presso tutto questo tempo Con una bilancia Magari Se costa tanto Boh Va bene Grazie a Saturnus Credo che non era proprio questa L'intenzione della nostra Radioascoltatrice E forse intendeva altro Però comunque Grazie allo stesso Andiamo avanti Greg e lì L'ora di 2.610 Per lo spazio dedicato Alle altre radio Ci siamo già collegati Tempo fa Con una radio Per la mente particolare Che è Radio Ciao Sì C'è una radio Che trasmette solo saluti Solo saluti Da parte dei radioscoltatori Sì Non ci sono DJ Non c'è musica Non c'è niente No no I radioscoltatori Telefonano Si segnalano E danno il loro saluto A chi vogliono loro Non so Ho capito Ma sentiamo un attimo Cosa sta trasmettendo In questo preciso istante Radio Ciao Ciao da Manuea Ghigo Gigio il Gabbione Il Trottola Mr. D Il Carriola Zezè, Pappo Le Due Cicogne Un abbraccio a Feppo E il proprietario Del Barra Perla Nera Sono Ettore da Ruba Volevo mandare un saluto A tutti gli amici Del Baretti A Jessica A Dettona Ciao Un grande ciao Dalla terza F del liceo Antidoto Epitelio Di Vasto A tutta la terza B Ciao 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 Volevo salutare caramente La mia amica Adele Sei ancora viva Ciao Ciao Effettivamente Ma è possibile Che non interviene mai nessuno Ma no Perché la radio è il futuro È come i canali satellitari Sono monotematici No, qui in effetti Se uno vuole sentire i saluti Perché doverli ascoltare Su altre radio Oppure Quella che direttamente Radio Ciao Saluta O viene salutato Eh certo Ma non è male Sentiamo un po' Senza disturbi insomma Sentiamo un po'? Un grosso saluto De coroso A tutti i comilitoni Della brigata Penna nera Da Sandro Castellini Eh sì Effettivamente Non è male Basta farci l'orecchio Andiamo avanti Greg Lillo Sei uno zero Ciao Ti dirò Ti dirò Ti dirò Ti dirò Ma baciami E ti lascerò Ciao 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 Greg Lillo Sei uno zero Via Siago In Roma E siamo arrivati Al momento Del Lo indovino Dico lo Perché non è l'articolo Lo indovino Proprio Lo indovino Come risposta Sì 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 Io scusa Greg Colgo L'occasione Per festeggiare Un evento Oggi Mio zio Ha festeggiato 500 mila euro 500 mila euro E qui Lo zio di chi? Lo zio di Massimo Bagnato Perché però non l'abbiamo presentato È qui con noi Per presentare appunto Questa rubrica Che sono degli indovinelli Facilitati Sì Sono facilitati Perché in genere Magari si trovano Dei cruciverba Degli indovinelli Dei rebus Difficili Quasi improponibili Alla preparazione media Non senza voler Denigrare Alcuni che non riescono Magari a risolvere Perché secondo me Sono veramente Troppo difficili Per chiunque Anche si dovesse cimentare Anche avendo Un'intelligenza Una preparazione Superiore alla media Ma sono veramente difficili Quindi io li ho facilitati Indovinelli facilitati Benissimo E allora però Di cosa c'è bisogno? C'è bisogno di Di un indovinello C'è bisogno Di chi lo pone In questo caso Massimo Bagnato E però di chi cerca Di risolverlo Sì E quindi Chi lo può risolvere? Uno su radioascoltatore Sì Ad esempio E sentiamo se c'è già in linea Pronto? Pronto? Pronto ciao che siete Dove ci stai chiamando? Buongiorno Buongiorno a tutti Sono Franco Mellini Da Padova Ah Franco Mellini Padova Tu hai già telefonato una volta Non qui Però da qualche parte Hai telefonato È vero? Sì sì Ho telefonato Insomma Telefono da quando ho sette anni Grosso modo Bene bene Padova ce l'ho nel cuore Perché una volta Un mio amico Ci è passato con la macchina Eh beh sì Effettivamente ci passano In molti a Padova Insomma È una città che ci passano Eh beh ovviamente Ma anch'io adesso Non vorrei risultasse falso O una svinata Però ci sono passato io Più di una volta Ah complimenti Sì Io posso proporre l'indovinello Franco Allora concentrati È facilitato Però insomma richiede sempre un impegno Insomma da parte tua Una certa conoscenza Allora Parto con l'indovinello Sì Mi leggi tutti i giorni Sono un'abitudine quotidiana Attenzione Sono un'abitudine quotidiana Posso essere messaggero O corriere di notizie Mi trovi in edicola Cosa sono? Il giornale Ah bravissimo È indovinato È indovinato È indovinato Franco Grazie 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 Benissimo Bravissimo Franco Grazie E che cosa vince Franco? Franco vince un viaggio a sue spese In qualsiasi periodo dell'anno Nell'Alta Tuscia Grazie Grazie di cuore Benissimo Grazie Complimenti Grazie Arrivederci Ciao Franco Ciao Franco Ah scusa Franco Sì Ci sono ancora Sì Puoi dare un'occhiata lì accanto Se ci sono io? No non ci sei Ok grazie Ciao Ringraziamo Franco Ringraziamo Massimo Bagnato E alla prossima puntata Di Lo Indovino Da settembre Scatta l'operazione Pago sempre di Pagotutto La card prepagata di Mastercam Di InfoView Con Pago sempre Sei sicuro di pagare sempre Di in ogni occasione Anche se i tuoi acquisti Non ti sono arrivati Greg Sì Lilla No dico A orecchio mi sembra Tutto molto vantaggioso Ma non ho capito bene Allora l'offerta Pago sempre di Pagotutto? Eh Cioè come paghi sempre cose? È una card prepagata Ah Cioè tu Dicidi già all'inizio Quanto pagare Ma pagare cosa? La banca Qualsiasi cosa Ma anche delle cose Che non mi servono Cosa che non ti servono Ah Cioè tu decidi Che al mese Vuoi fare Poi te lo consiglio La tua stessa banca Che ne so 5.000 10.000 15.000 20.000 euro Di spesa No? E te Già ti vengono addebitati Al mese E paghi anche se Non ti arrivano Gli acquisti che hai fatto Cioè non ho capito Magari tu compri una cosa C'è il rischio Che non ti arrivi No? Perché per via delle poste O per via magari Che E comunque io l'ho pagata Comunque l'hai pagata Sei sicuro che la paghi? Ah quindi sono sicuro Al 100% che pago Con questa tessera Sì perché se no C'è il rischio Delle volte che Che ti posso dire Per corrispondenza Magari anche con internet Dall'estero Compri che ne so Una cassa di vini Eh Magari non ti arriva mai Io comunque la pago Comunque l'hai pagata Bene Vabbè andiamo avanti 610 A Radio 2 Non vi basta ascoltare 610? Vi siete persi qualche rubrica? Volete saperne di più? www.610.rai.it Il sito di 610 va oltre E vi offre gallerie di disegni Fotografie Filmati Webcam Notizie utili e inutili La classifica delle vostre freddure calde Gli annunci enocomici E naturalmente Il meglio delle ultime puntate www.610.rai.it Per stare con 610 Quando volete Agenzia 610 O 610 Che dir si voglia Siamo Lillo e Greg O Greg e Lillo Per questo che dir si voglia I talk show reclamano A tutta forza In continuazione Dei personaggi particolari Personaggi che possano Sollevare l'audience E noi li troviamo Li troviamo Alcuni di questi personaggi In genere sono I presidenti Di varie associazioni O vari club Più o meno strane Che i perversi in Italia Qui abbiamo infatti ospite Oggi In radio Nella nostra trasmissione Aristide Teobaldi Che è il presidente Del club Amanti del decadentismo E Er Pantera Che è il presidente Dell'associazione culturale Amanti della capocciata in bocca Buongiorno 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 a voi È un piacere Stare qui in radio Veramente Greg e Lillo Mi fate tagliare Tagliare dalle risate Complimenti Se troppo forti Bravi Bravi Non gridi Mamma mia Mi ammazzo Dalle risate Con voi Bravi Sì è vero Anch'io trovo Il vostro programma Veramente molto Molto divertente Complimenti Grazie 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 Con chi vogliamo iniziare? Cominciamo con Il professor Aristide Teobaldi Professor Teobaldi In due parole Per chi fosse Un po' sprovvisto Di conoscenza Ci può dire Qualche ceno Sul decadentismo E cosa Voi l'ha appassionata? Beh Il decadentismo Cominciò a far sentire La tua presenza Scusi Pantera Scusi Questo l'abbiamo domandato Al professor Teobaldi E so io E lei che Io sono il professor Aristide Teobaldi E se lei è Teobaldi Lei chi è? Io sono Erpantera Sì Nando Proietti Dagli amici è detto Erpantera Cioè lei È il presidente Della situazione culturale Amanti della capocciata Della capocciata in bocca Sì sono io Ah E invece lei è il presidente del club Amanti del decadentismo Eh Posso continuare Mi avevate fatto una domanda prima Vado avanti Sì 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 prego prego Eh no perché Mi avete interrotto E vado avanti Ok Allora dicevo che Il decadentismo Cominciò a far sentire La sua presenza A partire dal 1880 A Parì Inclina a cogliere i segni Della raffinatezza E dell'eleganza intellettuale Nell'epoca di decadenza Appunto Il decadentismo Presenta alcuni atteggiamenti tipici Come Il disprezzo per le idee umanitarie E socialistiche Inteso soprattutto Come rifiuto Del positivismo borghese C'è un'esaltazione Dell'irrazionale Capito Il gusto per l'esoterico Per intenderci L'esoterico è l'occulto Detta in poche parole La lì proposta Del dandismo Bodeleriano Come versione E privilegio spirituale No? Chiaro? Eh professor Teballi So io sì Ma scusi la guarda No Eh Bene a questo punto Eh A Pantera E Come nasce questa associazione Culturale Amanti della capocciata Perché lei ama La capocciata in bocca? Ma vede Innanzitutto Fanno parte di questa associazione Persone molto aggressive A uno come me Ad esempio Quando sono in macchina Non mi devi suonare il clacson Perché io scendo immediatamente Apro la portiera della tua macchina Ti tiro fuori E te gonfio Certo La capocciata in bocca State attenti Eh Ha un meccanismo molto preciso Cioè tu devi afferrare La testa dell'altra persona Più o meno All'altezza delle orecchie Sì E con un movimento violento Del tuo collo Devi andare a sbattere la fronte Nelle labbra Della persona Che hai di fronte Questo può provocare Lo spaccamento di un labbro Dei denti che saltano Certo Si può arrivare Alla frattura della mascella Certo Certo Scusi eh Stiamo a parlare di capocciata E poi di violenza Se permette Non mi pare bello Poi fate voi No scusi professore Abbiamo pazienza Lei intanto non si permette Di usare questo tono con me Ha capito? No Io la ferro per la testa E le spacco un labbro Allora vado a fare A botte per strada E lasci qua persone Diciamo corte Che hanno studiato A parlare Di cose interessanti Non della capocciata in bocca D'accordo Va bene Non è il momento adesso Di fare A questo punto Grazie di essere intervenuti E magari insomma In bocca al lupo Ecco in bocca al lupo Per tutte le vostre Passioni Per le vostre associazioni Grazie Greg e Lillo Mi fate ammazzare Bravi Sì grazie Grazie a voi tutti Per questa mia partecipazione Lei l'aspetto fuori Siamo giusto al momento Delle radio E noi planiamo Su altre radio No Greg Cercando di scoprirne I pregi Le virtù Le stranezze E abbiamo scoperto Questa radio Strana ma Molto affascinante Che è radio mamma mia Una radio che trasmette 24 ore su 24 Mamma mia degli abba E si è un po' monotematica Però è come Come la tv satellitare Se uno è Propenso Ad ascoltare Mamma mia degli abba Sa che lì la trova Senta di meglio Che questa radio Che si chiama radio mamma mia Tenuta da Enimar Bjorn Che ha un solo cd Dentro il suo studio Sì Infatti il studio è piccolo È piccolissimo Un metro quadro Sì sì Un metro quadro Non so che buzzino Però insomma C'è Enimar Che è questo ragazzo italiano Però si è scelto Questo nome d'arte Enimar Bjorn Perché ricorda Il gruppo svedese Ma ascoltiamo Non è meglio Ascoltiamo Ascoltiamo cosa sta trasmettendo In questo istante Radio mamma mia E questa era Mamma mia degli abba La strepitosa hit Che nel 1976 Si imposa Il primo posto Delle classifiche internazionali Conquistando l'entusiasmo Di milioni di fans In tutto il mondo Ma passiamo ora Alle richieste Dei nostri radio Mamma mia ascoltatori Allora Ci scrive Giulia Mancinelli Da Ostra E ci chiede Posso ascoltare La canzone Dei Le Zeppel No Questo no Passiamo a Spillo Spillo Che si fa Dei sovrannome Spillo Che ci scrive Da Bassano del Grappa E vorrebbe ascoltare Oretta No 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 Eccola qui Andrea Ceridoni Andrea Ceridoni Da Sericalia Ci chiede Mamma mia degli abba Bene Andrea Ti accontentiamo subito La tua è una scelta Molto particolare Che denota un gusto Formato e raffinato Per cui Goditi la tua Mamma mia Anzi godiamocela insieme Mamma mia Loro sono gli abba Sì mamma mia Solo su Radio Mamma Mia 24 ore su 24 Soltanto Mamma Mia Dei abba Prova la nuova offerta Summer Estate Di Cablofon Squid Con segreteria ricaricabile Più 10 ore di messaggi Alternati in videoconferenza Virtuale Con prenotazione da internet Direttamente a casa tua E' un'offerta Maxi Lab Di Estate Summer Di Cablofon Squid Questo è il ballo Dell'estate Greg Sì Lilla Scusa Scusate Non ho proprio capito Niente di questo sbotto Cioè non ho capito Quello abbiamo ascoltato adesso Eh sì Cosa E' una nuova offerta Summer Estate Cablofon Squid Questa nuova Eh ma che Sì ho capito Che è un insieme E' un portale E' un portale Che telefono Cioè Ha una segreteria ricaricabile Cioè se tu per esempio La segreteria telefonica Quando la metti La puoi ricaricare Ogni tanto Che sei ricaricato La segreteria Scusate Con più di 10 ore di me Eh sì Magari Ricarichi delle altre Di che? Metti che si scarica Cioè Quando si scarica Il telefono Scarica Ma sono d'accordo Ma noi siamo nel futuro Lillo Bisogna andare avanti Mi spieghi bene Cos'è questo spot Ci sta girando intorno Cioè La scienza prevede tutto Sì Menni che si scarica Loro già Si sono premuniti E la Puoi andare 10 ore di messaggi alternati In videoconferenza virtuale Con preparazione da internet Che? Direttamente a casa tua Cioè Te da casa Non ti devi neanche muovere Cioè Queste 10 ore di messaggi alternati Con qualcuno Cioè Le a te Prima ne mandi uno Poi ne mandi un altro In videoconferenza Ti vedi Te puoi vedere Quello che ti manda il messaggio Lo vedi Sul tuo telefonino Vedi l'altro Che sta conferendo Ma che me frega Di quello che mi manda il messaggio Scusa Ma magari vuoi vedere Come spinge i tassi Se lo fa con due mani Ma andiamo avanti 610 610 Andiamo avanti Scrivete a 610 L'indirizzo di posta elettronica è 610 Chiocciola Rai.it 610 Scritto in cifre Stiamo per collegarci Dell'esistenza Dello Ieti Corbezzoli L'abominevole uomo delle nevi L'abominevole uomo delle nevi Esattamente Quindi questo posto E dove ti trovi quindi? A Frascati Come a Frascati? Sì No perché mi sei rotta la macchina E appena ho lasciato il raccordo Fuso Ecco Però devo dire che anche qui Io ho trovato un mistero Niente male Cioè? E cioè Chi è che ha aggredito E gonfiato come un canotto Don Cesare Il parroco della chiesina delle grazie? Eh vabbè E chi? No Io l'ho scoperto L'ho scoperto È stato Vito Palimpresti Vito Palimpresti Detto Erbanana Va bene Cioè È comunque un mistero svelato Ma non è la stessa cosa Dello Iedi però Scusa No vabbè che c'entra Però Erbanana Chi è Erbanana? Il Banana è quello Che ha la rostecceria All'angolo sotto casa del Fresina Vabbè ho capito Scusa Stefano Non è Solo Iedi è un conto Dai Manco c'è la neve a Frascati Vabbè ho capito Però insomma Era un mistero niente male Pure quello Vabbè comunque Andiamo avanti Ciao Grazie comunque Ciao ciao Ripara la macchina Greg e Lilo Radio 2 610 La trasmissione ormai è quasi finita Ma comincia però il momento Lo spazio dedicato al cinema Con i nostri trailer Tra poco sentiremo un trailer Però ne vogliamo approfittare Per parlare proprio di cinema Che è un argomento sempre ben accetto Nelle conversazioni di qualsiasi gruppo sociale Vorremmo parlare di cinema Con i nostri radioascoltatori Quindi sentiamo La telefonata in linea Pronto? Pronto? Sì Sì Sono Giovanni da Procida Ciao Giovanni Ciao Già ci hai chiamato Sì sì ho già chiamato Vogliamo parlare di cinema? No no Adesso sto a riunione Non è il momento Vabbè scusate Perché hai chiamato allora? Hai chiamato tu? Che viva Non è il momento adesso Sto a riunione Che sei in riunione Ma hai chiamato tu però? Ci sentiremo un'altra volta Adesso attacco Ciao Vabbè ciao Chiama lui Sto a riunione Sentiamo il trailer 610 trailer 610 prima Vegezio è un apicultore E vive da solo in campagna Non è molto socievole Per lui esiste poco Oltre le sue api Ma un giorno gli arriva in casa Palmiro Un suo vecchio amico di scuola Palmiro? Saranno 30 anni che non ci si vede Chia E non mi è stato facile trovarti Nessuno dei vecchi amici Sapeva dove ti fossero Si è rintanato Che vuoi Il lavoro con le api Mi ha portato via dalla città E inoltre Ho veramente così poco tempo E Develinda? La vedi ancora? Non parlarmi di quella lì La vita di Vegezio Inizia a farsi sempre più misteriosa Gli occhi di Palmiro Inoltre Vegezio Non vuole avere nessuno tra i piedi Che cosa sei venuto a fare qui Palmiro? Io ho molto da fare Te l'ho detto Nulla di particolare Vegezio Così volevo rivedere Un vecchio compagno di scuola Tutto qui Poi all'improvviso La mossa sbagliata Ora se vuoi perdonarmi Avrei da fare Ora vado Giusto il tempo di fumare una sigaretta Ne vuoi? Ho smesso Allora una caramella Prendi Ne sono buone Ma sono caramelle al mu? Non posso mangiarle Ho stato stamattina dal dentista E le mu Mi si attaccano al lavoro che mi ha fatto Ma no vedrai Prendi Ti ho detto di no Il dentista mi ha proibito di mangiare fino a stasera Figurati se mangio una caramella mu Ti dico che queste sono diverse Prova E va bene L'errore è fatale Allora? Senti Ora devo proprio Che succede Vegezio? La caramella La mu Mi 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 ha La mu Mi ha Un collagio Non ti capisco La mu ti ha La mu Mi La mu Mi La mu Mi ha La mu mi ha Nei cinema Sempre Greg e Lillo in vostra compagnia Siamo qui con un ospite particolare Noi spesso invitiamo artisti Personaggi del mondo spettacolo Ma ultimamente stiamo invitando anche dei professionisti Come nel caso del dottor Andrea della Castagna Buongiorno 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 a voi Andrea della Castagna che è un famoso logopedista E spieghiamo cos'è un logopedista Diciamo semplicemente senza dover per forza Entrare proprio nel merito Che mi occupo di tutta quanta I problemi che posso Di cui può essere affetta una persona Per quanto riguarda l'emissione della voce L'impostazione Riguarda l'emissione della voce Per far capire meglio questi problemi che ci possono essere E mi sono permesso di portare un mio paziente Che è un avvocato penalista di grido Anzi lo presentiamo L'avvocato Lorenzo Lotti Lorenzo Lotti Io sono un po' imbarazzato Veramente non volevo venire il dottore Perché è un imbarazzo Un problema Un problema alla voce Potete notare dalla voce Che l'avvocato Lotti Io sono l'avvocato Lorenzo Lotti Malgrado sia un uomo Quindi proprio la sessualità maschile Uomo, uomo A tutti gli effetti Posso dirlo Penso no Si avvicina a 80 anni Beh insomma diciamo che ne ho 78 Quindi ancora ci tengo a questi due anni Insomma no di differenza Non ancora 80 Comunque sono Mi conoscono Al tribunale mi conoscono tutti Chiedete l'avvocato Lotti L'avvocato Lotti L'avvocato che ha la voce di Eh beh Dobbiamo dirlo Di Serena Dandini Una vergogna Una vergogna Non posso più andare in tribunale Non posso più Che io non conosco questa persona che vuoi riconoscere Beh Serena Dandini è una famosissima Eh io non frequento Artista Cioè non vedo Sono tutta la notte a leggere i codici Non sono Non ha tempo di vedere la tv Non ha tempo di vedere la tv Non conosco le subrette ballerine Non è una ballerina Non è una ballerina Non è una ballerina Una conduttrice Una autrice Che è famosa Io ho Altri tipo di frequentazioni Ho un grosso Grossissimo problema Non posso più uscire di casa Perché non ho credibilità Non ha più quanti Serena Dandini Specialmente al telefono Quando telefona Tutti la scambiano per questa Serena Dandini Presentatrice Io non conosco Ha cominciato ad avere questa voce Alla Dandini Da un paio di anni a questa parte Da un paio di anni Sono due anni che io vivo questo incubo Tra l'altro preoccupatissimo Perché sarà contagiosa questa cosa È senz'altro contagiosa È contagiosa Molto contagiosa Ecco Ecco Contagiosa Ecco Professore Senta Come si contagia La voce Cioè come Io non ho contatto Cioè ci vuole il contatto fisico Oppure basta respirare Ma credo Credo che proceda per inalazione Va bene Grazie Grazie Avvocato Lotti Grazie Professore Della Castagna Lillo vogliamo chiudere il nostro programma Per adesso Certamente Greg Però ti volevo chiedere Ti volevo chiedere Oddio ma Sto parlando Ti volevo chiedere come si può curare Oddio Greg Greg Professore ma che è successo Credo che si sia forse Ecco contagiata Chiudi te Presentato io non posso Non posso più parlare Greg ti prego Va bene Lillo Chiudo io Allora salutiamo il professor Lorenzo Lotti Ciao a tutti L'avvocato Andrea Della Castagna Ciao a tutti Un saluto da Greg Da Greg Ciao a tutti E un saluto da Lillo Un po' di tempo fa Greg e io abbiamo scoperto questa nuova radio Che si chiama Radio 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 Ho pronunciato bene Radio Sì Radio No dico Radio Sì l'ho pronunciato bene Dico Radio 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 Che è una radio nuova appunto Abbiamo quel direttore musicale Eugenio Del Non leggo bene Eugenio Della Mata Eugenio Della Mata Della Mata Eugenio Della Mata Ripeto Può chiamarmi col mio soprannome Arti E qual è il soprannome? Arti Arti La chiamo Eugenio Eugenio Allora senta Eugenio Ci parli della scelta Delle musiche So che lei Praticamente Visiona tutto Quindi alla fine L'ultima parola è la sua Però anche i DJ propongono canzoni Oppure avete Siete rigidi Avete comunque una playlist molto rigida Cioè come funziona? No abbiamo Noi cerchiamo Cioè siamo un po' Diciamo costretti A optare per una programmazione italiana Però ci sono dei DJ come DJ E DJ Che DJ DJ E DJ Che hanno DJ Che si chiama DJ DJ Ad Diceva appunto Scusi Che loro due con la loro avanti E riescono a Comunque a Suggelare La programmazione Con delle chicche Che spesso ha animato Che spesso Ha animato Nella loro Ha animato Stenza Ha animato la stenza Sì Ma io ascolterei adesso Una canzone Proprio Che voi programmate Molto spesso Che è un brano Famosissimo Fiorella Mannoia In Quello che le donne Non dicono Sì che poi Però si ha cramato Quelli che vivono di Fiorella Come no Anche noi La stimiamo molto Fiorella Mannoia Sentiamo la canzone No no Ah non diceva quello No Cosa stava dicendo Era cramato Pientele Ah era pientele No ho capito Un'altra cosa Sentiamo la canzone Ci sanno Confannia Cernerette Le d'avore Carote Che festano Con noi E non variamo via Ma rascoltiamo Bel dottore Che scipola Rosettiamo Poi Beh insomma È un testo importante Oltre ad essere Una bella canzone Anche se Non era proprio Chiarissimo Vabbè Quello che Però vabbè Insomma si è capito Quello che le donne Non dì Sì si è una canzone Nel Fiorella Che alimanta Che alimanta Quindi è una canzone Proprio dedicata Alle donne Comunque no Alle donne Alle donne In senso più steso Alle vinti E anche Di Verocco Ce l'ho notato anch'io Che c'erano anche le vinti Oltre che le donne Grazie Andiamo avanti E Greg Lino Radio 2610 Siano Così E di vigile Sprecane Cerpe Ciorpate Avare Faccia Spare Banto Ci butta E provare Sì Con le vostre Lo dimenti Ma non Bria Stefano Rialghi Quanto Di ridemo Ancora Quattro Sì Ascolta Radio Madana 96 Stop Sulla nostra Lugomenza Ciao Sono i tre moschettieri E anch'io ascolto 610 Tutti per uno 610 Il caldo ti isola Si è che non ho capito nulla Di quello che offre Però questo è il problema Che sei pazzo Adesso che c'è proprio caldo Questa è appunto la nuova strada Pazza di Gablofonsquid Se sei pazzo l'ho capito Non ho capito il resto però Cioè tu Da adesso in poi Hai dieci anni Di MMS CAB Windows Ethernet Floyd Layout Proprio Gratis Eh ma che so MMS Più tutte le altre cose Per esempio Layout Quando Abbozzi Disegni Per fare Una sceneggiatura No Io O per un film E chi che me l'ha detto Con il telefonino Eh sì E che ci faccio E le visualizzi Poi le puoi spedire Agli amici E perché devo spedire gli amici Non è una cosa che faccio per lavoro Vabbè Ma ammetti che c'è qualche tuo amico Che ti chiede Layout Ti puoi spedire col O anche riceverli Puoi riceverli così Vabbè senti E poi hai mille suonerie A tasso zero Che vuol dire? Ti squilla il cellulare No te hai una suoneria Invece ce ne puoi avere mille Che suonano anche contemporaneamente Ciao Andiamo avanti Sei uno zero Vai andiamo avanti Indietro Domanda Cosa fate alle 5 del pomeriggio Da lunedì al venerdì A partire dal prossimo 19 settembre? Risposta Ascoltate 610 su Radio 2 610 tutti i giorni alle 17 Sempre su Radio 2 Dal 19 settembre Noi dell'agenzia 610 Greg e Lillo Siamo sempre molto attenti A quello che va di moda A quello che funziona Voi sapete quanto tirano Ultimamente gli errori Dietro le quinte Le cose che non si vedono mai Poi realmente in televisione O al cinema O in qualsiasi altro mezzo di comunicazione Gli errori Ci sono anche in radio effettivamente Se ne fanno tanti Quindi noi abbiamo pensato di registrare Tutti i nostri fuori onda Cioè tutti gli errori Fatti da me e da Greg In questa nuova rubrica Che si chiama 610 Sarebbe Gioco di parole Che un paverissimo Sì ma ho inventato io 610 Gli errori di 610 Che c'è da ridere? Mercure? Ed è questa la differenza che c'è Tra il personaggio dello spettacolo E la gente comune della strada Sei d'accordo Lillo? Sicuramente sì Anche perché penso che effettivamente Quello che... Oh questo è fatto male Lillo Che è successo? Eh Lillo è cascato da sedio Stava fermo Non lo so Stavo... 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 Stavo male Da fermo eh Proprio vabbè No no tutto a posto Ricominciamo vai Sì 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 Non so come ho fatto a... Ci fermiamo un secondo A cadere... No 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 vai No no vai Tutto a posto Vai Partiamo vai Partito vai Partito vai Ed è questa la differenza principale Tra la gente comune E l'uomo dello spettacolo Sei d'accordo Lillo? Sì sono d'accordo Anche se penso che... Eh non lo so È che non lo so Cado Che devo fare? Cado Cambiamo sedia Ma la sedia è sana Non so perché cado Cado Scusate 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 Ed eccoci di nuovo qui Greg e Lillo Agenzia 615 Stiamo per presentarvi Greg Hai detto 615 610 devi dire Eh 610 Hai detto 615 Vai vai da capo Dai No veramente Hai detto 615 Dai facciamo Via due Vai Salve a tutti Salve a tutti Buonasera Qui da Greg e Lillo Agenzia 617 E stiamo per andare Con la nostra rubrica Stop 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 Hai detto 617 Zero Devi dire 610 Ma io ho detto 610 Dai Hai detto 7 7 Hai detto 7 Ma mi fa risentire la registrazione Scusate Dai l'ho sentita pure io Greg rifalla Dai E rifacciamo Partito Greg e Lillo Buonasera a tutti Agenzia 619 Agenzia 619 Siamo per Ciao Ciao Un'astronave aliena Atterra su un orto Lasciando tracce di texilonio Un carburante appunto alieno L'orto è di Pier Maria Carletti Un uomo cento volte più debole Stupido e rinetto Di un uomo normale Pier Maria mangia i pomodori Che lo rendono cento volte più potente Diventa quindi normale E si cuce un costume da supereroe Queste sono le origini di Normalman Normalman in La vacca Campagna frusinate Ore 2 e 39 del mattino Enza Schiavarelli sta mongendo Una delle vacche della fattoria Dei genitori E muovete con sta vacca Venga se poteva stare tutti gli giorni Sfaticata Tacca la mossa con le secche Ci manca il latte Smaltrappò Fa queste Fa quelle Non ce la fa più una così turmente Ma arriverà gli giorni Che mi dovranno sentire a me In quel preciso istante Da un razzo interstellare Cade un contenitore Di raggi gamma Radioattivi E molecole instabili Che scoppia proprio accanto Ad Enza e alla vacca Quando Enza rinviene Si accorge di aver acquisito I poteri del ruminante Ma Ma io Ma io già gli gorn E E faccio gli ulate E E M M M M M Allora da oggi Non sarò più Un Enza e Schavarelli Da oggi Io sarò La vacca Roma Banca centrale Ore 11.30 Fermi tutte Questa è una rapina Se non mi date tutte le soldi Per sparare gli ulatte In su tutti gli uparche Ve lo macchie tutte quante Mi dispiace Non possiamo accedere alla cassaforte A tempo A cine? Ma lo vediamo se si può o non No Ma prego la smetta Faremo il possibile Ah Adesso si può Bene Ma vediamo allora Nisuno può aspettare La vacca Pier Maria Carletti Alias Normalman E' allo sportello vicino Ed ha ascoltato tutto Il mio normal udito Mi dice che questa ragazza Mascherata da vacca Vuole rapidare la banca Ed il mio normal senso Mi dice che questo è un pericolo Questo è un lavoro per Normalman Così Pier Maria si allontana Approfittando della distrazione Della vacca occupata A sbargere il latte E si cambia nella tua letto Eccomi qui Ma è tutto allagato Eppure quanto ci avrò messo A cambiarmi? Neanche dieci minuti Allora Stavobbanotte Sti soldi Arrivano o non Non arrivano no Hai finito di zazzare E' tempo che tu te ne torni Nella stalla Normalman Normalman Ce lo sapevo che ti avrebbe incontrato Prima o poi Ma non mi potrà impedire Di rubare gli sordi Normalman la prego La faccia smettere Sta allagando tutto il perché Rischia di far imbarcare le assi Presto Datemi tutti i giornali Che avete e gli stracci E qualunque cosa serva Ad asciugare Mentre Normalman E' intento ad asciugare Il lago di latte La vacca continua Ad automongersi Mi ce la farai asciugare Tutte Normalman Io continuerò Ah Gli ulatte Sangrispine Ma è finita Deve io Magna un po' di piada Ah scappi eh Mo scappe Ma tornerò E un giorno Ci rincontreremo Grazie Normalman L'ha messa in fuga Non mi ringrazio Sono un supereroe Ora non mi resta altro Che finire di asciugare Aspetti un attimo Dopo tre quarti d'ora Il latte è quasi Completamente prosciugato Resta soltanto Qualche chiazza qua e là Normalman Ne ha casciato Su una poltroncina E il cassiere Gli ha portato Un bicchiere d'acqua Come si sente È stato un lavoro duro Sì ma sono un supereroe La mia vita è tutta così Ora vado La vostra banca è salva Ma là fuori Da qualche parte C'è ancora un pericolo Lì dove c'è un problema Di tutti i giorni Lì dove necessita Un piccolo aiuto Lì c'è Normalman Greg e Lillo Qui da 610 Stanno per lanciare due cose Uno è un nuovo gioco Che non si è mai visto prima in tv Non si è mai sentito prima La radio Si vede ogni tanto Nei casino Ed è il gioco dei dadi E due sono appunto I dadi Che noi lancieremo Per noi e per voi Per giocare a questo gioco Il gioco si chiama Dadi, dadi, dadi Questa è la cicletta Che ci accompagnerà Ogni qualvolta Noi intenderemo Giocare con voi O voi intendere Giocare con noi Chi c'è Che intende giocare con noi Quest'oggi Pronto? Pronto Pronto, ciao Ciao Greg Ciao Lillo Ciao Augusto da Latina Augusto Benvenuto qui a 610 Especialmente allo spazio Dadi, dadi, dadi Sì Sei pronto? A te piace giocare a dadi? Sì mi piace molto Un gioco Lo faccio quasi mai Però mi diverte Ma noi abbiamo scelto La variante più facile Ovvero Io ho qui davanti Questi due dadi Tirerò una volta per te E una volta per me Chi totalizza Il maggior numero di punti Cioè il punteggio più alto Vince Nel caso dovessi vincere tu Ti mandiamo un baglia Al tuo indirizzo Nel caso dovessimo vincere noi Lo mandi tu a noi D'accordo? Va bene Quanto ci vogliamo giocare? Che so Facciamo 50 euro Facciamo 50 euro Ma facciamone 100 Dai Cifra tonda 100 euro Va bene Va bene Allora tiro per te Ecco Sì La 8 Buono 8 è buono Ah ho fatto un buon punto Buono Aspetta Tiro per me Sì E per Lillo Vai 11 Aia Mannaggia Mi dispiace Augusto Hai perso Ho perso 100 euro Ce li devi spedire Come baglia A questo indirizzo Greg e Lillo Presso 610 Rai Radio 2 Via Siago 10 00195 Roma Mannaggia Ho perso 50 euro No erano 100 Agusto 100 Sì 100 euro Non ci sbagliamo Col baglia Abbiamo il torre Capito telefonico Poi ti vediamo a trovare I tempi di gioco È vero che Vanno pagati subito Se no anche aumentano Comunque questa è la vita Questo è il gioco Questo è Dati 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 Telefone Ritenta E sarei più fortunato Avevo fatto 8 E lo so E' un buon punto Ma abbiamo anche Impensierito Ciao Augusto Ciao Ciao Bene sta per partire Il collegamento Con il nostro Collegofilo Stefano Frosi Che sta andando fortissimo E devo dire che Fa parte della nostra agenzia L'agenzia 610 Noi siamo molto fieri Di avere lui in agenzia Perché è forse Il collegaro migliore Che c'è in Italia Che non trovi Greg Sì sì È un esperto in collegazione Di qualsiasi tipo Quindi per noi Si è offerto Di recarsi Nei più reconditi Paesucoli Del nostro beneamato Stivale Per trovare Quelle sagre Che interessano tanto Oggi di Noi tutti sappiamo Quanto è importante La tradizione italiana Le tradizioni di questi paesi Cioè queste feste Cosa nascondono? In realtà nascondono Un passato Un passato importante Un passato che va rivalutato Le tradizioni non bisogna perderle Quindi benvengano queste feste Benvengano queste Ma sì che ci fanno sentire Più fratelli Esatto E potete anche riccare Su www Benvengano queste feste Fanno sentire più fratelli .it Esatto Se volete saperne di più Stefano Si trova a Stentato A Trovalle di sopra In provincia di Costona E ci parlerà Di una festa molto particolare A proposito dei macellai No Stefano ci senti? Sì sì Ecco Sono Stefano Ciao Stefano Simpaticamente Simpaticamente vi saluto Saluto il nostro pubblico E i nostri Greg e Lillo Allora qui Sì Sono proprio al bel centro Al bel mezzo Di questa Grande festa Ecco Parlaci di questa festa Sì Questa nostra festa Diciamo è Viene detta La derisione dei macellai La festa della derisione dei macellai Derisione dei macellai È una festa molto altica Ovviamente risale simpaticamente intorno al 1213 E viene soprattutto riportata dal grande libro delle croniche d'epoca di Malvasio Lepore Nel 1213 appunto improvvisamente i quattro macellai del paese Andarono allegramente in pensione Tutte e quattro Quindi non c'erano più macellai Erano spariti i macellai dal paese Spariti simpaticamente i nostri macellai Per cui che era successo? Che cominciarono a fare simpaticamente il macellaio De persone facevano altri mestieri Maniscalchi Carrozzieri Cose così E quindi tutti li prendevano in giro Perché in effetti tagliavano male la carne Facevano male la carne Non erano capaci Non erano capaci E quindi adesso molto ovviamente simpaticamente e allegramente Vengono insultati proprio Ecco stanno adesso salendo E vogliamo ecco facciamo un bel applauso Perché stanno salendo sul palco adesso Tutte e quattro insieme Benissimo ecco un bel applauso Sono saliti La folla si sta facendo intorno simpaticamente minacciosa E è proprio il parroco Il parroco con il nostro parroco con i nostri chirichetti Che si avvicina Lui sarà il primo a iniziare questa Che simpaticamente possiamo definire una nenia Ecco quindi ecco scusami Se ho capito bene Questi macellai Sì Sono pronti a essere insultati Sì 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 Vengono insultati anche loro La moglie, la famiglia I parenti dietro, avanti Fanno riferimenti anche su malattie della pelle Cose brutte ma anche sgradevoli Vi faccio sentire perché sta iniziando il parroco Ecco con i simpatici nostri chirichetti Sentiamo Sentiamo Abestardi Sì Ecco Questo era il parroco Questo era il parroco Con tutti i seguaci Ma sentiamo adesso Ecco stanno iniziando gli insulti Tutto il paese Adesso è un po' così È random Cioè chi vuole può dire una cosa Potete dirlo anche voi Se volete delle cose Ma sono tanto non riconoscere Ma poi non ci sentono In effetti Ecco due macellai Sono già piegati Uno è Bocconi Uno è andato e finito Bocconi Simpaticamente Perché gli hanno parlato della madre Che lui ci aveva dei problemi Perché sta donna Poveraccia Vabbè quindi sono andati un po' sul pesante Sono andati un po' sul pesante Gli altri due Sì È rimasto uno solo E è finito È andato giù È andato giù È andato giù È fatta Simpaticamente Quindi la festa finisce Quando tutte e quattro I macellai vengono praticamente Come dire Annientati da questi insulti Annientati umiliati Schifati Certo Molto simpaticamente Bella festa Veramente Questa nostra festa Io vi saluto Simpaticamente Ma è finita la festa? Sì Un bel applauso Un bel applauso Sì Un bel applauso E un saluto a tutti chi Comodamente da casa propria Sta sentendo questa nostra trasmissione Ciao Simpaticamente Grazie Stefano 610 trailer 610 prima Quell'estate a Miami Era la più calda Che si ricordasse a memoria d'uomo Sandra ho voglia di una bibita fresca Oh anche io Troy Io vorrei andare fino al chiosco Ma bisogna camminare un po' E la sabbia è incandescente Ci sono i tandari nella sacca Hai ragione Non ci avevo pensato Ma il destino stava per giocare loro Un brutto scherzo No Che succede Troy? Sandra sono uno dei sandali nella sacca E l'altro? L'altro non c'è? No no c'è ma Ma cosa? E' fuori dalla sacca E ormai sarà bollente Quel sandalo al sole Sandalo al sole Nei cinema Greg e Lillo Radio 610 È giunto il momento di Valentina Paoletti La nostra Valentina Paoletti Ma non di Extreme Collegaments Eh no Perché veramente è un po' stanca Ce l'ha detto Insomma è un po' provata Da tutti questi viaggi Che ha fatto nel corso Di tutte queste puntate E' un anno e mezzo Che si è giro per il mondo Nei posti più strani Quindi si è presa un po' di vacanze Ed è tornata a casa È tornata a casa Infatti A casa propria Ci ha proposto questa rubrica Non l'abbiamo accettata Un po' per Stiva nei confronti di Valentina Un po' perché effettivamente È giusto che si riposi un po' Però devo dire che è molto brava A trovare personaggi famosissimi Che accettano di essere intervistati da lei Infatti questa nuova rubrica Si chiama A casa di Valentina Perché lei proprio nella sua magione Nella sua dimora A casa sua Accoglie, ospita questi personaggi Del mondo dello spettacolo Della politica Sono personaggi in signi illustri E famosi E le intervista come meglio può E in questo caso È un personaggio importantissimo Nel mondo della scienza Perché parliamo del premio Nobel Rita Levi Montalcini O Montalcini Sentiamo che c'è un collegamento Valentina Pronto, Valentina Pronto, buongiorno Ciao Buongiorno a tutti quanti Ciao Sei emozionato per questa tua prima Sono emozionatissima per questa mia nuova rubrica Ecco Anche questa nuova veste Sì Esatto Un po' più rilassata Un po' più comoda in effetti Certo Sappiamo che sei lì con Rita Levi Montalcini Sì La signora Rita Montalcini è venuta a casa mia E siamo pronti insomma per fare l'intervista Se voi siete pronti Inizierei insomma con la prima domanda Ma come l'hai accolta? Hai privato del tè? Cosa hai fatto? Il pasticcini? Eh no, perché la nonna Ieri non è riuscita a fare la spesa Per cui a casa non avevamo niente Giusto un bicchiere d'acqua Eh vabbè, meglio di niente Sentiamo pure la domanda Che vuoi fare al nostro premio Nobel Professoressa Rita Levi Montalcini Lei crede che la bontà e la cattiveria in un uomo Dipendano da fattori genetici? Sfigliamo un cane Anciché un uomo È per di un cucciolo Di cane lupo Un cane dolcissimo O un cane speroso L'uomo differisce naturalmente dal cane Però anche lui A livello di 6-9 anni Valentina 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 No, dico Sento un rumore tremendo Sì Eh sì, è il trapano di mio fratello Eh ho capito Non mi spegne perché stiamo Non si sente la voce della Montalcini Eh no, ma dice che c'ha da fare dei lavori Con il trapano e non Non fa spegnerlo Ma ho capito Ma stai lì con Rita Levi Montalcini Ma tuo fratello si ferma un attimo Scusa Eh no, scusami Io mi capito da sola Questa è pure la cameretta di mio fratello Mica posso dire io Chiedi a Montalcini di alzare la voce un po' lì Fai la seconda domanda Mi dico in radio se gentilmente può alzare un po' la voce Dunque allora le faccio un'altra domanda Sì I sentimenti nascono dal cervello L'amore, per esempio Beh sì, nasce dal cervello L'amore Sì E vabbè, ma non è possibile Comunque non si sente niente Valentina Ma di a tuo fratello Che lavoro sta facendo? Non posso ragazzi, non posso Ma che lavoro sta facendo? E che sta cambiando le tubature del bagno E in camera tua? Eh perché le tubature dal bagno Vanno sotto camera nostra Lui deve passare aprire le mattonali Altrimenti non possiamo cambiare tutti Ma col trapano le apre Poi l'ho capito E tu che vuoi capire? Col martello e il piccone Eh beh, ma sarebbe meno rumoroso almeno Ma guarda un po', ma io non lo so Vabbè, comunque grazie Valentina Non si può andare avanti così Saluteci Rita Levi-Muntalcini Ecco la salutiamo signora Rita Levi-Muntalcini Arrivederla Arrivederla, mi dispiace E a risentirla Arrivederci, ma dimmi te Ciao, sono Michelle dei Beatles E anch'io ascolto 610 Agenzia 610610 Che dir si voglia Greg e Lillo Qui come al solito Noi abbiamo questo favoloso parterre Di attrici e di attori Che noi cerchiamo di portare avanti E di piazzare In quanto appunto agenzia di spettacolo Però noi cerchiamo di coltivare Questi attori E sappiamo che a volte si presentano i problemi Magari molti di loro sono versati Molto dotati Hanno gran talento Però possono avere problemi di dizione Oppure qualche problema di pronuncia Che può essere facilmente risolto Con delle lezioni O andando da un logopedista E questo è il caso Di Attiliana Di Campo Che è qui con noi E che salutiamo E che aveva il problema Delle P Un po' esplosive Quelle che scoppia Quelle P Che possono essere Di gran disturbo Quando si recita O quando comunque si parla A un microfono È andata appunto Dal nostro logopedista E adesso è qui con noi E ha risolto il problema È vero Attiliana Ciao Ciao Assolutamente sì Ho risolto del tutto il problema E devo dire Che adesso in teatro Questa cosa non si nota quasi più Eh però io sento sempre Uno scoppiettio Ti sbagli Perché non sono più le P Che scoppiettino Però sono le Perché il problema È stato spostato Supereremo anche questo Cioè bisognerebbe spostarla Ancora un po' di più Beh forse sulla T Potremmo spostarla Ma intanto adesso è sulla T Grazie per questa testimonianza Grazie a te Sì ok grazie Ciao Ciao Grazie e basta Ciao Greg e Lillo Radio 2 610 Sempre ricercando varie radio Sempre alla ricerca di nuove radio Originali Sì Sì No intendevo No radio che trasmettono Greg Ah sì Emittenti Emittenti Nuove emittenti Alla ricerca di nuovi emittenti Abbiamo trovato Un emittente veramente particolare Tra l'altro molto utile socialmente Perché è un emittente Pensate di Spagnolo maccheronico Sì sì Ma già ne abbiamo incontrate altre Di radio maccherofone Esatto Diffusione della maccherofonia Nel mondo Nel mondo Queste radio fanno sì Che lo spagnolo Possa diventare una lingua per tutti Sì Che capiscono tutti Anche chi non ha mai studiato lo spagnolo Sì perché sembra facile apparentemente Perché uno In realtà invece è una costruzione complessa Anche lo spagnolo Perché è come l'italiano poi Lo spagnolo parlato bene È una lingua incomprensibile Invece maccheronico Lo capiscono tutti E quindi ascoltiamo Radio Le Hasta la Vista Buongiorno 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 Tiene che andare da un'especialista Buongiorno 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 Radio sole, hasta la vista, che trasmite sullo squarenta e doge della modulazione di frequencia. Ciao, sono il Chuck e anch'io ascolto 610 prima. Telefona gratis più di 100 ore al giorno con T4Tool, estate passa di Cablofon Squid. Scaricati un anno di suoneria, un euro e cinquanta esclusi per il tempo, caratura di base, incentivi extra e un anno di garanzia web dal tuo edicolante di fiducia. Greg, non ho capito bene questo spot, cosa offre? Che c'è da capire lì, è chiaro, telefona gratis più di 100 ore al giorno con questa offerta T4Tool. T4Tool, cioè? All'estate pazza di Cablofon Squid, questa nuova telefonia. Non ho capito qual è l'offerta. C'è un anno intero a scaricare suonerie, solamente un euro e cinquanta, cioè con un euro e cinquanta ti puoi stare un anno intero a scaricare suonerie. Io sto un anno intero a scaricare suonerie, secondo te? C'è un anno di garanzia web. Un anno di garanzia web, che vuol dire? Che se ti si rompe il web, oppure non riesci a cercare, cioè c'è la garanzia e ti danno i soldi. Ok, con il web. Del web, sì. Che cos'è il web? Cioè, in che senso, non so cosa il web, ma cos'è nel telefonino, non ho capito. Ma ce l'hai internet sul cellulare? No, non ce l'ho. Ma che se sta indietro, Lillo? Vabbè, andiamo avanti. Ciao. Greg Lillo, 610, Radio 2, siamo arrivati al nostro spazio di Lo Indovino. Lo Indovino, non l'Indovino, ma Lo Indovino, perché non è un articolo, ma un pronome, no? L'Indovino è il verbo. Perché? Perché che succede? Perché abbiamo qui Massimo Bagnato, il nostro artista multimediale, che propone degli indovinelli però facilitati. Sì, ringrazio Greg per questo, grazie anche a Lillo. Volevo proporre degli indovinelli facilitati perché, chiaramente, alcuni rebus, alcuni cruciverba sono sempre più difficili. Quindi si tende a penalizzare chi vuole cimentarsi in alcuni giochini, ma che magari non ha la prontezza per poter rispondere a domande magari di difficile fattura. Quindi io pensavo di facilitare gli indovinelli per rendere chiaramente più facile la risposta. È semplicissimo. Beh sì, il concetto che ho elargito. Ancora non vi diciamo qual è il premio che noi abbiamo in palio, però sentiamo subito che c'è qualche radioascoltatore che vuole beneficiare di questo indovinello facilitato. Pronto? Pronto, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Buongiorno. Grazie, dici subito chi sei. Sono Ennio Ficini da Latina. Ennio, qual è il tuo nome? Ennio. Ah, è proprio Ennio. È proprio Ennio il nome, sì sì sì. Benissimo. È proprio Ennio Ficini. Ennio, Ennio, Ennio. Bene, bene, bene. Pensa io ho un mio cugino che si chiama come te, si chiama Franco. Ah, è un nome comune, ce l'hanno in molti, sì sì. Eh sì, noi qui abbiamo Lillo, noi lo conoscerebbe benissimo. Sì sì, vabbè, certo, certo. Vabbè, l'idea è di bandire le ciance e passare immediatamente all'azione indoviniera. Così, a titolo così, di curiosità. Quanti anni hai? Sì, 35. 36? 38. 37? 39. 34? Sì, sì sì. Benissimo, bene. Allora passiamo subito all'indovinello. Sì sì. Indovinello facilitato. Sì. Sono la prima lettera dell'alfabeto. Sono una preposizione semplice. Spesso accompagnata dalla lettera H divento un'esclamazione. Finito? Che lettera sono? Sì. A. È indovinato. È indovinato? È indovinato? È indovinato. Grazie. È indovinato, Ennio. Grazie, grazie. Devo dire che non era così difficile. Però l'ultima parte poteva trarre l'inganno. L'inganno? No, no. Non mi ha tratto l'inganno. Grazie. Grazie. E al momento, vogliamo dire a Ennio cosa ha vinto? Guarda, Ennio, tu hai vinto la possibilità di spendere 100 euro di tua proprietà in qualsiasi modo. Grazie. Grazie di cuore. Grazie. Arrivederci. Ciao, Ennio. e ringraziamo Massimo Bagnato alla prossima puntata di Lo Indovino. Un'astronave aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di... Normalman! Normalman in... Il conto! Roma, ore 21 e 30. Pier Maria Carletti alias Normalman è a cena con la sua fidanzata quando assiste a una scena inquietante. Il cliente del tavolo vicino al suo non ha i soldi per pagare il conto. Non mi interessa che lei è un disoccupato, che sono giorni che lo maggia. Qui ci sono 35 euro di conto da pagare. Mi creda, stavo morendo di fame. Le prometto che appena posso, gli porto i soldi. I soldi li voglio adesso. Intanto Pier Maria ascolta tutto e decide di intervenire. Scusa cara, vado un attimo in tua lette. Eppure caro. Pier Maria si chiude nella tua letta. Il mio normal senso morale mi dice che devo pagare io il conto per quel poveraccio. Questo è un lavoro per Normalman. Pier Maria si toglie la cravatta, poi la giacca, si toglie la camicia, poi passa i pantaloni, scarpe, calze e sotto i vestiti appare già vestito da Normalman. Pira fuori allora dalla tasca interna della giacca la maschera da Normalman. La infila, sistema i vestiti in una busta di nylon che teneva nella tasca dei pantaloni e appende la busta sulla maniglia della toilette. Sbatte inavvertitamente sul portarotolo, cade il rotolo della carta igienica, lo raccoglie, strappa un pezzo di carta che ha toccato terra, lo getta nel water e riposizione il rotolo di carta igienica pulito al suo posto. Insomma, in meno di sette minuti è vestito da Normalman. La prego, mi lascia andare. Se non paga, chiama i carabinieri. Lei non chiama nessuno, penso io a lui. Oh, Normalman. In carne d'ossa. Allora, quant'è questo conto? 35 euro. Dunque, vediamo il mio Normalportafoglio. 10, 15, non ci arrivo. Ora posso chiamare i carabinieri? Non credo. O come il mio Normalbancomat, pago con questo. Allora, come non detto. Grazie, Normalman. Non mi ringrazio, sono un supereroe. Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è Normalman. Ciao, siamo gli X-Men. Anche noi ascoltiamo 610. Qualche tempo fa, noi dell'Agenzia 610 abbiamo cercato di contattare molti artisti, no Greg? Sì, abbiamo proprio contattati per coinvolgerli, insomma, gente famosa. Gente famosa, comunque. Sì, abbiamo cercato di coinvolgerli nell'allestimento di un musical. Un grande progetto, sì. Un grande progetto, un musical, prima americano, poi italiano, proponendo appunto dei ruoli, dei ruoli particolari. Sì, purtroppo molti di loro non hanno accettato, peccato, perché è stato questo il motivo per cui non si è mai fatto poi questo grande musical. Andiamo a scoprire, o a riscoprire, perché l'abbiamo già fatto scoprire una volta, quindi quali sono i motivi per cui non hanno accettato. E infatti sentiamo com'è andata con Renzo Arbore. Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Arbore, buonasera, sono Walter De Mastro, dell'Agenzia... Walter? Walter De Mastro. Ah, non ci conosciamo, no? No, no, non ci conosciamo. Dall'Agenzia 610, 610. Sì. È un'agenzia di spettacolo che fa capo alla grande casa madre 610 di New York. 610? O. 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 O, come zero. Ah, come zero, sì, ho capito. O. Ho capito, no? Scusi, perché sono in un negozio di valigie. Dica, dica. È un'agenzia che sta proponendo in America, già da due anni, con molto successo, una commedia musicale, White Bottom. Eh. E la stiamo proponendo qui in Italia, la faremo al Gran Teatro, da ottobre fino a febbraio. Sì, sì, sì. È una commedia musicale che da noi è stata ribattezzata, siccome si svolge nel periodo del boom economico, allora l'abbiamo chiamata Chiappe Chiare. Chiappe Chiare? Sì, Chiappe Chiare. Ah, come la canzone di Gabriella Ferri. E sì, infatti sarà... Tutti al mare, tutti al mare. Esattamente, sarà la sigla finale. Ah, ho capito, il finale è carino però. Fine è carino. Sì, tutti... Chiappe Chiare, una sigla, una bella sigletta. Infatti in Passarella poi, in teoria, ci si dovrebbe calare leggermente le bracche, ecco, per far vedere al pubblico... Vabbè, questo gli attori lo fanno... Sai come sono gli attori, le attrici oggi? Sì. Non c'è problema, credo. Infatti, ma anche perché... Che abbassano le bracche. Ma è anche molto buon'aria come cosa. Sì, ma lo fanno tutti, basta chiederglielo, figuri. Non vedono loro che abbassassero le bracche oggi. Gli attori, le attrici, non è più come ai tempi di Alida Valli, che ne sono. Questa commedia si svolge sul mare, quindi è rappresentata proprio l'arenile con uno specchio d'acqua. Eh. In più, coinvolgendo personaggi del mondo dello spettacolo di varia natura, dai cantanti ai giornalisti, ai fantasisti, ai presentatori, gli sceneggiatori fanno in modo che cambi come una sitcom di settimana in settimana, quindi ognuno... Ah, cambia il cast? Sì, cambia il cast. No, no, perché cambiano gli episodi della commedia. Lei poi può scegliere, appunto, di interpretare il ruolo più di una settimana, dipende dal tempo... Io? Sì. Ah, lei pensava a me come uno degli attori. Esattamente. Infatti che io sono, grazie a dire che ha prescuito perché sono già andato al mare, ma l'avrei fatto vent'anni fa, oggi non credo. Potrebbe chiederlo al mio amico carissimo Giorgio Bracardi. Lui lo fa proprio per mestiere, quello di abbassarsi i pantaloni. Lo fa come gag, ma poi gli dico gli amici, le cose eccetera. Però, secondo me, se uno lo paga e gli invita a fare una cosa a teatro, lo fa. Perché a lui gli piace mostrare il sedere. Però le volevo dire il ruolo che noi avevamo pensato per lei, che è già stato fatto da Keanu Reeves. Questo personaggio è un bagnino? Sì. Quindi, ovviamente, è corteggiato da tutte le donne, però è omosessuale. Il bagnino non lo posso fare. Non ho... Lei mi ha mai visto in questo bagno, ma non sono credibile neanche come omosessuale, perché, grazie a Dio, funziona proprio. Non lo so fare io il richiamo, come si dice. Però si redime alla fine, perché c'è questa sua amica che gli dice tutto il tempo sono meglio le femmine, sono meglio le femmine, alla fine lui esce con questa battuta finale. Dice, in effetti è vero, sono meglio le femmine e questa è la mia femmina. E lui, probabilmente, si è innamorato di una mucca. Lo so, ma uno con il bagnino omosessuale deve recitare un po', capisce? Deve recitare... Sì. Adesso non è fra il Barti, non lo so, io non lo so fare, mi vergogno. Capite? È un uomo in mare, guardi che c'è un uomo in mare. Non lo so fare io l'omosessuale, proprio è più forte di me. E allora, grazie, mi chiama casomai domani mattina. La chiamo domani mattina, d'accordo. Ecco, se lo dici un quarto, dice venti. Grazie per aver pensato a me, comunque. Ma prego, ci sembrava proprio doveroso. No, non ne parliamo, ma non le spiego perché non lo posso fare, perché effettivamente non ho più l'età. Va bene. Va bene, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie a tante cose. E per la nostra rubrica Inventopoli abbiamo un inventore che noi rappresentiamo. In quattro agenzie di spettacolo abbiamo deciso di rappresentare degli inventori, perché anche questi fanno spettacolo. In questo caso il professor Vittorio Prosdocimi ci presenterà una sua invenzione molto particolare. Ce ne vuole parlare, professore? Sì, buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Sono contento di poter avere un po' di risonanza appunto questa invenzione che fino adesso è stata tenuta nelle segrete, diciamo, di casa mia. Se non fosse per voi inventori, quante cose. Siete voi che vi spremete le meninge e poi ci semplificate la vita a noi, ovviamente, con le vostre invenzioni sempre utili, comunque. Si cerca di dare una mano a quella che vogliamo dire è l'umanità. Esatto, esatto. Allora, ci parli di questa invenzione? È questa. Ecco, è una bombola quella. Mi rendo conto che così di primo acchitto può sembrare una normale bombola da sub. È, infatti, è una bombola da sub. Da summozzatore. E invece? In grosso modo lo è, però nelle bombole da sub normalmente si mette l'ossigeno. Esatto. Qui invece si mette attraverso questa valvola del gas nervino. Il gas nervino, scusi? Il gas nervino. Per un sub. Il gas nervino è mortale. È letale il gas nervino. Eh, lo sappiamo che è letale. Basta inalarlo e in pochi secondi si muore. Eh, ma lei lo fa inalare ai sub? Non ho capito. Eh no, qui nasce la mia invenzione. Sì. La mia creatività ha fatto sì che tramite quest'altra valvola, che ha un dispositivo che non posso rivelare, perché è questa l'invenzione, il gas nervino si tramuta in ossigeno. Ah. È un tramutatore di gas nervino. Di gas nervino, sì. Che diventa ossigeno, quindi diventa respirabile. Per il sub. Ma perché? Non conviene mettere direttamente l'ossigeno, scusi? Beh, quello nelle bombole normali. Eh. Però questo appunto, nel caso uno, non so, si trovasse solo con del gas nervino, può usare quello, mettere quello e diventa ossigeno. E diventa ossigeno. Ecco. Praticamente. Ah, ecco, lo sta sperimentando. Sì, mette sulle spalle. Si sta infilando la bombola. Ecco. E questo è il boccaglio. Il boccaglio, sì. Mette così. Poi si apriva l'alvola, così. Professor Prosdocimi. Professor Prosdocimi. Guarda un po', Greg. Oh. Oh, si sveglia. È morto. È morto, Greg. Sessore. È morto, è morto, è morto. Non respira più. Aprite, aprite un po'. Portatelo via, per favore. Grazie, grazie. Grazie, sì, grazie. Non era molto riuscita come invenzione. Poi cacchio di invenzione. 610 trailer 610 prima. Anno 1100. La battaglia imperversava il nome della guerra santa. Goffredo, senti, io come faccio a ammazzare quel moro? Ma il santo è bello. È bellissimo, con quell'armatura scintillante. Io ci combatto con questo. Ma guarda qui l'altro, guarda. Quello brutto. Raimondo, guarda. Ma che brutto. Guarda che muscoli poi. Ti piace? Tutto sgaggiamo. È che ce l'ha di combatte, no? Guarda che cimiero. È che c'è proprio un bel cimiero. È vero. Le frosciate dei cinema. Greg Lillo, agenzia 610. Salve. Come ogni agenzia di spettacolo che si rispetti. Noi la rispettiamo. Noi la rispettiamo. Ciao a tutti e a rivederci. No, no, non bisogna andare avanti. Era un cappellino per presentare il nostro ospite, che poi è un nuovo acquisto, è un imitatore che abbiamo preso in agenzia, anche per, diciamolo, per interessi abbastanza personali. Per il narcisismo, perché noi... Esatto. Praticamente c'è arrivata l'email di Carmelo Sfogliano che si dice io sono specializzato ad imitare Greg Lillo. Riesci a fare perfettamente sia la mia voce, che sono Lillo, che quella di Greg. Bene, invitiamolo, facciamolo accomodare. Ciao Carmelo. Ciao Carmelo, ciao. Ciao a tutti. Ciao Carmelo. Allora, tu sei un imitatore. Chiaramente sai fare tanti personaggi, immagino, no? Beh, io faccio degli spettacoli dove imito i vari... Quelli sono la gente dello spettacolo, da Bonolis a Luca Laurenti insieme, faccio già le coppie. Sì. Allora, Franz, faccio un po' di... Tutte le coppie... Ah, ti piace fare le coppie? ...Cocchi Renato, quelle vecchie, di Keijan, Mare Pippo e Santonastasso. Bene, quindi fai anche noi, fai anche Greg Lillo. E faccio anche Greg Lillo. Senti, puoi darci un assaggio del di... Per esempio, ecco, fai la mia voce adesso, ecco. Io sto parlando in questo momento, fai Lillo. Beh, ecco, io sono Lillo, e ciao a tutti, e sono qui... Beh, è incredibile, è incredibile. Ma complimenti, è incredibile, sembravo veramente bravissimo. Grazie, grazie. Insomma, questo è quello che faccio. Beh, complimenti, ero veramente io, ero identico. Prova un po' a fare Greg. Devo dire qualcosa in particolare, o basta che faccio la voce così? È incredibile, cioè, era lui, era Carmelo. Sì, sembrava sentire me. Veramente complimenti. Grazie, grazie. Complimenti. Ed è bravo, anche perché la voce Lillo è complicata, mentre la mia, che io ho una voce veramente da idiota, non si può fare... No, aspetta, aspetta. È questo... No, questo non era Greg che parlava. Era Carmelo. Era Carmelo, sì, era Carmelo. Era Carmelo, io me ne sono accorto, io me l'ho dissata, nonostante io sia Lillo un vero imbecille, un cretino, un idiota, devo dire che... Eh no, scusate, questo è Carmelo. È Carmelo che ci sta facendo uno scherzetto, non era Lillo che diceva... Facciamo una cosa, siccome per noi non riusciremo a tenerlo a bada, Carmelo, perché siamo due idioti imbecilli, io e Lillo, che non... No, scusate, ma ora stai esagerando. Per cortesia. No, io però volevo dire, tra questo, che chiunque ascolta il programma di Greg e Lillo, cioè chiunque ascolta 610, è un imbecille. Eh no, Carmelo, qua stiamo offendendo i radioascoltatori. Questo non lo puoi dire, puoi dire che Lillo è basso, grasso e fa schifo. No, ma questo... No, ma scusa, non era Greg che lo diceva, lo voglio dire perché io e Greg non ci diremmo mai una cosa del genere. No, io sono Greg e lo dico che fa schifo Lillo e faccio schifo pure io. No, scusate, Carmelo. Smettila, guarda, smettila, guarda, scusa, anche perché io sono veramente un ciccione orrendo. E quindi... No, la smetti, ma questo... Vai via un attimo. Greg e Lillo fanno schifo, noi siamo due imbecilli. No, questo lo... No, questo... Carmelo... Dai, scusa, no, per cortesia, dai. Scusate, l'abbiamo buttato fuori perché qui veramente se l'ha creato un... Oh, finalmente siamo rimasti da soli. Oh, finalmente. E possiamo dire noi che Carmelo è veramente bravo come imitatore. No, è un imitatore eccezionale. E noi due facciamo schifo. Siamo noi che siamo due imbecilli proprio. Carmelo Sfogliano, il più grande imbitatore del mondo e Greg e Lillo sono veramente due emeriti imbecilli. Sì, sono d'accordo, io credo che sono d'accordo. Anche io Lillo sono d'accordo. Siamo qui con un astrologo. Noi stiamo cercando degli astrologi in gamba da poter vendere in quattro agenzie di spettacolo ai vari programmi televisivi, ai vari talk show e l'abbiamo trovato, secondo noi, perché questo ci pare particolarmente innovativo e interessante. Parliamo di Saturnus. Saturnus, grande Saturnus. Sì, grande Saturnus, questo astrologo che è venuto a far parte della nostra agenzia di spettacolo. Facciamolo accomodare. Ciao Saturnus. Buongiorno Saturnus. Buongiorno. Buongiorno a voi. Saturnus è un bell'ove. È bello. Sì, sì. Ricorda Saturno, gli astri. Questi satelliti, queste cose che ci stanno, gli astri, le meteore, tante cose dello spazio, di questo cosmo che non si controlla. che tu studi molto, un cosmo che tu studi in qualche modo, no? Io studio molto il cosmo e studi quasi solo il cosmo proprio per stabilire meglio quali sono le posizioni. Eh. Perché sono importanti le posizioni. Certo, certo. Sì, le cose, ci sono quelle cose, le effemeridi che sono importanti, ecco. Eh, vabbè, sì. Ma subito una curiosità, guarda, mia moglie è del cancro ed era curiosa di sapere appunto cosa capitava a questo segno in questi giorni. Insomma, facci sapere, cancro, dai. Cosa ci dice un cancro? Cangro, proliferazione incontrollata e progressiva di cellule anormali e regolari che invade tessuti adiacenti. Eh, eh, scusate. Eh, poi vado avanti, leone, grosso carnivore dei fellini tipiche delle boscaglie africane con greniera sul collo e sulle spalle del maschio. No, scusa, Saturnus, eh, non è... Vergine, interessa la vergine? Eh, il mio segno la vergine, mi interessa, però, scusa, non è questo l'orosco... Maschio o femmina che si trovi nella condizione di non aver avuto ancora rapporti sessuali Vabbè, grazie, andiamo avanti, salutiamo Saturnus, andiamo avanti. Poi c'è Belangio. Non mi interessa, andiamo avanti. Non ci interessa Belangio. No, no, non ci interessa, andiamo avanti. Greg Lillo Radio 2 610, a dopo. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 0. È ancora il momento delle lezioni di radio a 610. Sì, una delle emittenti che ospitiamo spesso in questo spazio è il radio M'Rana, 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 sì, sì. M'Rana, una radio che ha tante offerte per i suoi ascoltatori, servizi utili, musica e soprattutto cinema. Eh sì, perché Radio M'Rana ha un team di esperti che si occupa di scegliere i film e da consigliare al proprio pubblico. E fra questi esperti c'è il critico, il professor Fabrizio... Scusi? Desassi. Desassi. Fabrizio Desassi. Ecco, benvenuto, professore. Grazie, grazie. Non c'è di che. Professore, qual è il genere che il pubblico di Radio M'Rana mostra di credere di più, insomma, che ascolta di più? Beh, dubbiamente la sede della nota è quello di maggior successo, forse a causa della presenza di Ricatini e dell'abbondanza delle scene di Ropete. Delle scene di Scusi? Ropete. Ah, Ropete. Stanley Kubrick le chiamava anche Serling per l'assenza di Mare di Sonidi e la prepotenza del Piste. Del Piste. Sì. Senta, professor... Professor... Desassi. Desassi. Vogliamo ascoltare uno dei trailer di questo genere? E perché no? Penso che la Marchesa dell'Onto Madana ti ha un bel esempio di serie della nota. Sì, come si intitola la Marchesa? Dell'Onto Madana. Dell'Onto Madana. Vabbè, ascoltiamolo. Una storia d'altri tempi quando il Tove faceva rima con spada. Rifo, scendi allora se hai il coraggio. Sconnati e dirispa con la lama che grida benetto. Una storia d'amore e di malenta. Marchesina, voi mi avete intato e voi ora mi dovete impare. Cavaliere, io non posso ulviare a voi ciò che il cor mio ripolta in nave. Ma voi non mi assiopate. Marchesina, io, io vi appeto. La Marchesa dell'Onto Madana Necinico. Beh, che dire, professor... Desastante. Desastante. Non so ricordo mai. Cioè, mi sembra che al di là della difficoltà di comprensione... Beh, non mi sembra affatto. Trovo invece che sia molto semplice capire la tempitela. E anche per notare del film. Ah, ah, in quel senso, certo, sì. Comunque, si sente la presenza delle scene di Ropete? Che cosa? Scene di Ropete. Non capisco. Forse si riesce alla specificità correndo. Ah, esattamente, infatti è quello. Bene, ringraziamo il critico di Radio Norelana, professor Fabrizio... Desastante. Lo scrivo, è desastante. È desastante. No, ma anche se me lo scrivo ho difficoltà proprio a pronunciarlo. Comunque è desastante. No, è desastante. Pazza per l'estate? No, estate per la pazza con le mega offerte a IVA alternata di Extra Summer Beep. L'estate pazza di Cablofon Squid. Scaricati gratis e senza interessi. Mille megabyte di segnali acustici personalizzati per il tuo viva voce e un'ora al minuto di telefonia senza incentivi alla consegna. È ora di pizza. Cablofon Squid, pronto? Questo è il ballo dell'estate. Greg? Sì, dimmi. Posso dirti un po' di così anche di... Un po' di vergogno però vorrei dirti che non ho capito una mazza di quello che offre questo spot. Questo promo? Sì. E come? Cioè sono mega offerte a IVA alternata di Extra Summer Beep. Cioè? Cioè Cablofon Squid è questa nuova... Eh vabbè, quello sì. Cioè a IVA alternata te puoi pagare l'IVA cioè la paghi alternatamente cioè alternativamente... A che? No alternativamente cioè alternatamente paghi in maniera alterna l'IVA. Non lo so poi non me ne intendo di IVA però la cosa fantastica è invece l'offerta cioè senza interessi c'hai mille megabatti di segnali acustici personalizzati. Che c'ho? Cioè tu hai la segrella telefonica dopo il segnale acustico e in genere fa una così invece c'hai mille differenti mille differenti Andiamo avanti Scusa Poi per il tuo viva voce c'hai il viva... No, è proprio in senso proprio... Stai indietro Che sto io? Stai indietro Andiamo avanti 610 610 Gli errori di 610 Che c'è da ridere? Agenzia 610 Ritmata, vai! Agenzia 610 610 610 Greg e Lillo sono qui ai microfoni per farvi... Scoprire, scoprire, scoprire... No vabbè dai è finta cioè deve essere veloce però pure un po' un po' di lì Ma ho capito Ma no, invece secondo me no perché comunque deve dare un po' un'idea anche di queste cose un po' all'americana Ma che americana? È naturale però con i tempi Ma ho capito ma è finta quella comunque che stiamo facendo non è che stiamo facendo l'agenzia vera L'ho capito finta o non finta però non è naturale secondo me scusa Cioè è troppo finto Ma che significa che è finto? È finto stiamo facendo una cosa finta è finta Ma a me ma scusa vabbè allora senti non sono d'accordo ok scusa siamo un due a condurre se permetti allora farla in un certo modo perché io non riesco ad attaccarmi a quel modo Ma io la faccio a modo mio E in modo due è finta E non me ne frega un c***o Allora la fai te Ma io la faccio io la devi fare te la fai te che c'entra Ma se la faccio io la fai No guarda Deficiente Te non l'hai capito dall'inizio Sei un deficiente scusa te lo dico Deficiente sei te sai te che non l'hai capita questa qui Ancora Da l'inizio la capito Sai te che non l'hai capita La cosa A chi A chi Greg Lillo 610 Ma non lo dire in inglese Hai riuscito Ma che 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 qua Dai Che qua Che qua Dai Un'astronave aliena a terra su un orto lasciando tracce di texilonio un carburante appunto alieno L'orto è di Pier Maria Carletti un uomo cento volte più debole stupido ed inetto di un uomo normale Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe queste sono le origini di Normalman Normalman in La Metropolitana Roma tuoi mie 10 euro senza darmi il biglietto e si vede che è rotta ed ora io come faccio faccio ricorso che vuole da me mi faccio almeno passare per prendere la metro senza biglietto non posso vado all'edicola è vicina saranno 200 metri ma io sono vecchia non posso camminare così tanto allora fa l'autostop intanto Pier Maria Carletti alias Normalman è a pochi metri e ha sentito tutto il mio normal dito mi dice che questa vecchina ha un problema questo è un lavoro per Normalman Pier Maria si difugge nella toaletta della metro si cambia e in meno di 10 minuti si trasforma in Normalman mi scusi ma devo retirare gli esami in ospedale molto importante mi faccia passare senza biglietto ma che è sceva la posso aiutare io signora oh Normalman Normalman estrarai dal suo normal portafoglio un carnet di biglietti ecco prenda uno di questi ma io non posso pagarlo avevo solo 10 euro con me non si preoccupi se mai ci rincontreremo mi paga un caffè grazie grazie Normalman non mi ringrazio addio lì dove c'è un problema di tutti i giorni lì dove necessita un piccolo aiuto lì c'è Normalman eccoci Gregorillo 610 Radio 2 è bello giocare è bello giocare con i radioascoltatori perché a parte che insomma oggi insomma anche nei programmi televisivi i giochi vanno vanno per la maggiore però c'è gioco e gioco i soliti giochi sono più entusiasmanti e altri meno e altri meno noi cerchiamo qui così nel nostro piccolo di farvi partecipare a dei giochi divertenti di scervellarci a trovare e scervellandosi scervellandosi ne abbiamo avuto fuori uno che fa veramente scervellare ed è la roulette russa allora la conoscete la conoscete la conoscete avete visto nel film il cacciatore il cacciatore da De Niro il gioco è facile infatti adesso noi aspettiamo che ci chiami qualcuno perché ci deve chiamare solamente chi è in possesso di una pistola quindi del porto d'armi insomma ovviamente perché serve una pistola è l'oggetto che sei se no non si può giocare una pistola è una pallottola una sola una sola perché si mette nel tamburo poi si fa girare e poi si punta la tempia e perde chi becca il colpo chi becca giusto esatto esatto sentiamo chi c'è in linea pronto pronto ciao chi sei sono Alberto da Giussano hai una pistola Alberto eh certo ho chiamato apposta ecco perfetto è bella Giussano eh è molto molto bella molto ridente sì bene allora Alberto bene allora tu hai una pistola e hai spero anche un proiettile certamente tu conosci il gioco della roulette russa sì 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 ho visto il cacciatore che conosco allora adesso infila il proiettile nel tamburo se non l'hai già fatto ecco lo sto facendo ecco perfetto è un gioco carico di suspense io già adesso mi sento un po' adesso ho chiuso il tamburo ecco adesso lo sto facendo girare allora adesso il mio problema è che noi siamo lontani per cui cioè noi quindi abbiamo fatto abbiamo preso una licenza poetica sì ci sorseggiamo che è il primo turno sì e poi quando tocca a te te la punti alla tempia quando sarebbe il turno nostro lo puoi puntare alla radio d'accordo la radio che è in casa quindi quando colpisci la radio quindi vuol dire che abbiamo perso non va bene? benissimo benissimo bene allora dai ho testa e croce e che scegli testa o croce? testa testa e testa infatti allora inizi te inizi te vai allora faccio girare sì ecco la punti alla tempia vai spara ok buono eh buono e quindi hai fatto un hai fatto hai cliccato hai cliccato ora tocca a noi ci sono cinque spara la radio e anche a noi è andata bene è andata bene anche a noi ne mancano quattro vai vai per te adesso ha perso Alberto e va bene Alberto è andata così il gioco è questo bisogna accettare anche di perdere andiamo avanti 610 Greg e Lillo ciao salve a tutti agenzia 610 e Greg e Lillo Lillo e Greg che ti si voglia siamo ancora qui ai microfoni di Radio 2 e per controllarlo potete sempre cliccare su www è vero che Greg e Lillo sono ancora lì punto it e siamo per la nostra rubrica dei collegamenti le colleganze le colleganze con il nostro collegofilo Stefano Frosi che appartiene alla nostra agenzia e ne siamo fieri perché è veramente un bravo collegaro lui per noi sta facendo dei collegamenti dalle varie feste di piazza di tutta Italia dalle varie sagre perché l'Italia è un paese ricco di tradizioni quindi ricco di sagre e di feste sì e allora infatti per parlarci di questa sagra che è la sagra di Grotta a Mare la sagra di Grotta a Mare lui si trova in questo momento a Traviate sulla Ida in provincia di Tosca com'è questa festa di Grotta a Mare? Stefano ci sei? eccomi qua simpaticamente ciao ciao parlaci di questa festa di Grotta a Mare allora qui guardate fare subito un applauso a questa festa un applauso un applauso ok è giusto comodamente nel nostro studio fate questo bel applauso sì potrete farlo anche normale come applauso comunque ma diciamo che in questo momento il collegometro è impazzito perché qui ragazzi questa è una festa straordinaria che affonda le radici nel passato da almeno cinque secoli fa infatti si parla del 1213 come data e viene riportato anche dal grande libro delle croniche d'epoca di Malvasio Lepore simpaticamente ed è una festa molto fisica sì è molto fisica perché praticamente questo paesino questo sparuto paesino però a meno più a meno che sparuto però è collinare come paesotto è collinare allora qual è la tradizione di questi dei loro grandi padri che erano personaggi diciamo un po' così semplici e quindi siccome loro avevano una grotta su questa collina che gli impediva il parcheggio delle carrozze insomma una cosa i cavazzi avevano dove mettere i cavalli le cose anche il panorama volendo il panorama poi ci andavano le coppiette le cose si infilavano le cose i topi allora dice che ce famo con sta grotta che ce famo con sta grotta perché all'inizio si chiamava la festa che ce famo con sta grotta e hanno pensato perché non la portiamo a mare da lì grotta a mare infatti adesso tutto il paese praticamente è dietro sta collina e sta spingendo come fanno da cinque secoli e stanno cercando di spingere sta grotta ce n'è uno solo il Pampurio è un signore il quale nella grotta ha delle damigiane di vino quindi lui non è d'accordo ed è l'unico che è contro contro questa tradizione è grosso però sto Pampurio non è il ragazzetto ma sta lì che lui spinge infatti apparentemente sembra che vincano a lui perché in cinque secoli con sta grotta gli hanno fatto due o tre centimetri simpaticamente non è che hanno fatto di più mentre voglio dire il nostro pubblico invece con una semplice telefonata potrebbe anche informarsi su questa festa di grotta a mare giusto? sì sì oppure cliccando infatti adesso sentite oizza sentite oizza qualcuno dice anche pigia pigia come pigiare pigia altri spigni spigni perché ci sono alcuni pure di Roma che vivono qua e quindi però in questi secoli sono riusciti a spingere per due centimetri verso il mare sì due o tre centimetri verso il mare questa è la cosa sì sembra che sia la riuscita a fare di sposa via pure Venezia si sposa quindi in qualche modo si prevede che riusciranno a mettere questa grotta in mare nel 3.100 3.100 se pensate che io in una settimana ho fatto 5.000 km e voi che vuol dire però insomma questa è una bella festa poi gli viene fame e vanno tutti a mangiare bene quindi c'è una specie di grotta e vinci grotta e vinci in qualche senso qualcuno ma in questo caso grotta e perdi perché non gliene la fanno a buttarla giù perché poi ci vanno le coppiette ci vanno poi c'è la muffa i topi i baccarotti però non ci sono più le carrozze però gli altri problemi sono rimasti ed è una festa divertente è una festa molto amena divertente simpaticamente amena va bene grazie a Stefano Frosi spero a presto vi saluto normale o simpaticamente simpaticamente un bel applauso a questo saluto ciao e potete cliccare anche voi su www.unbellapplauso.it ciao 610 trailer 610 prima la storia di Totti un calciatore che è già un mito e c'è Totti dai Totti faccio un autografo sei grande Totti ciao ragazzi sono contento che a voi vi piace ma Mary un'avventuriera americana in cerca di emozioni forti stava per oscurare la sua ascesa mi piaci da morire Mary anche tu Totti e allora facciamo l'amore non posso domani ho la finale di coppia dei campioni devo essere in forma allora non ti piaccio? no no mi piaci vi è qua che mo te faccio vede il giorno dopo Totti non ne azzecca una ecco Totti sono una macchia portiera e tiro fuori niente da fare Totti oggi è veramente un disastro ma Totti ha deciso vuole solo Mary riuscirà Totti a tornare il campione di sempre Totti pazzo per Mary dei cinema siamo giù al momento di Valentina Paoletti la nostra collegofila colleghiala insomma collega ex però ex collegofila ex collegofila ancora dottora collega però adesso si dedica a attività più ponderate più intellettuali più riposanti infatti ci ricordiamo che lei per tanto tempo ha fatto dei collegamenti estremi proprio per Siano Zero collegamenti insomma molto pericolosi lei è un po' stanca adesso giustamente si vuole riposare ha inventato questa rubrica che si chiama a casa di Valentina cioè lei invita personaggi famosissimi nella propria dimora nella propria cameretta sì nella cameretta perché poi come abbiamo avuto già modo di capire le puntate scorse lei ha una casa molto piccola a 60 metri quadri dove c'è una stanza dove lei è il fratello e c'è un soggiornino dove la madre dorme con la cucina insomma una casa molto piccola in periferia però pare sia ospitale perché molti personaggi famosi del mondo della cultura dello spettacolo dello sport vanno da lei per essere intervistati chiunque chiama va a correre immediatamente tant'è che oggi ha ospite un famoso giornalista famosissimo forse il numero uno Enzo Biaggi oggi Enzo Biaggi a casa di Valentina Paoletti ma sentiamo Valentina Valentina sei in collegamento pronto pronto buongiorno Lillo buongiorno Greg ciao Valentina allora Enzo Biaggi è lì con te sì 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 il signor Enzo è venuto qui da me un saluto a Enzo Biaggi un saluto da Greg e Lillo anche lui vi risaluta calorosamente che cosa gli ha effetto Enzo Biaggi niente voleva un bicchiere di Coca-Cola sono andato in frigo c'era la Coca-Cola lì c'era giusto proprio per un bicchiere però mio fratello ne aveva voglia per cui l'ho dato a lui lui ha offerto un bicchiere d'acqua un bicchiere d'acqua Enzo Biaggi va bene non c'è niente di meglio che un buon bicchiere d'acqua tipo baudo un professionista va bene a questo punto sì siamo qui nella mia cameretta pronti a iniziare questa intervista allora vai vai bene dottor Enzo Biaggi lei è stato un padre piuttosto rigido com'è con i suoi nipoti? per i bambini il padre e la madre il nonno può prendere un certo distacco io poi penso che i bambini vanno riuscire ce l'avamo sentito un'ora prima Valentina? sì scusa ma questo chiacchiericcio sotto si potrebbe evitare chi è? avete ragione è mio fratello che sta criticando con la sua fidanzata non puoi fare l'intervista con lo sotto pepepe ho capito ma questa è pure cameretta sua non è che io adesso lo posso cacciare ma non è dico di cacciare almeno che non puoi interrompere la telefonata e rifarla dopo l'intervista ma assolutamente no scusami il signor Enzo ha da fare altre cose poi dopo deve andare via apposta no fai interrompere tuo fratello no ma che qui sono fatti su mica posso interrompere mio fratello vabbè andiamo avanti così vediamo se si riesce a capire qualcosa ok fai un'altra domanda vai sì dottor Enzo Biaggi lei lavora quando le va o serva degli orari precisi io comincio la mattina alle 9 e mezza ma guarda è una cosa allucinante no non esiste non ci sono scuse che tengono vabbè Valentina ma scusa andassi a litigare in cucina al bagno ma non ho capito ma ti chiede che ha fatto la ragazza non lo so sono fatti personali di loro due io non mi voglio intrompere non mi voglio impicciare no vabbè a questo punto salutiamo ma guarda un po' dai noi ci abbiamo tolto noi guarda va bene comunque salute c'è Enzo Biaggi Valentina va bene ciao 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 io non ho capito fallo offesa andiamo avanti io non capisco questo Greg Lillo Radio 610 anche oggi parliamo di teatro con un'attrice straordinaria che veniva a trovarci parliamo di Nicoletta Andreoni ciao Nicoletta ciao Nicoletta benvenuta ciao Greg Lillo ciao Nicoletta vi ho portato un piccolo presente uno scatolone enorme c'è un busto di Geffo Geffo chi è? no Geffo Geffo ah di Geffo di Geffo io ho detto Geffo c'è un busto di Geffo aspetta che il suo Greg lo oh che bello attento è il busto di Orphan Wealth ah di Orphan Wealth ah Orphan Wealth se lo vediamo perché ha fatto molta radio anche lui grazie sì sì poggilo lì Greg poggilo lì sì attento stai attento ecco lo mettiamo qua sopra ecco lo lasciamo qui sì vinto allora Nicoletta tu sei al Tearo delle Ninfe con una bella opera la cantatrice calva di Kafka di Ionesco come di Ionesco Kafka no che Kafka che Ionesco di Ionesco Kafka di Ionesco Kafka di Ionesco è cascato Greg Lillo Radio 2 610 sempre per gemellarci con le altre radio per ascoltarle per renderci conto cosa trasmettono gli altri network anche per svoltare un po' di trasmissione non ci impegniamo sentiamo anzi andiamole proprio per parecchio tempo uniamo l'utile al direttivo effettivamente andiamo a una bella mezzoretta di qualche radio forse mezzoretta è troppo però già svoltare 5-6 minuti non è cosa da poco ci colleghiamo proprio così al momento in tempo reale con una nuova radio che abbiamo scoperto che si chiama radio radio Amnesty International Amnesty 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 International Amnesty International Amnesty International vabbè sentiamo e questo era l'oroscopo di radio di radio Amnesty Amnesty International Amnesty International si era l'oroscopo e quindi radio Amnesty International che trasmette sui vabbè passiamo passiamo alla prossima rubrica che è l'oroscopo 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 di radio Amnesty radio Amnesty International l'oroscopo l'abbiamo già fatto l'oroscopo non è quello che vi o no non abbiamo fatto l'oroscopo allora facciamolo che? che cosa? facciamolo cosa? non ho capito hai detto facciamolo io ho detto facciamolo hai detto facciamolo cosa? vabbè non importa comunque andiamo avanti con l'oroscopo andiamo avanti con l'oroscopo con l'oroscopo no abbiamo già fatto l'oroscopo l'abbiamo fatto? fare di sì l'oroscopo sì vabbè facciamo una cosa mettiamo un un cosa che vuoi dire? quello che le cose che mettiamo ogni tanto che cos'è? quello che mettiamo un disco un disco grazie grazie alla regia grazie un disco allora mettiamolo che? che? cosa? che cos'è? come che cos'è? hai detto mettiamolo mettiamolo che? e che mi so lo sei tu? ciao sono Marta in The Vandellas e anch'io ascolto 610 trova la tua estate con Megaghost Online direttamente sul tuo computer tutti i comfort di una spiaggia virtuale al costo di una chat sdraio lettini beachvolley ombrelloni e secchielli con editor servizi senza segreteria in infoline a un euro più web scarica di l'adware con il bollettino bagnanti dal 1980 al 2010 165 ore di bagno interattivi in acqua salata o dolce scegli tu con un clic su www.mareollago.com e dopo sole te lo paga Megaghost Online questo è il ballo dell'estate a ballo di occhia Greg e Lillo i microfoni di Radio 2 610 siamo qui con Massimo Bagnato il nostro artista multimediale un artista rappresentato dalla nostra agenzia La Grande perché se non ando fortissimo tutti lo richiedono ed è qui con noi per oggi in veste di poeta vero Massimo? Sì, grazie Lillo grazie Greg ma io non ho ancora detto nulla così mi porto avanti ti hai ringraziato sulla fiducia però di qualcosa che bei capelli che hai Massimo grazie adesso grazie ci sta tutto giustificato sì, oggi sono in veste di poeta porto una poesia comunque posso aprire una parentesi? ero qui sotto negli studi ho visto una persona uguale identica a quello che faceva i film con Fellini Marcello Marcello faceva i film con Fellini Marcello Vittorio Gasma sì bene sentiamo allora la poesia questa poesia si chiama Torino Torino questa è una poesia dedicata alla città di Torino quindi parla come città sì, io volevo specificare questo che stiamo dicendo in questo momento non è il preambolo è proprio la poesia è partita la poesia anche con il tuo intervento questa è la poesia proprio all'interno della scrittura della poesia questa è la poesia Torino cioè parla di Torino ah, cioè è iniziata sì, sì questo è già il testo pensano che sia una cosa da leggere o improvvisare no, è proprio il testo è scritto ed è così questa è già la poesia io la sto interpretando in questo momento il testo è proprio questo è la poesia Torino dedicata a Torino questa è la poesia Torino e finisce così ecco però scusami Massimo però probabilmente qualche radioascoltatore si è perso il passaggio iniziale quindi potrebbe non averlo capito ti dispiacerebbe ripetere la poesia da capo? no, per carità Massimo Bagnato in Torino questa è una poesia dedicata alla città di Torino ah, Torino come città proprio sì io volevo specificare questo che stiamo dicendo in questo momento non è il preambolo è proprio la poesia è partita la poesia anche con il tuo intervento cioè questa è la poesia proprio all'interno della scrittura della poesia questa è la poesia Torino cioè parla di Torino ah, cioè iniziata sì, sì questo è già il testo pensano che sia una cosa da leggere o improvvisare no, è proprio il testo è scritto ed è così questa è già la poesia io la sto interpretando in questo momento il testo è proprio questo è la poesia Torino dedicata a Torino questa è la poesia Torino e finisce così grazie grazie a Massimo Bagnato grazie andiamo avanti Greg e Lillo ora di 2, 6, 1, 0 un'astronave aliena a terra su un orto lasciando tracce di texilonio un carburante appunto alieno l'orto è di Pier Maria Carletti un uomo cento volte più debole stupido ed inetto di un uomo normale Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe queste sono le origini di Normalman Normalman in il cane Roma stazione centrale un uomo entra in un bar con il suo cane buongiorno posso avere un tè caldo fuori si gela certo ma deve lasciare pure il cane non vede il cartello vi è dato l'accesso ai cani la prego non saprei dove legarlo mi dia un tè il tempo devi scaldarmi un po' e poi usciamo niente da fare intanto Pier Maria Carletti alias Normalman è nel bar che sorseggia un caffè e assiste alla scena e pensa tra sé e sé il mio normal intuito mi dice che il barman non vuole far entrare l'uomo con il cane questo è un lavoro per Normalman Pier Maria vola nella toaletta e in meno di 12 minuti si cambia e diventa Normalman ehi barista dov'è l'uomo con il cane? è qui fuori al freddo e al gelo immagino le regole sono regole con il cane non si entra non ti do un pugno perché con la mia normal forza potrei farti un livido lei non può farmi niente la legge è dalla mia parte intanto Normalman esce fuori a cercare l'uomo con il cane ehi lei entri pure a scaldarsi un po' il cane glielo guardo io ma tu tu sei Normalman in carne ed ossa ecco giusto 5 minuti e torno a prenderlo faccia con comodo mentre l'uomo sorseggia il suo tè Normalman cerca di tenere al guinzaglio il cane che vuole entrare nel bar per raggiungere il padrone buono stai buono accidenti come tira ma con la mia normal forza dovrei tenerlo quando l'uomo riesce il cane gli fa le peste felice grazie Normalman ora sto meglio non mi ringrazio addio lì dove c'è un problema di tutti i giorni lì dove necessita un piccolo aiuto lì c'è Normalman pronto signore Emilio buonasera chi è? mi chiamo Walter De Mastro sono dell'agenzia 610 sì e mi scusi le farò perdere poco tempo le dico no mi dica più brevemente siamo un'agenzia che da poco che è in Italia però fa capo all'agenzia 610 che è un'agenzia di New York sì allestiamo spettacoli teatrali ah ci piacerebbe sapere una sua disponibilità per uno spettacolo teatrale sì è una commedia musicale che è in scena a New York da quasi due anni e si chiama White Bottom che si svolge in una spiaggia completamente ricostruita a teatro ah sì perché è una storia estiva e si sorge sulla spiaggia e quindi c'è anche l'annesso a porzione di mare ah la cosa innovativa che sta andando veramente bene a New York è che è a rotazione come fosse una soffopera ah quindi questo permette anche di avere degli attori perché in America è stata fatta con attori con cantanti con presentatori con opinionisti avere anche la disponibilità solamente di un breve periodo che può essere uno o due mesi dopodiché c'è una rotazione ah come fossero delle puntate che vanno avanti di mese in mese e qui in Italia e qui in Italia è stato chiamato chiappe chiare proprio per ricordare un momento storico degli anni sessanta in Italia ah sì sì in America è stato fatto già da personaggi come John Collins Keanu Reeves Mariah Carey Herbie Keitel come presentatori Dob Columbus come opinionista c'era Sandor Michael ma questo quando per questa stagione? da settembre prossimo settembre ottobre noi abbiamo pensato a lei siccome la sua parte in America l'ha fatta John Collins ah sì in questa spiaggia perché ovviamente è una commedia musicale ma è anche umoristica a terra a un certo punto un'astronave aliena che in avaria si scopre che questa astronave come carburante usa la sabbia e quindi ogni notte questa astronave di alieni lei dovrebbe interpretare la figura del capo degli extraterrestri cominciano a spalare questa sabbia e la portano dentro l'astronave e ogni mattina ci sono questi bagnanti che si trovano sempre con meno spiaggia e non se lo spiegano che è bene perché a un certo punto la scoprono e come punizione la mettono insabbiata fino alla testa con la testa fuori ovviamente e praticamente la seconda parte dello spettacolo lei recita che è molto divertente solamente con la testa fuori dalla sabbia ah carino molto sì senta io adesso sto uscendo sì quindi non so dirle magari non so ci possiamo risentire domani se crede ma molto volentieri o dopo domani e poi veniamo un incontro molto volentieri senza altro ok tanto la ringrazio grazie a lei della disponibilità arrivederci arrivederci pronto pronto buongiorno signora Milo chi è? sono Walter De Mastro ci siamo sentiti si ricorda dell'agenzia 610 ah sì 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 buongiorno buongiorno si ricorda abbiamo mi aveva detto di richiamarla è vero sì no le novità dal nostro punto di vista sono anche interessanti sono queste che c'è un personaggio che in america è stato interpretato da una giornalista che si chiama Costella Johnson è una boa vivente vivente e pensante è praticamente ma capica la boa sì 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 dice i suoi pensieri sulla vita il fatto che si senta da sola benché si trovi nel mare che quindi c'è il senso di libertà però si sente va bene comunque ho questo o l'altro personaggio poi sì è una cosa ma lei nuota? io no 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 perché si tratta di nuotare no non si tratta di nuotare però si tratta di stare a galla col viso fuori dall'acqua però eh vabbè ma che capirà saranno 30 centimetri d'acqua immagina perché non è che vi potete portare una piscina vera e propria in tutti i teatri però comunque sono due metri abbondanti ah ah capito no no allora la boa no d'accordo senta magari può chiamare il mio agente sì anche eh di sicuro dovremmo chiamarlo grazie grazie a lei buona giornata buongiorno Greg Lillo 610 Radio 2 eccoci arrivati alla nuova rubrica che vi plaggia o no è una rubrica che parla di plagi insomma noi ci sono tanti cantanti un po' anche per carenza di idee effettivamente più che altro per cui non solo ma anche per faticare meno eh per faticare esatto la sicurezza di un sicuro successo perché ci si basa appunto su una canzone o comunque su un'opera è riuscita già scritta certo quindi uno ha la via spianata per quindi si plaggia molto ultimamente noi qua abbiamo deciso di invitare vari cantanti accusati di plagio per cercare di scolparli o perlomeno per capire se veramente hanno copiato è plaggeria o meno è plaggeria o meno qui abbiamo Attilio Corvini Attilio Corvini ecco si accomodi ecco buongiorno 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 allora Attilio Corvini ecco lei è un cantautore stai iniziando adesso comunque no sono alcuni anni che no no quello sappiamo il suo disco è uscito proprio in questi giorni il suo primo disco insomma ecco quello si ecco si è uscito proprio all'inizio di questo mese di questo mese perfetto allora lei è stato accusato di aver copiato spudratamente Piazza Grande di Lucio Dalla sono delle male lingue che si insinuano nel in questo mondo proprio per sgominare una probabile concorrenza ah ho capito ecco invece la sua canzone di cosa parla? la mia canzone parla di un uomo che ha dei problemi ha dei problemi di salute ah di salute dei problemi si legati appunto alle coronarie a legati ah quindi è completamente diverso quindi si vede costretto a cambiare stile di vita a un regime alimentare ah ho capito invece appunto niente a che vedere con Piazza Grande che è un infatti Piazza Grande invece è una così una canzone su Bologna grosso modo insomma credo non so non è che io la conosca bene so che è una canzone italiana però di Lucio Dalla si si Piazza Grande si vabbè comunque sentiamola sua adesso di Lucio Dalla si si di Lucio Dalla e mi giunge nuovo io mi basso su altre cose su problemi appunto del sociale della salute esatto ah ci facciamo ascoltare la tua canzone che si intitola Per via del cuore ah per via del cuore va bene ascoltiamola per via del cuore non posso prendere il caffè bevo il mio orzo in tazza grande no scusi no no mi scusi no mi scusi no ma questa è Piazza Grande identica a Piazza Grande no l'ho pronunciato male è tazza grande no ho capito che è tazza grande l'orzo però è identica scusi vabbè senta tagliamo corto ha per caso qualche altra canzone da faccia ascoltare del suo album beh c'è quella che una volta veniva definita la facciata B ah ecco del singolo perché comunque è un altro brano diciamo di punta di punta come si intitola si intitola il molo il molo e di cosa parla la canzone di un uomo che appunto è stanco di vivere in una società così con la vita frenetica allora si ritira in questa sua isoletta però è che nella sua fantasia un'isoletta dove c'è questo molo dove lui la sera sta tranquillo ho capito ho capito ascoltiamolo allora al molo mio avrei bisogno di carezza anch'io se tesca fuori se ne vada se ne vada questa è sempre piazza grande guardi esca fuori ma che maledicenza se ne vada copione 610 trailer 610 prima nel mondo del cinema è abbastanza guarda gillo questa è la volta buona ne sono convinto non sempre la genialità va d'accordo con la saggizia non essere affrettato cerca di ragionare animar è la settima volta il settimo matrimonio no sono convinto voglio dire il settimo sì gillo il settimo sigillo nei cinema e c'è tutto Grazie. Grazie a tutti. Abbiamo preso in agenzia un imitatore che è entrato a far parte della nostra scuderia. Lui imita le coppie. E imita le coppie. Coppie famose o poco famose comunque. Sì, comunque è specializzato nelle coppie, riesce a fare tutte e due, fa Staglio e Olio e fa tutte e due, fa Gianni e Pinotto e riesce a fare tutte e due, fa Cogli e Renato e fa tutte e due, Franco e Ciccio e fa anche Greg e Lillo. E devo dire, è il suo pezzo forte e questo ci ha convinto a prendere in agenzia. Un po' ci fa, ci dà il lustro e ci onora questo. Perché pare che chiuda il suo spettacolo proprio con l'imitazione di Greg e Lillo. Facciamo ad entrare, eccolo, Carmelo Sfogliano. Eccolo qui. Eccoci di nuovo qui. Eccoci qui. A fare le coppie. A fare le coppie. Il gioco delle coppie. Il gioco delle coppie. Tu sei un imitatore particolare, originale, perché molti imitano i soliti personaggi, il solito Celentano, il solito Banfi, Benigni. Mentre invece tu fai le coppie e fai me e Greg, che devo dire che forse non siamo poi tutta questa notovità. Non è che stiamo così imitati. Non è vero, non è vero. Io non so assolutamente imitare né Greg né Lillo. E questo era lui, pensate, che ha fatto la voce di Greg, eccezionale. Adesso un po' di una cosa che dico io, che non so, fa la voce di Lillo, dai. Dai, fa la voce di Lillo, dai. Ecco, era lui che ha ripetuto fai la voce di Lillo, dai. L'ha fatto uguale a me. Sì, l'ho fatto uguale a te. Vedi? È incredibile. Guarda, veramente complimenti. Ma com'è possibile? Come riesce a fare la voce di Lillo? A me farebbe schifo fare la voce di Lillo perché è un idiota. No, questo sembrava Greg, ma non era Greg. No, no, era lui che ci sta un po' prendendo in giro, assolutamente. No, io non direi mai che Lillo mi idiota perché sono io veramente un depravato, un debosciato, schifoso e lurido. Eh, no, questo era Carmela, sai. È sempre Carmela. Per radio, per radio ascoltatori fanno confusione, dai, perché non si vede. Anche perché, voglio dire, adesso non si vede, è un po' un gioco sporco questo perché non vedendoci... Non si sa mai se chi parla sei tu o noi, quindi non devi dire cose sconce. Al massimo posso dire quello che faccio abitualmente, cioè che faccio la cacca in mezzo alla strada davanti a tutti. Carmelo, 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 dai, non è Lillo, questa è la Carmelo. Questa è la Carmelo, sì. Dai, i radio ascoltatori fanno confusione e poi i radio ascoltatori ne fanno tanto anche perché sono dei mentecati quelli che ci ascoltano. Ma, no, no, offendere i radio ascoltatori no, fino a che scherzi con noi va bene, però gli ascoltatori no. Cioè, fino a che scherzi con me o con Greg, che è un emerito imbecille, che io più che scherzarci lo prenderei a calci, per quanto è incompetente. Vabbè, dai, ora dai. Basta, veramente, smettiamola qui. Allora, adesso, parliamo un po' di te. Ecco, i prossimi spettacoli che farai quali saranno? Saranno sicuramente dei spettacoli degni di essere chiamati spettacoli, non come quelli che facciamo io e Greg dal vivo, che sono delle cose orribili, dove la gente butta i soldi del biglietto. Eh, no, ma non puoi dire questo con la voce mia, altrimenti, eh, no, che poi hai ragione, effettivamente hai ragione, i miei spettacoli, i nostri spettacoli sono orrendi, no, Greg? Questo è vero che fanno schifo. No, la vuoi smettere? Ma sì, è vero, no, 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 ha ragione, ha ragione che fanno schifo. Ha ragione cosa? Che fanno schifo che? I nostri spettacoli. Sì, ma certo. Adesso basta, per favore, Carmelo. Vabbè, dai, se facevano scherzo. Vabbè, scherzo. Vabbè, dai, che sei fermaloso. E non è fermaloso, è che ragione non si capisce. Ciao a tutti. E pure ho offeso i radioascoltatori, non mi vale il caso. Ecco, puoi uscire, grazie. Oh, vabbè, finché ti scherza, ti scherza. Però era un po' pesante, devo dire, era un po' pesante. Comunque, anche se è pesante, pesante è una parola grossa, in realtà è un genio, diciamolo. Carmelo Sfogliano è un genio. E come è tale, come tutti i geni, non riesci ad amarlo subito, ad apprezzarlo subito. Ti sconvolge, è un pugno allo stomaco, per quanto è bravo, per quanto è... È un artista oltre. E per noi dovrebbe essere un onore il fatto che due mentecatti, come sono io e come sei te, Greg, il fatto di lavorare con lui dovrebbe essere un onore, in realtà. Questa è la verità. E comunque, smettete di ascoltare 610, che è una trasmissione orribile. Lo diciamo noi, Greg è dillo, quindi... Se siamo noi i primi a dirlo, vuol dire che dateci retta, no? Vabbè, è vero che siamo due imbecilli, però dateci retta. Lo studio è nostro, apri! Radio 2, Greg, lì lo 610, siamo giunti al momento dell'oroscopo, dell'astrologia. Tutto è scritto attaccato. Tutto è attaccato e si va bene, perché praticamente è molto importante per noi lanciare nel mondo dello spettacolo un nuovo astrologo, visto che sono, vanno forti, sono ben pagati, e noi quanto ci siamo di spettacolo, questo è un aspetto che ci interessa particolarmente, no, Greg? E si, bene, retiscono le platee, anche perché uno è così stimolato in questi tempi e a sentire proprio il proprio futuro, in questi tempi è sempre stata così. È sempre stata così, l'astrologia è sempre stata affascinante. che non si chiama così, però insomma la predizione del futuro è quella che, insomma, fa colpo. Anche io che non ci credo, effettivamente delle volte mi ritrovo ad ascoltare con interesse tutto quello che riguarda l'astrologia, ed è per questo comunque che abbiamo qui un nostro rappresentato, in quanto fa parte della nostra agenzia di spettacolo, Saturnus, il grande astrologo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Saturnus. Buongiorno Saturnus, è qui con voi. Eh sì, Saturnus, senti, io voglio chiederti una cosa subito, guarda, io ho conosciuto una persona, diciamo, una ragazza, insomma, che è della bilancia, ed ero curioso di sapere... Qualcosa riguarda la bilancia. Eh sì, notizie sulla bilancia. La bilancia è molto interessante. Bilancia, strumento generalmente a due bracci uguali, con due piatti o coppe, ha da misurare l'uguaglianza o la differenza di peso dei corpi soprapposti ai piatti. Scorpione, poi viene. Bilancia... Questa è la bilancia, poi c'è lo scorpione, dopo. Nome di vari generi di aracnedi, dotati di un addome che si prolunga in una coda, sormondata all'apice da un bongiglione ricurvo e velenoso, e di chiele robuste per cadurare la preda. Questo è lo scorpione, bisogna stare attenti allo scorpione perché può essere in vita. Ma lo sappiamo tutti, come lo scorpione e cosa è lo scorpione. Sagittario, se non me interrompa, sagittario. Voce dotta dal latino sagittarium, che significa arcere, saettatore, da sagitta, freccia o saetta. Vabbè, grazie, salutiamo Saturnus. Faccio il cabregor. Non fa niente, non fa niente, ci basta questo, ci basta questo. Grazie, e andiamo avanti. Sono Saturnus. Eh sì, 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 Saturnus, sì. Su www.610.rai.it trovate la classifica delle freddure calde. Ascoltatele, votate le peggiori e fate crescere la febbre delle freddure. Se volete raccontarcene una, componetelo 06 320 2720. Ripeto, 06 320 2720. E registratela sulla nostra segreteria telefonica. Eccoci al momento in cui la radio impara dalla radio. Sono molte le emittenti con cui 610 si collega per capire meglio l'universo delle onde erziane. Una delle editrici radiofoniche che appunto ci aiuta a capire tutto questo qui è Radio Maddana, una stazione di servizio ma anche culturale di spettacolo. Il cinema è uno dei suoi argomenti preferiti. Noi abbiamo invitato uno dei responsabili del settore cinematografico di Radio Maddana, il critico professor Fabrizio De Sanzi, lei che non se lo ricorda mai, De Sanzi. Lo scriva, lo scriva. No, me lo ricordo perché è difficile pronunciare De Sanzi. Ma no, è facile. E come lo scrivo De Sanzi? È con due anni. Ah, ecco perché mi sbagliavo, è con due anni. Io scrivevo con la S invece. Che cosa ha scritto? Ma non è scritto, va bene, andiamo avanti, non è scritto così. Ah, vabbè, poi me lo fa vedere lei magari. Lei va a scopare spesso dei film poco conosciuti per consigliarle ai suoi ascoltatori. Qual è il suo ambito di ricerca? Sono contento che mi abbia fatto questa domanda. Da molti anni sono in contatto con la S invece di Beneblino. Con la boneca di Beneblino. Un po' la stessa della Montricina di Mostanio. Ah, ah, sta lì. E lì trovi film da proporre? Sì, ci sono un po' tutti i generi. Gide l'Antimentale, Andro Spettivo, La Sfera della Rolta. Ecco, sì, Rolta. Lei ha portato uno dei trailer dei film trovati alla S invece di Beneblino. Beneblino. In porn... Prostezza al monte. Prostezza al monte. Prostezza al monte. Vicino? Al limostanio. Vicino al limostanio, no? Al limostanio, sì. Stagno. Vogliamo ascoltarlo? Molto non d'altile. Sì. Quando l'avventura diventa pirata... John! Ciao, Domenonti! Sono Fibra, dietro ai piedi. Assani il fuoco! Assani il fuoco! Non posso! Quando l'uomo vince la un pa... Cosa è stato, John? È un pirata? Solo salta, bravo! Ci ha portato del mero. Oh, salta! Se non petassi! Io... Io ti mancorrei! Io, Dupo. Dupo, adesso tu vorrai... Capo, Napa! Tornati! È commentoso! Ci sono i tralli! No! Andiamo a prendere. La risa, Dupo. No, io sono i tuoi. No, complimenti. Molto interessante, anche se non si capisce dopo di tutto. E' come dire... E' una provocativa del deputaggista. Si rilassi con in mano, di non rivelare mai la cosa, sì. Eh, infatti, infatti qui la storia, sì. Non viene fuoco, non fa cosa altro. Vabbè, salutiamo il provvettor Fabrizio... Esacchi. 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 Responsabile delle scelte tecnografica della primavera. Buoncino a tutti. Un gran tiro per la partita. E' agosto. Scatta l'operazione di X-Speed alla nuova proposta V-D-File di Gablofon Squid. Più di tre anni di garanzia sui SMS scaricati dal 2002 ad oggi. Venti i rischi web del tuo nickname a tasto fissi. La vostra ricetta per sconto a scaricare direttamente dal tuo banco, ma con soli due euro al minuto di C-A-G. E se non vinci, hai diritto di un piante di sconto dal miliaggio vacante del tuo concessionario samorano. Ah, no, no, ok. Sembra veramente... Forse è più un banzaggio. Ah, che se fosse un banzaggio, sì, sì. L'operazione ho banzaggio, spero che me la spieghi meglio. Non ho capito le te cose. E' la tua proposta V-D-File di Garanzia sui SMS scaricati dal 2002 ad oggi. Ci sono tutti I SMS che Etsorio non è più solo ovunque. Ah, che ti sopra le W-D-File, ma sono tutte le garanzia. E' una tua proposta V-DFile del tuo concessionario. Tutti i tuoi amici, sì. Perché cancellate? Perché c'è di cancellare. Può capitare che... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devo andare per forza qui. No, c'è il tuo concessionario. Ah, il mio concessionario. Però ritorno ai gradi. Ritorno ai gradi. Vabbè, sembra buono. Greg Irillo, agenzia 610 Radio 2. Un momento. Dal 19 settembre, 610, andremo dalle 5 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì, sempre su Radio 2. 3, 1, 0. Che è il dietro le quinte di 6, 1, 0. Quindi le papere, gli errori, gli strafalcioni di Greg Irillo. Sentiamo. 6, 1, 0. Gli errori di 610. Che c'è da ridere? Proviamo i microfoni. Lillo 4, 2. Sì. Proviamo i microfoni. Sì, prova, Sassa, Sassa, 1, 2, 3, 4, 5, prova, 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 Sassa, va bene? Prova il cloud, prova Greg Irillo. Sì, sì, che facciamo? Iniziamo la rubrica battuta al giorno. Sì, sì. Sì. Vai, prova, va bene? Ecco, adesso proviamo i livelli, eh. Ok. Sì. Ma che c'è, tu giappe in faccia. Troppo basso, troppo basso. Proviamo ancora, eh. Il colmo per un faregname, dare il giro con la moglie scollata. Anche questo, si alzavano ancora un po', guarda, troppo basso. L'epitaffio su una lapide di un lord inglese. Ve l'avevo detto che mi sentivo poco bene. Ecco, questo mi sembra buono. Ok, beh, manteniamo questo, allora. Manteniamo questo livello, allora. Va bene? Grazie, Fabrizio. Un'astronave aliena a terra su un orto, lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido e di netto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori, che lo rendono cento volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di... Normalman! Normalman in... La vicina di casa. Roma, ore 12 e 28. Pier Maria Carletti, alias Normalman. È in casa a guardare la tv, quando a un certo punto suonano alla porta. Il mio norma l'udito mi dice che suonano alla porta. Andrò ad aprire. Pier Maria apre la porta e trova inaspettatamente la sua vicina. Buongiorno, signor Pier Maria. Non è che per caso ha un po' di cipolla? Mi dispiace, l'ho terminata. Peccato, non posso neanche andarla a comprare. C'è l'ascensore rotto e la mia artrite non mi permette di fare le scale. Cucini senza cipolla. Certo, solo che oggi viene a trovarmi mio figlio e gli avevo promesso il ragù. Dovrò dirgli che non ho potuto farlo. Sa, il ragù senza cipolla. Mi rendo conto, ma non posso aiutarla. Grazie di stesso. Arrivederci. Pier Maria chiude la porta, si reca nella sua norma o stanza da letto, apre il suo normal armadio e prende il costume da normalman. Andrò io a comprare la cipolla per la signora, ma non potevo farlo da Pier Maria. Avrei messo in pericolo il segreto della mia doppia identità. In meno di quattro minuti Pier Maria si cambia e diventa normalman. Scendi a piedi, compra la cipolla, torna su a piedi e suona il campanello della sua vicina che apre la porta. Oh, ma lei è normalman. In carne d'ossa e questa è la sua cipolla. Oh, grazie. Ma come faceva a sapere che io... Non si faccia troppe domande e faccia un buon ragù per suo figlio. Grazie, normalman. Quanto le devo per la cipolla? Vabbè, sarebbero trentacentesimi, vabbè, ma non fa niente. Non se ne falla proprio. Ecco i suoi trentacentesimi. Va bene, grazie. E buon ragù. Lei è un angelo, normalman. Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è normalman. Greg e Lillo dai microfoni di 610, Radio 2, in via Asiago in Roma. Siamo contenti di inaugurare questo spazio dedicato al quiz, un quiz totalmente innovativo. Questo avverte le regole normali del quiz. Infatti si intitola... Il quiz del quazzo! Che cos'è il quiz del quazzo? Il quiz del quazzo è un quiz dove non vince chi dà la risposta esatta, ma vince chi non dà la risposta esatta. E questa è la teoria rivoluzionaria di questo quiz. Ma per capirlo meglio, l'unica cosa che ci resta da fare è bandire le ciance e passare immediatamente all'azione. Quindi sentiamo subito chi è in linea. Prima vi dico la domanda e vi dico anche quanto si può vincere. La domanda è, quando Cristoforo Colombo scoprì l'America? Il 12 ottobre 1400 e in palio ci sono 1000 l'euri. Pronto, chi c'è in linea? Pronto sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, chi sei? Sono Fabio Palumbo da Freggene. Fabio da Freggene, bellissima. Allora Fabio, hai sentito bene la domanda? Sì, sì, sì. Quando Cristoforo Colombo scoperse l'America? 12 ottobre 1400... L'elefante indiano. L'elefante indiano! Benissimo, risposta esatta. Quindi hai perso, mi dispiace. Come risposta esatta? Ti hai detto che Cristoforo Colombo scoprì l'America il 12 ottobre 1400 e l'elefante indiano. Punto, ho sbagliato, quindi ho vinto. No, no, è la risposta giusta. Non è giusta la risposta, perché la risposta giusta è 1492. Ah, quindi lo sai? Eh, lo so, però, io ho fatto la risposta sbagliata. Eh, prima, adesso ho dato quella giusta. Eh, beh... Come beh? E quindi, il nostro quiz, la seconda risposta è quella che conta. No, ho capito, ma scusate, cioè, questo quiz non... Allora, io devo perdere per vincere? Esatto, invece... Eh, ho perso, ho detto elefante indiano e invece... No, hai detto adesso 1492. Ma l'ho detto per farti capire che la sapevo. Eh, la sai, quindi appunto. Questo vince chi non la sa, la risposta. Certo, è proprio un quiz del quazzo. Esatto. Arrivederci. Ciao. Il quiz del quazzo. Ancora con voi Greg e Lillo. Siamo giunti al momento del collegamento con Stefano Frosi. No, Greg? Il nostro collegofilo di fiducia. Sì, che è sempre più vecchio, però è sempre più... Più bravo. Più bravo. E grazie a lui noi possiamo assaporare le bellezze dell'Italia, delle sagre, delle varie feste. Tradizioni che non vanno assolutamente perse. Assolutamente no. Le feste italiane sono importanti, le sagre sono sinonimo di tradizione e di cultura. Stefano, oggi ci chiama da Poggio Almeno, Due Sassi, in provincia di Miliprendo. Sì, ciao. Stefano. Ciao, Greg e ciao Lillo. Ciao. Vi saluto normalmente o simpaticamente? Beh, simpaticamente come al solito. Vi saluto simpaticamente. Ecco, siamo venuti qui proprio a questa festa così importante in questo paese. La festa si chiama la festa del piuttacchino. Ah, e che significa? Ecco, io mi sono rinformato perché non avevo capito bene neanch'io. Ecco, letteralmente significa la festa dello piuttacchino. Ah, ecco. E come si svolge questa festa? Ecco, sostanzialmente è questo. Piuttacchino è inteso come la persona simpaticamente più scema. Lo scemo del villaggio, come Faggiano. Sì, simpaticamente sì. Diciamo che risale ovviamente al 1320 più o meno, festa quindi medievale. Praticamente che succedeva? Che veniva preso lo scemo del villaggio e veniva ammazzato. Ah, veniva ucciso in piazza. Sì, simpaticamente. Veniva massacrato a colpi di roncola. Ah, ecco. Attenzione, questa è la cosa particolare. Ovviamente oggi viene ripresa come tradizione questa festa, ma non sarebbe più possibile fare una cosa del genere. Ebbene, certo, la violenza... Prima di tutto perché le roncole non si trovano più. A me, è quello già un problema. Dove l'aveva trovata una roncola oggi? Oggi una roncola, certo. Guarda, però aspetta, c'è un negozio, devo ricordare, dov'è che l'ho vista? San Marino. Poi in più c'è un altro problema. Sì. È il fatto che lo scemo del villaggio allora era uno, adesso dei scemi è pieno. Ah, ecco. Saranno almeno una ventina. Ah. Il paese è cresciuto. Ah, certo. Allora che fai, ammazzi tutti e venti? Allora fanno un simpatico, simpaticamente ovviamente, un simpatico quiz. Sì. Perché questi scemi del villaggio cominciano a correre, che lo sanno, lo sanno la sera prima e c'è la festa, no? Sì. Eh, tra l'altro forse sono proprio loro che fanno sparire i roncoli, comunque non è chiara questa cosa. Ma va bene. E cominciano a correre per il paese, inseguiti dalle persone più intelligenti e loro cercano di dire delle cose intelligenti per non essere ammazzati. Ah, ho capito. Ma che succede alla fine? Viene comunque ucciso qualcuno? Viene ucciso, ovviamente. Non con la roncola, ovviamente. Ma no, ma salubrense. Non viene ucciso con la roncola. Ma salubrense, forse. Eh, potarsi. Comunque viene ammazzato praticamente simpaticamente con martellate, con allegria. Però uno solo. Sì. Forse Conegliano-Veneto. Ma che, Greg, che dici? No, questo negozio dove ho visto le roncola. Non ce ne frega niente. Anche qui al paese non interessa più, perché tanto ha ammazzato la martellate. E tanto ormai è cambiata la tradizione. Cioè, se mette un po' di più col martello, per la verità. Certo, vabbè, però. Perché poi si dimenano. Vabbè, però. No, però stava al sud. Sì, sì. Quindi adesso io mi avvicinerò col microfono e cercheremo di farvi sentire qualche frase intelligente detta simpaticamente da questi ragazzi, quindi anche il pubblico comodamente o scomodamente da casa potrà sentire. Sentiamo, sentiamo che si... Ecco. Ecco. Non male, eh. Ecco. Ebbè, effettivamente sono cose intelligenti. Bravo. E sono fissero a dimagrire. Eh, ma questa ha detto una cosa non intelligente. Ha detto una cosa... Eh, sì. E l'hanno beccato. E infatti l'hanno beccato. L'hanno beccato. Eh, adesso fanno seccolù. Eh, sì. Ah, vedi, vedi. Questa era proprio la scimmia. Eh, più grande. No, ti hai fatto fizzicare, eh. Sta dicendo no, 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 no. Ma non so perché. Non so perché, ma dice no, 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 no. Ah, aspetta. No, no, agosto è in inverno. E questa è un'altra subitaggine che ha detto. Eh, già. Eh, beh, ma allora... È proprio scemo. Infatti sentite che dicono allora sei te, allora sei te. Non so se sentite bene l'avvio. È un pochino simpatico. Allora sei te, allora sei te. Piazza Armerina, ecco, vicino a Enna. Ah, è possibile, è possibile. Ah, gli è scappato il martello. Ecco, adesso è andata. È andata, è andata. E non parla più, non parla più. Ebbene, la festa è finita adesso. Sì. Succede. Eh, io a questo punto saluto voi e il pubblico comodamente a casa, simpaticamente oppure normale. Che dite? No, simpaticamente. Simpaticamente. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao Stefano. Grazie. 610 trailer 610 prima. Erminio ha 38 anni, lavora come uscere, ma frequenta di corsi serali e la notte studia sodo per diventare geometra. Che stanchezza. Ma grazie al cielo ho terminato tutto il capitolo. Però arriva il giorno dell'esame. Si concentri e mi risponda. Che figura è questa? Un esagono. E questa? Un rombo. Le domande si fanno sempre più difficili. Passiamo ora ai solidi. Cos'è questo? Un cono. E questa? Una piramide. Poi, il crollo. E questo che solido è? No, non lo so. Non l'ho mai visto. E quest'altro? Non li conosco. Mi risponda, che solidi sono? Non li ho mai visti, lo giuro, non li conosco. I solidi ignoti nei cinema. 610 610 610 610 Siamo per collegarci ancora una volta con Valentina Paoletti, che ormai ha abbandonato i collegamenti estremi che tutti conosciamo per dedicarsi, Greg, a... Pensiona, proprio nella camioneta della sua abitazione, dove lei vive con la mamma e con il fratello, di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura in generale. Ma famosissime, è incredibile. Infatti, diciamo il nome della rubrica, il titolo della rubrica, intanto che è a casa di Valentina. Oggi intervista niente po' di meno che Susanna Agnelli. Quindi, voglio dire... Pronto, Valentina, ci sei? Sei in linea? Buongiorno Lillo, buongiorno Greg, ci sono in linea, vi sento benissimo. Sì, ciao, ciao. Sei lì con Susanna Agnelli? Sì, sì, sono pronta a fare questa intervista per voi e per 610. E Valentina, dove siete? Siete sedute come? Sulla poltrona? Come state? No, siamo nella mia cameretta. C'è la signora Agnelli che è seduta sul mio lettino. Come lettino? State sedute te e Susanna Agnelli? No, io per terra. Insomma, la signora Agnelli sono sul mio lettino. Ho capito. Non potevo mica far sedere lei per terra. Perché a me è una poltrona, un divano, una sedia. No, perché le sedie sono tutte scomode. Il divano ce l'ho, ma è di là, dove c'è mia mamma che sta vedendo la telenovela. Mi sembra brutto andare lì con la signora Agnelli. Vabbè, certo, la disturbi. Vabbè, se sta comoda. Magari le ha offerto comunque qualcosa. No, la signora Agnelli mi ha chiesto un caffè, ma non mi andava di farlo. E non ce l'avevo, il caffè, e così le ho offerto un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua. Ah, scusate, Agnelli. Vabbè, fonte di vita. Sì, sì, infatti, quando si assiede non c'è niente di meglio che un buon bicchiere d'acqua. Allora, inizia con l'intervista? Sì, sì, prego, prego, vai. Signora Susanna Agnelli, in passato lei ha avuto molti incarichi pubblici. E quanto ha pesato il suo cognome? In politica, secondo me, non è un aiuto. Io ho iniziato la mia vita politica facendo il consigliere comunale in una regione comunale. E quando sono stata eletta sindaco nel 74, la prima volta che sono andata a una manifestazione pubblica, l'intera piazza mi ha assistiato. Ah, c'è poi Luigi. Valentina, chi è che urla? Mi sento un po' ciare di essere. Il mio fratello, Fabrizio, che siccome sta alla finestra e sta parlando con un suo amico che sta sotto, deve urlare forte perché siamo al quinto piano. Eh, va bene, ma non può scendere un attimo tuo fratello a parlare con quest'amico? Ma si vede che non gli va, oppure non solo vuole vedere questo qua. Ma il citofono, c'è il citofono. Eh no, c'è il rosso il citofono. Ma disturba. Si sente più lui, si sente... Vabbè, dai, non c'è la maniera. Ma al quinto piano, Greg, si ripeto. Ho capito, però c'è anche un'intervista di voi. Vabbè, dai, proviamo di mezzo. Ma allora, dunque, dicevamo con la signora Agnelli. Signora Sussama Agnelli, qual è il riconoscimento che l'ha più commossa? Il riconoscimento che più mi ha commossa è stato quello del bambino. Eh, con lui c'è la macchina sempre, io voglio di più, con la macchina che si rimorcia, che è molto carina. E poi la macchina che è rossa, poi, è spider. Valentina, ma almeno digli di parlare più piano, perché devo urlare... Ma che fa? Lillo, come fa a parlare più piano? Sono al quinto piano? Ma ho capito, ma scusa, ma lui passa il pomeriggio a parlare dalla finestra con l'amico? Ma che non mi fatti solo come basta il pomeriggio? Ma che lui ti viene a dire come basta il pomeriggio tu? Vabbè, dai, a questo punto. Ciao, andiamo avanti. Greg Lino, lo dico, siamo a dire un attimo. Signora Agnelli. Ormai ci siamo gemellati con tantissime radio e abbiamo deciso di mandarle in onda, di trasmettere quello che le altre radio trasmettono nel nostro programma 610. Ed è il caso, questa volta, di Radio Cialtrone Network. Cialtrone, vabbè, io dico se è Cialtrone, ma in realtà si dice Cialtruan. E' scritto Cialtrone, però si legge Cialtruan. Cialtruan si legge, sì, che è più giovane, no? È un gioco di parole simpatica. Simpatica, sì. Radio Cialtrone Network, che è una radio, se non altro, esclusiva e originale. Ascoltiamoli un po'. Ci colleghiamo esattamente in questo momento con loro per sentire cosa stanno trasmettendo proprio in questo istante. Radio Cialtrone Network. Eccoci qui su Radio Cialtrone Network. Radio Cialtrone Network. Cialtrone, c'è scritto Cialtrone, si pronuncia Radio Cialtrone Network. E dopo il... Adesso c'è il notiziario, ah, non è adesso il notiziario, no, quello l'abbiamo già fatto, è vero. No, siamo per lo spazio, dobbiamo fare la canzone, la canzone. No, non so quelli fogli. Sì, c'è la canzone, ascoltiamo adesso Eros Gazzè con Eros. Ma chi è? Non c'è il pezzo di Eros Gazzè adesso? Non è Gazzè poi, è coso? Che mi dico? È quell'arto, è quello arto, quello arto, quello riccio. Va bene, è con Vita, Vita Spericolata. Ah, ecco. Ascoltiamoci Vita Spericolata. Vita Spericolata, di coso? Come si chiama? Velázquez. Velázquez, ma vabbè, comunque un cantante famoso. Allora, che facciamo? Tanto che bel disco, diamo una pizzetta? Capizzi? Una bella pizzetta, dai, dai. A me mi va. Cocettina, chiami tu per la pizzeria? Sì, chiamo io, ma come le volete queste pizze? Come le vogliamo? Magari mi sbaglio, che ne so. Come ne so, come le vogliamo? Forse c'ho il menù, quello del ragazzo che l'ha portato. Sì, ma vediamo un po'. Eh, questa la porcellina, vabbè. La porcellina? La porcellina, margherita. Però bisogna stare un po' attenti perché l'altra volta abbiamo unto tutti i fogli qua, poi non leggevamo le cose che, vabbè. Sarà molto unta la porcellina, che dici? No, no, no. Poi prendo qualche supplì magari. Qualche supplì. Sì, che ne so, se me ne lasciate un... Ma che scherzi, te ne do un pezzo, ma... Grazie. Ma stai scherzando, figurati. Grazie. Pizza al volo, mi dica. Salve, volevo prendere una pizza. Ah, pensavo volesse prendere volo. Come? Niente. Ah, qui dal menù leggo pizza porcellina, c'è? C'è. C'è? C'è. C'è o non c'è? È finita? Trimmo. Pizza al volo, mi dica. Salve, volevo ordinare due pizze. Ah, due pizze? Benissimo, quali? Due porcelline. Ah, due porcelline, perfetto. No, ma scusi. Un attimo, eh, che c'è? Aveva detto che la porcellina era finita. Era un presagio, ma è finita. Mica le vennemmo spagliate le porcelline, lei ne voleva una. Vuole altro? Ma non so, mi dica lei. Due bei supplì caldi. Sì. Un calzone ripieno. Sì. Più caldo di supplì. Senta, scusi. Un attimo. Allora, che prendi? Eh, non lo so, mi dica lei. Ma che io devo dire, c'è all'armenù. Ah, sì. E due supplì caldi? No, t'arrivano freddi. Un calzone ripieno? No, tagliavodo. Ma è da bere? Ma la solita birra non mi va. Giusto, quindi? Un bel prosecchino? Oh, prosecco, ottima scelta. E io che bevo? Nafanta. Allora, ricapitoliamo. Due porcelline. Sì. Due supplì caldi. Sì. Un calzone ripieno. Più caldo dei supplì. Sì, è da bere prosecco. Sì. E quant'è? Dieci euro. Solo? Sì. E fa quanto arrivate? Dieci minuti. Ma se non sa nemmeno dove abito. Per noi di pizza al volo non allontano neanche il polo. Io quanto pago? Capi, hai una fanta. 38 euro. Come? Tra quant'è arriva? Ma perché? Devo venire io? Eh certo, e mo' la portamo pure. Ma non era pizza al volo? Appunto. Per noi di pizza al volo, da mangiare e da beve, te lo vieni a piada solo. E allora, Concettina, tra quant'è arriva? Eh, che cosa? La pizza. La pizza che... La pizza è che non erano finite. Erano finite? Erano finite le pizze. Vabbè, andiamo avanti che tra un po' mi sa che finisce il disco e dobbiamo rientrare. No, sei incantato il disco. Allora, va bene, leva, 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 leva il disco. Passiamo adesso, c'è il tempo. Le previsioni del tempo. Le previsioni del tempo. Baciami, baciami, baciami ancora. Just one. Greg Elillo è il microfono di Radio 2 610 in compagnia di Massimo Bagnato. Siamo qui molto felici di averlo con noi, il grande artista multimediale che tutti conosciamo, un artista che è un rappresentante importante della nostra agenzia di spettacolo, la 610. Ciao Massimo, oggi sei in veste di... Oggi sono in veste di ipnotizzatore. Grazie Greg, grazie Lillo. Io non ho ancora detto nulla, quindi ringraziamento... Mi sono portato avanti sempre. Ringraziamento sulla fiducia. Però mi sento il dovere di... Hai comunque dei piedi molto sinusi e eleganti, Massimo. Beh, io guarda, porto il Bagnato Show in giro da una decina d'anni e continuerò a proporlo fin quando non lo farò bene. Grazie. Benissimo. Grazie a Massimo. Allora Massimo, tu sei in veste di ipnotizzatore. Sì. Ecco, quindi multimediale più che mai. L'ipnosi, che purtroppo è stata soppiantata tanti anni fa dalla psicanalisi, perché sapete che quando veniva ipnotizzato un paziente, quindi era in trans, ipnotica, purtroppo c'erano delle resistenze. Io ho cercato di mediare l'ipnosi e adesso la propongo in versione semplice, quindi anche radiofonica. In versione semplice anche radiofonica, quindi se ci fosse qualche radioascoltatore che temesse qualche, non so, controindicazione, deve stare tranquillo. No, no, questo posso assicurarlo. Anzi, io vorrei dire una cosa, so che risulterà impopolare, però la vorrei dire, i cani bisognerebbe ammazzarli tutti quanti. Ecco. Per l'ipnosi è impopolare. È impopolare, sì, va bene. Dicevi, Massimo. Io vorrei ipnotizzare in questo momento tutti i nostri amici qui in ascolto, se si concentrano, è un'ipnosi sonora. Ipnosi sonora. Un momento, come facciamo noi a capire quali sono amici di quelli che ci stanno ascoltando? Beh, quelli che rimangono ipnotizzati forse. Le persone affini, quelli che stanno dentro a casa e quelli parentele anche fino al secondo grado. Bene, io inizio. Allora, attenzione radioascoltatori, da questo momento voi farete le stesse cose e da questo momento non accadrà assolutamente nulla. Questo momento è come se non fosse mai esistito, voi continuerete a fare quello che avreste sempre fatto, come se io non avessi detto nulla e come se non avessi mai ipnotizzato nessuno. Quindi tutte le azioni che state facendo in questo momento continuerete a farle in questo momento, voi state ascoltando l'ipnosi, ma è come se non fosse successo nulla. Questo momento non è mai esistito e continuerete a fare le cose che avreste sempre fatto. Io non ho mai ipnotizzato nessuno, voi siete limpidi, non è successo niente. Continuate a fare quello che state facendo. Grazie Massimo Bagnato e lo salutiamo Greg Lillo Radio 610. Grazie. Un'astronave aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente, diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di Normalman. Normalman in Il terrore alla finestra. Astolfo Garrione è un impiegato del comune. La sua vita trascorre in colore, sebbene funestata da una fortissima miopia che lo costringe ad indossare lenti spessissime e che comunque non gli risolvono l'handicap. Un giorno prese una decisione. Ecco signor Garrione, ora ritoglieremo le bende e noterà che la sua vista ormai è restituita ai dieci decimi. Allora? Io, io ci vedo, ci vedo, vedo tutto, tutto. Il professore, l'infermiera, la porta, i fiori, tutto, tutto. Allora signor Garrione, come ci vede? Bene, sì, benissimo, solo che sono molto stanco. Ha ragione, allora riposi un po' e quando si sveglia potrà andare tranquillamente a casa con le sue gambe. Ma Astolfo non riesce a dormire, i tormenti subiti sin dall'adolescenza lo angustiano. Astolfo è un quattro occhi, Astolfo è un quattro occhi. Ehi, ma che sei guercio? Che cosa? Vuoi che esca con te? Curido Orbo. No, no, no! Adesso, adesso la pianterete di chiamarmi Guercio, Orbo, quattro occhi. Da oggi più nessuno potrà prendere i perifondelli Astolfo Garrione. Perché da oggi non ci sarà più Astolfo Garrione. Da oggi c'è il vedente. 1.18.45, ufficio di Pier Maria Carletti. Pier Maria Carletti, alias Normalman, sta sbrigando della corrispondenza quando... Ah! Aiuto! Che c'è? Ragionier Carletti, corra! Presto! Da questa parte, intendevo! Ah, mi scusi, ecco, cosa succede? Ragionier Carletti, guardi, in bagno, alla finestra. Cosa c'è alla finestra? Guardi lì fuori, alla finestra di fronte, c'è quell'uomo con la tuta gialla che guarda. E allora? Beh, come allora? Lo cacci! Ma non posso, come faccio? Come, come fa? Così! E lei se ne va da guardone! No, nessuno può cacciare il vedente. Il vedente guarda dove vuole. Ma lo sente, Ragionier Carletti? Ragionier Carletti, ma... ma dove si è cacciato? Intanto Pier Maria è nella toilette vicina per cambiarsi. Le sigo spazio a sua disposizione gli ostacoli e i movimenti, per cui ci vogliono ben otto minuti per diventare... Normalman! Eccomi, dov'è quell'uomo schifoso? Oh, Normalman! Eccolo lì, sta ancora in finestra a guardare. Vattene via, porco! Non devi guardare nei bagni delle donne, pervertito! Il vedente guarda dove vuole. Il vedente non va via. Vattene! Se non te ne va, chiamo la polizia! Il vedente guarda dove vuole! Ecco, la chiamo. Polizia, venite in via dei Gracchi 41. C'è un guardone. Per ora me ne vado, ma tornerò a guardare, perché così fa il vedente! Se ne è andato, Normalman. Ma ora... ora sta arrivando la polizia? No, era una telefonata falsa. L'ho fatto per spaventarlo. Era un Normal trucco. Sei fantastico, Normalman. No, sono solo un supereroe, Cristiana. Come... come conosci il mio nome? Io... 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 te l'ho detto, sono un supereroe. Ah, è vero. Addio, Normalman. Acce, devo stare più attento o tradirò la mia identità. Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è Normalman. Tutti a... Mare, vita al mare, a mostrate che a pegare... Più di un anno fa, io e Lillo abbiamo messo su un'agenzia... Un'agenzia di spettacolo? Sì, un'agenzia di spettacolo che è questa, la 610. La 610. Siamo partiti subito alla grande. Abbiamo detto facciamo subito un grande progetto, una grande cosa. Abbiamo messo un grande musical. Poi ci siamo ridimensionati subito dopo, effettivamente. Sì, è vero, ma anche perché il musical è andato a male. Perché noi abbiamo cercato di contattare, anzi, abbiamo contattato, abbiamo contattato tantissime persone delle personalità, dei tips. A cui abbiamo proposto ciascuno un ruolo importante in questa commedia musicale, però nessuno di loro ha accettato, per un motivo o per l'altro. E infatti. Quindi andiamo a scoprire, per esempio, perché non ha accettato Michele Mirabella? Sentiamo. Pronto? 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 Pronto Mirabella? Sono Walter De Mastro dell'Agenzia 610. Agenzia? 610. 610? 610, esattamente. Ho capito bene. Esatto. E da poco tempo che siamo in Italia, è un'agenzia statunitense che allestisce spettacoli, commedie musicali ed altro. Sex One Oh. Ma siete americani? Io personalmente no, l'agenzia è americana. Ho capito. E da circa un anno siamo presenti anche sul territorio nazionale italiano. Sì. Vengo subito al sodo per non farle perdere tempo. Veniamo, sì, dico pure. Ha molto successo. A New York è una commedia musicale scritta da Barnabas & Thompson, che è una coppia di autori nuovi dello spettacolo. Barnabas & Thompson? Sì, loro hanno prodotto questa commedia, si chiama White Bottom. In Italia White Bottom si era chiamata A Chiappe Chiare, proprio per ricordare i fasti degli anni 60, e si svolge in una spiaggia. È stata ricostruita una spiaggia con tanto di mare, di porzione di mare, sul palcoscenico. Sul palcoscenico? Il mare? Sì. Noi stiamo cercando di portarla in scena per la prossima stagione, diciamo attorno a ottobre. La grande innovazione è che, come una sorta di sitcom di soppopera, c'è una rotazione dei personaggi. Ogni mese si cambia. Ho capito. Ci sono delle puntate che vanno avanti, è un po' in fieri, possiamo dire. In? In fieri. In fieri? Sì. E io che cosa dovrei... perché lo sta dicendo a lei? Lo sto dicendo a lei perché White Bottom in America viene rappresentata da vari personaggi dello spettacolo, del giornalismo, degli opinionisti, non è soltanto fatta da attori e da cantanti. Ah, ho capito. Quindi a noi piacerebbe avere lei a chiappe chiare nel ruolo del bagnino maori. Del? È un bagnino maori. Ma come maori? Ma io sono tutt'altro che maoro, ma maori. Le dico soltanto che a New York è stato rappresentato da Hervie Keitel. E faceva il bagnino maori? È una commedia, è comica ovviamente. E me lo auguro. Sì. Un bagnino maori fatto da me per fare... È un bagnino maori che si esprime così, con delle bisillabe, non riesce a esprimersi bene. Però si capisce che lui è imbarazzato dal fatto di avere il corpo interamente tatuato. Tatuato? Sì. Beh, per finta spero. Sì, sì, no, usiamo delle decalcomanie. Ah, viene via dopo? Sì, sì, ma è solamente un trucco, un trucco scenico. Noi abbiamo pensato a lei in una stanza. E il bagnino non credo di essere adatto, veda. Io, come dire, non sono più neanche ventenne, lei lo sa che io sono... Sì, lo so, benissimo. Ma sono adulta. Comunque ha una descritta prestanza fisica, è alto, è slanciato. Beh, sì, insomma, quello un po', sì, ma non lo nego, ma non credo di avere le fattezze del bagnino che piace. Sì, ma anche questo il... Non devo notare, no. No, no, assolutamente. Ma anche questo è il divertente della commedia, cioè che vediamo personaggi a volte improbabili in determinate situazioni. Ma improbabile è la parola giusta nel mio caso. Ma non c'è un ruolo, per esempio, di principe? Sì, su una spiaggia è... No, i personaggi sono questi. C'è un astrologa che canta, mette in versi una sorta di Nouvelle Cyrano, però è un astrologa, una donna. È donna però, eh? Sì, cioè Mary è una giornalista che in cerca di scoop... Sempre donna. Potrebbe anche essere interpretata da un uomo. Ecco. Che la cosa divertente di questo personaggio è che non riesce a portare in porto le proprie scoperte perché soffre di disenteria. Nei momenti più... Ah, no, 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 no. Deve scappare reggendosi... No, 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 per carità, non... Perché non ne parliamo a voce? Magari col mio agente, così parliamo... Sì, ma molto volentieri. Parliamo di denaro, anche di... Non che io ci... Voglio dire... No, ma è un giusto guiderdone, va riconosciuto. Il? Il guiderdone. Ah, il guiderdone? Sì. Scusi, no, non avevo capito, stavo dicendo che preferisco la paga. Vabbè, non si butta mai via il lavoro, per cui insomma accettiamo di leggere il copione. Va bene, la ringrazio molto. La ringrazio tanto e vediamo di sentirci presto. D'accordo, grazie. Buon lavoro, eh, arrivederci. Arrivederci. Di nuovo. Greg e Lillo, Radio 2, siamo a zero, è giusto il momento di interagire con i nostri radioscoltatori, sentiamo se c'è qualcuno in linea, pronto? Pronto. Lillo, che no? Diary intorno a te! Ma che... Megan Gayle che ci ha fatto la pernò. Che divertè, ancora. Oh, guarda. Ma attacca. Che lo sa, intorno a te. Togliete la linea, non ho parole, o qualcuno la fa lavorare seriamente questa, se no, se continua a fare solo spot di telefonia questa... Sì, che poi io pensavo che fossi tu. A fare che? Perché io faccio quelle cose in studio, Greg e Lillo. Andiamo avanti, va. Conosci mia cucina. Conosci mia cucina. Vi ricordo che siamo sempre a Via Siago, Radio 2, 610, Greg e Lillo. Eccoci qui. Per il nostro spazio, la nostra rubrica dedicata a... Alla cucina. Alla cucina. Sì, alle ricette. E infatti il titolo è proprio Conosci mia cucina. Esatto, questo è il titolo della rubrica, Conosci mia cucina. Oggi abbiamo come ospite, e ci fa onore, un grande chef, un chef importante, che viene da Treviso, ed è il signor Bepi Corradin. Bepi Corradin, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi, ascoltatore, buongiorno a voi, a Greg e Lillo di 610. Signor Bepi, ma sì, io ho detto da Treviso, ma lei è proprio di Treviso? Ah sì, io sono di Treviso, ma io vivo però a Vicenza, perché così, sai, un travaglio a Treviso ce n'è poco, perciò io mi sono spostato a sud, a Vicenza e... No, perché siccome è questo accento che non... Ah, l'accento sì, perché l'accento sì, perché praticamente nella mia marcia è di Venezia, perciò io praticamente, nella mia marcia è di Chioggia, allora io parlo di tutti questi dialetti del Veneto per questo motivo. Ah, quindi un misto di... Sì, un misto di tutti questi dialetti del Veneto. Ah, tu sì, sì. A questo, allora sì. Bene, allora siamo qui per parlare di cucina, di ricette e lei sappiamo che è un grande chef ed è specializzato comunque in cucina regionale Veneta. Sì, certo, ricette solamente Veneta, chiaramente la gente vuole mangiare cose da propria città, da propria regione. Certo, certo, certo. E quindi lei... La ricetta che ci presenta oggi? È la caponata, la caponata, la caponata che è una ricetta... Scusi, la caponata non è una ricetta veneta? No, la caponata come non è una ricetta veneta? Lillo, è meraviglia di lei, deriva da... Salvevano i saraceni, la facevano i saraceni, la facevano i turchi la caponata. Dei turchi? Dei turchi e dei saraceni. Dei saraceni in Veneto? I saraceni in Veneto, si legge la storia, si legge la storia, si è un po' scassa una storia. Ok, allora sentiamo questa ricetta, com'è la ricetta? La ricetta... Signor Corradin, sì. Sì, un po' di peperoni, melanzane. Melanzane, sai chi di fini tagliati, beh, duca... Quelle tipiche venete proprio. Chi di venete proprio, chi di cagosaniura, delato, cosa... Poi l'olive, i capperi, i patati, l'uvetta chi di proprio, chi di treviso, chi di nica nica... L'uva passa di treviso. L'uva passa di treviso, chi di niura proprio. Sì, non parli troppo veneto, se no non capiamo. Non capiamo, perché l'accento... Ah, sì. Il dialetto veneto non è facile da fare. Il dialetto usaccio è molto complicato. Sì, allora... E poi dei pinoli. Dei pinoli. I pinoli. Tutto quanto, ovviamente, la ricetta poi si fa soffriggendo tutti i stivetturi precedentemente tagliati a tocchettini con la cipolla. E in metà cottura aggiungere l'uluvetta e i pinoli. E un bocchettino di sale. E chi sta la caponata? E questa è la caponata? La penata, certamente. La penata, certamente. Certamente. Va bene. Allora, la ringraziamo... La ringraziamo molto. L'epico Radin. Vuole salutare qualcuno? Sì, io saluto tutti gli amici del club D'Avanti della Grappa. D'Avanti della Grappa. D'Avanti della Grappa. E chi sono? D'Avanti sono Cammeluzzo, Cammelo, Rosalia, Nunziatina, Savatrice, Calogero e Totò. Tutti i veneti. Tutti i veneti, sì. Tutti. Come a me, sì. Come lei. Va bene, grazie. Andiamo avanti. 610 Greg Illillo. 610 trailer 610 prima. Ai concerti punk rock è facile fare amicizia. Ehi, ti piace la music di questo gruppo? Abbastanza affermativo, boy. Ma io preferisco le band degli anni 70. Beh, ma Offspring e Green Day ti sconfinferano. Anche in un genere musicale come il punk c'è una gran differenza di vedute. Che ti devo dire? A me sgarzano ancora i Ramones. Ma sono vecchi. Mi va a sangue Iggy Pop. Ma è punk decrepito. E soprattutto i Sex Pistols. Ma è punk giurassico. Jurassic Punk. Nei cinema. Spesso sei oggetto di scherno. Quando ti offendono non sai che rispondere. Da oggi è in edicola Rispondere per le rime. Rispondere per le rime è la prima rivista che ti suggerisce come ribattere a chi si prende gioco di te. Ehi, ciccione! Perché non fai un salto dal chirurgo estetico? Senz'altro. Ma prima passo da tua sorella. A lei vado bene anche così. Rispondere per le rime. La rivista di chi si sa far valere. 610. 610. 610. Qui a 610 in genere si scherza, si ride. Però è bene anche trattare ogni tanto degli argomenti che hanno uno spessore, che hanno un carattere più serio. Certo, questo è importante. È importante perché ci sono alcuni disturbi del comportamento che sono molto quotidiani e cui magari si presta poca attenzione. Che possono essere come quelli... Beh, adesso se ne parla molto la depressione. Poi può essere anche la depressione bipolare, che è un po' meno conosciuta. I tic, può essere la balbuzia. E può essere anche il tema che trattiamo oggi, che è... Che è quello della perdita della memoria. Che pare sia comunque una conseguenza di uno stress, spesso. Questa è una conseguenza di uno stress, se non di un trauma, che può essere di un qualsiasi tipo di incidente. Però appunto, delle volte si manifesta poco a poco. Sì. E poi può invece peggiorare e prendere gran parte del cervello, insomma, della parte dedicata alle funzioni mnemoniche. Però appunto, è meglio che non siamo noi a parlarne. La prossima volta ne parleremo magari anche con un medico. Però per oggi ne parliamo invece con... Con una malata purtroppo, purtroppo, sì. Che ne è uscita. E la sua testimonianza può giovare a molti ascoltatori, perché con l'esperienza, insomma, che lei ha avuto, cosa ha fatto. Le parliamo appunto oggi... Con Anna Zigomi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Lei ha sofferto di perdita della memoria. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Siamo la sua cartella clinica. Sì, certo. Lei ha cominciato a soffrire poco poco durante il giorno, cioè piccole perdite di memoria. Boh, chi lo sa. Non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Non se lo ricorda. Cioè, diciamo, proprio il primo sintomo che ha avuto, il primissimo, quale è stato? Boh, non lo so. Boh, non lo so. E quando? Quando più o meno? Quando proprio zero. Non se lo ricordo. Zero totale. Non se lo ricordo. Comunque, lei che ha fatto? È andata subito da un medico? Può essere, non lo sta male, dice vado dal medico. Io non lo so che ho fatto, non mi ricordo. Dunque, che medicina ha preso? Che ne so che medicina ha preso. Boh. Fa me delle terapie. Può essere sì, può essere no. Chi lo sa? Non me lo ricordo. Sì, comunque, lei è guarita. Boh. Ma, chi può dirlo? Chi è guarito e chi no? Sì, però, dicevo, vabbè, comunque in ogni caso, lei è qui per fare che? Per fare che? Che ne so, dimmelo tu. Vabbè, grazie, andiamo avanti. Greg Libro, Radio 2610. Noi siamo un'agenzia di spettacolo, abbiamo trovato tra i vari astrologi uno che è veramente in gamba, uno che ci piace, carismatica, sì, sì, comunque riesce senz'altro a bucare lo schermo. E che ora fa parte della nostra agenzia e si chiama Saturnus, facciamolo accomodare. Saturnus. Ecco qua, ciao Saturnus, buongiorno. Buongiorno, sono Saturnus. Allora. Questo nome che inizialmente ingude un po' di rimore, però in realtà serve soltanto a dare un po' un'idea di quel lavoro che faccio, perché... Eh beh, certo, richiama gli astri comunque. Sì, gli astri che comunque, che ci vuole fare? Fanno parte dell'astrologia. Eh certo, eh, certo. Anche il nome, grosso modo, ricorda, no? Astri, astrologia, c'è questa... Astonanza, ecco. Infatti, questa è una grande verità. Bravo, bravo. Che bravo, Saturnus. Saturnus. Saturnus, vuoi parlarci di qualche segno in particolare che pensi che sia il caso di affrontare... Beh, direi che ci dovremmo essere come a tempo il Capricorno, no? Capricorno, ecco, sentiamo il Capricorno, mi interessa particolarmente, sentiamo. Capricorno. Mammifero, ruminante degli attiodate, le semele alla capra, con corna leggermente ingurvate. E poi? E' finito, poi c'è l'acquario. Eh. Vasche, o insieme di vasche, in cui si fanno vivere animali e piante acquatiche, ricreando artificialmente il loro ambiente naturale. Questo è l'acquario. Ho capito, è Saturnus, ma... Ma poi si concludi coi pesci. Eh. I pesci. Che è una classe di vertebrate acquatici forniti di pinne con corpo generalmente fusiforme, rivestiti di squamo o scaglie, respirazione branghiale e scheletro cartilaggini o osseo. Eh, ma questo lo sapevamo tutti, grossomodo. Allora, tu me lo chiedi, cioè... Ma comunque te lo chiedo, tu sei un astrologo, devi parlare di... Eh, sto parlando di questi, questi sono i tre che rimanevano in sospeso, in sospeso. In sospeso, va bene, ho capito, però... Che con Saturnus... Ma non è che c'è detto niente, non c'è detto niente però in realtà. La storia è un po' enigmatica, uno deve interpretarla un po' come c'erano anche... Sì, sì, vabbè. C'erano gli oracoli una volta, uno andava, è sempre un po' come la sfinge. Eh, sì. Un po' di tutto. Ma che non si può dire, tu non ha detto niente. Questo è il mondo, questo è gli assi, questo è il mondo di Saturnus. Vabbè, ciao, che ringraziamo Saturnus, grazie a Saturnus, andiamo avanti, Greg Lirio, Radio 2 610. Saturnus. Sì, Saturnus, Saturnus. Un momento. Dal 19 settembre, 610, andremo dalle 5 del pomeriggio, dal lunedì al venerdì, sempre su Radio 2. 3, 1, 0. 610 non si limita a fare la radio, ma cerca di capire come la fanno le altre emittenti. Per capire meglio oggi abbiamo come ospite il professor Fabrizio... Disassi. Fabrizio Disassi. Disassi. Uno dei... Come inizi? Hai detto bene? Sì, con l'accento suonantene. Ah, con l'accento suonantene, infatti c'è l'accento suonantene, noi per questo pronunciamo male. Ok, Disassi. Lei è uno dei responsabili delle scelte cinematografiche di Radio Manelana, benvenuto a Radio 2. Grazie, sei rubida. È un piacere. Per noi, professore, come mai un'emittente radiofonica dà tanta importanza al cinema? Beh, è evidente. Le spalle della radio si avvicina molto all'interno del cinema. È evidente, infatti. E c'è qualche film in particolare che si avvicina in più al loro interno? Beh, il film San Vecrosi o quelli di Spent. Ecco, lei ha portato, per esempio, dei film che Radio Manelana propone al suo pubblico, vero? Sì, ha portato un trailer che proprio da Mezzo si è presotopo. Ah, presotopo. Lo vogliamo ascoltare? Spediamo d'Ortie. Come, scusi? Il film Spediamo d'Ortie. Spediamo d'Ortie, l'ho capito bene. Spediamo d'Ortie, sì. Sentiamo il trailer. Quando la città è abattata dal crimine, quando sembra che gli ori si maldi, c'è un uomo che stepre il livanda. Tarneman! Presto, Tarneman! I coplatori hanno un lato la banca federale. Non preoccupatevi, ho la rilsanquata. Azione, dipante, suspense, garione. Ehi, è una festa privata o siete in caldove? Tarneman! Hai finito di listà? Non credo. Dimentichi il mio potere di colbato. Ehi, guardate lassù, è un vale. No, è un niano. No, è Tarneman. Tarneman, nei C9. Beh, complimenti, professore. Non so, complimenti. Un trailer molto coinvolgente. Non è che si capisca un granché, però, insomma... È davvero suonarsi del cinema. Ah, già, per quello, infatti. Grazie, professore. Grazie alla demandana. Per i salti, per voi. Altrettanto, anche da parte nostra. Arrivederci. In coni. In coni, anche io. Sempre Greg e Lillo. Siamo giunti al momento di 6-1-0-issima. Ovvero, gli errori, il dietro le quinte di 610. Io e Greg facciamo spesso degli errori. Per fortuna abbiamo un regista che ci interrompe. E alcuni di questi, insomma, sono anche divertenti e piacevoli da ascoltare. Così come tanti altri programmi televisivi, tipo Paperissima e company, anche noi abbiamo la nostra rubrica di dietro le quinte. Sentiamo cos'è successo un certo giorno qui a 610. 6-1-0-issima. Gli errori di 610. Che c'è da ridere? Sì, partiamo. Io faccio... Allora, io partirei col sottofondo oppure io con la poesia? Con il sottofondo. Con il sottofondo. Parti col sottofondo e poi io. Vai. La notte è nera, come il manto di una nuova. Scusa, 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 stop, 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 scusa. Se suoni così forte non si sente assolutamente la poesia. Stai suonando fortissimo. Cioè, devi... Eh, 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 la... Eh, beh, sì, perché non si capisce niente. Vai, ripartiamo. Vai col sottofondo. Vai. La notte è nera, come il manto di una nuvola che passa la... Stop, stop. Eh, eh, scusa, Craig, cioè, eh... Eh, ho capito, eh. Non si capisce nulla. Cioè, stai suonando fortissimo. Cioè, stai suonando fortissimo. Cioè, stai suonando fortissimo. Cioè, stai suonando più lontano. Ho capito, più lontano. Sembra un pezzo di heavy metal. Eh, cioè, devi fare un sottofondo musicale, eh. Sembravano Ivan Allen. Cioè, una cosa un po' più... Eh, così va. Andava anche bene l'arpeggiato, però un po' meno... Meno... Meno forte. Vabbè, ho capito, dai. Eh, vabbè, vado. E... Partito. Parti, vai. Ok, buona. La notte è nera, come il manto di una nuvola che passa... Vabbè, senti, te faccio io da sottofondo a te. Facciamo così, vabbè. Io faccio... Io con la poesia faccio da sottofondo a... Io faccio da sottofondo a Greca che suona. Facciamo così, dai. Dai, ho capito, dai. No, eh, scusa. Riparti, per favore, Fabrizio. Partito, partito. Quando vuoi. La notte è nera, come il manto di una nuvola. Scusa, eh... Esiste la via di mezzo, eh. Non si deve sentire la chitarra, no? Ho capito, ma esiste la via di mezzo, cioè esiste. Vuoi dire, prima era altissima, adesso... È piano, è così. Non esiste piano. Cioè, mi devi dare il contentino, suona la chitarra, perché te puoi fare una cosa, puoi fare vedere che... Perché, allora, fai te da sottofondo con la voce, io ti ho chiesto di fare la sottofondo con la voce. Ah, tu suoni la chitarra, io ti faccio da sottofondo con la poesia. Ma tu non sei mai vista una cosa? Ma non è che non sei mai vista, infatti non dico di fare questo, ma dico che tutte e due dovrebbero sentirsi uguali. Eh, allora, regoliamoci con i volumi. Perché se no, se si sente di più la voce, chi ne sa uno di quello che sto facendo? Magari c'è qualcuno che è più interessato a sentire quello che faccio con la chitarra, piuttosto a sentire ducazzate di cose, di poesia. Ma chi gli frega la... Ma questa è una poesia importantissima di Walter Morini. Ho capito, sto dicendo la cosa a casa. Secondo poi, ma chi gli frega la gente è il sottofondo tuo. Ho capito, è la poesia più bella del mondo, va bene. Ecco. Però sottofondo mio c'è un sacco di gente a cui può essere... Allora scusate, partiamo da qua, scusa, vai, registra. Signore e signori, Greg è col suo sottofondo. No, allora facciamo quello con la poesia. Rescita la poesia. Rescita quanto vuoi? No, ma andiamo... Perché eri qui da solo, te leggi di 50 poesie, 60, tanto le leggi che te ci vuoi. Ciao, ciao, ciao. Corri in edicola e non ti far sfuggire il primo numero di Mi Zio. Mi Zio è la prima rivista specializzata sullo zio dell'editore. Tutto sul zio Gustavo, i suoi hobby, la sua alimentazione, la sua famiglia. Mi Zio è nel primo numero, a soli 2,50 euro, o sul Dato Innamorate, il disco preferito di zio Gustavo. Mi Zio, corri in edicola. Un'astronave aliena atterra su un orto, lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido e di netto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori, che lo rendono cento volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di... Normal Man. Normal Man in... La Coda. Roma, ore 10.30. Pier Maria Carletti alias Normal Man. È in coda all'ufficio postale per pagare la bolletta del gas. Davanti a lui ancora 11 persone. Santo cielo, ma è un'ora che sto qui dentro in coda. E questa è la fila peggiore. È un indecenso. Esce pure messo a piovere, guardi fuori. Ma dove? Pier Maria Carletti alias Normal Man. Si accorge che un signore è passato avanti alla vecchina. La mia Normal Vista mi dice che quel signore si è approfittato per la distrazione della vecchina per passare avanti. Non posso intervenire così senza compromettere la mia identità segreta. Devo trovare un posto dove cambiarmi. Pier Maria si allontana dalla fila e si dirige verso le toilette. Entra in capo a 6-7 minuti circa, si cambia in Normal Man. Torna di nuovo alla fila e trova il signore che sta per pagare la propria bolletta. Fermo, non tocca a lei, ma a questa vecchina a cui lei è passato avanti con l'inganno. Mi sembrava che fosse dietro a me, ma non ne ero sicura. Sa, sono anziana e... Glielo confermo io, nonnina. È vero, l'ho visto anch'io. Sì, sì, anch'io. Ma non me ne ero accorto, ma siete sicuri? Certo che sono sicuro, lei è passato avanti approfittando di una distrazione. Ma senz'altro non l'ho fatta apposta. Secondo me lei l'ha fatta apposta, per questa volta chiuderò un occhio. Ma se la becco di nuovo a farlo un mascalzone, non glielo toglierà nessuno. Scusatemi, scusate. Grazie, Normal Man. Paghi la sua bolletta in serenità e non mi ringrazi. È il mio dovere, sono un supereroe. Addio. Normal Man corre in bagno, si cambia e torna in fila. Ma ormai davanti a lui ci sono più di trenta persone. No, no. Mannaggia, dovrò stare ancora in fila per più di un'ora. A volte mi domando se fare il supereroe vale tutto questo. Ma no, ma che dico, sì che lo vale. Per quelli come questa vecchina. Per l'umanità intera. Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è Normal Man. E visto i successi di certe trasmissioni che elargiscono soldi ai telespettatori, anche noi in radio abbiamo deciso di elargire soldi, cioè di inventare un quiz, un gioco in cui le persone che chiamano, se riescono a indovinare un certo rumore misterioso, possono vincere tanti tanti soldi. Sì, poi non è la scoperta dell'acqua calda, insomma, perché è stato fatto anche più volte in radio, però è da molto che non si ripeteva, quindi abbiamo deciso... Però tanti, noi diamo tanti proprio, abbiamo deciso di dare 100.000 euro al rumore. 100.000 euro. 100.000 euro, quindi insomma voglio dire... Perché comunque è un rumore, non è dei più facili. No, non è facilissimo, appunto. Esattamente questo primo. Però sono anche 100.000 euro, quindi... Quindi sentiamo subito che c'è a linea e siamo pronti a partire con il rumore misterioso. Mysterious noise. Noise. Perfetto, sentiamo chi c'è a linea, pronto? Pronto? Pronto, sì. Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lei, la signora? E Romeo, Giulietta. Giulietta e Romeo. La signora Giulietta e Romeo. Giulietta e Romeo. Giulietta come... Sì, come Giulietta Massin, l'attrice famosa. No, dicevamo Giulietta e Romeo come... Come mia nonna, bravo, sì, perché sono anziana e prima ci faceva così, si metteva il nome al primato. Sì, va bene. Sì, va bene, intendevamo un'altra cosa. Sì, va bene. Signora e Romeo. E Romeo, sì. Allora, è pronta a indovinare? Ci sono centomila l'euri in patio, eh? Eh, mi servirebbe. Noi ci proviamo, eh? Sì. Allora. Facciamo il rumore. Allora? Allora. Eh, difficile. Eh, lo so. Non si può risentire un'altra volta. Sì, lo facciamo risentire, eh? Allora, io provo. Prego, prego. Provo, eh? Allora, secondo me, beh, una penna Biro Executive dovrebbe essere la marca battuta su un microfono, se non erro corde K803. Pronto? Eh, sì. Ho sbagliato, vero? No. Allora, io ero sicura tra il microfono corde 803 e 802. No, no, no. E invece era giusto. Tore in teoria avrebbe vinto. Lei ha vinto. Arrivederci, grazie. Cento mila euro. Cento mila euro. Corri in edicola e non ti far sfuggire il primo numero di Sole. Potrai collezionare le Sole di tutto il mondo. Nel primo numero, a soli 40 euro, una busta vuota. Diventa anche tu un collezionista di Sole. Sole. Eccoci qua, Greg e Lillo. Siamo giunti al collegamento con Stefano Frosi, il nostro collegofilo che ci illustra tutte le varie sagre e feste di paese di tutta la nostra beniamata Italia. Bene, oggi Stefano si collega con noi da Valle HP in provincia di Sostrane. Valle HP. Stefano, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Simpaticamente vi saluto. Ciao. Come va la festa? Benissimo, voglio parlarvi di questa festa che risale grossomodo al 1320, diciamo. Piero Medioevo. Piero Medioevo. Beh, insomma, Alto Medioevo. Alto Medioevo. Sì, sì. Anche se durante il Medioevo erano abbastanza bassi, ma in ogni caso, anche adesso sono bassetti, ma il nome della festa è fondamentale. Si chiama la festa dei Ceri. La festa dei Ceri, quindi una festa dove vengono accessi dei Ceri? No, 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 no. Sostanzialmente è una festa composita, anche se non ho la più pallida idea di che cosa significhi composito. Diciamo che consiste in questo. Tutto il paese, sono mille abitanti, si vede il martedì sera in piazza. Forse è basso Medioevo. Forse. Eh sì, perché sono bassi, l'ho detto simpaticamente. Allora, si vedono il martedì sera. Sì. E fanno due chiacchiere, così, in piazza, dicendo amenità, cose tranquille. Sì. La domenica successiva al martedì si rivede tutto il paese in piazza e si chiedono Ceri. Ah, ho capito, quindi la festa dei Ceri, Ceri inteso come verbo, insomma. Sì, praticamente è sottinteso martedì, Ceri, Ceri, martedì, Ceri e loro rispondono sì. A quel punto la festa è finita. Ah, ho capito. È una festa breve. E fanno questa cosa come tradizione simpaticamente. Quindi la festa dei Ceri nel senso che si incontrano tutti quanti e si chiedono Ceri, io Cero, tu Ceri, io non Cero. Ah, ho capito, sì sì. Esattamente, si poteva chiamare la festa martedì sera Ceri in piazza, pure tu. Ecco, però è lungo come nome di una festa, no? Sarebbe pure tedioso come nome tedioso. No, è un po', ecco, simpaticamente. E adesso simpaticamente mi avvicino e vi faccio sentire. Ecco, ecco, sta arrivando tutto il paese. Ecco. Sentite un po'. Ceri? Ah, vedi? Cero, 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 e tu Ceri? Ah, ecco, sì sì. Cero, Cine. Ceri tu? Cine. Tu Ceri? Sì, sì, beh, è una cosa particolare. È un attitubato un attimo, però c'era, sì. Sto dovendo chiederlo anche a me. Tu Ceri? Cine. Ah, beh. Eh, perché c'era, eh. Certo, c'era, c'era. Beh, grazie, facciamo una bella festa, sì. Comunque è sicuro, è sicuro, sì, 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 è basso e medioevo. Basso e medioevo, va bene. Basso e medioevo, sì, quello più vicino alla scoperta dell'America, sì, sì, è sicuro. Saluto tutto il pubblico comodamente seduto a casa propria, oppure scomodamente in piedi, non lo so, tanti saluti a tutti. Grazie, ciao Stefano, grazie. 610 trailer 610 prima. Bepi e Tonia sono due anziani coniugi di Campo Nogaro. Ormai soli decidono di acquistare un cane. Chi dici, Tonia? Compriamo sto can, ti piace? Sei un rottweiler. Ce ti devo dir, Bepi? Speriamo sia un buon can. In effetti il cucciolo si dimostra subito irrequieto e distruttivo. Bepi, sto can che sta cominando un disastro dopo l'altro. Garotto la brocca de cristallo, il vaso de porcelana e lo specchio del salon. Gasca a casa per tutto il tappeto. E ora sta a morde tutto il divano. Fermete, Dio Bono, fermete, can. Fermete, boia dun can. E ora, dove si è caccià? Si è nascosto, mica scemo il poareto. Oh no, il servizio bono, santo can! Santo can, nei cinema. Santo can, santo can, giallo il sole la forza mi dà. Santo can, santo can, con le forze ogni giorno, ogni notte il coraggio verrà. Corri in edicola e non ti fare sfuggire il primo numero di fregni buffi. Potrai collezionare i fregni buffi di tutto il mondo. Nel primo numero, a soli due euro, un fregno buffo cinese dell'epoca Ming. Fregni buffi. Chi segue la nostra trasmissione, se è uno zero da un po' di tempo, avrà avuto modo di conoscere Valentina Paoletti, che è la nostra inviata per gli Extreme Collegaments. Esatto, i collegamenti estremi di Valentina Paoletti che si sono esauriti per ora, anche perché Valentina è un po' stanca. Un po' stanca, ne ha subite molte di fatiche e giustamente vuole un po' riposarsi. Ha deciso di ritirarsi per un pochino, di riposarsi proprio nella propria abitazione. E infatti ha inventato una nuova rubrica che a noi è piaciuta, che si chiama proprio A casa di Valentina. Sì, una rubrica in cui lei invita, che sono raggi famosissimi, e li invita proprio a casa sua. Dovrebbe essere questo collegamento con Umberto Eco, addirittura che è andato appunto a casa di Valentina. Sentiamo Valentina Paoletti, sei in linea. Pronto Valentina? Pronto Lillo, buongiorno anche a Greg. Buongiorno Valentina. E sono qui appunto nel mio umile appartamento con Umberto Eco. Sono molto emozionata. Carissimo scrittore, semiologo, glottologo. Beh, ovviamente. Persona di una cultura elevatissima. Esatto, Umberto Eco. Come l'hai ospitato? Cosa gli ha offerto? Lui che prende? Tè, caffè? Ecco, lui mi ha detto che voleva un po' di tè. Allora io sono andata in cucina, ho fatto il tè, però mentre lo portavo appunto in cameretta mia mi si è rovesciato. Ne hai fatto altro Valentina? Eh no, perché avevo stato quella bustina lì, per cui ho offerto un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua, vabbè, Umberto Eco un bicchiere d'acqua. Va bene, ok. Sentiamo, parti pure con la tua intervista Valentina. Sì. Professore Umberto Eco, cosa pensa lei degli italiani? Negli ultimi tempi gli italiani hanno abbandonato un poco quello che è una loro caratteristica fondamentale che è l'autolesionismo, cioè l'italiano che va a un aeroporto italiano non lo trova qui, se poi mi viene a dire che queste cose succedono solo da noi. Valentina? Sì. Ma chi è questo tormento sotto mentre parla Umberto Eco? Cos'è? È mio fratello Fabrizio che è da qualche mese che prende lezioni di chitarra e dunque quando viene a casa deve fare gli esercizi. Eh, ma non è questo il momento, Valentina? Eh, lo so ragazzi, però io divido la camera con mio fratello, sostanzialmente anche lui mi viene sui spazi e lui deve fare gli esercizi di chitarra. Ma non si può fermare cinque minuti il tempo di finire l'intervista con Umberto Eco, scusa? Eh, no, è un po' prepotente, no, no. Ma poi, no, cioè sei tu Umberto Eco e tuo fratello con la chitarra lì? Sì, ma vabbè, di là c'è mia mamma. Ma vabbè, ma ho capito, però non si può, proviamo ad andare avanti, vediamo un po'. Allora, dicevamo, c'è qualcosa secondo lei che possa riportare il nostro paese sulla crescita dell'onda? E sappiamo tutti quali sono gli eventi che hanno... Valentina, è impossibile. Non si sente più a po' di tale, a po' di male, invece di Umberto Eco, scusa. Eh, vabbè, ho capito ragazzi, ma io non posso far nulla. E poi, tra l'altro, ma suona malissimo la chitarra. Eh, vabbè, ma questo va a lezione. Eh, vabbè, tu ti fai indire. Ma andassi a lezione, andassi. Eh, ma andassi a... Scusa, ma se non fai gli esercizi come fa a migliorare? Poi mi dite anche di doverlo farlo smettere. Eh, ma non ho capito, ma non c'è, ma non... Andassi... Eh, vabbè, lasciamo stare, a questo punto salutiamo Valentina. Non si può fare il collegamento. Eh, vabbè, allora ciao. Mi dispiace per Umberto Eco. Eh, no, se è offesa. Eh, se è offesa lei, se andiamo avanti, va. Scatta l'offerta continua dell'operazione Alza Prezzo di Cablofon Squid. Meno di un minuto di chiamate dall'estero, 135 euro di scatto da risposta, scheda smagnetizzabile, 8 ore fissa al giorno di collegamento ad internet al costo di una crociera e con 16 euro in più al secondo puoi ricevere SMS anche da chi non conosci. Un'estate così è solo Cablofon Squid. Questo è il ballo dell'estate. Eh, Greg? Sì. Non ho capito benissimo l'offerta di questo... Cablofon Squid? Eh, sì, come funziona, cos'è la cosa... Che il... No, per capire se è vantaggioso. Sì, sì, perché hai meno di un minuto di chiamate dall'estero. Che vuol dire? Tu hai qualche parente o amice all'estero. Eh, quando chiamo ho meno di un minuto. No, le chiamate dall'estero. Cioè loro, globalmente, possono chiamarti per un totale di un minuto. E questo è nell'arco di un giorno, di un anno? Un anno, sì. Cioè io ho con questa offerta o possono chiamarmi... Cioè posso ricevere il telefono all'estero, però devono durare... Il totale di un minuto. Il totale di un minuto e poi appunto gestisci, magari c'è qualcuno che vuoi più sentire, fai parlare 30 secondi, un altro 5, però te la puoi gestire, insomma. E' un vantaggio, non ho capito? Beh, che ha 135 euro di scattola di risposta. Cioè ogni volta che chiamano sono 135 euro. Ah, perché pago io? Sì, quindi hai un minuto, se fossi più pagheresti tanto, invece con un minuto c'è solamente... C'è solo 125 euro, cioè se erano 10 minuti pagavo 1300 euro, insomma... Sì, quello diventa a scatto. Poi la scheda è smagnetizzabile. Ah, sì. Cioè è una scheda che si smagnetizza? Si smagnetizza, sì. Smanetizza anche, perché normalmente si smagnetizzano se metti su delle fonti... Questa è smagnetizzata da sola. Da sola, sì. Poi c'hai 8 ore fissa al giorno di collegamento ad internet, al costo di una crociera. Cioè, te 8 ore anche se non ti colleghi? Ah, quindi spendo quello che spenderei con una crociera, insomma... Con una crociera, sì. E invece le spendi queste 8 ore fissa al giorno di... Una crociera può costare anche 5.000 euro, una cosa... Sì, poi dipende dove vai. Ah, certo. Diciamo un prezzo base di crociera. Sì. E con soli 16 euro in più al secondo per ricevere sms anche da chi non conosci. Che vuol dire? Cioè, che mi arrivano sms a caso. Perché normalmente te ricevi sms da chi conosce il tuo numero, quindi sono amici, conoscenti, colleghi di lavoro. Invece in questo caso ti arrivano anche da... Da chi non conosco, insomma. Sì, da gente sconosciuta. Pagando? Pagando, cioè 16 euro al secondo. Ah, vabbè, insomma... No, vabbè, sono nuove cose... Sì, che poi te ne possono arrivare in quantità, perché comunque non è che uno le manda direttamente il tuo numero, li smista direttamente Capo Fonsquid. Sì, ma arrivano così, insomma... Posso arrivare a 100, 200 al giorno. Al giorno, quindi io sto sempre lì al cellulare e leggo sti messaggi, anche tutto il giorno non so, posso leggere i messaggi. Vabbè, andiamo avanti, siamo al zero. Radio 2, Greg e Lilla. Ciao Carlo. Ciao Fabiano, scusa, finisco la telefonata. Ti dicevo, cara, che stasera non posso proprio tornare a casa. Mi dispiace proprio tanto, amore, ma il capo ufficio ha cercato di violentare la segretaria. E allora noi ora stiamo manifestando perché venga recensato il capo ufficio. No, cara, non sono un eroe, faccio solo ciò che ritengo giusto. A domani, cara, ciao. Ma davvero, Carlo? Il tuo capo ufficio ha cercato di violentare la segretaria. Ma che Fabiano, è una cavolata. Una scusa che ho messo a mia moglie, così stasera non torno da lei e vado a donnacce. Fantastico, sembrava vero. Certo, sembrava vero perché l'ho imparato su scuse. Scusi? Sì, scuse, il primo settimanale interamente dedicato alla menzogna, per non trovarsi più a dire scuse banali di inverosimili. Scusi, in questo numero. Cara, non è come sembra, le dieci migliori scuse da dire a vostra moglie quando vi becca in flagrante. Scusi, prof, imparate a riconoscere l'insegnante che se la beve di più. Tutti i trucchi sulle espressioni più convincenti. La menzogna è sempre a fin di bene? Con il primo numero a soli 2,50 euro e regalo un sacchetto di fuligine per sporcarvi le mani e sostenere che avete avuto noia al motorino. Oh Carlo, sei sempre il solito mattacchione. Andiamo, vieni, ti offro una tiziana di cardamomo a casa mia mentre ascoltiamo un disco di Canti Nomadi della Papo Asia. Cattina, ma certo, certo, d'accordo, andiamo, andiamo. Che c'è Carlo? Il cuore fa piano, ho un infarto. Oddio Carlo, Carlo, aiuto, c'è un dottore, aiuto, c'è un dottore, aiuto. Sei andato? Va bene, meglio che me ne scappo pure io. Te e i gatti romadi alla Papo Asia. Greg e lì, le microfone di Radio 2 per 610. Siamo qui con Massimo Bagnato, anche oggi ospite qui da noi. Siamo sempre molto felici di averlo perché lo rappresentiamo, un artista che fa parte della scuderia di 610. Oggi investe, siccome un artista multimediale, di opinionista. Sì, di opinionista, approfitto, colgo la palla al balzo per ringraziare tutti quelli che nell'elenco telefonico sono alla lettera B. Grazie. Che mi hanno dato grandi soddisfazioni. Grazie a tutti. Grazie anche a noi. Grazie anche a tutti. Bene, io come opinionista vorrei proporre dei colmi. Voi mi date una figura professionale, un mestiere, e io vi dirò il colmo corrispondente a questa figura professionale. Ah, sì. E poi ci vediamo i livelli. Improvvisati. 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 Allora, che ne so, il colmo di un elettricista. Colmo di un elettricista. Allora, questo elettricista si trova per strada, vede una situazione insolita e dice, oh, questo è proprio il colmo. Ah. Il colmo per lui. È un colmo per tutto. Allora, seconda figura professionale potrebbe essere un pasticcere. Il colmo per un pasticcere. Potrebbe trovarsi all'estero con la propria famiglia, vedere un camion di pompieri e vedere un pompiere che scende, che accende una sigaretta e con l'accendino si brucia. Quindi, questo è proprio il colmo. Il colmo che un pompiere si brucia. Il pasticcere, questo è il colmo. Certo. Il colmo per un meccanico. Ah, beh, per un meccanico è la situazione tipica. Il meccanico che si trova in vacanza con la propria famiglia, vede a largo il bagnino con il moscone, dopo aver remato, è colto da crampi, cade in acqua e chiede aiuto. Quindi il bagnino che chiede aiuto è proprio il colmo. Il meccanico dice questo è il colmo. Grazie, grazie a Massimo Bagnato. Andiamo avanti, Greg Lillo, l'ora di due sei uno zero. Grazie. Un'astronave aliena a terra su un orto, lasciando tracce di texilonio a un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido e di netto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori, che lo rendono cento volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di... Normalman! Normalman in... Il dispetto! Pier Maria Carletti alias Normalman incontra sul pianerottolo della sua abitazione è la Sora Nanda, sua vicina di casa. No! Anche oggi! Ma se becchi chi è stato! Cosa succede, Sora Nanda? Signor Carletti, guardi i tappetini del mio uscio. Tutto sporco di pipì. Sarà stato un caso, magari qualche gatto si è intrufolato nel palazzo. Ma è la terza volta che succede. È sempre sul mio tappetino. Non so che dirle, Sora Nanda. Ora la devo salutare. Pier Maria Carletti entra nel suo appartamento. Il mio normalistinto mi dice che si tratta di un dispetto. Questo è un lavoro per Normalman. Quella notte stessa Pier Maria Carletti si cambia e diventa Normalman. Esce dal suo appartamento e si acquatta nel buio della tromba delle scale non perdendo mai di vista l'uscio di casa della Sora Nanda quando ad un tratto... Dai, Docs, falla ora. Cosa sta facendo, signora Petrocchi? È che io veramente... L'ho beccata in flagrante. È lei che fa sporcare dal suo cane il tappetino della Sora Nanda. Che succede qui? Ho trovato il colpevole della pipì sul suo tappetino, Sora Nanda. Signora Petrocchi? Ebbene sì, è una vendita per la faccenda dell'abatoio. Queste cose vanno risolte alle riunioni di condominio, non in questo modo. Scusate, sono vendita. Se ne vada ora e non lo faccia più. Per favore, non dite niente all'amministratore. Va bene, ora vada. Grazie, grazie. Scusi, Sora Nanda. Ringrazio Normalman. Io l'avrei detto all'amministratore. Grazie Normalman. Non mi ringrazio. Addio. Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è Normalman. Corri in edicola e non ti far fuggire il primo numero di multe. Potrai collezionare le multe di tutto il mondo e per qualsiasi tipo di infrazione. Nel primo numero, a soli 2 euro, una multa vera se lasci la macchina in doppia fila davanti all'edicola. Multe. Greg e lì, l'agenzia 610. 610, sì. Abbiamo un personaggio da farvi ascoltare. Sicuramente è un cantante molto molto originale. Dobbiamo decidere ancora se prenderlo in agenzia o meno perché è veramente un po' particolare quello che fa. Sì, trattare di tematiche un po' toste, sì. Magari proprio per questo, essendo molto controcorrente, potrebbe essere... Parecchio controcorrente. Sì, parecchio controcorrente, potrebbe essere invece una ghiotta preda per le trasmissioni di vari talk show, oppure le trasmissioni anche di carattere un po' familiare della domenica. Sì, certo. Io intanto lo farei entrare. Hitler Tony. Ciao a tutti. Il tuo nome è Hitler Tony. Hitler Tony. Hitler Tony, bene. Cioè è un pseudonimo che io ho adottato perché mi è venuto in sogno qualche anno fa il Führer. Ah. E allora io ci ho veduto in questo un segnale. Ah, ho capito. Vedo che hai un abbigliamento appunto con le frange, però hai anche degli elementi svastiche, vedo, cosa insomma... Sì, ho delle svastiche di paillette. Eh. Mi piace portarle proprio per simboleggiare questa mia appartenenza a una certa ideologia. Ah, ho capito. Mi piace portare poi il ciuffo con i basettoni e i baffetti... Alla Hitler Tony appunto, quindi Hitler Tony. Bene, io direi di far ascoltare immediatamente al nostro pubblico la tua canzone che si intitola... Un cuore ariano. Un cuore ariano, bene. Ascoltiamo. Un cuore ariano batte nel mio petto E tutti quelli del glorioso Reich. Se non sei ariano, non uscirai dal ghetto. Se non sei puro, si tu la pagherai. Griderà, griderà, griderà. La razza inferiore e poi... Heilmenfuhrer Heil, Heilmenfuhrer Heil, finché il mondo sarà per noi. Questo è un accenno che fa la canzone continua. Bel pezzo, c'è anche un bel tiro. Ho fatto un balletto poi dietro che fanno le mie itlerette. Ah, bene. Passo dell'Oca. Passo dell'Oca. Ah, bello. Sì, sì. E niente, che dire. Sì, sei interessante come artista, però non so, ci dobbiamo un po' pensare. Magari ci pensiamo un po' con Greg e poi ti facciamo sapere. Io so che possono disturbare certe mie tematiche. No, 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 perché? E però sposano un'ideologia ben precisa, in cui io ho creduto fin dall'inizio. Sì, ho capito. Sono tematiche che possono far saltare le concezioni, fino adesso, seguite dalla gente. Sì, no, è che... Scardinano il sistema. E che è un'ideologia un po' sorpassata. Allora, anche se è molto originale... Ma può ritornare. Io ci credo molto. Ci ho creduto dall'inizio, continuo a crederci. Perché la razza ariana può tornare. Va bene, complimenti, grazie. E la musica può far molto per questo. Bene, noi ringraziamo Hitler Tony. Grazie, un abbraccio da Greg e Lillo e le faremo sapere. Saluti! Salve. 610 trailer 610 prima. Esposito di Capo è un pensionato di Posillipo. Poche gioie sono rimaste. Il gatto, una figlia che vive in Austria, e il suo amico Fefe di Gennaro. Fefe, ci venite oggi pomeriggi da me a bere una buona tazza e caffè? E come va sempre, spositello mio, come va sempre. Una tazza delle caffè non ce la si può negare. Ma il destino a volte sa essere beffardo e può complicare le vite delle persone. Esposito carissimo, ecco me che ha po' caffè. Fefe, mio bello, devo darvi una ferale notizia. Dito, esposito carissimo, dito, stongo sulle spine. Non ve la prendete a male, ma oggi ho caffè. Non lo posso fare. San Giorgia Cremano e Benedetto, e perché? Avete presente a Manuella tuo macinino del caffè? E? E quello si è rotto, e io non posso macinare un caffè. Ma esposito carissimo, a Manuella si può accattare nuove. E come, come? Non conosco a nessuno. Che ore sono? Le 16 e 31. Esposito carissimo, si mette in due e tre vacche. Alle 16 e 45 punte è stata spaccata, passa sempre quello vendito un'ambulante. C'è quello che vende coltelli, forchette, tricchettrack, bombolette di gas e putipù. Proprio ai, e vende pure quello che fa per voi. Dite che mi posso accattare una Manuella nuova nuova. Ci potete giurare. Infatti, alle 16 e 45, il venditore ambulante inizia a far riecheggiare la sua voce per i vicoli di Positipo. Sono da arrivare, signori, signori, accattatevi il quartiere, accattatevi le forchette, accattatevi le bombolette. Ma voi siete sicuri, Fefe? Aspettate. Accattatevi, Emanuella. Emanuella, nei cinema. Da oggi in edicola potrai trovare pane prosciutto. Pane prosciutto è il primo settimanale specializzato per gli amanti del pane prosciutto. Nel primo numero, è meglio la ciriola o il pane casareccio? Valentino Rossi ci racconta del suo primo panino al prosciutto. Prosciutto tagliato a mano o con l'affettatrice? Corri in edicola e diventa anche tu appassionato di pane prosciutto. Greg e l'illugenzia 610. Sono aperti i nostri provini? Sono aperti, li abbiamo già fatti. Abbiamo fatto tantissimi provini, abbiamo scelto tante speaker, attrici brave, devo dire. Però qualcuna di loro aveva dei difetti. Difetti di pronuncia, però difetti risolvibili. Questo è importante da dire. Eh sì, infatti, perché il nostro staff, che poi noi abbiamo scherzosamente definito il dentone, Guglielmo il dentone, lo staff di Guglielmo il dentone, come il famoso film di Alberto Sordi dei difetti. Sì, sì, complessi, come no. Vi faremo sentire subito un provino, un provino fatto a due amiche, Carla e Alessandra, molto brave. Che a me sono piaciute molto, però con dei gravi difetti. Con dei gravi difetti. Ascoltiamo il provino. Salve, salve a tutti, io sono Carla e vorrei far parte del vostro staff come speaker. Eh sì, però appunto noi notiamo che tu hai questo un po' di fetta da essere un po' similante. Si sente molto? Eh, insomma, direi che a volte fischi, a volte no, però insomma è una essere. E invece Alessandra? Io, mi chiamo Alessandra, vengo da Milano, ho un po' di problemi perché ho la voce culturale, ho la feppola in alcune parole, poi ho la voce nasale e non si capisce molto quando parlo. Eh, questo potrebbe essere molto inficiante, insomma, per una sigla o per un'attrice. Mi potete prendere allora. No, perché sei molto brava. Sei molto brava, è un guizzo, quella verve che senz'altro serve a noi e alla nostra agenzia. Vi abbiamo scelte e abbiamo una soluzione per voi, perché vi mandiamo al nostro staff di Guglielmo Il Dentone e che lavorerà per voi? Basterà un mese e voi avrete risolto il vostro problema. Un serio? Certo. Ok, va bene. Allora, a fra un mese. Ciao. 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 Ecco, adesso è passato un mese e le abbiamo qui in studio. Facciamolo entrare. Ciao. Alessandra e Carla, ciao. Ecco, di bel nuovo tra noi. Carla e Alessandra, come va? Carla. Beh, grazie a voi e all'equip da cui mi avete mandato. Ora non ho più il problema imbarazzante che mi faceva vergognare ogni volta che aprivo la bocca. Quindi Carla ora non ha più la S similante? No, 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 no. Un momento, ce l'ho, ce l'ho ancora. Come hai detto che non hai più il problema? Perché ora non pronuncio più la lettera numero 19 dell'alfabeto. La S? Bravi, proprio quella. Ed ora veramente parlo a ruota libera, come ho imparato dall'equip che lavora per voi. Quindi hai imparato a evitare la S più che altro. Vabbè, però non è il modo, scusa, non si sembra il modo verato. Scusa, tu Alessandra? Eh? Dico, anche tu eviti pronunciare le lettere che... Uh-uh. No, dico, come hai risolto il problema dei tanti difetti di pronuncia che avevi? Uh-uh. Scusa, ce lo puoi dire? Ah. Cioè, l'hai risolto evitando... Uh-uh. Vabbè, grazie a questo punto, Greg e Lillo, ci sentiamo dopo, intanto facciamo due chiacchiere con queste due ragazze, non in privato. Grazie, grazie a dopo. Radio 2, Greg e Lillo, 610, eccoci qui pronti ad affrontare il tema più, diciamo, alla moda. Sempre tutto minusco e tutto attaccato. Sempre tutto attaccato, che è quello dell'astrologia, che va sempre forte, un po' come la cucina e la tv in questo periodo, anche l'astrologia va forte, ma è sempre andata forte l'astrologia. E abbiamo qui ospite un nostro astrologo, nostro in quanto rappresentato dalla nostra agenzia di spettacolo, che è 610, appunto, facciavano entrare Saturnus, eccolo qui. Buongiorno, che Saturnus sia con voi. Eh, Saturnus, è che questo astrologo di grandi qualità... Di chiara fama. Di chiara fama, sì, eccolo qui. Allora, Saturnus, noi dobbiamo leggerti alcune lettere, ci sono pervenute lettere che riguardano te, perché insomma ci chiedono... Ah, questo mi rende proprio pieno di orgoglio. Orgoglio. Scrivono direttamente a te, e io ti rego la prima, che è di Andrea Celidoni, che ci scrive da Ancona. Ancona, sì. E ci dice, ho letto sull'oroscopo di un quotidiano che nei primi mesi del 2005 gli arieti attraversano un periodo di sfortuna. Ah. Poiché sono un ariete, vorrei sapere cosa significa. Ecco, noi rivolgiamo la domanda a lei, Saturnus. Cosa significa esattamente sfortuna? Sfortuna. Eh, sfortuna è proprio un momento di, come possiamo dire, è proprio l'aiella, la sfortuna, come si può dire? C'è il contrario della fortuna. Cioè, o uno gli capita una cosa che dice, mannaggia che sfortuna che mi è capitata questa cosa. Sì, Saturnus. Cioè, per esempio, facciamo un esempio, che uno, che ne so, in giamba, in giamba si sfragna il ginocchio e non può camminare, magari doveva fare, dice, devo partecipare a una corsa, proprio quel giorno si sfragna il ginocchio e oppure si prende una storta. Eh. E quindi non può, o che non te ne accorgi, sbatti la testa, ma può essere anche una cosa invece, no, ti fa male, proprio che ti portano via la macchina, c'è un appuntamento e scendi e non trovi la macchina, o non ti passa l'autobus. Sì, ho capito. E' una sfortuna quella, Saturnus, per carità, lui, Andrea Celidoni, chiedeva invece la sfortuna riguardo alla riete. La sfortuna per la riete? Per la riete, sì. E' una sfortuna per la riete, già il fatto stesso che si azzoppa, si azzoppa una riete, non può più correre, non può più scappare, se c'è un predatore, non sa più come fuggire perché si è azzoppato. Sì, scusa. O può essere, che ne so, gli cascano dentro e non può ruminare. Ma anche può essere, per esempio, vero e assurdo che c'è questo ingacciatore, ingaccia dei cervi, vede un rumore, un gespuglio si muove, spara e ti ammazza la riete, che invece non lo deve ammazzare. Vabbè, grazie, sfortuna, grazie Saturnus, andiamo avanti. Che la radio sia con voi e sia con noi, come sempre, la radio è importante, noi abbiamo deciso di ascoltare, di essere attenti, vigili, anche al... In senso buono, vigili. No, vigili, no, no, quelli che fanno multe, dicevo, vigili, attenti alle altre radio perché sono importanti e bisogna imparare dagli altri, anche diciamolo. Noi forse siamo il miglior programma radiofonico del mondo, però nonostante ciò bisogna... Bisogna imparare dai propri difetti, ma non avendoci. Non avendoci, li cerchiamo nelle altre radio. Nelle altre radio, ecco, grosso modo succede questo. Ed è per questo che abbiamo deciso di collegarci ogni tanto con altre radio, come Radio Mazzana. Radio Mazzana è una nuova radio, abbiamo qua il direttore artistico, che è Patrizio... L'Ani. L'Ani, Patrizio L'Ani. Ciao, che ne stiamo intenti. Salutato, intenti. Allora, Radio Mazzana è una radio anche coraggiosa, per certi aspetti. E, ai Montalo. Eh, certo, no. Perché è il coraggio di denunciare certi fatti sociali e politici che magari altre radio o altri network non hanno il coraggio di fare, no? Principalmente, più che coraggio, è un'assunta di valore. Un'assunta di valore. Sì, perché noi abbiamo anche comunque la capacità di rinventare degli argomenti che molto spesso, purtroppo, devo dire purtroppo, vengono incari. Vengono incari. Sì, è un po' una olda, una olda, una olda, che è un po' il problema di tutte le radio, le olde. No, 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 più delle radio che trattano i vincchi. Eh, che vincchi, infatti immaginavo. Allora, colleghiamoci con Radio Mazzana per sentire cosa sta trasmettendo in questo momento. E' sempre in dana. E' sempre in dana a tutti. E siamo arrivati alle cintopatto euro per il nostro quiz. Vediamo ancora una volta il moreno misterioso. Allora, avete ripeto a cosa risporta questo moreno? Sentiamo se c'è una perebonata in linea. Ronche! Valle! Ciao, chi sei da Nottevidiari? Eh, sono Planima e ti aro da Vespice. Allora, Planima, hai capito a cosa risporta questo moreno? Eh, mi dovete dare un aiupito? Eh, un aiupito, un aiupito. Diciamo che è un moreno di riassiaconda per mate. Mm, mm, mm. Eh, vabbè, io mi gullo, eh. È una ronte? Ai, 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 no! No, non è una ronte, Planima. Anche se ci sei va da soldo marite. Ma non interla. È un voli, è solo un voli. Soltano. Crediamo, Planima, alla prossima puntata di Calcio al Moreno Misterioso. Ascolta Radio Manana, la radio che ti fa Mesteni. Non perdere più tempo a sognare. Sogni è il tempo perso da ora con la macelleria dei fratelli Garrone. La prima macelleria interamente attivabile dal tuo decoder personale. Siti interattivi, tagli personalizzati, carni digitali e tutta la comodità del mega filetto scaricabile sul tuo telefonino preferito. Trenta ore settimanali di costate lombate in MP3 da attivare gratis con uno squillo a partire dal 2008. Macelleria dei fratelli Garrone. La trovi su internet cliccando su Windows in FastWap. Questo è il ballo delle strade. Scusi? Dici a me? Sì, a lei. Che cosa fa alle 5 del pomeriggio dal lunedì al venerdì? Ma in questo periodo, non so, dal 19 settembre ascolto 610. 610 con Lillo e Greg? Sì. Aspetti che me lo appunto. Dal 19 settembre 610, vai non dalle 17, dal lunedì al venerdì, sempre su Radio 2? Sempre su Radio 2. E continua la nostra rubrica 610, che non è proprio una rubrica, in realtà è uno scopiazzare paperissima, nel senso che ci siamo accorti che gli errori e gli sbagli fatti durante la registrazione di vari programmi televisivi o radiofonici fanno audience, fanno ascolto e fanno divertire. Ci siamo anche accorti che scopiazzare è una gran moda, specialmente in tv, che si scopiazza un programma, scopiazza mille altri. Mille altri, infatti. Comunque in ogni caso scopiazziamo anche noi e in questo caso scopiazziamo paperissima, quindi vi propiniamo alcuni errori divertenti, insomma divertenti da ascoltare, che ci sono capitati a me e Greg durante le registrazioni di 610. Sentite cosa c'è successo il 7 aprile. 610. Gli errori di 610. Che c'è da ridere? Greg ci siamo, eh? Fabrizio tutto a posto per la registrazione? Sì tutto a posto, è pronto e partito quando volete. Possiamo andare? Ok. Quando volete è partito. Greg si è pronto, andiamo? Sì. Ok vai. Buongiorno a tutti! Ciao a tutti Greg Lillo, 610. Stop, 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 dai rifacciamo. Abbiamo capito che... No perché pensavo di cominciare io, mi pare... Ci eravamo messi d'accordo così mi pare. Sì ma può essere. Va bene, va bene, comunque a posto. Sì sì, vuoi fare te? No, 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 cominciate a te poi. Ok, ok, ok. Cominciate a te poi, ok. Partito, andate. E allora? Eh, iniziavi. Eh no, t'ho detto che ti facevo iniziare a te. No, io ho capito che appunto che volevi iniziare a te adesso. No, per me è uguale, non c'è problema. Non mi cambia niente io. Non mi cambia niente. Non è che a me. Figurati. Se vuoi faccio io, se no te. Ma fai te tranquillamente. Anche te, non è che... Ok, va bene. Allora rifacciamo, partito. Buongiorno a tutti, Greg Lillo. Stop, rifacciamo. Greg, allora facciamo una cosa, decidiamo. Ma ho capito, Lillo, non è assolutamente un problema. Se lo vuoi fare te. Adesso mi sembrava di capire che dovessi fare io. Ma diciamo, io sto zitto e lo fai te, va bene? Ma è uguale, per me posso pure stare zitto e lo fai te, è uguale. Ok, dai, ok, sto zitto e lo fai te. Ok, sto zitto e lo fai te, dai, dai. Attenzione, via. Vabbè, ok, lasciamo stare. Scusa, ho detto sto zitto e lo fai te. Ho detto sto zitto e lo fai te. Noi ci prendo un caffè, va, che meglio. Un'astronave aliena a terra su un orto, lasciando tracce di texilonio a un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido e di netto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori, che lo rendono cento volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di... Normalman! Normalman in Il Cane Roma, ore 19 e 30. Pier Maria Carletti passeggia tranquillamente per le strade vicino a casa sua, quando si imbatte in una scena inquietante. Signora, è in contravvenzione. Il suo cane ha sporcato il marciapiede e lei non è provvista dell'apposita attrezzatura. Sia buona, signor vigilante. Ho finito i sacchetti e i negozi sono già chiusi. Domani mattina pulisco. Non se ne parla. A parte i problemi igienici, qualcuno potrebbe scivolare e provocarsi seri danni. Concilia! La mia normal vista mi dice che quell'anziana donna ha un problema. E ora che entro in scena... Normalman! Pier Maria si nasconde dietro l'edicola chiusa. In meno di sette minuti si cambia e vola sul luogo del misfatto. Oh, normalman! Che succede qui? Il suo cane ha sporcato il marciapiede. La signora non è in grado di ripristinare la situazione e la sto multando. Niente multe, ho qui con me il normal sacchetto e raccoglierò io gli escrementi di questo simpatico cagnolino. Ecco signora, adesso basta che lei trovi un cassonetto e ce lo butti dentro. Grazie, normalman! Non mi ringrazio per un super eroe e un dovere aiutare gli altri. Addio! Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è... Normalman! Siamo arrivati al momento di una rubrica che abbiamo istituito da poco. Abbiamo ripristinato un gioco a premi radiofonico. Siamo un po' titubanti perché ci sono scappati di mano centomila leuri che erano il premio in palio. Sì, infatti perché noi abbiamo messo un premio in palio un po' alto perché il rumore era molto difficile. Bisogna indovinare un rumore misterioso. Invece è stato indovinato. Speriamo che oggi non accada. Secondo la casistica, il calco delle probabilità, anche perché abbiamo trovato un rumore... Un rumore veramente difficile. Forse siamo fidati troppo della misteriosità del rumore. In effetti era facile. Infatti, invece quello di oggi è veramente difficile. Sappiate che chi di voi radioascoltatori indovina il rumore vincerà centomila euro. Ecco, bei centomila euro, però devi indovinare esattamente con che cosa è stato fatto questo rumore che ora sentirete. Ok, sentiamo subito chi è in linea. Pronto? Pronto. Sì. Pronto. Lei il signor? Sono Lucia Renzo. Sì. Renzo e Lucia. Renzo e Lucia. Renzo e Lucia. Renzo. Renzo e Lucia. Renzo e Lucia. Ma Renzo come... Come Renzo, sì. Come... Anche mio nonno si chiamava così. Ah. Quindi non so, ma... Mi conoscete? Ci conosciamo? No, no, no. Era... No, no, era... No, pensavamo un'altra cosa. Vabbè, comunque... Rucina ci faceva venire in mente. E' reminiscenza di discorso. Era del gioco. Eh, il gioco. Mysterious noise. Il rumore misterioso. Il rumore misterioso. Allora, per centomila euro... Centomila euro. Che rumore è questo? Eh, ci posso... Ci posso provare. Adesso ci penso... Ci penso un attimo. Eh, però poco tempo. E' un tempo, eh. Guardi, quanto ne ho? E' dieci secondi. Quindi... Un aiutino? Eh, niente. Centomila euro. E' qualche cosa che ha a che vedere con... Quell'aiutino, eh. Ma non niente. Centomila euro non si dice niente. Allora ci provo. Lo butto lì, lo butto lì. E' uno spremiagrumi, uno spremiagrumi, uno spremiagrumi, sbattuto su un leggio di ottone. Eh? Eh? Eh, è sbagliato, eh? No, è giusto. No, è giusto. È quello. È il problema che è giusto. Andiamo avanti, va. Cioè, ho capito, ma... Ma però come si fa? Lo spremiagrumi, tu, un leggio di ottone, oh. E sono contento. Ma che contento? Ma non è contento, però, che cavolo. E' come, ho vinto, ma... Ha vinto, ha vinto. Andiamo avanti, va, 610. Vedo, pure te, lo spremiagrumi. Ma se capisce lo spremiagrumi? Ma se capisce, ve l'ho detto, lo spremiagrumi se capisce. Ah, se capisce. Se capisce, io l'avrei capito. Vabbè. Prendiamo una cosa difficile. Eccoci qua, Greg e Lillo, agenzia 610. Stiamo per collegarci con Stefano Frosi, il nostro collegatore di fiducia. E lui è esperto di feste, di sagre, di sagre paesane. Che è un patrimonio culturale tipicamente italiano e che non va perso. No, assolutamente no. Perché quante sono le sagre in Italia? Un'infinità. Chi lo vuole sapere con esattezza può sempre cliccare su www.mauantesolesagre.org Esatto. E avere un'idea più precisa. Certo. Però noi vogliamo farvele assaporare. Eh, certo. Quindi diciamoci a Stefano Frosi, che sta girando l'Italia a caccia di sagre, ci racconterà questa in particolare. La festa del lancio dei gatti sulle galline. Ah, sì. Il lancio dei gatti sulle galline, che è praticamente una festa antichissima. È una festa antichissima, sì. È bisettimanale. Si svolge a Santo Baldoide Guastato, in provincia di Bobalo. Esatto. Stefano, se è il collegamento. Pronto? Sì, sì. Ciao, ciao. Allora, siamo adesso in questa splendida cittadina. Sì. Questa festa, bisogna dire che risale, è una festa molto antica, si perde nella notte dei tempi, diciamo, parliamo intorno al 1213, qualcosa del genere. viene anche riportato dal grande libro delle croneche d'epoca di Malvasio Lepore. Anticamente, diciamo, non c'erano i gatti, per cui c'erano le galline. Nel momento in cui sono poi stati trovati i gatti, siccome non riuscivano a mangiarsi i gatti, non sapevano che farli, cominciarono a lanciarli dalla finestra. Ecco, quindi era, diciamo, nasceva come un maltrattamento, forse, del gatto, invece adesso diventa una cosa completamente diversa. Servono ad accoppare le galline, praticamente. Beh, sì, oppure straziarle, insomma, ecco, cose così, ma simpaticamente ovviamente viene fatto davanti a tutti. E adesso, ecco, adesso è arrivato il grande camion con il rimorchio, con tutte le gabbie delle galline che in questo momento vengono aperte e vengono un po' spinte verso delle stradine. Ah, quindi diciamo che queste galline ripercorrono i vicoli del paese. Esattamente, davanti alle galline c'è il nostro parroco, i nostri chimichetti. Ah, un po' come i tori di Pamploniana a memoria. Esatto, come i famosi tori di Pamplona, la famosa città dei grandi Pampli. Io adesso mi avvicino un po', tra l'altro una piccola notazione per il nostro pubblico comodamente a casa. I cani sono contentissimi in questa festa. Stanno, guardano lì, si vede quasi sorridono, perché che gli frega? Cioè, tanto non è che li tirano sulle galline. Ecco, adesso io mi avvicino proprio al punto, diciamo, in mezzo a questa stradina. Voi forse sentite anche i miei pazzi. Sì, si sente, non si sente, ma zio. Mi sentite? Ecco, sono proprio al centro. Adesso, ma, oh, è simpaticamente anche pericoloso qua, eh, perché... Arrivano, piovono gatti. E piovono certe gattate. Ma che fai? Ma mica sono una gallina, scusi signora. Mi scusi, mi pareva una gallina, non ci ho fatto... E che vuol dire la gallina? Guarda ti sono vestito in blu. Eh, ti ho detto scusa. E tu hai visto una gallina blu. Stefano, che è successo? Mi ho detto scusa. E poi non ho fatto un po' l'altra. Stefano, che è successo? E' un questionale, Stefano. Ma allora è il mio dello stocato? Stefano, scusate. Ma non ho capito, ma... Stefano, Stefano, cos'è successo? E mi ha tirato la gattata, mi ha tirato. ho capito, grazie e a questo punto chiudiamo qua, lo spazio è finito grazie a Stefano Frosi chi vuole salutare con noi Stefano Frosi può farlo cliccando su www.tantisaludiafrosi.it grazie, ciao grazie a Stefano Frosi grazie a Stefano Frosi Batman Begin nei cinema 3, 1, 3, 1, 3, 1, 0 Greg e Lillo eccoci qui andiamo avanti con Valentina Paoletti che non fa più collegamenti estremi ma si è dedicata ad attività più intellettuali intervista direttamente da casa propria infatti la rubrica si intitola a casa di Valentina dei personaggi evidenti di grande spicco come nel caso di Carlo Azzeglio Ciampi che è accettato di andare a casa di Valentina per essere intervistato da lei quindi nonostante Valentina abiti un po' in periferia c'è una casa di 60 metri quadri con due stanze la sua tra l'altro divisa con il fratello e Fabrizio insomma nonostante tutto Valentina ha questo carisma per cui riesce a convincere i grandi personaggi ad andare da lei a essere intervistati sentiamo però Valentina da casa sua appunto con il presidente Carlo Azzeglio Ciampi Valentina Sellina? sì buongiorno Lil buongiorno Greg allora com'è avere in casa in casa propria il presidente della Repubblica un po' emozionante ecco sì 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 io direi insomma di iniziare con l'intervista dove l'hai fatto accomodare? sta appoggiato sul davantiare della finestra perché sul mio letto ci sono i panni insomma che devo lavare e scusa ma non c'è e niente poltrone ancora? sedia? no 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 perché le poltrone appunto stanno di là a parte che in camera non c'entrano perché la cameretta mia è molto piccola e poi andano di là disturbo mia mamma che sta vedendo la mia mamma sì ho capito ma prima che arrivasse il presidente avresti potuto rispondere eh prima ce l'avevo da fare un po' strana come immagine comunque vabbè se lui è contento se lui è contento cosa gli ha offerto? eh voleva una cucina dolce così in cucina saranno soltanto i biscotti per la colazione ma domani mattina servono a mio fratello per cui gli ho offerto un bicchiere d'acqua ah quindi l'acqua bicchiere d'acqua vabbè comunque idrata vabbè sì comunque va sempre bene l'acqua vabbè eh parti pure con l'intervista Valentina sì signor presidente lei ha una particolare considerazione per Camillo Benzo Conte di Cavour ma come mai? indipendenza libertà unità sono le parole chiave del risorgimento che Cavour ha saputo tradurre in istituzioni dello Stato gli antarazzi esprimono la propria vitalità al suo sito della notte Valentina si volete fare qualche domanda anche voi no domanda non abbiamo sentito la risposta si sente un ronzio si sente il rumore è pazzesco ah sì sì è la playstation di mio fratello si sta giocando da un nuovo giochino della playstation credo che siano i motori stai col presidente della repubblica e c'è il tuo fratello che gioca con la playstation non lo so ma mio fratello potrà giocare con che cosa vuole lui potrà stare dove vuole lui questa è anche camera sua no se lui vuole giocare adesso alla playstation gioca adesso alla playstation ma scusa ma può uscire anche andare al bagno un attimo no ma perché devo andare al bagno a giocare con la playstation come fai a mettere i fili i cavi la televisione ma no senza giocare alla playstation aspetta un attimo l'intervista quanto durerà 5 minuti 10 minuti non può aspettare 5 minuti e semente no vorrà giocarsi adesso alla camera anche tua va bene andiamo avanti andiamo avanti prendiamo la domanda dunque prima che si interrompessero chiedi se può parlare comunque un po' sì sì allora dunque dicevo sì si può parlare un pochino più forte grazie dunque signor presidente lei è un difensore dello stato unitario crede che anche i suoi concittadini la pensino come lei? Valentina è insostenibile fanno giocare una cosa meno rumorosa adesso io devo decidere cosa di giocare che farei va bene lasciamo grazie Valentina grazie andiamo avanti andiamo avanti insieme sempre più pazza l'offerta chiudi e vai di Cablofon Squid Summer 1000 DVD formato VHS dei tuoi gruppi preferiti da scaricare sul tuo cerca persone 15 ore di ricezione extra per il cordless un mese di sintonia radiofonica meno di 3 euro e 50 senza T, A e V e con soli 2 euro di IVA ricevi direttamente l'oroscopo del tuo cantante preferito questo è il ballo dell'estate sì dimmi no mi sembra vantaggiosa a orecchio pure questa di offerta eh sì è pazza proprio eh ma non ho capito bene che succede cioè dov'è il vantaggio dell'offerta l'offerta chiudi e vai di Cablofon Squid Summer che succede? mille DVD sai quanti sono mille DVD? sono tantissimi formato VHS però dei tuoi gruppi preferiti dei cantanti ma se mille DVD formato VHS io come ne dicevo gli scarichi direttamente sul tuo cerca persone ah è un cerca persone? no e lo devi comprare e mi scarico il DVD se scarichi il DVD ce l'ha il DVD? il lettore dice il lettore di DVD sì sì ce l'ho il VHS? sì sì ecco no perché questo qui gli scarichi però formato VHS quindi non lo può leggere col DVD e poi c'è un mese di sintonia radiofonica a meno di 3 euro e 50 di sintonia radiofonica? sì tu l'ascolti a radio per esempio la radio 2 come in questo caso in questo modo paghi 3 euro e 50 per un mese di sintonia ma io non ho mai pagato la radio prima eh lo so con questa offerta di Cablofon Squid Summer paghi 3 euro e 50 per un mese quindi rispetto a però tutto un intero mese ah ho capito quindi adesso ho capito cioè io prima ascoltavo la radio in qualsiasi momento adesso un mese soltanto però paghi 3 euro e 50 senza T.A.E.V ah che cos'è non lo so però non c'è quindi c'è sicuro che quella cosa non c'è e poi con solo 2 euro di IVA ricevi direttamente l'oroscopo del tuo cantante preferito c'è un cantante preferito? beh sì c'è l'oglio che ne so Peter Gabby eh Peter Gabby può ricevere giornalmente il suo oroscopo ma che me frega dell'oroscopo di Peter Gabby la mia scusa beh per sapere come gli butta al giorno quel giorno che ne so sì la curiosità magari di dire chissà che succede a Peter Gabby eh magari l'amore in agguado venere che cosa e tu sai esattamente quello vabbè è forte ah sì interessante poi informo meglio ok andiamo avanti 610 Greg e Lillo Radio 2 sempre spinti da questo grande amore che abbiamo per le radio ci siamo gemellati con una nuova radio che si chiama Greg Radio Radio Long Night Radio Long Night è una radio che trasmette solo di notte da l'una di notte alle 5 di mattina e non possiamo ovviamente collegarci in diretta l'abbiamo registrata l'abbiamo registrata ieri notte e ve la facciamo ascoltare Radio Long Night e dopo le meravigliose note di Steven Swax io direi di parlare un po' della notte io Frankie e il mio amico Burns ciao ciao Burns cos'è la notte la notte è questo meraviglioso lasso di tempo blu che che si immerge nelle stelle questa è la notte ma sentiamo se c'è qualche radio ascoltatore che vuole parlarci un po' della notte la notte che sentiamo non c'è nessuno non c'è nessuno in linea parleremo ancora nuca le sue stelle la notte le stelle Greg e Lillo qui ai microfoni di Radio 2 siamo in compagnia di Massimo Bagnato il nostro artista multimediale forse l'artista più multimediale del mondo che oggi è qui con noi in veste di esperto di come si dire le lingue in codice si le lingue in codice approfitto per salutare i miei zii in particolare mia zia e mio zio ci associamo anche noi ma cosa significa le lingue in codice puoi spiegarlo Massimo lui ci stava prima appunto dando qualche notizia molto spesso si deve comunicare in maniera segreta quindi in codice come si usava Viva Verdi che era Vittorio Emanuele d'Italia è un acronimo e molto spesso anche adesso si può ricorrere a questo codice si è un espediente quando ci si trova in imbarazzo io ad esempio Grego Lillo Vicini c'è una persona che voglio in qualche modo segnalare chiaramente mi trovo in imbarazzo con il farfallesco che è questo linguaggio in codice tu dici dell'eco senza far capire niente senza far capire niente è un codice che risale a tantissimi anni fa eh sì sì è una lingua romanza sì io adesso non vorrei sbilanciarmi ma offro da bere a tutti benissimo allora Massimo ci fa un esempio benissimo allora noi ci troviamo al cinema c'è una persona che non è di nostro gradimento e io chiaramente ve lo segnalo vai che sarebbe guarda questo che brutto perché metti il fo prima di nessilla io non dico parolacce però chiaramente anche un piccolo insultino potrei farlo in questa veste magari non mi piace la persona guarda questo qui che fe stufu pifi do fo no fo mi fi sta fa si fan pifi ti che ufico che significa guarda questo qui non mi sta tanto simpatico però bisogna allenarsi un po' questo linguaggio che bella giornata di sole che fe be fe la fa gioforna fata fa di fi so fo le fe basta mettere il fe mo ci salutiamo così noi grafazzie fe li filo fo grafazzie fe a te fe grafazzie fe a voi di fifi è il momento di sentire se c'è qualche radioascoltatore in linea per parlare un po' della nostra trasmissione pronto Jerry ecco perfetto pronto Jerry sei fortissimo te seguo sempre questo è Greg Lido agenzia 610 posso chiedere aiuto da casa? un momento aspetta corri un po' troppo in realtà non è né un quiz né niente siamo Greg Lido sono Luciana da Roma Luciana ciao cosa vuoi sapere da noi da Greg Lido agenzia 610 qualche curiosità quanto so stanca io proprio so stanca sì bene è dai 5 che cuscine e sorgelo cuscine e sorgelo sì fa pranzo e mangio pane e prosciutto perché? è perché è tutto surgelato è perché è la versione lo sorgeli per così io cuscino e surgelato certo è che io cuscino per mangiare io cuscino per surgelare quelli sono buoni tutti a farlo che uno cuscina e magna ah ho capito tanto so stanca mamma mia ma beh prendi di un po' Sarpio sì che te stai a mangiare sofficino la sciosta sì mannaggia quello se mangia le cose surgelate sì scusami però ti dico questo è uno spazio riservato ai radioascoltatori di 610 tu ascolti 610? l'ascolto sempre chiedo aiuto del pubblico posso? sì ma non c'è nessuno non è un quiz era solo per un sostegno morale la risposta è stocca fisso risposta di cosa? di cosa scusa? non avete fatto la domanda? no stocca fisso non è un quiz tutti i quiz ormai no il nostro non è un quiz e va bene niente vogliamo sapere più o meno così visto che raccontaci qualcosa di te che fai tu solitamente? io praticamente cuscine surgelo grazie grazie a presto grazie staccate sta cosa ciao finito sì finito ciao staccate stupido e di netto di un uomo normale Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe queste sono le origini di Normalman Normalman in La Sciarpa Roma ore 16.45 Pier Maria Carletti alias Normalman passeggia allegramente per le vie del centro quando a un certo punto una signora a pochi metri dinanzi a lui perde una sciarpa la mia Normal Vista mi dice che questa signora davanti a me ha perso la sciarpa senza accorgersene ehi signor ma che sto facendo che sto facendo così rischio di svelare i miei superpoteri devo trovare un posto dove cambiarmi e diventare Normalman Pier Maria si catapulta in un bar scusi la toilette in fondo a destra Pier Maria si dirige verso la toilette ma trova altre due persone in fila dannazione così perderò di vista la donna della sciarpa devo inventare un Normal Stratagemma scusate scusate soffro di incontinenza posso passare avanti passi passi pure si accomodi ci sono cascati Pier Maria entra in meno di dieci minuti si cambia diventa Normalman esce dalla finestra del bagno e si dirige verso il luogo in cui la donna ha perso la sciarpa ecco lo sapevo l'ho persa chissà dove è andata adesso oh Normalman mi fa un autografo più tardi ragazzino hai per caso visto una signora con un cappotto a scacchi bianco e rosso si ha girato lì a destra grazie figliolo Normalman corre a velocità normale fino a raggiungere la signora 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 la sua sciarpa ma tu sei Normalman in carne d'ossa signora prenda la sua sciarpa grazie Normalman sono così sbagata non mi ringrazio addio lì dove c'è un problema di tutti i giorni lì dove necessita un piccolo aiuto lì c'è Normalman tutti a mare tutto il mare a mostrate e a pegare pronto? signor Van Wood sono io mi chiamo Walter De Mastro sono dell'agenzia 610 Walter? Walter De Mastro De Mastro? si con un M di Milano? con un M di Milano si allora voi siete un'agenzia? 610 è un'agenzia che da poco è a Roma che fa capo a un'agenzia statunitense di New York si chiama 610 ed è un'agenzia di spettacoli 610 di New York si l'agenzia madre si trova a New York si si 610 noi stiamo allestendo uno spettacolo musical che è già stato proposto a New York ed è già stato proposto anche a Londra che si svolge sulla spiaggia e si chiama White Bottom in Italia è stato chiamato Chiappe Chiare proprio per ricordare un momento storico degli anni 60 ho capito in questa spiaggia si muove una astrologa sui 50 anni un astrologa che però canta e balla e cerca sempre di fare appunto in musica i suoi percorsi astrali con i vari bagnanti Calepina ho capito e questo sarei io si se vuoi una donna una donna si sta in due pezzi in bikini per fare il bravestito si ma perché non prende i miei figli che è una bravissima astrologa ci serve proprio un uomo che faccia la donna perché lì in America non me lo sento non se la sente? no ma ha truccato bene con una parrucca il rossetto l'unica cosa è che dovrebbe stare in bikini carino c'è una scena in cui anche si mette in topless però non credo che ci siano dei problemi va bene guarda mi sta prendendo col culo vero? no mi chiamo l'anno prossimo c'è la stessa ora quindi non è interessato ed eccoci arrivati alla nostra nuova rubrica un truffo al cuore ovvero una rubrica in realtà che parla di truffe che vuole spiegarvi come non cadere nelle trappole di truffatori ecco sì perché la radio deve anche essere di servizio esatto di servizio sociale per appunto far vivere meglio sia allietare la settimana delle persone le giornate sia anche come deve essere didattica deve essere costruttiva esatto di impegno sociale esattamente noi adesso abbiamo deciso di ricostruire delle scenette ricostruire delle situazioni tipiche che riguardano le truffe più comuni quelle che più abitualmente i truffatori fanno ai danni delle persone ingenue quella di oggi è una truffa molto ricorrente quella del palombaro tibetano vi facciamo ascoltare la scenetta e noi passo passo vi spieghiamo cosa non dovete fare semmai possiate capitare in una situazione di questo tipo sentiamo la scenetta sono un palombaro tibetano mi apre? ecco ci interrompiamo qui perché questa è la scusa delle più frequenti sì quella del palombaro tibetano è una scusa frequentissima ed è quella più usata da questi truffatori quindi mi raccomando signore specialmente se siete anziane se sentite sono un palombaro tibetano è una truffa quasi al 100% quindi non aprite va bene? potrebbe anche capitare però nel dubbio è meglio che non apriate non apriate la porta va bene? ecco adesso andiamo avanti con la scenetta no non mi fido la prego mi è scappato il lama e ho ragione di pensare che sia proprio qui in casa sua ma no non mi sembra guardi che i lama si nascondono molto bene va bene li apro ecco cadono tutti qua perché praticamente questa del lama è la scusa usata per riuscire a entrare in casa semmai qualcuno non aprisse sul palombaro tibetano spesso cadono qui sul lama e invece ve le assicuriamo noi di 610 è una cavolata i lama non si sanno nascondere per niente non è vero che si nascondono bene per niente proprio tra l'altro sono grandissimi sputano non è vero che si nascondono cioè se voi aveste un lama che si nasconde in casa vostra ve ne accorgereste dopo pochissimi minuti non sanno assolutamente nascondersi quindi è una bugia quindi semmai ecco se proprio volete essere tranquille che sia effettivamente così come pensate voi come diciamo noi voi quando c'è un lama nascosto in casa vostra voi dite aspetti un attimo e fate trascorrere un po' di tempo dopo 2-3 minuti siete sicure che non ci sono lama in casa vostra ecco infatti ma andiamo avanti sempre con la scenetta mi scusi per il suo bene potrebbe farsi chiudere in bagno a chiave io per cercare il lama devo stare da solo ecco faccia pure ecco ah ecco no no questo mai questo mai allora voi sappiate che farsi chiudere in bagno è una scusa no a parte una scusa ma poi si è impotenti perché una volta è chiuso in bagno è lì la fregatura non si riesce più a entrare ma il truffatore lo fa apposta lo fa apposta per far che? per lasciare casa libera e la vittima inerme nel bagno che non può uscire mentre lui ruba tutto ecco quindi non farsi mai chiudere in bagno se vi chiedono di farvi chiudere in bagno è sicuramente per rubarvi quello che avete in casa al limite se proprio non volete essere scortesi dite mi chiudo da sola io ecco mi chiudo da sola io in bagno e vedrete che questo rovina molto i piani del truffatore esatto perché voi potete uscire quando volete in quel caso andiamo avanti mi scusi tanto ancora effettivamente il mio lama non c'è qui da lei ma mi sa ugualmente dire dove tiene i gioielli o signora ecco a questo punto è matematico è matematico a questo punto se voi direte dove sono i gioielli il ladro ve li ruberà se vi trovate in questa situazione già potete dire addio ai vostri gioielli perché è una scusa quella di farsi dire dove stanno i gioielli è una scusa per sapere dove stanno esatto quindi non è che ve lo chiede tanto per saperlo ve lo chiede proprio perché vuole rubarvi i gioielli ecco quindi sappiatelo se vi chiedono dove nascondere i gioielli di sicuro c'è un imbroglio ecco tenetelo presente ecco speriamo che con questo di avervi illustrato averte un po' la mente perché c'è tanta cattiveria nel mondo ecco tante truffe grazie e fate molta attenzione fate tesoro di nostri consigli dell'agenzia 610 610 trailer 610 prima in città non si parlava d'altro le nozze di johanna e marianne erano l'evento più importante dell'anno vedi quelle due che stanno entrando quale? la biondola rossa? proprio loro beh erano due invitate d'onore e vengono direttamente dalla cerimonia non mi dire andiamo ad accogliere facciamoci dire qualche curiosità io lascerei perdere perché? perché erano due compagni di classe della sposa ma sono completamente stupide non ci credo dai andiamo due donne accomunate da un destino beffardo eccoci qua siamo appena arrivate dal ricevimento eh si appena arrivate raccontateci qualche episodio piccante del matrimonio eh ci siamo commosse beh a un certo punto la sposa ha detto si questo è normale noi vogliamo conoscere un po' di retroscena qualcosa che solo voi avete potuto vedere anche lo sposa ha detto si proprio con la stessa intonazione di lei quando la speranza lascia il posto all'amara constatazione oh ma chi sono queste? sono due sceme che vengono da un matrimonio sceme da un matrimonio nei cinema Greg e Lillo Radio 2 610 siamo qui con un'attrice la grandissima Elvira Rosetti attrice di teatro e di cinema che purtroppo non sta attraversando un buon periodo no Greg? sì perché è caduta vittima di queste una maldicenza sì di queste maldicenze molto diffamanti che nuociono molto alla carriera artistica purtroppo girano in questo ambiente e ogni tanto si dice di qualcuno che porti ghiella che porti sfortuna che porti sfortuna e quindi purtroppo è capitato anche a lei Elvira Rosetti ha questo marchio che la perseguita ultimamente e qui infatti lavora poco noi vogliamo sfatare queste stupide stupide si può dire queste stupide superstizioni che possono ruminare la carriera di un artista ma parliamo con lei stessa facciamo l'accomodabile Elvira Rosetti prego ciao Lillo ciao Claudio ciao Elvira allora ecco insomma parlavamo di questo problema di questa maldicenza questa voce che gira che tu porti sfortune ma io vi ringrazio tanto per questa puntata che state dedicando a questo argomento perché è veramente una cosa grave è grave perché crea dei problemi ed è veramente stupida tra l'altro è una sottocultura che fa male perché ghettizza ma che ma che perché ti gratti no 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 mi stavo togliendo scusa stavo togliendo delle briciole di un biscotto che ho mangiato prima mi hanno caduto proprio lì sulla patta no no togliavo delle briciole le figure no no vai avanti scusa mi scusa no per cui dicevo che insomma in questo senso poi le persone si trovano oggetto di questa discriminazione perché diventa una discriminazione non trovi lavoro ti è cascato questo Claudio questo cornetto c'era in tasca che è rosso che è carino è un ricordo un regalo sì un regalo perché è un regalo non so ma ce l'ha sempre carino ce l'ha sempre ce l'ha sempre dietro sì è una cosa che è affezionato ma figurati vai e quindi insomma dicevo che questa cosa poi crea dei danni alle persone anche alla mia famiglia perché poi pensano di tutta la famiglia anche quando vai in giro e il signore sorride chi è questo signore che sorride Gobbo qui accanto a te no ma un mio amico mi vuole trovare è una vita che mi chiede voglio fammi venire in radio fammi venire in radio ma oggi l'ho portato sì sì sono venuto perché così mi hanno invitato l'amico Tito è un amico mio non lo aveva ma si vede che vi conoscerà tanto vedo che lo tocchi sulla gobba insomma ma qui è un gesto d'affetto un gesto d'affetto è una pacca è una pacca che dicevi Claudio? no no questo no questo cornetto che mi era caduto perché quando cade così faccio sempre questo dico delle cosette no ma andiamo avanti andiamo avanti spero che da adesso in poi questa cosa con questa puntata questa possibilità che mi avete dato finisca è una stupidaggine quindi basta basta adesso poi vedrai che continuerai a trovare lavoro perché perché veramente sono sicura dopo dopo certe cose ignobili stupide grazie grazie non vi vedo non vi vedo tanto bene comunque vi vedo un po' pallidi non so perché non stiamo bene io vi vedo non state tanto bene vabbè adesso vanno stiamo bene grazie ma scusa ma avete detto che queste cose sono fuori portatela via portatela via vi è qua Gobbo vi è qua sempre Greg e Lillo Radio 2 610 è il momento dell'astrologia noi abbiamo da un po' di tempo qui nella nostra scuderia nella nostra agenzia di spettacolo 610 abbiamo un grande astrologo che è Saturnus facciamolo accomodare Saturnus eccolo qui buongiorno buongiorno che Saturnus sia con tutti voi che Saturnus sia questa è la cosa che è il tuo motto sì è il motto che ce l'ho anche stampato sui biglietti da visita da visita Saturnus bene cioè io tengo anche una vabbè non si potrebbe dire perché è concorrenza però la concorrenza è un po' spietata no si sa tengo una trasmissione su una rete privata ah pure sentito la propria che Saturnus sia con voi che Saturnus sia con voi bene Saturnus allora dobbiamo darti una bella notizia ci arrivano parecchie lettere di radioascoltatori che vogliono sapere da te alcune cose insomma ti domandano delle cose e riguardo ovviamente all'astrologia se vuoi direggiamo una di queste lettere ma magari ecco farebbe proprio tanto piacere ci scrive Angelo Diliberto da Senigallia e ci dice sono una bilancia preoccupata mi ha detto un astrologa di Iesi che si mette male tra marzo e giugno per quanto riguarda lavoro e salute allora volevo sapere qualcosa sull'amore Saturnus cosa può rispondere sull'amore sull'amore e che vuoi sapere qualcosa sull'amore l'amore è un sentimento molto forte che molti contrappongono all'odio però insomma invece di parlare non divaghiamo l'amore è questo grande sentimento che uno prova che gli viene dal cuore per una persona per esempio quando uno dice mi sono innamorato gli piace no dicevo no l'amore però c'è un grande affetto però non è detto che sia proprio per una persona soltanto può essere bello brutto perché può essere ostacolato o da altre persone magari non è corrisposto quindi ti fa sta male se invece è corrisposto ti fa sta bene però può essere per una persona può essere per un amico per un affetto per un genitore un parente un cane sì abbiamo inutile andare avanti questa persona voleva sapere qualcosa sull'amore legato alla bilancia ah legato alla bilancia io mi ricordo quando ero ragazzina che ci stava il fruttarolo vicino a casa che lui è da generazione che era fruttarolo e ci aveva il padre che l'aveva istruita a fare il fruttarolo e allora lui faceva il fruttarolo e ci aveva questa basculetta questa bilancia con cui pensavano le cose che gliel'aveva data il padre quando il padre è morto lui se l'è costruita gelosamente ci teneva neanche la usava più perché c'è proprio l'amore per questa bilancia perché lui li risolvinasse vabbè abbiamo capito grazie c'era comprata la bilancia l'abbiamo capito lasciamo perdere la bilancia qui ce la teniva da parte grazie grazie andiamo avanti Greg Lillor Radio 2 6 1 0 Saturnus e tra pochissimo sentiremo anche canzoni e musiche estrapolate da altre radio come il caso di Radio Mazzana questa nuova radio che fa una programmazione musicale abbastanza interessante infatti abbiamo qui ospite qui da noi in studio il professor Eugenio Eugenio Della Manna che non leggo mai il cognome Della Manna Della Manna che è il direttore di Radio Mazzana Radio Mazzana Mazzana sì Radio Mazzana allora ecco prima di metterci in collegamento con Radio Mazzana e sentire cosa sta trasmettendo in questo momento volevo chiederle lei si ispira ad altre radio come programmazione musicale? no assolutamente anche perché sono fedele a quanto diceva Juan Bele che le note musicali corrono sulla Vila Brestana sulla Vila Brestana chi? le note musicali? sì e chi l'ha detto questo? Juan Bele Bele Ventano Bele Ventano ha detto che era un un noto lentano un noto lentano famoso corro sulla vino lentano che era famoso insomma lui come sì come lentano Juan Bele Ventano e quindi lei non si ispira ad altre radio no no perché anche io corro sulla vino anche lei sulla no sì ma ascoltiamo adesso cosa sta trasmettendo in questo momento Radio Mazzana ma ora che siamo allo spazio di dirato alla rusi camagliana e ascoltiamoci Enricchi e poi in Sarà per Vatelano che confusione sarà per Vatelano è un'elighione che tre si dà non hanno stringi vitorbi e stasi tu da vino se ci vuole bene sarà per Vatelano io m'allo al tirso del conto Zorredino e vita nera sarà per Vatelano va di Narenga ma l'indimone sano che ne sei meso sarà per Vatelano e buona mola e questi erano i ricchi e poveri ricchi e poveri che poi sembravano tanto amici tanto amici poi che sono sciolte hanno litigato è una storia si vede che loro non corrivano sulla vino come? loro non corrivano come le note sulla vino sulla vino ah si era il detto che esibiva di Juan Beliver di Juan Beliver va bene andiamo avanti Greg Lillo e un saluto Eugenio Eugenio della Malden della Malden direttore musicale di Radio Continua l'operazione 00 asterisco l'estate senza corde di TimelessGarden.com 160 punti vendita in tutta Italia più di 1000 motori di ricerca 16 sospensioni in acciaio inox e con la formula salvatempo puoi scaricare in mp3 tutte le previsioni del tempo ed inviare istantanamente al tuo edicolante di fiducia 00 asterisco licenza di decidere questo è il ballo dell'estate Greg si è uno spot questo no? fantastico eh ma non ho capito bene i vantaggi cosa succede cioè non ho capito niente innanzitutto il vantaggio hai sentito 160 punti vendita in tutta Italia quindi ovunque sei tu lo puoi trovare questo TimelessGarden ma che? questa affetta di mille motori di ricerca lo puoi trovare davvero anche su internet dappertutto ma cosa però? questa operazione salvatempo che puoi scaricare in mp3 tutte le previsioni del tempo cioè di tutto il mondo e inviarle istantaneamente al tuo edicolante di fiducia cioè hai un edicolante dove ti rivolgi ma che ci fa l'edicolante mio? mettiamo che il tuo edicolante voglia intraprendere un viaggio fare qualche cosa vuole andare in Mongolia o vuole andare in Lapponia vuole andare ho capito ma se ne vede da solo lui va lì se le controlla lui che c'è bisogno che gli le mando io scaricare ma questo è un vantaggio dell'era moderna cioè con internet puoi sguazzare a destra e a sinistra vabbè sei un po' indietro su queste cose è il momento di sei uno zerissima ovvero le papere di Greg e Lillo di papere ne facciamo tante papere ma anche in pass cose che accadono durante le registrazioni che noi siamo costretti a tagliare non mandare in onda mentre poi invece le scegliamo e le inseriamo in questa rubrica che è sei uno zerissima appunto le papere di Greg e Lillo sentiamo cosa c'è successo un po' di tempo fa proprio qui in radio sei uno zerissima gli errori di 610 che c'è da ridere? e quindi lei come in quanto maestro d'armi è un esperto di armi di qualsiasi tipo sì ovviamente sono più propenso a intendermi di armi armi da fuoco armi da fuoco armi da fuoco come esplicemente a cana corta come questa Dillinger bellissima zeta 40 bellissima posso posso toccarla? perfettamente funzionante stia attento bellissima perfettamente funzionante questa è veramente una bella pistola 1891 addirittura del 1891 ecco qui c'è il grillé ma che hai fatto? è che? mi hai partito un colpo Greg? e che spari? scusi signor Romano? signor Romano ma la massa ma che spari? è morto Greg ma non si tocca non si gioca ma non si gioca me la date in mano ma che ne sapevo capire dai in mano gioca ma non è che gioco me la date in mano lui che si porta una pistola calica questo? Fabrizio che facciamo? che facciamo Fabrizio questo è morto che cosa c'è? che c'è dopo? le freddure facciamo le freddure dai portate via il cadavere andiamo avanti con le freddure dai e allora 610 passiamo al nostro momento delle freddure freddure mista bene un'astronave aliena atterra su un orto lasciando tracce di texilonio un carburante appunto alieno l'orto è di Pier Maria Carletti un uomo cento volte più debole stupido ed inetto di un uomo normale Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe queste sono le origini di Normalman Normalman in l'orologio Roma ore 8 e 30 Pier Maria Carletti come al solito sta andando in ufficio senza fretta mi fa proprio piacere una bella passeggiata prima di iniziare una dura giornata di lavoro povera me il mio orologio si è rotto scusi signora mi sa dire che ora è? mi spiace non uso l'orologio devo prendere il treno alle 9 non so se ce la faccio o no chi disditta il mio normal udito mi dice che quell'uomo ha bisogno di Normalman la passeggiata può aspettare Pier Maria si addentra nel parco limitrofo in soli 3 minuti riesce a trovare un cespuglio adatto in meno di 7 minuti si cambia e si precipita vicino all'uomo senza tempo oh Normalman forse tu mi puoi aiutare il mio orologio si è rotto devo prendere il treno alle 9 niente paura ho qui il mio normal orologio ecco sono le 8 e 43 minuti la stazione è a 5 minuti da qui per cui fa tranquillamente in tempo a salire sul suo treno dopo aver bevuto un buon caffè grazie Normalman non mi ringrazio un supereroe ha sempre tempo per gli altri addio addio Normalman Normalman lì dove c'è un problema di tutti i giorni lì dove necessita un piccolo aiuto lì c'è Normalman Terzo appuntamento per il rumore misterioso Mysterious Noise si chi dovina il rumore misterioso può vincere tanti soldi ecco tanti tanti soldi 100.000 euro per le tante forse abbiamo abituato troppo bene il nostro pubblico perché già questo terzo appuntamento nei precedenti due già si sono volatilizzati 200.000 euro 200.000 euro perché abbiamo perso però strano nel senso che i rumori sono molto difficili quelli da indovinare se no non daremo tutti questi soldi è stata così una fenomenistica sfortunata per noi almeno perché sono stati indovinati i rumori precedenti ma speriamo che oggi sia più complicato per radioascoltatori indovinare bene e allora passiamo all'azione rumore misterioso chi è il concorrente di oggi pronto? vi sentite? si salve a tutti è stato difficile prendere la linea dopo i fatti precedenti provano tutti a chiamare io mi chiamo ecarindi scilla scilla ecarindi scilla ecarindi chiami da giù? no chiamo da milano da milano che nome scilla vabbè tipo priscilla sarebbe priscilla no 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 scilla è il nome ecarindi è il cognome ecarindi bene rumore misterioso si sono brutta ora noi ti facciamo ascoltare questo rumore si se indovini hai vinto 100.000 euro speriamo perché mi serve voglio comprare la macchina nuova speriamo beh speriamo insomma allora senti eh ecco cos'è? vabbè è difficile eh oggi gli altri giorni facilissimo oggi che non si capisce un aiutino? un aiutino glielo diamo? no io non glielo darei un aiutino vabbè dai a che vedere con il circo lascia perdere vabbè con il circo eh allora io provo ragazzi però siete stati difficili con me oggi secondo me è un cubo di bacchelite stregato su la butto là sulla testa di un pulcino ma come ma come ha fatto? come ha fatto? come fai? come ha fatto? non si può credere ho dominato ma io dico ma io non lo so vabbè si ha vinto va bene grazie si ha vinto c'è un bacione a tutti i quali ma che baci ma che c'entra il pulcino? chiudi cosa c'entra il pulcino? chiudela lì come circo? io te l'avevo detto che? perché hai dato l'aiutino? ma che è un aiuto? ma che c'entra il pulcino con circo? è uguale ha capito comunque gli da pure l'aiutino gli da poi te l'avevo detto lasciare il pulcino questo secondo me si può indovinare lui no facciamo il pulcino con la bacchelite ecco hai visto? a 300 mila euro abbiamo perso grazie Greg e Lillo perché invece a bacchelite sono i conigli sì invece e i suoi conigli era più difficile era più difficile vabbè andiamo a mano siamo sempre Greg e Lillo siamo arrivati al momento di collegarci con Stefano Frosi il nostro collegofilo che si collega con noi dalle varie sagre feste di piazza che si svolgono nella nostra Italia sì un patrimonio che non deve essere dimenticato lo ricordiamo sempre oggi Stefano per noi si trova passo da sotto in provincia di Faccio Prima la sagra Stefano ci sei? sì allora parlesi di questa festa ciao Stefano sono arrivato un po' in ritardo qui a Faccio Prima perché abbiamo avuto un po' un ingorgo comunque simpaticamente oppure normalmente io vi voglio salutare questa festa qui che è una festa che risale ovviamente più o meno a 1320 questa festa si chiama la festa del caruppo cos'è il caruppo? ecco questo è il problema perché in questo paese loro saranno più o meno mille abitanti tengono particolarmente a questa festa è l'unica festa che c'hanno quindi la fanno ogni anno solo che non si ricordano che cos'è il caruppo e che fanno allora? ah perché è una festa vecchia, antica è così vecchia che hanno perso la memoria del caruppo non sanno cos'è ci fanno delle ipotesi ci sono per esempio dei ragazzotti qui giovinastri diciamo alcuni sostengono che il caruppo sia la libertà concessa ai ragazzi di toccare le ragazze però non è passata sta cosa ecco in realtà si sente qualche gridolino ma ognuno tira acqua al proprio mulino eh tira un po' acqua simpaticamente al proprio mulino ah una cosa volevo chiedervi perché chiedono qui al paese il collegometro come va l'indice del collegometro beh altissimo altissimo bene no no non preoccupare sì ma tutte le dita sono altissime del collegometro benissimo ecco il problema è questo come si svolge la festa praticamente si vedono in piazza tutti quanti più o meno alle 8 perché poi chi viene alle 9 chi viene alle 8 perché non è chiaro nemmeno l'ora ah sostanzialmente girano sono un po' come anima in pena in qualche modo girano e fanno che sarà fanno congetture eh congetture possiamo sentire sì sì mi faccio sentire sentite un po' è assurdo e tutta la festa è così eh uhlallah uhlallah guardate adesso c'è stato un ragazzo da uno schiaffone perché è uno dei più anziani del paese lui in queste feste becca degli schiaffoni perché la gente si arrabbia pure perché lui potrebbe ricordarsela eh beh però solo a forza esgarazzoni e non è che aiuta è anche un po' rimbecillito ormai vogliamo ricordare ai nostri amici radioascoltatori che è mattina ah sì è mattina sì sì fantastico simpaticamente ovviamente è mattina simpaticamente quando finisce la festa anche lì non è molto chiaro perché vanno via un po' la spicciolata anche perché non sono neanche più alla fine di questa cosa dove si sono fatti queste domande è un po' depressiva pure perché vanno via tutti un po' moggi moggi e qualcuno va anche nel paese qui vicino perché dice magari loro lì se lo ricordano e invece è un momento un po' difficile e che si mangia che si mangia in questa festa niente pane e mortadella ah quindi una cosa proprio così simpaticamente ma non c'entra niente col caruppo ah così vogliamo ricordare ai nostri amici radioascoltatori che la mortadella è comunque suino sì ecco ricordiamola sì sì ciao Stefano grazie salutavo simpaticamente ciao 610 trailer 610 prima cipriano viene dei monti ed è un animo puro e semplice il viaggio a Roma lo sgomento non appena arriva ma tengo che piastro tram non so dove che sta sta via signor signor sì la medica tengo che non ha piastro tram ma non so dove si è via qual è la via del tram circonvallazione genicolense and dove? quel viale che trova ortogonalmente raggiunto il semaforo non so capite quel viale lì di fronte a noi con l'alberato gli deve acchiappare gli tram deve prendere il tramotto? sì ne eh quello lì è il viale che lei cerca sicuro che è il viale giusto? sicuro è il viale alberato il viale di tutti gli tram? no solo dell'otto è il viale del tramotto viale del tramotto nel cinema da spericolata e inviata degli extreme collegaments a tranquilla intervistatrice tra le comode paridi della propria abitazione Valentina Paoletti per noi intervista delle grandi personalità del mondo dello spettacolo del mondo della politica dello sport e della cultura quindi colleghiamoci medialmente con lei telefonicamente per sapere chi ha sotto le grinfie oggi pronto Valentina? pronto buongiorno Greg buongiorno Lilla tutti quanti buongiorno a te allora oggi chi sarà sotto la raffica delle tue domande? oggi nell'intervista a casa di Valentina io ho Isabella Rossellini eh sì la figlia di Roberto Rossellini è di Vinghi Berma una gran bella donna e anche una una bravissima attrice l'hai fatta accomodare comodamente da qualche parte che sappiamo che tu hai poco da offrire come no in realtà sta in piedi e gli ho offerto un bicchiere d'acqua e ti spiego perché perché l'ho vista un po' ingrassata allora ho pensato che se sta in piedi consente più calorie non gli offro nessuna bibita gassata o calorica così si mantiene in linea si va bene ma non fa più la modella però potrebbe fare l'attrice potrebbe farla e non sta bene insomma ingrassare adesso ho capito ma quelle sono preoccupazioni che potrebbe avere lei se tu le offri vuole un bicchiere di vino lei ti può dire no perché preferisco arrivare in linea vuole sedersi no preferisco stare in piedi ma è una cosa che dovrebbe decidere l'ospite secondo me no perché ti sente l'imbarazzo e lo prende e poi dì e secondo me è te che sei un po' le braccine a corte comunque dai fai una domanda signora Rossellini è molto difficile che un'italiana riesca a sfondare nel mercato delle top model americane lei come è riuscita a fare questo? ma me lo sono domandato perché me lo sono domandato perché soprattutto le modelle di copertina le modelle in generale sono tanti tipi diversi ma le modelle di copertina dell'americana è molto spesso una ragazza che è questo casino? questo casino è Isabella che sta parlando e mio fratello che sta facendo muro è questo è questo il casino Isabella Isabella voglio abbassarla la voce perché deve abbassare la voce di mio fratello? sta giocando allora diciamo a Isabella non sei lì di alzare il tono della voce signora Isabella potete alzare un pochino la voce perché il radio non la sento grazie lei pensa che ci sia una sorta di orgoio nazionale in Italia? nel storio c'è stato in un periodo in Italia una negazione della nazionalità valentina 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 senti infatti quello che lei ha detto secondo me è fatto anch'io sono molto d'accordo ma cosa? non si è capito nulla qui ma come non si è capito nulla? si è capito benissimo ma che non è vero non si è capito sento questo cioè è un gioco da parte che è un gioco stupido un gioco stupido? che vorresti dire? perché il tuo fratello è stupido senti valentino io tuo fratello tuo fratello vada a giocare a casa di Roberto dell'amico a moro non può a casa di Roberto allora devi fare qui durante l'intervista a casa di Valentina ci deve stare fratello sono il piotto senti vabbè sospettiamo l'intervista e continua a far ripensare d'acqua Isabella Rossellini e ci sentiamo un'altra volta ciao due morra 50 anni di bonus extra senza manodopera free con una semplice chiamata all'ora da te indicata con 100 folder di spazio in più sulla tua sveglia automatica calcio borsa finanza gossip le previsioni zodiacali a pronta consegna dopo il VIP ed inoltre 100 gol in più extra gratis della tua squadra preferita un'estate così è solo cablo con squid questo è il ballo dell'estate Greg sì che vuol dire non ho capito nulla ma la cosa che più non ho capito è 100 gol in più perché sei distribuito perché non ci credo che tu non capisca tu hai col telefonino adesso hai 100 folder di spazio in più quindi puoi contenere tantissime cose che neanche ti servono questo è un fatto immaginavo ma poi sulla sveglia automatica le contiene tutte sulla sveglia automatica sulla sveglia automatica sì cioè te ti svegli invece è la sveglia che fa pipi o drindri ti puoi svegliare invece con le notizie del calcio della borsa della finanza o ti puoi svegliare con qualunque cosa tu riesci a memorizzare ti sveglia questo qui e questa è la prima cosa fantastica anche le previsioni zodiacali te ti puoi svegliare ascoltando le previsioni zodiacali di tutto l'anno di chiunque di tutti i segni ho capito in più c'hai 100 gol in più extra gratis quindi non gratis ma 100 gol che vuol dire che c'è la tua squadra preferita io c'ho 100 gol della mia squadra se li fai 100 gol che vuol dire e no ce li avete proprio sono virtuali ah c'ho i gol virtuali ti svegli con la sveglia telefonica che fa che ne so sei dell'Inter e ti fa ha segnato l'Inter ha segnato l'Inter ecco il cento infatti lo dice proprio il mio trovesimo gol oppure sei del Palermo il Palermo ha segnato 72 gol capito bello bello andiamo avanti sei uno zero un momento dal 19 settembre 610 andremo dalle 5 del pomeriggio dal lunedì al venerdì sempre su Radio 2 sempre affascinati da tutte le radio che ci circondano a parte la nostra ovviamente sono tutte belle le radio del mondo esatto e abbiamo scovato una nuova radio che è una radio che noi insomma io credo che troviamo molto interessante perché è la prima radio di inglese maccheronico parlata solo in inglese maccheronico si si sta disfondendo appunto questa tendenza a usare il maccherofono proprio per farsi capire da più persone possibili del mondo che parlano appunto non la lingua ufficiale ma quella più maccheronica esatto ovviamente bene 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 allora sentiamo questa radio che si chiama Mac Radio 2 è la prima radio di inglese maccheronico ascoltiamo cosa sta trasmettendo in questo istante noi siamo in core che si chiama Reforce the secrets of your fidanzate and tell that you are faddle and enumerated. But Pierre Matthew spied my telephonade. Me pedian when I ask all the message on the cellular. Oh, you deb do and discurs seri seri a Pierre Matthew. If lo capisce, well. Or if not, bye bye, monlin. Okay, grazie you. Bye bye and compliments for your transmission. Thank you, thank you concertor. Now we come in with Mac Radio 2. Beh, effettivamente, devo dire che è più comprensibile. Sì, sì, fa più. Io ho capito grosso modo tutto. Pure io ho capito tutto, no, meglio, è meglio. Una radio, perché insomma, penso a una radio che parla solo inglese, insomma, voglio dire. Mac Radio 2. Mac Radio 2 è una radio che si fa capire un po' da tutti. Bene, bene, andiamo avanti. Greg Lillo 610. Greg Lillo Radio 2 610. E ora, sì, siamo un po' basiti, Greg, perché abbiamo qui una simpatica signora calabrese che è venuta a trovarci scambiandoci per un programma tipo Chi l'ha visto, perché la sua richiesta è quella di trovare suo marito. Però, devo dire che, insomma, forse se è sbagliata, anche se noi tentiamo di aiutarla, signora Marzapana. Allora, ha capito, non siamo proprio... Ma comunque, se possiamo, l'aiutiamo. Ci descriva come è suo marito. Magari lanciamo un messaggio per i nostri ascoltatori che possono tentare di aiutarla. Marzapana Currazzi. Marzapana Currazzi. Signora Marzapana Currazzi, ci potrebbe descrivere un po' come era vestito suo marito nel momento della sparizione? Magari qualche radioascoltatore l'ha individuato, l'ha visto e può segnalarlo. Sì, non so qualcosa di particolare. E' un giorno di uscire dai casi. Quando è uscito dai casi, sì. Quando è uscito dai casi, sì. Ho portato un fighiostro di incatenati di marzoni, di chi sta davanti, che ci mettono con il bottone d'oro. Ah, c'era una divisa. Una divisa. Cos'è il fighiostro? Un fighiostro, sapete, di chi le dì di marrati a Ananza, chi le dì... Ananza è davanti. Ah, aveva un fighiostro con i marrati davanti. Marrati. Questi... Marrati, no, cosa sono i marrati. Cosa sono i marrati? Avanti di marrati, come di marrati, di calanti, di questi due calanti reri di due bottoni. Ah, i bottoni va bene, abbiamo capito. I calanti reri. Chi le dì di un fiocco... Fiocco. Un fiocco di... No, un fiocco... Come se in cemento di gemello... I gemelli del polsino? Ah, no. Un canzolato... E vabbè. Un canzolato... Cioè, i dechilliani. I dechilliani. Un fighiostro... Scusa, un consulato... Un consulato... Un consulato di reri. E un firgo, ha detto. Un firgo di chilliani. Ecco, ma cosa sono? Cos'è il consulato di un firgo? Un firgo sapi i chilliani che ti mette dentro i capelli... E a nanzi ciani di chistecano dupe su reri di casse di bottone di... Bottoni. Vabbè, insomma, ecco che... Avete capito. Lasciamo stare com'era vestito. Lasciamo stare così. Com'è di faccia la barba, suo marito? Di faccia u caloggio, ciavi chili alti. Grazie, ringraziamo la signora Marzapana Currazzi. Andiamo avanti. Greg e Lilo, la di due, se non zero, le indicazioni ci sembrano abbastanza esplicative. Quindi, se l'avete visto, dateci la mano. Ah, un'omi. Ah, come si chiama? Cabbi. Ah, Cabbi. Sì, vabbè, salutiamo la signora Marzapana Currazzi. Andiamo avanti. Greg e Lilo, la di due, se non zero. Ed è giunto il momento di ascoltare se c'è qualche radioascoltatore in linea. Pronto? Pronto, sì. Ciao, Greg. No, sono Lilo. Noi siamo Greg e Lilo. Ah, no, c'è pure Lilo. Ok. No, non fa niente. Grazie, grazie. Un abbraccio a tutti i nostri radioascoltatori che continuano a chiamarci. Grazie, a dopo. Un'astronave aliena atterra su un orto, lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo cento volte più debole, stupido e di netto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono cento volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di... Normal Man. Normal Man in La Corrente. Roma, ore 19.45. Pier Maria Carletti è nel suo bar preferito e sta sorseggiando una camomilla prima di cena. È proprio una serata tranquilla, non trovi Aristodemo? È vero ragionare Carletti, una serata tranqu... Ma che succede? È andata via la corrente. Purtroppo c'è troppo assorbimento. Ora spengo la piastra, ma poi bisogna riattivare il salvavita. Questo è un lavoro per Normal Man. Pier Maria approfitta delle tenebre per raggiungere il bagno. In meno di sette minuti si cambia, prende la Normal Torcia e si precipita nella sala. Oh, Normal Man. Niente paura. Ditemi dove si trova il salvavita e farò in modo che in questo bar torni la luce. L'interruttore è fuori della porta che dà nel cortile, subito sulla sinistra. Oh, Normal Man. Normal Man. Grazie alla Normal Torcia va a colpo sicuro. E in men che non si dica, riattiva il salvavita. Ecco, ora mi cambio. Torno di nuovo Pier Maria Carletti e faccio il giro da fuori. Non vorrei che il barman si insospettisse. Ah, è tornata la corrente. Sì, è stato Normal Man. Peccato che se ne sia andato. Lei ve l'ha ringraziato davvero volentieri. Che ci vuoi fare di sto demo? Questi supereroi a volte sono strani. Però Normal Man è proprio forte. Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è Normal Man. Tutti al mare, tutta al mare, ma mostrate che a te chiare. Tempo fa io e Greg abbiamo creato questa agenzia di spettacolo, la 610. Come sempre capita quando sei pieno di entusiasmo, quando inizi una nuova attività, allora punti subito in alto, dici subito partiamo alla grande. Abbiamo cercato di realizzare un musical, un fior di musical, pensando di coinvolgere tantissimi artisti famosi, tanti VIP, ma non ci siamo riusciti. Li abbiamo contattati, qualcuno ha detto sì, qualcuno no, qualcuno snò. Insomma, è difficile. Mettere in piedi un musical con tutte star è veramente una cosa non facile. Ma sentiamo come è andata quando abbiamo contattato Marina Ripa di Meana. Pronto? Pronto? Pronto, mi scusi, sono Walter De Mastro. Chi vuol parlare? Con la signora Ripa di Meana. Ah sì, sì, sono io. Buonasera, mi scusi, mi presento appunto meglio, sono Walter De Mastro dell'agenzia 610, 610, l'agenzia di spettacolo. Ah sì, sì, mi dica. Sì, vedo che già la conosce, quindi posso andare subito al sodo. Certo. Sì, noi stiamo proponendo la commedia con cui abbiamo avuto molto successo in America, la White Bottom, la stiamo proponendo quest'anno a Roma, da ottobre a febbraio, al Gran Teatro. Sì. È stata tradotta in italiano, adesso si chiama A Chiappe Chiare, come la canzone di Gabriela Ferri. Ed è una commedia musicale, molto comica anche. E noi stiamo contattando, come è già stato fatto anche in America, personaggi vari del mondo dello spettacolo, che non siano necessariamente proprio attori o cantanti, anche giornalisti, opinionisti, fantasisti. Allora, abbiamo pensato a lei per un ruolo che lì in Pennsylvania è stato fatto da Sigourney Weaver. Ah, sì, divertente. Dunque, la commedia si svolge interamente su una spiaggia, quindi è stata ricostruita una spiaggia con uno specchio d'acqua e la cosa buona è che per permettere a tutti i personaggi dello spettacolo di non impegnarsi troppo, gli sceneggiatori hanno provveduto a cuscire il copione come se fosse una sitcom, quindi di settimana in settimana cambia il copione e cambia anche il cast. Potrei scegliere un periodo che dovrebbe essere di quanto? Lo dovrà dire lei. Curiosa tutta quanta la cosa. Chi è il regista? Sarà Sergio Iapino. Sergio Iapino? Sì, per quanto riguarda invece le varie coreografie sono state affidate a Enrico Papi. Ah, sì. Beh, senta, non so, è una proposta così decente nel senso che è divertente. Il ruolo che abbiamo pensato che lei potrebbe fare è molto divertente perché le ho detto che c'è questo specchio d'acqua. C'è uno specchio d'acqua? Che sarebbe appunto una parte del mare. Siccome appunto le dicevano una commedia musicale quindi si bala, si canta e prendono vita mano a mano degli oggetti degli anni 60 che sono Yo-Yo, Ula Hop, appunto una sdraia, un ombrellone così. Lei dovrebbe fare invece la parte della boa? Quindi, diciamo, l'unico inconveniente potrebbe essere che per la durata dello spettacolo sta nell'acqua e esce solamente con la testa. Ah, durante la durata dello spettacolo io sarei sempre nell'acqua. Sì, poi sarà due metri l'acqua non è... Basta che non mi vengono due ori reumati a tritici io sono... No, ma acqua riscaldata ovviamente. Acqua riscaldata. Senta, mi prendo un po' così alla sprovvista, ne parliamo. Io sono in Sicilia in questo momento a fare dei bagni veri nell'acqua. Ah, a fare qualche giorno... Con chi sto parlando adesso? Con... Walter De Mastro. Sì, ci siamo conosciuti, vero? Mi sembra. Eh sì, noi ci conoscemmo credo due anni fa stavamo a Lilton. Ah, sì, sì, va bene. Vediamo, devi sentirci e poi sentiamo come... Va bene? Va bene. Di nuovo a lei, buone vacanze. Arrivederci. Siamo di nuovo tornati qui all'Agenzia 610, Greg Lilo, Lilo Greg, che dir si voglia, quindi anche se è uno zero che dir si voglia, con la nostra rubrica di carattere sociale, di impegno che si chiama Un truffo al cuore. Sì, ovvero, noi sveliamo i segreti delle truffe più frequenti ai danni di tanti cittadini. Tanti cittadini, sicuramente le persone anziane, molti se ne approfittano e approfitto dell'ingenuità che molte persone di una certa età possono avere per sottrarre loro delle cose preziose. Ecco, le scenette che noi siamo andati a ricostruire sono... Quelle che quotidianamente accadono. Sono le truffe più frequenti, quelle in cui ci si può imbattere con più facilità. Ecco, questa qui, per esempio, che vi presentiamo adesso con una scenetta ricostruita è la truffa del cowboy dell'Arizona, che è una truffa molto, molto frequente. Ascoltiamola insieme. Scusi signora, sono un cowboy dell'Arizona, sto affogando, mi può salvare consegnandomi la sua spesa? Ecco, questa è la tipica scusa del truffatore. Ecco, lui si spaccia per cowboy dell'Arizona che sta affogando proprio per farsi consegnare la spesa. Esatto. E non ci cascate. Non ci cascate, perché già difficilmente i cowboy affogano, poi men che mai possono annegare in un supermercato. Esatto. Esatto. E questo quindi il campana. Già state un po' così allerta. andiamo avanti. No, non mi fido. Aiuto, sto affogando. Gasp, non respire, mi dia la sua spesa. Prest, gasp. Ecco, qui cerca di far leva sul sentimento. Ecco, questo è il momento in cui lui cerca di far finta di affogare per ispirare una certa chiedà, insomma, e poi alla fine fregarvi la spesa. Tenete duro, tenete duro. Resistete, questa è una scusa anche questa. Ma andiamo avanti e sentiamo la messa in scena. Mi dispiace, ma ho paura che lei mi la rubi. Ha ragione, signora. Facciamo una cosa. Mi dia il suo portafogli, così in tal modo avrei la possibilità di comprarla io la spesa e non avrei più bisogno di rubargliela. D'accordo, così va bene. Ecco. E qui vi è fregato il portafoglio, praticamente, diciamolo. Ecco, a questo punto il portafoglio è andato. È quello che succede più frequentemente, ovvero che a questo punto le persone si convincono quasi sempre. perché sono raggiate magistralmente da questi bruffatori. Da bruffatori, certo. Andiamo avanti. Ecco, ora mi consegni la spesa e corra più che può lontano da qui. E perché? Ecco, questa domanda è legittima. Perché? Ora, ascoltiamo. Scherziamo dopo e capiamo il perché. Sì. Perché così io ho tutto il tempo di allontanarmi indisturbato con la sua spesa e il suo portafogli. Ecco. Ecco qui il nocciolo. Dovete stare attenti perché dice così. È una scusa, è solamente una scusa per allontanarsi indisturbato con la sua spesa e il portafogli. Esatto. Lo dice per questo. Dovete stare in campana se per caso vi capitasse di ascoltare una frase del genere. Subito dovete capire che è un truffatore. Ecco. Un ladro, uno scippatore. Mi raccomando, mi raccomando. Grazie dell'ascolto. E continuate a sentire 610 con un truffo al cuore perché vi svegliamo noi tutto quanto. A presto. 610 trailer 610 prima. Frank è un uomo di mezz'età, discreto, riservato, taciturno. Da vent'anni lavora come contabile in una ditta di trasporti. Ma Jackson, il suo direttore, sente che c'è qualcosa di strano legato a Frank e vuole indagarne il passato. Dottor Jackson, sei il detective. Faccio passare, signorina Tibbs. Salve, mister Jackson. Novità clamorose. Beh, non mi tenga sulle spine, allora. Chi è quel Frank? Una spia? Un serial killer? Un... Niente di tutto questo. Quel Frank non è americano al 100% innanzitutto. Il padre si trasferì negli Stati Uniti negli anni 30 e prese la cittadinanza, ma era tedesco. Beh, allora, parli! Jackson non sta più nella pelle. Sa che presto scoprirà la verità su quello strano dipendente. Ha mai sentito parlare di Albert Einstein? Certo, il fisico scienziato. Einstein ebbe un figlio segreto quando visse negli Stati Uniti e lo chiamò con il proprio nome. Albert. Albert Einstein Junior. E quindi? Non la capisco. Semplice. Lei mi ha detto che questo Frank è un genio con i numeri, i conteggi, le equazioni, no? Cioè? Lei vuol dire che Frank... Frank è Einstein Junior. Frank è Einstein Junior nei cinema. If you're blue and you don't know where to go to why don't you go where fashion sits in the movie! Grazie a tutti. Grazie a tutti. 145, 146, 147... Direi che andiamo avanti? Decidi di lasciarmi vedere. Eh beh, direi di sì. Oggi è arrivato come grandissimo ospite forse la prima volta che ci capita nella nostra agenzia un pugile, un grandissimo pugile italo-americano originario della Sicilia ma che si è trasferito negli Stati Uniti, oltreoceano tantissimi anni fa e ha avuto una grandissima carriera da pugile prima Welter poi è passato di categoria medio-massimo fino ad arrivare a pesi massimi e stiamo parlando di Renni Boom Boom Zapato eccolo qui da noi buongiorno Renni buongiorno a lei vogliamo sfatare una volta per tutte questo mito negativo che vedrebbe i pugili a fine carriera suonati perché comunque con i pugni si sposta nel cervello qualcosa sfatiamo questo mito negativo non è vero che noi pugili siamo tutti suonati non è vero oh meno male allora dunque tu sei stato 15 volte campione del mondo è stata una preparazione dura esattamente una diceria delle malalingue che tendono di affostare questo nobile sport sì quella del sì infatti che vuole i pugili suonati dicevamo hai avuto anche modo di incontrare Tyson Mike Tyson come è stato l'incontro la preparazione all'incontro dell'incontro stesso è un luogo comune non è vero che chiunque faccia il pugile diventa suonato sì abbiamo detto che è vero è un luogo comune adesso che hai finito la carriera ci sono delle prospetti cioè che cosa che cosa stai facendo che cosa ti stai occupando hai aperto una tua palestra ti stai occupando di altre cose secondo me la mia opinione personale è che era una leggenda metropolitana priva di fondamento e non tutti i pugili sono suonati sì la tua vita privata come sei sposato hai figli io credo che non sia assolutamente vero che i pugili a fine carriera siano suonati è un mito da sfatare è un mito da sfatare questo e va bene allora io saluterei i renni bum bum zapato quanti round mancano sì pochi bisogna andare via devi direci 610 non è vero è un mito da sfatare sempre Greg e Lillo in vostra compagnia su Radio 2 per 610 siamo qui con il nostro astrologo l'astrologo ufficiale di 610 che è Saturnus ricordo che l'astrologia è scritto non è scritto l'astro l apostrofo ogia ma l apostrofo astrologia questo comunque credo che lo sapevano tutti Greg vabbè però magari si sa come è scritta l'astrologia no vabbè tu dici qualcuno che qualcuno magari sì vabbè comunque a proposito dell'astrologia appunto facciamo accomodare il grande astrologo Saturnus eccolo qui eccolo Saturnus buongiorno che Saturnus sia con voi Saturnus con il suo motto che Saturnus sia con voi questo è il tuo motto quello che dici sempre è un augurio che io faccio a tutti perché se tutti ci potessero avere Saturnus vicino viverebbero senza altro tutti meglio tutti meglio infatti un complimenti a Saturnus Saturnus ti do una bella notizia arrivano tantissime lettere di persone che vogliono avere la tua consulenza per quanto riguarda l'astrologia mi fa piacere arrivano cofonate tante lettere tutte per te te ne leggo una ci scrive Robertina Graziosi e ci chiede come mai si è da Ancona e ci chiede come mai secondo le previsioni astrologiche il Leone quest'anno non ha uno dei suoi periodi migliori visto che devo avere un importante colloquio di lavoro cosa mi puoi dire che devo fare ci devo rispondere certo per te la lettera che devo dire che cosa sul lavoro sul lavoro è un po' complicato devo dire la verità perché il lavoro si possono intende due cose uno proprio cioè faticare cioè un lavoro che tu produci fai delle cose e proprio come se metti l'energia però puoi essere anche mentale l'altro invece è quello proprio che ti viene dato i risordi per questo il ritribuito cioè ti danno i soldi per fare una cosa che magari è anche una cavolata per esempio io ti do questo non ho faticato ma ti mi dare i soldi è il lavoro questo se non il lavoro è proprio lo sforzo fisico sono d'accordo ma quanto ho lavorato per portare il tuo peso là scusa ti interrompo Saturnus ma lo sappiamo tutti cosa è il lavoro cosa significa lavoro in questo caso è il lavoro riguardo al Leone ah per quanto riguarda il Leone per quanto riguarda il Leone e lì appunto non c'entra più i soldi ecco come dicevo prima per un Leone il lavoro è magnà cioè sopravvive fa vivere che poi è più la leonessa che fa questo lavoro però quando non c'è sta la leonessa è il Leone che va a cacciare sta lì sta sotto il sole fatica scusa Saturnus dobbiamo andare avanti scusa e poi quello è il lavoro eh ok beh sì ancora ciao andiamo avanti e anche oggi continuiamo a parlare di radio cioè delle altre radio è una radio in particolare che ci sta a cuore che è Radio Maledana questa radio così innovativa un'amittente giovane un'amittente giovane che tratta un po' di tutto di spettacolo di musica e di tant'altro abbiamo qui comunque l'esperta del settore cinema di Radio Maledana che Tanzi Lavoretti ciao che bello dai che ancora parliamo di cinema è così importante parlarne allora Tanzia a cosa si attribuisce secondo te la crisi del cinema italiano eh me la domanda questa sai il cinema italiano principalmente non torpola ansifatto le trame sono di giovani si gova si tende a pindare verso i sudti del cinema più facile viletto questo è il punto scusa si gova eh viletto? sì si gova si gova e si tende a pindare verso i sudti del cinema più facile viletto capito Greg è questo veramente il problema la crisi viene da lì da lì dal viletto certo ma sentiamo uno dei trailer scelti da Tanzi Lavoretti per Radio Nusana una favola per tutti i pirani sul meraviglioso lonto di Parne Fopi Fopi vieni andiamo a poter i dati non posso mamma vuole che Rol si va allora gli abbiamo assunto ma Fopi è testato e un giorno piralla nel putero io pilpo la pitana la 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 oh Fopi perché non carol tiampano ma la mamma non birda e tu rinzi solamente l'anco può ripare la notte Fopi è stato ripato dobbiamo è ronte cucciamolo il sole torna a pare coi canti oh grazie Rufoli senza il vostro pone sarai l'orbo Fopi è la mzana magica Annamago nei cipeni Bello, sai lei, però non si è capito molto Ma come? No, ma scusa, bisogna tenere sempre presente una cosa Quando lo svedete, il cinema è stato a non verestà e si torna alla svicca, torno Alla svicca? Si torna Attorno, attorno E si torna alla svicca, torno Il cinema è stato a non verestà Vabbè, teniamolo presente questo Teniamo presente tutti quanti questo Comunque andiamo avanti, Greg Lillo, Radio 2610 Astani Hai provato la nuova formula paga ora del servizio pronto tutto? Se non l'hai ancora fatto, invia un sms off al servizio teleweb di Cablo Online Windows Cell E riceverai gratis a casa tua 10 ore di telefonia radiomobile telecomandata dal tuo rivenditore autorizzato E la consegna è scaricabile su ogni viva voce incorporato dal tuo Halodisc Greg, posso proprio confidarti con tutta la certezza che non ho capito niente di questo spot, di questa offerta Ma che sei pazzo? L'offerta paga ora e il servizio è pronto tutto E che offre? E quindi vuol dire che te non l'hai ancora provato? Non ho capito cos'è Invia subito un sms off al servizio teleweb di Cablo Online Windows Cell E' questo servizio, devi mandare un sms off Che vuol dire sms off? Ah, scritto off Sì, off E ricevi gratis a casa tua 10 ore di telefonia radiomobile telecomandata dal tuo rivenditore Che ricevo a casa? 10 ore di telefonia radiomobile Io? 10 ore di telefonia radiomobile io? Sì E cos'è? Che puoi telefonare in macchina 10 ore? Sì Ah Gratis Ma non ce l'ho il telefono in macchina Cioè, come vuol dire? Eh, lo devi montare Se no è inutile come offerta Non lo voglio Non lo voglio Ma no Sono radicolare Ma poi che gratis poi Puoi telefonare 10 ore gratis in macchina Ah E poi la consegna Quando gli consegnano questa cosa E' scaricabile su ogni viva voce incorporata dal tuo hard disk Te hai il computer Sì Cos'è scaricabile? Sull'hard disk, no? Ma cosa scarico sull'hard disk? La consegna La consegna di questo Cioè, ricevi gratis a casa tua 10 ore di telefonia Te le portano a casa queste 10 ore Che te poi le distribuisci quando ti parli in macchina Ma che le portano a casa le 10 ore di telefonia? Che vuol dire? E le puoi scaricare sul viva voce C'è un viva voce al telefono Sì Eh Cioè, è un programma che incorpora il viva voce e il telefono Sul tuo hard disk del computer In modo che quando le portano a casa Vabbè, dai, inutile che parlo con te Sei troppo indietro, Lillo Eh, infatti, lasciamo avanti Andiamo avanti 610, Greg e Lillo, Radio 2 610, Greg e Lillo, Radio 2 Quinte di 610 Tutto quello che accade durante le registrazioni Cosa che ovviamente spesso buttiamo via Invece abbiamo deciso di raccogliere e farvele ascoltare Perché alcune volte sono molto, molto divertenti Non sono sempre pavere comunque No, no Sono delle cose che non possono essere trasmesse delle volte Perché appunto magari uno si alza Che è un po' scontroso Oppure si alza Che è afasico Sì, poi mi manca la battuta Mi manca la voglia di lavorare Ecco, perché voi ci sentite sempre così Pieni di enfasi Però in realtà ci sono delle volte Che non ci va proprio Oppure siamo giù di morale Abbiamo le nostre cose E quindi in quei casi viene Ovviamente cancellato il nostro lavoro E viene fatto magari meglio dopo E questa è la volta in cui Lillo Si è svegliato quel giorno Un po' sopra le righe Vabbè, diciamo che era un po' Aveva voglia più che altro di scherzare Di giocare E giocare Era un momento ludico un po' E quindi invece I battuta anche un po' Avvolta Sì, vabbè, sì Vabbè, può capire Un po' pesantile Però ecco, ascoltiamo quello che è successo Quando abbiamo intervistato un albergatore Un albergatore Mirko Frisoni Sì, questa cosa ovviamente non è mandata in onda Abbiamo deciso di farvelo ascoltare Sentite 610 Gli errori di 610 Che c'è da ridere? Allora, signor Frisoni Mirko Frisoni Lei è albergatore ormai da tanti anni Ha questo albergo a Misano Adriatica, no? Sì, ho un albergo a Misano Adriatico Si chiama Albergo Alba Ed è un albergo a ore magari, eh? Così Che i coppietti carino Quelli si guadagnano i soldi Che vanno lì Che gli danno Che gli danno Sì, che c'è? Scusa Lillo, ma queste battute sono un po' pesanti Non ho capito Non lo dobbiamo rifare? No, vabbè, scusate No, vabbè, perché mi ha preso così Oggi mi ha preso No, vabbè, scusate Forse è un po' di cattivo gusto Scusate, andiamo avanti Ma non ho capito No, niente, niente Mi scusi, mi scusi Qui tagliamo, eh? Tagliamo, dai, facciamo, dai Ok, ripetiamo Signor Frisoni Sì, vabbè Lei ha questo albergo L'albergo Alba a Misano Adriatico Ha notato in questi anni Mi hanno detto Che c'è stato un forte calo del turismo, no? Il calo magari c'era pure nelle mutande Mi sa che costo muoia, eh? Nisba Sì, vabbè Sì, vabbè Eh, Fabrizio, dici qualche cosa Scusate, scusate Scusate, no, vabbè Che mi ha preso così oggi No, scusate Voglio fare qualche battuta un po' qui Per sdrammatizzare Però scusate No, noi siamo abituati Anche Romagna a farci Sì, sì, no Ma è giusto Ma è giusto che io venga interrotto Per questo Tagliamo, ripartiamo da capo Scusate Rifacciamo Va bene, via Dicevo Signor Frisoni Lei ha un albergo Un albergo a Misano Adriatico Ha notato un calo del turismo Sì, un calo Un calo Un forte calo Che però Via via Insomma In Romagna le cose vanno bene E quindi Sto andando Torlando su Ma che torna su? Ma manco corviacra Che torna su? Che facciamo? Interrompiamo Non lo so Esco, esco Che è meglio Ma che torna su? Ma che torna su? Ma che torna su? È un illo Che oggi Si è sentito un po' così Un'astronave aliena Aterra su un orto Lasciando tracce di texilonio Un carburante appunto alieno L'orto è di Pier Maria Carletti Un uomo cento volte più debole Stupido e di netto Di un uomo normale Pier Maria mangia i pomodori Che lo rendono cento volte più potente Diventa quindi normale E si cuce un costume da supereroe Queste sono le origini di Normalman Normalman in Sul filo del rasoio Pier Maria Carletti è in auto Con Oreste, il suo caro amico Stanno andando al cinema Il fel comincia tra dieci minuti, Pier Maria Se troviamo subito parcheggio è fatta Guarda, lì c'è posto Aciderba, ho toccato la macchina parcheggiata Il posto è davvero risicato Pier Maria, puoi scendere e indicarmi la manovra? Oreste non sa che Pier Maria è in realtà Normalman Nessuno lo deve sapere Mi spiace Oreste, ma ho un bisogno impellente Lì c'è un bar Adesso? Ma perdiamo il film Aiutami a parcheggiare Cerco di sbrigarmi Oreste, devo proprio andare Pier Maria entra nella toilette del bar E si cambia da Normalman Salve amico, cosa ti cruccia? Oh, Normalman Io dovrei parcheggiare Parcheggiare Oggi è il tuo giorno fortunato Avanti così Qua sinistra Bene Ora a destra A destra Piano così, piano Vieni ad agio Vieni, vieni Ok, hai parcheggiato Grazie Normalman Voglio ringraziarmi Addio Mancano solo tre minuti all'inizio del film Se Pier Maria esce adesso ce la facciamo Eccomi di ritorno Oh, vedo che hai parcheggiato Non certo per merito tuo Dai che comincia il film Lì dove c'è un problema di tutti i giorni Lì dove necessita un piccolo aiuto Lì c'è Normalman Greg e Lillo 610 Secondo appuntamento per un gioco che abbiamo lanciato noi Le dico a bella posta lanciato perché si tratta di Dadi, dadi, dadi Questa è la nostra sigletta Eh sì, perché poi il gioco di dadi è un gioco che raramente si fa in radio E ancora più raramente in televisione non si è mai visto E' effettivamente un gioco che si pratica solo nei casinoni, nei bispi E poi si perde nella notte dei tempi appunto D'altro è vero ci ricordiamo Ale Agli Acta Est Insomma il detto latino Era il gioco che andava per la maggiore nell'antica Roma Ci giocavano, si contendevano anche le tuniche Sì, sì, come no In questo modo, va bene Allora Noi non vogliamo tuniche, vogliamo soldi Esatto, perché appunto il gioco è questo Il radioascoltatore che gioca con noi Se vince avrà da noi un vaglia della cifra decisa Sì, perché la decidiamo lì per lì La decidiamo lì per lì Se invece vinciamo noi deve mandare a noi un vaglia Un vaglia con il pagamento Con il pagamento, certo E' veramente facile perché poi giochiamo nella maniera più classica e semplice possibile Cioè chi totalizza il punteggio più alto Esatto, è molto semplice Quindi sentiamo subito chi è in linea, pronto? Ciao, sono Anselmo da Vignanello Ciao Anselmo Ciao, ciao, ciao Le regole sono facili Non so se le hai sentite adesso o l'altra volta Sì, noi abbiamo qui dei dati Lanciamo per conto tuo e lanciamo per conto nostro E chi totalizza il punteggio più alto vince Vince, ok? Ok, ok Quanto ci giochiamo? Ma 50 euro, va 50 euro? Un po' pochino È un po' poco, dai Non ti senti? 70 70 70 euro 70 mi dà tanto 70 E' una bella battuta D'accordo Va bene, 70 euro Dai, 70 euro Guarda, Lillo adesso sta per lanciare per te Lancio per te, eh Va bene Va bene 11 11 11 Quasi il punteggio massimo Beh, complimenti Ci devo stare E ce vuoi stare, sì Insomma, hai fatto Guarda, tu adesso avresti anche la possibilità di rilanciare, se vuoi Se vuoi, puoi anche decidere di fare il doppio, eh, se vuoi, eh Guarda, ti conviene, secondo noi Che dici? Ci provo? Eh beh, hai fatto 11 Dai, vai Non lo so io Dai, dai, dai Hai fatto 11 Va bene, ok Oddio, che suspense Sono 140 140 euro, eh Dai, Lillo tira ancora, è preso per noi Adesso tiro per noi 12 Ci dispiace, Anselmo Mi dispiace, Anselmo Davvero, ci dispiace poco tanto perché era quasi, quasi tua La vittoria perché con 11 E invece, invece abbiamo fatto 12 Ma è una fortuna Ma 11 però era bello Era bello Ma infatti, guarda, noi avremmo fatto come te, avremmo raddoppiato Peccato E così è la vita, così è il gioco Così è Dadi, dadi, dadi Aspetta, aspetta Ricorda dove devi spedire il bagno Sì, lo devi spedire a Greg e Lillo 610 Rai Radio 2 Via Siago 10 00195 Roma Ok Va bene, va bene 140 euro Mi raccomando 140 euro Così è la vita, così è il gioco Così è Dadi, dadi, dadi Ciao Ed eccoci arrivati anche per oggi al tanto atteso collegamento con Stefano Frosi Che ci racconta quello che succede nelle varie feste di paese della nostra Italia Oggi dovrebbe trovare Niente Vodimino che lo ha negato nell'Aniene, in provincia di Moscappo Sentiamo Stefano Sì, sono nella Simpaticamente vi saluto Bene Odiosamente come volete Sì E qui sono in questa festa straordinaria Il nome della festa è una festa che risale al 1320, grossomodo La festa del giorno normale Ah, e che succede in questa festa? Che sarebbe la festa di un giorno normale Eh Detto Detto in dialetto, sì E che succede? Sì, lo ha negatese, sì Sì, io sono in piazza adesso È tutto normale, non c'è niente Chi sta a casa, chi sta al lavoro Cioè, non succede niente Perché è l'unico giorno all'anno In cui loro festeggiano il fatto di non fare festa Ah, perché gli altri giorni fanno festa Tutti e 364 giorni loro fanno una festa Meno questo giorno Meno questo giorno qua E quindi Che viene festeggiato Ovviamente Stando a casa e non facendo niente Oppure Facendo cose normali insomma Sì, ecco Va bene C'è chi si fa la doccia Bene Vogliamo ricordare, prima di salutarci ai nostri radioascoltatori Che un'ora è composta da 60 minuti? Ricordiamolo Sì, ricordiamolo Grazie Come va il collegometro? Benissimo L'indice sale Sale Bene Grazie Stefano, ciao Simpaticamente 610 trailer 610 prima Don Eodele è un sacerdote moderno E sa come interessare i ragazzi dell'oratorio Oggi si va a vedere un film Viva Che bello Grazie Don Eodele Grazie Che palle Sei sempre il solito Pierino Possibile che non ti interessi mai niente Al cinema mi annoio E poi lei mi picchia sempre Don Eodele Perché tu te lo meriti Pierino Finalmente l'allegra brigata Si prepara ad assistere alla proiezione Si sistema nella sala Ecco Tu siediti lì Tu in quella poltrona Tu vicino a Evaristo E tu Pierino Vicino a me Madonna Niente ma Silenzio Sta per cominciare il film Tutti i ragazzi di Don Eodele assistono Rapite la magia dello schermo Ma Pierino si distrae e disturba continuamente Basta Pierino Se non la smetti ti picchio Con quella cosa che è lì nel collo E non chiamarla cosa È un crocifisso Nuffa Le minacce non hanno nessun effetto E Pierino lo smette di disturbare Shhh Basta E te la finita le perendi Uffa A me si smettere Ma vogliamo finire Ora mi sono saccato Pierino Ahia Ah ah Basta madre La smetti colpirmi col crocifisso Ahi le fanno male le crociate Le crociate al cinema E siamo giunti al nostro spazio Con Valentina Paoletti Valentina Paoletti Che da un po' di tempo Ha deciso di riposarsi Dopo tanti anni di collegamenti estremi Ha deciso invece di inventare Una nuova rubrica Che si intitola Che si chiama Casa di Valentina Ovvero Interviste fatte a casa sua Nonostante appunto Sia una casa modesta Che vive in 60 metri quadri Con la madre e il fratello E questi personaggi grossissimi Famosissimi Accettano Devo dire Di insomma Che si è scoperta Questa veste di anfitriona Che fare funzioni E infatti Anche se appunto Da quello che ci ha detto Come ci siamo immaginati Insomma non è Tra le più comode case Insomma che non ha nemmeno Delle sedi Da quello che abbiamo Speriamo che abbia Almeno provveduto a questo Anche perché insomma Personaggi come Berlusconi E l'ospite che oggi Lei intervisterà Speriamo che sia Almeno comodo No Sentiamo Valentina Valentina Buongiorno Lillo Buongiorno Greg Ciao Sei lì con il nostro Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi No? Sì Sono qui E lui è venuto a casa mia E siamo pronti Insomma per fare Quest'intervista Per 610 Allora l'hai fatto Accomodare bene Sta Sta qui in piedi Perché il letto È in disordine Allora sta qui in piedi Scusa come letto Che vuoi dire? Una seggio Una sedia Eh no Perché le sedie Stanno in cucina Di là E se passo Dopo si torna mia mamma Che sta vedendo una cosa In televisione Ah Vabbè ma almeno La messa a suo agio Cioè gli ho offerto Qualche cosa Un aperitivo Un cappuccino Sì io gli ho offerto qualcosa Ah ecco Ecco Cosa gli ho offerto? Eh volevo un super alcolico Ah ecco E allora? Eh ma io non ce l'avevo E quindi? Gli ho dato un bicchiere d'acqua Ah un bicchiere d'acqua Bicchiere d'acqua Bicchiere d'acqua Comunque va bene Sì Fa bene De pura Berlusconi Bicchiere d'acqua Vabbè Beh parti pure con la tua intervista Vai Sì Signor Berlusconi Che difetti pensa di avere? Sono certamente troppo ottimista Ma Io non ho mai visto nessuno Che non fosse ottimista A raggiungere dei buoni risultati Dico il contrario Non ho mai visto nessun pessimista Di uscire in qualcosa Quindi continuo a essere ottimista Anche considerando che Il dovere di un presidente del consiglio Ma Valentina scusa Scusa Sì sente un casino sotto Eh sì sì È mio fratello Che sta al bricolage Ma che sta intervistando Berlusconi E lui per il bricolage Sì Ma canta pure a squarciagola E infatti Ma questo è un fatto Giù a una barbicolage C'è chi canta C'è chi sente la musica C'è chi Ma evitasse almeno di cantare Ma gli costa tanto Ma perché devi evitare di cantare Stacca a benetta sua Non ho capito Ma perché non si sente La voce di Berlusconi C'è una cosa che ti piace Qualcuno ti evita di farla Ma non ti dà fastidio Ma ho capito È più importante che si senta Berlusconi Che tuo fratello Scusa Perlomeno di a Berlusconi Di alzare un attimo Il tono della voce Scusi Mi stavo dicendo Se poteva alzare Un pochino Il tono della voce E adesso le chiedo Una chicca Lei aiutava Sua mamma A fare la spesa Andavamo ai mercati E la mia mamma Percorreva C'erano le banche rail Su due lati La mia mamma Percorreva Tutto il Valentina È troppo È un fastidio Ma è peggiorato pure Ma io vabbè Devo interroppere il collegamento Ma che cazzo Allora Non siamo in collegamento Perché secondo voi Non si può fare l'intervista Con mio fratello Ma con questo Che canta le romanze Tiero Batte E sega Ma non si può fare Quello che vuole Della cosa meretta Potrà sbattere E usare Ma allora Non fare le interviste lì Cioè Valla a fare Da un'altra parte Ma allora non farle Dove Dove Fa l'intervista A casa di Valentina Certo Certo A casa di Valentina Vabbè Lasciamo stare Non si può trovare Trova un altro posto Perché così è impossibile Ciao Valentina Andiamo avanti Da oggi Puoi simulare Il tuo cantante preferito Con Virtual Singer Scegli il tuo cantante Seleziona la tua canzone preferita Imposta il software Clicca e In soli due giorni Hai una song interamente simulata Di chi vuoi tu E con soli due euro al minuto Puoi aggiungere un biff ad ogni nota Da oggi simula anche tu Io non ascolto l'originale Io ascolto Virtual Singer Mega Web Greg Sì Che offerta è questa Che non ho capito Ah questa è favolosa Non ci ha fatto caso No Eh no Dovresti farci La mia pazienza Si chiama Virtual Singer Mega Web Cioè tu praticamente Hai un tuo cantante preferito Un tuo gruppo preferito Sì Magari ti compri il disco Invece di ascoltare il disco Puoi simulare La canzone tua preferita O anche tutte quelle del disco Ma ce l'ho già il disco Che devo simulare Che ti piace a te Che so Springsteen Springsteen Hai un disco di Springsteen Ce l'ho tutti Adesso in questo modo Selezioni la canzone che vuoi No? Di Springsteen Che ne so Adesso ne dico una a casaccio Clicchi E solamente in due giorni Hai Born in 2.6 Fatta simile A come la fa Bruce Springsteen Ma se ce l'ho Come la fa Bruce Springsteen Perché la devo avere simile? Perché ce l'hai È molto virtuale In più Hai sentito che puoi aggiungere Un bip ad ogni nota Con soli due euro al minuto Un bip ad ogni nota Quanto durerà? Quattro minuti Con otto euro in più Ti metti Ogni nota che viene suonata Da Springsteen Si sente bip, bip, bip Ma perché devo mettere i bip Sulla canzone Springsteen? Ma perché è virtuale È più interattivo No andiamo avanti Va 610 Ma stai indietro Greg e Lillo Radio 2 610 Continuiamo a gemellarci Con le altre radio È già la seconda volta Che ci colleghiamo Con questa nuova radio Che si chiama Radio Amnesty International Si Radio Amnesty Che è una radio Che è attiva ormai da Da quanto? Non me lo ricordo Nemmeno gli prendo un bel ponzo Però ha già acquisito Molti radioascoltatori Molti aficionados Ma sentiamo cosa sta trasmettendo In questo momento Radio Amnesty International Ed eccoci qui Sempre ai microfoni Di Radio Amnesty International Radio Amnesty International Saluto da Io sono Franco Franco e Gino Gino sei tu? Gino Non era Luigi? No Gino Ah Gino Franco e Gino Ah si c'è il disco Mandiamo il disco La canzone di Vasco Rossi Che No come? No Salve intanto Chi è lei? Sono la cantautrice Che avete invitato Quella che ha fatto il disco Abbiamo invitato una cantautrice? No Si Che fa tutte le canzoni milanese Di repertorio milanese Come si chiama lei? Come si chiama? Tanzia Lauretti Tanzia Si Ah ce l'ho scritto qui Eh si Tanzia Lauretti Mi avete invitato Ah si è vero È vero Sì 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 Così io promozi poi farò una tournette Non so Eccola Sì sì c'era l'intervista a Tanzia Lauretti Ci l'abbiamo scritta Ce l'abbiamo scritta Ecco salve Allora sentiamo l'oroscopo di oggi Sì Ditto da Ma come l'oroscopo? Scusi Che Chi è lei? Sono Tanzia Lauretti La cantautrice Quella vi ho mandato anche il mio disco Ah si c'è scritto qui Tanzia Lauretti C'è l'intervista adesso Sì 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 Bene Di cosa si occupa lei? Eh beh di musica ovviamente Sono una cantautrice E cosa fa? Cosa fa? Canto e suono Bene Delle canzoni in milanese In milanese Bene Con un recupero Passiamo al quiz Passiamo al quiz No l'intervista Ah c'è l'intervista Perché c'è scritto lì L'intervista a chi? L'oramai ospite una cantautrice Che si chiama Scritto qui Dove era? Ecco Tanzia Lauretti Tanzia Lauretti si chiama Buongiorno 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 Chi è? Io sono la cantautrice Tanzia Lauretti Allora grazie Miss Italia Per aver accettato Questa testimonianza Che darai A favore di Se uno zero Grazie mille Hanno fatto già tanti altri personaggi Dello spettacolo Famosissimi Quindi fai parte Stai in buona compagnia Insomma grazie mille Allora devi dire questa frase qua Ciao Miss Italia Anch'io ascolto Se uno zero Ciao E anch'io ascolto Se uno zero No però se non dici Miss Italia Non Devi dire ciao sono Miss Italia E anch'io ascolto Se uno zero Per forza E beh sì No dai non mi va Sembra che Sembra che Mi faccio le arie Non è che le arie Quella perché allora Miss Italia Se lo dice da sola Un conto che lo dicono gli altri Vabbè ma in questo caso Serve proprio che tu dica Ciao sono Miss Italia E sennò altrimenti Che senso c'ha la testimonianza Ma intanto guarda che Chi lo sa Mi riconosce Quindi lo sa Ma no O dici Miss Italia Oppure Facci tante cortesie Ma poi chi non mi riconosce Quindi non sa chi ero È inutile che lo dico Sennò dice Chi se ne frega Io non voglio Che mi dicono Chi se ne frega Vabbè insomma Preferisco così Fidati Fidati Diciamo così Non so se andrà mai In onda comunque 610 Greg Lillo Lillo Greg Che ti si voglia 106 Che ti si voglia Radio 2 Radio 2 Due radio Sempre che ti si voglia Siamo qui di nuovo Con la signora Marzapana Currazi Marzapana Currazi Che tempo fa È venuta a noi Scambiandoci Con una trasmissione Tipo chi l'ha visto In realtà noi Non ci occupiamo di questo Siamo un programma radiofonico Però ce la siamo presa a cuore A cuore Sì perché è un problema Poverina ha perso il marito Cioè non trova più il marito Ecco quindi è brutta Come situazione È una signora calabrese Anche di una certa età E quindi vorremmo aiutarla Però ci ha descritto Grosso modo l'altra volta Com'è il suo marito Com'era vestito Questo per fare in modo Che qualche radioascoltatore Magari che l'ha visto Che l'ha intravisto Può darci una mano Telefonarci E dare indicazioni Per trovarlo Però signora Curra Io sogno du 18 I due u 12 Ah del 1918 Lei è il marito del 1912 Quindi è piuttosto anziani Ecco Allora dove può essere scomparso Allora ci può dire Signora Zavanna Currazzi Il giorno in cui è scomparso Dove si trovava? Dove si trovava Dove si trovava? I vini di Carri C'erano la festa dei Carri? La festa dei Carri E no Di chili di u i orno Da settimana Carri Unni Candurindi Curru Carri quindi è per lunedì È lunedì Carri lunedì Lunedì Il che stavo a casa da nipoti A casa della nipote Lunedì a casa della nipote Con mangiare il tacchino Ah la nipote E del ripieno Inta D'un coniglio Ripieno di coniglio Tacchino ripieno di coniglio Ecco Sì ma dove era E dentro D'inta un coniglio C'era sua marito No O peccioni Sì no Però signora Marzabana Scusi A parte quello che mangiava Dove si trovava lui Fisicamente In che luogo? E avevi Chi sta Asciata Du burroni La sala del burrone Di chi studi No Di chi lo du A selva di Anfelata Di chi sti Di soppa Cascina Sutta Del lacca Sì ma ci vuole dire Una parola Ci dica una piazza Una parola sola Ci dica Una piazza Un bar Davanti a un locale Una parola ci serve Stava Inta Ucapagu Inta Ucapagu 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 Che cos'è? Ucapagu I chi li che ti metti Assutta E ti metti Che tu fai Uparano Ufghiastro Ah vabbè Comunque insomma Avete capito Stava dentro Ucapanu Ragli ascoltatori Per cui se per caso Avete visto Che sei in zona Ucapanu Ufghiastro Mi posso O ce lancio Un avviso Un avviso Vuole lanciare un avviso Questo tuo proclame De ufficiali Sindaconi I vedetti Chini La prima cosa Ci cantate Un avviso Un avviso Grazie Questo è un appello Della signora Marzapanna Currazzi E speriamo che il marito Si trovi presto Tra l'altro Ecco Questo l'abbiamo detto Ma come si chiama Suo marito? Agu 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 Grazie Un'astronave aliena Aterra su un orto Lasciando tracce Di texilonio Un carburante Appunto alieno L'orto è di Pier Maria Carletti Un uomo cento volte Più debole Stupido Ed inetto Di un uomo normale Pier Maria mangia I pomodori Che lo rendono Cento volte più potente Diventa quindi normale E si cuce Un costume Da supereroe Queste Sono le origini Di Normalman Normalman In Il fuoco Roma Ore 13 e 30 Pier Maria Carletti Durante la pausa mensa Sta mangiando il suo panino al sole Quando Ma dove ho messo l'accendino? Accidenti Mi sembra di averlo preso La mia normal intelligenza Dice che Quell'uomo è uscito dal ristorante Per fumare Ma non ha l'accendino Questo è un lavoro per Normalman Poco lontano C'è un cantiere abbandonato Pier Maria lo raggiunge Si insinua abilmente In un'ampia apertura Del recinto di bandone Scavalca un muretto Alto 30 centimetri Vola dietro Una pila di tavelloni Si cambia Poi toglie i calcinacci Dalla tuta E in meno di 10 minuti È vicino all'uomo Fuori dal ristorante Oh normalman Fra pochissimo Devo tornare in ufficio E non posso neanche fumare La sigaretta Nel dopo pranzo Niente paura O come i normal fiammiferi Normalman Come facevi a sapere Che non avevo da accendere Beh sono un supereroe Ecco il suo fuoco Grazie normalman Come posso ricambiare? Un supereroe deve sempre dare Senza ricevere Addio Addio normalman Lì dove c'è un problema Di tutti i giorni Lì dove necessita Un piccolo aiuto Lì c'è Normalman Lì Agli inizio di zero Circa un anno e mezzo fa Siamo grandi Lì cercando di allestire Un grandioso musical Che prevedeva L'intervento di tantissime Personalità del mondo Dello spettacolo Della cultura Dello sport Della politica Personaggi in vista Noi li abbiamo contattati Abbiamo proposto a ciascuno Un ruolo Però questi ruoli Sono piaciuti poco Sono pochissimi quelli Che hanno accettato Non hanno capito Secondo me non hanno capito Non sono stati capiti E vediamo a scoprire perché Lo scopriamo oggi Col Mago Telma Sì sentiamo come è andata Col Mago Telma Sì E buonasera Il Mago Telma Lei chi è scusi Mi chiamo Walter De Mastro Sì E sono della 600 Cosa agenzia 610 Spettacolo Sì Una città medica Ma qual è la vostra sede? La nostra sede in Italia È sia a Milano E sia a Roma Io la sto chiamando Dalla sede di Roma Sì sì mi dica Mi dica L'agenzia americana Sono tre anni Che sta portando Con un notevole successo In America Una commedia musicale A New York E a Philadelphia Sì Una commedia che si chiama White Bottom Una commedia comica e musicale Ha il tempo stesso E White Bottom Che si svolge in una spiaggia È stata ricostruita Proprio la spiaggia E uno specchio d'acqua Sul palco Infatti questo già è Un'innovazione Qui da noi È stata ribattezzata A Chiappe Chiare Proprio per ricordare I fasti di quel periodo Anni 50-60 A cui si ispira Ma cosa bisognerebbe fare? C'è un copione? Sì c'è Eventualmente Dovremmo andare il copione Il ruolo che avevamo pensato Per lei È quello che in America È stato portato avanti Dal mago Cabot Walker Non so se lo conosce Quello che ha fatto scomparire Il teatro di Pittsburgh E l'ha fatto rire a Osaka Ma non l'aveva fatto Copperfield Con la cosa lì Copperfield l'ha fatto Con la Stato della Libertà Ah ecco Lui ha fatto la Stato Cos'è che io dovrei fare In teoria diciamo? È un mago Che non è cosciente Di avere dei poteri Certo Arriva in questa spiaggia Dove stanno alcuni personaggi Dello spettacolo Sì E però ogni tanto dice Delle cose che sono incomprensibili E risultano alla fine Essere delle formule magiche Per cui scompaiono Mano a mano degli oggetti Sul palco Che sono gli ombrelloni Che sono le sdrai Ma nel palco vuoro Sì Poi è il momento Che è molto esilarante Lì in America Mi rendo conto Che potrebbe essere Forse un po' audace Perché cominciano a scomparire Mano a mano Le scarpe I calzettoni I calzoni così E alla fine Il mago rimane Completamente nudo L'ultima mezz'ora E dice però Alcune battute Che sono molto interessanti Perché poi fanno capire Al pubblico Quanto nel teatro Sia importante La recitazione Al di là della scenografia Dei costumi Perché rimane Questa persona da sola Sì Nuda nel senso Sia fisico Sia proprio di esposizione Al pubblico E che dice Delle massime filosofiche Ascolti ma E dal punto di vista Economico Quale sarà Un acconto I budget sono buoni Anche perché Stanno partendo alla grande Ci credono molto Hanno stato contattato Iapino Per la regia Carlo Delle Piane Per i balletti Le scenografie È una cosa seria Insomma Perché sai Quando in Italia C'è tanti della gente Che parla 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 Poi Non si riesce mai a capire Quando una cosa è seria E quando E quando non lo è Ah no Questa è sedissima Il fatto del nudo La cosa è Mi è sostanzialmente Indifferente Perché Perché vi sia Un tornaconto Non è quello Il problema Stanto si spogliano tutti Sì infatti Il punto è Per quanto Per quanto Non so Non so Ma lo dire Va bene Io le ho detto tutto Comunque Se avesse bisogno Di chiarimenti Mi basta che mandi Ehi Andiamo Non c'è problema La ringrazio molto Della disponibilità Ti figuri Grazie a voi Buona giornata Anche a lei Stia bene 610 610 è il programma Un truffo al cuore È la rubrica È la rubrica Non è la rubrica La rubrica di 610 Che vuole aiutare Tutti i cittadini A scoprire I truffatori In agguato Le tante truffe Organizzate Noi abbiamo degli esperti Che stanno analizzando Le truffe più frequenti Noi sveliamo E lui Una truffa tipo Esatto Ricostruiamo delle truffe E provo a farvela ascoltare E spiegarvi Quali sono i punti salienti In cui voi dovete stare attenti Sì perché le truffe Purtroppo si moltiplicano ogni giorno Ogni giorno In carattere esponenziale Quindi ascoltiamo una scena Che è quella del mitico Il mitista è la truffa Del mitico Thor Che è una truffa frequentissima Specialmente nel sud Si svolge Quando una persona anziana Specialmente Ha appena ritirato la pensione O alle poste Ecco Ma sentiamo la scena Scusi signora Sì mi dica Sono il mitico Thor Figlio di Odino Mi sono perso Ecco È questo come avevamo detto Nell'antefatto Il truffatore Si spaccia per il mitico Thor Ora Lui è perciò che non sia vero Comunque già dovete stare all'era Insomma Anche se mi dico Thor È difficile Diciamo Che si perda Che si perda È un dio Non può perdere Si può perdere Già questo dovrebbe farvi scaltare Un campanello dall'aria Mi dico Thor Che si perde è un po' assurdo Ma sentiamo Quanto può essere suddolo L'eventuale truffatore Mi potrebbe dare la sua pensione Odino Mio padre Solo se ho la pensione di una signora anziana È il colmo Primo non è assolutamente vero Questo Perché nella mitologia nordica Non esiste Che Odino Il padre di Thor Hai portato questo copio Per trovare Cioè La via di Asgar Si trova in un altro modo In un altro modo Non certo Con la pensione Di una signora anziana Ecco Già questo vi dovrebbe far scattare Qualche dubbio E dovresti dire no Ma sentiamo invece La truffa come va avanti Che cosa dice la signora Va bene Però poi me la dà indietro Certo Però posso imbavagliarla E legarla Perché Ecco qui c'è cascata Perché ha accettato Ha accettato Però dicendo Se può poi eventualmente Averla indietro Allora la proposta Di essere imbavagliato E legato Questo qui dovrebbe Farvi scattare davvero Un campanello d'allarme Infatti qui giustamente Almeno la richiesta Di perché Questo è lecito Chiedere perché Ma in realtà È da dire no subito Perché Perché Sentite cosa vi viene risposto poi Così quando scappo Lei non potrà muoversi Né gridare No No Io mi inquieto Però non posso sentire Questa cosa Perché è una scusa Bella e buona E il truffatore dice così Proprio perché così Può scappare indisturbato Mentre la vittima Non può né muoversi E gridare E infatti Quindi ricordatevi Mi raccomando Ricordatevi in campana Quando sentite qualcuno Che si spaccia Da mitico Thor Che dice Sono il mitico Thor Figlio d'Odino Via Infidate Infidate Fate una cosa Per sicurezza Anche se può capitare Che magari sia il vero Thor Però per sicurezza In ogni caso Voi appena sentite Mitico Thor Via Scappate subito Via Dite non ho tempo Da perdere E andate via Mi raccomando E continuate a seguirci Su un truffo al cuore Qui a Egezia 610 Ciao 610 trailer 610 Prima La doppia personalità Di un paparazzo Uè Tazio Stasera c'è un sacco Di attori importanti Allora mi vai fuori Dal palazzo del cinema E mi fai dei begli scatti Quando escono il Bruce Il Brad E la Nicole Ok capo Poi me li segui E durante la festa Mi fai degli scatti al bacio E con un po' di piccante Ci siamo capiti Sarà fatto capo Il dramma Di una nevrosi Che ha conseguenze devastanti Come faccio Come faccio Ormai quando vedo Un attore famoso Provo un irrefrenabile Bisogno di scappare Ma stasera ce la devo fare Ce la posso fare A volte la psiche Di un uomo È come un buco nero Ma c'è sempre una speranza E un paparazzo Non molla mai la presa Allora Tazio Hai fatto sto bel servizetto Sui nostri personaggi Ecco la foto capo Ah bene Bravo il Tazio Questo è il portale del palazzo Questo è un lampione Una finestra Ma Ma Tazio Dove sono gli attori? Ah ecco Qui c'è una sagoma Che sembra il Brad Ma è tutta mossa E anche questa con il Bruce Ma che fai? Mi schiappi quando vedi un divo? Eh? Che fai? Mi fuggi? Il fuggidivo Nei cinema